I datori di lavoro che vendevano grandi quantità di valuta straniera a Caderbuy ottenevano un tasso di cambio leggermente più favorevole, e in quel modo potevano pagare i lavoratori direttamente in rupie, con gli stessi tassi del mercato nero in India. In quel modo ricavavano un profitto netto dal pagamento degli stipendi, e accumulavano un surplus di rupie. Per molti datori di lavoro degli stati del Golfo il crimine valutario rappresentava una tentazione irresistibile. Anche loro avevano fondi neri, denaro sottratto alle tasse nascosto sotto i loro opulenti materassi. Erano nati sindacati per organizzare il pagamento dei lavoratori indiani in rupie al momento del loro ritorno in India. I lavoratori erano felici perché riuscivano ad avere tassi di cambio del mercato nero senza doversi impegnare di persone in trattative con i trafficanti. I loro capi erano soddisfatti perché ricevevano la loro parte dai sindacati. I trafficanti erano contenti perché un flusso costante di dollari, marchi, rial e dirham poteva soddisfare le continue richieste degli affaristi indiani in viaggio per lavoro. Solo il governo rimaneva fuori dal gioco, ma nessuna delle migliaia di persone coinvolte nei traffici se ne dava pena. Un tempo era. Ero una specie di esperto di questo tipo di traffici. Disse Khaled quando la prima lezione fu terminata. Esitò, e non capì se stava raccogliendo i ricordi o era semplicemente riluttante a parlare. Aspettai in silenzio. Quando ero studente a New York, proseguì dopo una pausa, lavoravo a una tesi. Beh, in realtà ho scritto una tesi sui traffici clandestini nel mondo antico. Mia madre aveva fatto ricerche su quell'argomento, prima della guerra del 67. Quando ero piccolo mi aveva parlato dei mercati neri babilonesi, a CAD, Sumer. E come interagivano con le rotte commerciali, i sistemi di tassazione, gli imperi che erano fioriti grazie ad essi. Cominciai a studiarli, e intitolai la tesi Babilonia Nera. Suona bene. Mi lanciò un'occhiata di fuoco per assicurarsi che non lo stessi prendendo in giro. Dico sul serio, aggiunsi in fretta. Volevo metterlo a suo agio, perché Khaled cominciava a piacermi. Penso che sia un buon argomento per una tesi, e il titolo colpisce l'attenzione. Secondo me dovresti finire il tuo lavoro e pubblicarlo. Khaled sorrise. Sai, Lynn, la vita riserva molte sorprese, e, come diceva mio zio a New York, per lo più sono poco piacevoli. Adesso, anziché studiarlo, lavoro per il mercato nero. Dovrei intitolarlo Bombai Nera. L'amarezza della sua voce era sconcertante. Teneva gli occhi fissi sulle mani giunte e sporgeva la mascella con un'espressione cupa, quasi rabbiosa. Mi affrettai a cambiare discorso per distoglierlo dai ricordi del passato. Beh, io sono stato coinvolto in un tipo particolare di mercato nero che forse ti può interessare. Hai mai sentito parlare del mercato di medicinale e dei lebrosi? Certo. Rispose con gli occhi scuri che all'improvviso scintillarono d'interesse. Si passò una mano sulla faccia e sui capelli tagliati a spazzola che mostravano precoci striature bianche e grigie. Con quel gesto sembrò spazzare via i ricordi cupi, e mi dedicò tutta la sua attenzione. Ho sentito dire che hai conosciuto Ranit? Un tipo incredibile, vero? Parlammo di Ranit Bai, il re del piccolo gruppo di lebrosi, e del mercato nero che erano riusciti a organizzare in tutta l'India. Quel misterioso traffico affascinava entrambi. Caled era uno storico, o quantomeno aveva sognato di diventare uno storico, uno studioso come sua madre, ed era affascinato dalla complessa evoluzione e dalla segretezza della rete organizzata dai lebrosi. Io ero uno scrittore, ed ero colpito dalla storia della loro sofferenza, e dal modo in cui erano riusciti a reagire al proprio destino. Dopo venti minuti di discussione vivace e stimolante, decidemmo di far visita insieme a Ranit per indagare più a fondo la storia del mercato nero delle medicine. Con quel patto fra esuli, fra uno storico e uno scrittore, io e Caled stabilimmo un semplice ma profondo vincolo di rispetto intellettuale. Diventammo amici nel modo rapido e senza domande dei criminali, dei soldati e di altri superstiti di una catastrofe. Andavo ogni giorno nella sua casa sobria e spartana, vicino alla stazione di Anderi. Le sedute duravano cinque o sei ore. Si passava liberamente dalla storia antica alle strategie sui tassi d'interesse delle banche centrali, dall'antropologia alle valute a tasso di cambio fluttuante o fisso. Grazie a Caled Ansari, imparai più sottigliezze su quel crimine comune ma estremamente complesso nel giro di un mese che un normale trafficante in un anno di lavoro. Quando terminammo le lezioni cominciai a lavorare con Caled ogni mattina e ogni sera, per sette giorni alla settimana. La paga era buona. Spesso venivo pagato con grossi mazzi di rupie che arrivavano direttamente dalla banca, ancora sigillati. Rispetto a tutti quelli che avevo conosciuto nello slum, vicini, amici, pazienti, potevo già considerarmi un uomo ricco. Per fare in modo che le ferite della prigione guarissero il più rapidamente possibile, avevo affittato una stanza all'India West House, a spese di caderbai. Senza dubbio la doccia rivestita di piastrelle immacolate e il materasso morbido mi aiutarono a guarire, ma non era solo una semplice convalescenza fisica. In realtà i mesi trascorsi alla prigione di Arthur Road avevano danneggiato più lo spirito che il corpo. Inoltre continuavo a provare rimorso per la morte della mia vicina Rada e dei miei due piccoli allievi dei corsi d'inglese. Il tormento della prigione e il fallimento durante l'epidemia di colera, avrei potuto accettare una delle due disgrazie e tornare in quel luogo desolato ma pieno di amore dove mi ero trovato benissimo, ma le due disgrazie insieme erano più di quanto la mia fragile autostima potesse sopportare. Non avrei più potuto vivere nello slum, e neanche trascorrervi una sola notte. Andavo spesso a trovare Prabhakar, Johnny, Casime e Tendra, e continuavo a dare una mano nell'ambulatorio, visitavo i pazienti due pomeriggi alla settimana. Ma la strana miscela di presunzione e spensierata leggerezza che mi aveva permesso di diventare il dottore dello slum era svanita per sempre. Nella parte migliore di ognuno di noi si cela sempre un po' di presunzione. La mia era svanita quando non ero riuscito a salvare la vita della mia vicina. Non mi ero neanche accorto che Rada era malata. Nei migliori propositi di servire il prossimo si cela una forma di innocenza pura e risoluta. Da quando ero uscito di prigione la mia innocenza zoppicava, il mio sorriso, non meno che i miei passi, era impedito dal ricordo delle catene che mi avevano legato ai piedi. La scelta di vivere fuori dallo slum dipendeva più dalle condizioni dell'anima che da quelle del corpo. I miei amici allo slum accettarono la mia decisione senza fare domande o commenti. Mi accoglievano con calore ogni volta che andavo a trovarli, e mi facevano partecipare alle attività quotidiane o alle feste dello slum, matrimoni, ricorrenze religiose, assemblee, partite di cricket, come se non avessi mai smesso di vivere e lavorare con loro. Nonostante la sorpresa e il dolore che suscitarono il mio aspetto macilento e i marchi che i sorveglianti mi avevano impresso sulla pelle, gli amici dello slum evitavano ogni accenno alla prigione. Penso che in parte lo facessero per una forma di delicatezza, perché sapevano che dovevo provare un senso di vergogna, la stessa vergogna che avrebbero provato se fossero stati loro a vivere la mia esperienza. In parte, almeno per quanto riguarda Prabhakar, Johnny Cigar e forse persino Casimali, poteva essere una forma di senso di colpa, perché non avevano potuto aiutarmi, visto che non avevano pensato di cercarmi. A nessuno di loro era venuto in mente che potessero avermi arrestato. Avevano creduto che mi fossi stancato della vita allo slum e che fossi tornato alla giata vita del mio ricco paese, come ogni altro turista che avevano conosciuto. Era un altro motivo per cui ero riluttante a tornare nello slum. Non riuscivo a capacitarmi che dopo tutto ciò che avevo fatto per loro, e dopo essere stato accettato nella loro comunità misera e fin troppo numerosa, potessero pensare che ero pronto ad abbandonarli da un momento all'altro senza una parola di commiato. Perciò quando cominciai a tornare in forze e a guadagnare un mucchio di soldi non tornai allo slum. Con l'aiuto di Caderbaia affittai un appartamento a Colaba, in Best Street, non lontano da Leopold. Era la mia prima casa in India, la mia prima concessione allo spazio, alla privacy e ai lussi domestici come una doccia calda e una cucina funzionante. Mangiavo bene, mi preparavo pasti ad alto contenuto di proteine e carboidrati, e mi imponevo di finire una vaschetta di gelato al giorno. Ripresi peso. Dormivo dieci ore a notte, cercando di curare il mio corpo lacerato con il balsamo del sonno. Tuttavia mi svegliavo di frequente agitando le braccia come se combattessi, e con il sapore umido e metallico del sangue che indugiava nella bocca dopo l'ennesimo incubo. Praticavo karate e sollevamento pesi insieme ad Abdullah nella sua palestra preferita, nell'elegante sobborgo di Breach Kandi. Spesso si univano a noi altri due giovani gangster, Salman Mustan e il suo giovane amico Sagnay, che avevo conosciuto durante il mio primo incontro con il consiglio dei capi di Kaderbai. Erano giovani vigorosi e robusti, e avevano poco meno di trent'anni. Amavano la lotta quasi quanto il sesso, perciò non era una passione di poco conto. Sagnay sembrava un divo del cinema ed era il più allegro ed estroverso. Salman era serio e taciturno. Anche se erano amici inseparabili fin da quando erano bambini, affrontandosi sul ring erano spietati proprio come quando combattevano con me o con Abdullah. Ci allenavamo cinque giorni alla settimana, e ci concedevamo una pausa di due giorni per permettere ai muscoli gonfi e indolenziti di riprendersi. Mi piaceva. Mi aiutava. Il sollevamento pesi è lo zen dei violenti. A poco a poco il mio corpo recuperò forza, salute e tono muscolare. Ero in buona forma fisica, ma sapevo che i mali della mia mente non sarebbero guariti finché non avessi scoperto chi aveva tramato con la polizia per farmi arrestare e rinchiudere nella prigione di Arthur Road. Dovevo sapere chi era stato. Dovevo capire perché l'aveva fatto. Ulla aveva lasciato la città. Qualcuno diceva che si nascondeva, ma nessuno sapeva da chi e per quale motivo. Carla se n'era andata e nessuno sapeva dove fosse. Didier e molti altri amici stavano indagando, cercavano di scoprire la verità, ma non avevano trovato nessun indizio che potesse svelare chi mi aveva tradito. Qualcuno si era messo d'accordo con gli sbirri per farmi arrestare senza nessuna accusa e farmi rinchiudere in Arthur Road. La stessa persona aveva chiesto che mi pestassero spesso e con ferocia mentre ero in prigione. Era una punizione, o una vendetta. Caderbai aveva confermato queste poche notizie, ma non poteva o non voleva dirmi di più, tranne che il misterioso organizzatore del complotto ignorava che fosse un evaso. Avevano scoperto della mia fuga dal carcere in Australia grazie a un controllo di routine delle impronte digitali. I poliziotti coinvolti avevano capito subito che poteva essere proficuo mettere a tacere la notizia, e avevano archiviato il mio rapporto finché Vikram non li aveva contattati per conto di Caderbai. A quei fottuti sbirri piacevi, amico, mi disse Vikram un pomeriggio mentre eravamo seduti a Leopold, pochi mesi dopo che avevo cominciato a fare l'esattore per Khaled. MMM. No, dico sul serio, è così. Per questo ti hanno lasciato andare. Non avevo mai visto lo sbirro nell'ufficio della prigione in vita mia, Vikram. Non mi conosceva affatto. Non capisci, disse Vikram in tono paziente. Si versò un altro bicchiere di birra fresca dalla bottiglia di Kingfisher e lo sorseggiò soddisfatto. Ho parlato con quel tipo, il poliziotto, quando ti ho portato fuori di lì. Mi ha raccontato tutta la storia. Quando il primo uomo al reparto impronte digitali ha scoperto che cazzo sei in realtà, quando ha ricevuto il rapporto con la notizia che sei un ricercato e vieni dall'Australia, è andato fuori di testa. È andato fuori di testa al pensiero di quanti soldi poteva fare mettendo a tacere quella merda, capisci? Un'occasione così mica capita tutti i giorni, no? Perciò senza dire niente a nessuno va da un altro sbirro, uno che conosce, e gli mostra il rapporto sulle tue impronte. L'altro va fuori di testa come il primo. Corre da un terzo sbirro, quello che abbiamo incontrato nell'ufficio, e gli mostra il rapporto. Il nostro sbirro raccomanda agli altri di cucirsi la bocca, e cerca di scoprire quanti soldi si possono ricavare dalla faccenda. Un cameriere portò la mia tazza di caffè, e scambiamo quattro chiacchiere immarati. Vikram aspettò che fossimo di nuovo soli prima di riprendere a parlare. Ti adorano, lo sai? I camerieri, i taxisti, gli impiegati dell'ufficio postale. E anche gli sbirri. Ti adorano quando parli marati. Cazzo, amico, io sono nato qui, e tu la parli meglio di me. Non ho mai imparato a parlarla come si deve. Non ho mai dovuto farlo. È per questo che qui nel marastra sono così incazzati. A quelli che vengono da fuori non gliene frega un cazzo dell'ammarati, Iar. Ma cosa stavo dicendo? Ah, sì. Bene, quel poliziotto ha il rapporto su di te e lo tiene nascosto. Però prima di fare la sua mossa vuole saperne di più di quello stronzo australiano scappato di prigione. Vikram si interruppe e mi sorrise finché il sorriso si tramutò in una risata gioiosa. Nonostante i 35 gradi di temperatura, sopra la camicia di seta bianca indossava un panciotto di cuoio nero. Con i pesanti jeans neri e gli stivali da cowboy doveva avere un gran caldo, ma sembrava perfettamente a proprio agio. Cazzo, amico, è incredibile. Dissi ridendo. Hai tagliato la corda da un carcere di massima sicurezza. Bestiale, cazzo. È la cosa più forte che abbia mai sentito, Ling. Mi si spezza il cuore a non poterlo andare a raccontare in giro. Ti ricordi quello che aveva detto Carla sui segreti, una sera qui a Leopold? No, amico. Cosa ha detto? Se mantenerlo non ti costa sofferenza, non è un segreto. Niente male. Davvero niente male, a noi Vikram facendo un ghigno d'apprezzamento. Ma dov'ero rimasto? Oggi non riesco a concentrarmi. È questa storia di Lettie, amico. Mi sta facendo uscire di testa, Ling. Ah, sì. Il poliziotto con il tuo rapporto vuole saperne di più sul tuo conto. Così manda in giro due dei suoi sbirri a far domande su di te. Tutti quelli con cui facevi affari sulla strada ti hanno dato una bella mano, amico. Hanno raccontato che non hai mai fottuto nessuno, e che quando potevi davi un sacco di denaro ai poveri. Ma gli sbirri non hanno detto a nessuno che ero ad Arthur o ad. No, amico, stavano solo cercando di capire se valeva la pena fotterti o no, se valeva la pena rispedirti agli sbirri australiani o no. Dipendeva solo da quello che avrebbero scoperto su di te. Ma non è tutto. Uno dei cambiavalute dice agli sbirri, ehi, se volete saperne di più sull'inandate allo slum, perché vive lì. A questo punto gli sbirri sono davvero incuriositi. Cazzo, un gora che vive nello slum. Così vanno a dare un'occhiata. Non dicono a nessuno quello che ti è successo, ma cominciano a fare domande, e qualcuno dice, vedete quell'ambulatorio? L'ha costruito l'in, e ci ha lavorato per molto tempo, aiutava la gente. Poi un altro dice, qui prima o dopo tutti sono stati curati gratuitamente dall'in, e si è fatto in quattro quando c'è stata l'epidemia di colera. E un altro dice agli sbirri, vedete quella piccola scuola d'inglese? È stato l'in ad avviarla. Gli sbirri ascoltano, e tutti parlano di questo Lin, di Lin Baba, lo straniero che ha fatto un gran bene allo slum. Poi gli sbirri tornano dal capo, e gli raccontano quello che hanno sentito. Andiamo, Vikram. Non crederai davvero che cambi qualcosa? Era solo una questione di soldi, tutto qua, e sono contento che tu sia venuto a pagarli. Vikram spalancò gli occhi per lo stupore, poi aggrottò la fronte in una smorfia di disapprovazione. Sollevò il cappello dalla schiena e lo esaminò rigirandolo fra le mani e togliendo qualche granello di polvere dall'attesa. Lin, ormai sei qui da un po' di tempo, hai imparato la lingua, hai vissuto in un villaggio e in uno slum, sei persino stato in una galera del cazzo e tutto il resto, eppure non hai ancora capito molto dell'India, vero? Può darsi, ammisi? Certo che no, amico. Qui non siamo in Inghilterra, in Nuova Zelanda, in Australia o in qualsiasi altro paese del cazzo. Questa è l'India, amico. In questo paese è il cuore che comanda. Il fottutissimo cuore. È per questo che sei libero. È per questo che gli sbiri ti hanno restituito il tuo passaporto falso. È per questo che puoi andartene in giro senza che nessuno ti riporti in cella, anche se sanno bene chi sei. Avrebbero potuto fotterti, Ling. Potevano prendersi i tuoi soldi, i soldi di Caderbai, e lasciarti andare, farti pizzicare da altri sbirri e rispedirti nella tua fottutissima Australia. Ma non l'hanno fatto, e non lo faranno, perché li hai colpiti al cuore, al loro fottuto cuore d'Indiani. Hanno visto cosa hai fatto da queste parti, hanno visto come ti ama la gente dello slume e hanno pensato, beh, in Australia ha fatto un bel casino, ma qui lo stronzo è stato in gamba. Se paga, lasceremo in pace quel figlio di puttana. Perché sono indiani, amico. È così che questo posto pazzesco sta insieme, grazie al cuore. Duecento fottute lingue diverse, e un miliardo di persone. L'India è il cuore. È il cuore che ci tiene insieme. Non c'è un altro posto con gente come la mia, Ling. Non esiste un cuore come quello indiano. Stava piangendo. Stupefatto, lo guardai asciugarsi le lacrime con il dorso della mano e gli appoggiai una mano sulla spalla. Aveva ragione, naturalmente. Anche se ero stato torturato in una prigione indiana, e per poco non mi avevano ammazzato, alla fine mi avevano liberato, e quando avevo lasciato la prigione mi avevano ridato il mio vecchio passaporto. Esiste un'altra nazione al mondo, mi domandai, dove mi avrebbero lasciato andare così? Se gli sbirri avessero investigato su di me scoprendo una storia diversa, se avessi imbrogliato degli indiani, per esempio, o picchiato persone indifese, avrebbero intascato i soldi e mi avrebbero comunque rispedito in Australia. Sì, in India quello che contava era davvero il cuore. L'avevo capito grazie a Prabhakar, a sua madre, a Casimali, alla redenzione di Joseph. Me ne ero reso conto persino in prigione, quando uomini come Maesh Malo traccettavano di farsi picchiare pur di riuscire a darmi un po' di cibo quando stavo morendo di fame. Cos'è, una lite amorosa? Chiese Didier sedendosi senza chiedere il permesso. Vaffanculo, Didier! Esclamò con un sorriso Vikram, ricomponendosi. Ah, beh, è un pensiero toccante, Vikram. Forse quando ti sentirai un po' meglio. E tu come stai oggi, Lynn? Bene, risposi sorridendo a mia volta. Didier era una delle tre persone che erano scoppiate a piangere quando mi avevano visto macilento e coperto di ferite poco dopo il mio rilascio. La seconda era Prabhakar, era esploso in singhiozzi così violenti che avevo dovuto impiegare quasi un'ora per riuscire a calmarlo. La terza persona, inaspettatamente, era Abdelkader. Quando lo avevo ringraziato gli si erano riempiti gli occhi di lacrime, e abbracciandomi mi aveva inumidito il collo e le spalle. Cosa bevi? Oh, davvero gentile, mormorò facendole fusa dal piacere. Penso che comincerò con una fiaschetta di whisky, lime fresco e soda ghiacciata. Sì. È un buon commencement, no? È molto strana e molto triste questa storia di Indira Gandhi. Avete sentito le notizie? Quali notizie? Chiese Vikram. Hanno appena annunciato che Indira Gandhi è morta. Sul serio? Chiesi. Temo di sì, sospirò di diet, assumendo all'improvviso un'aria solenne che non gli era abituale. I rapporti non sono confermati, ma penso che sia una notizia sicura. Sono stati sick? È stato a causa dell'operazione Bluestar? Sì, Ling. Come facevi a saperlo? Quando Indira Gandhi ha dato l'ordine di assalire il Tempio d'Oro per catturare Bindranvai, ho avuto la sensazione che gliel'avrebbero fatta pagare. Cos'è successo? Sono stati quelli del KLF? Chiese Vikram. Una bomba? No, rispose preoccupato Didi. Dicono che siano state le sue guardie del corpo. Erano dei sick. Oh cazzo, uccisa dalle sue guardie del corpo. Boccheggiò Vikram. Ragazzi? Torno fra un attimo. Avete sentito? Stanno parlandone alla radio vicino alla cassa. Vado ad ascoltare, e torno. Vikram corse verso la cassa. Una ventina di persone si erano assiepate attorno alla radio e ascoltavano l'annunciatore che dava dettagli dell'omicidio in Indy, con un tono di voce quasi isterico. Vikram avrebbe anche potuto ascoltare il notiziario dal nostro tavolo, la radio era tutto volume e capivamo ogni parola. Era andato alla cassa per un altro motivo, per un senso di solidarietà e fratellanza, per il bisogno di sentire, oltre che ascoltare, le notizie attraverso il contatto fisico con i suoi compatrioti. Beviamoci sopra, suggerì. Sì, Lin, rispose Didi. Sporse il labbro inferiore in una smorfia imbronciata e roteò la mano nell'aria per liquidare l'argomento deprimente. Il gesto non ebbe effetto. Didi e continuava a tenere la testa piegata in avanti e gli occhi fissi sul tavolo di fronte a lui. Non riesco a crederci. È semplicemente incredibile. Indira Gandhi morta. È quasi impensabile. Non riesco proprio a figurarmelo, Lin. È. Capisci. Impossibile. Ordinai da bere per Didi e lascia evagare i miei pensieri mentre ascoltavamo lo strepito lamentoso dell'annunciatore alla radio. Molto egoisticamente, per prima cosa riflettei sulle conseguenze che l'omicidio poteva avere sulla mia sicurezza, poi sugli effetti che avrebbe prodotto sui tassi di cambio al mercato nero. Qualche mese prima Indira Gandhi aveva ordinato l'attacco al luogo più sacro dei Sikh, il Tempio d'oro di Amritsar. Lo scopo era di cacciare via un gruppo numeroso e bene armato di militanti Sikh che si erano barricati nel santuario. Li guidava un leader separatista carismatico e affascinante di nome Bindran Vai. Usando come base il Tempio d'oro, i militanti continuavano a sferrare attacchi punitivi contro gli Hindu e quelli che loro definivano Sikh recalcitranti. Indira Gandhi, alla vigilia di elezioni generali fortemente contestate, non poteva lasciar correre, perché temeva di apparire debole e indecisa, e aveva scelto la peggiore delle poche opzioni a sua disposizione, mandando l'esercito a combattere i ribelli Sikh. L'azione militare per cacciare i militanti dal Tempio d'oro era stata chiamata operazione Bluestar. I militari di Bindran Vai si ritenevano combattenti per la libertà e martiri della causa dei Sikh, e avevano posto una resistenza disperata. Erano morti più di 600 uomini, e c'erano state molte centinaia di feriti. Alla fine il Tempio d'oro era stato sgombrato, e Indira aveva consolidato la sua immagine di leader forte e intransigente. Era riuscita ad accattivarsi la maggioranza hindù degli elettori, ma la lotta dei Sikh per una regione indipendente, il Kalistan, aveva molti nuovi martiri. I Sikh in tutto il mondo approvavano tacitamente la determinazione dei ribelli di vendicare la sanguinosa profanazione del loro Tempio più sacro. Il notiziario alla radio confermò la voce dell'assassinio, ma non fornì altri dettagli. Solo pochi mesi dopo l'operazione Bluestar, Indira Gandhi era stata uccisa dalle sue guardie del corpo Sikh. La donna considerata un despota da alcuni e venerata come la madre e il simbolo della nazione da molti altri non c'era più. Era morta. Dovevo pensare. Dovevo valutare il pericolo. Le forze di sicurezza in tutto il paese erano in stato di massima allerta. Per le comunità Sikh ci sarebbero state gravi conseguenze, tumulti, uccisioni, saccheggi, incendi. Gli Indo avrebbero cercato di vendicare la loro leader, lo sapevo. In India lo sapevano tutti. L'annunciatore alla radio parlava di spiegamenti di forze ad Elie nel Panyab per prevenire i disordini. Lo stato di emergenza mi avrebbe causato problemi seri. Ero un ricercato, lavoravo per la malavita e circolavo con un visto scaduto. Osservai Didier che sorseggiava il suo whisky, e gli uomini nel bar che ascoltavano le notizie sbigottiti e silenziosi. La luce del crepuscolo accendeva la nostra pelle avvolgendola in una sfumatura rosa e oro. Sentii il cuore che mi batteva forte. Scappa, udì una voce sussurrare dentro di me. Scappa subito, finché puoi. È la tua ultima possibilità. Eppure, mentre pensavo che avrei dovuto fuggire, provai una sensazione di calma profonda e rassegnata. Non avrei lasciato la città. Non potevo andarmene da Bombay. Ne ero assolutamente certo. C'era il problema di Caderbai, lavorando con Khaled avevo ripagato il mio debito economico, ma il debito morale era più difficile da saldare. Dovevo la vita a Caderbai, e ne eravamo entrambi consapevoli. Quando ero uscito di prigione mi aveva abbracciato, era scoppiato a piangere vedendo le mie condizioni penose e mi aveva promesso che finché fossi rimasto a Bombay sarei stato sotto la sua protezione personale. Non mi sarebbe mai più successo niente del genere. Mi aveva dato una medaglietta d'oro con un simbolo hindu, la sillaba sacra o munito alla mezzaluna islamica. La portavo appesa al collo con una catena d'argento. Dietro alla medaglietta era inciso il nome di Caderbai in urdu, indie e inglese. In caso di guai avrei dovuto mostrarla e chiedere che contattassero immediatamente Caderbai. Non era una grande garanzia, ma era meglio di niente. Il desiderio di Caderbai che io lavorassi per lui, il debito che avevo nei suoi confronti, la relativa sicurezza di essere alle sue dipendenze, erano queste le cause che mi trattenevano in città. Poi c'era Carla. Era scomparsa dalla città mentre ero in prigione e nessuno sapeva dove fosse andata. Non avevo idea di dove cercarla, poteva essere in qualsiasi posto al mondo. Tuttavia sapevo che Carla amava Bombay. Era ragionevole sperare che prima o poi tornasse in città. Ero innamorato di lei. Soffrivo all'idea che potesse pensare che l'avevo abbandonata, che avevo soddisfatto un capriccio e l'avevo lasciata. In quei mesi era un sentimento persino più intenso del mio amore per lei. Non potevo andarmene da Bombay senza rivederla, senza spiegarle cosa era accaduto quella notte. Perciò rimasi in città, a pochi passi dall'angolo dove c'eravamo incontrati la prima volta, aspettando che tornasse. Osservai i clienti del Leopold che ascoltavano in silenzio le notizie. Incrociai lo sguardo di Vikram. Mi sorrise e fece oscillare la testa. Era un sorriso tristissimo, gli occhi arrossati dalle lacrime che si sforzava di non versare. Ciononostante sorrise per rincuorarmi, per rassicurarmi, per farmi partecipe del suo sgomento. Grazie a quel sorriso capii che c'era un altro motivo che mi tratteneva a Bombay. Alla fine compresi anche che, se il buonsenso mi esortava ad andarmene, era il cuore a trattenermi, il cuore indiano di cui aveva parlato Vikram. In questo paese è il cuore che comanda. E per me il cuore era quella città, Bombay. Mi aveva sedotto. La amavo. La città aveva dato alla luce una parte di me, una parte che esisteva solamente perché vivevo lì, perché ero un Mumbai car, un cittadino di Bombay. Gran brutta storia, iar, mormorò Vikram tornando a sedersi con noi. Scorrerà molto sangue. Alla radio dicono che le bande del congress parti stanno battendo delle casa per casa, in cerca di Sikh. Rimanemmo tutti e tre in silenzio, persi nelle nostre riflessioni e nelle nostre angosce. Alla fine Didier ruppe il ghiaccio. Penso di avere trovato un indizio, disse a bassa voce, riportandoci alla realtà. Sulla prigione? Oh oui. Continua. Non è granché. Non aggiunge molto a quello che sai già. Era una persona potente, come ti ha detto Caderbai. Qualunque notizia è meglio che niente, Didier. Come vuoi. C'è un tizio che conosco. Ogni giorno deve presentarsi alla stazione di polizia di Colabba. Oggi stavamo chiacchierando, e lui ha parlato dello straniero che avevano chiuso lì qualche mese fa. Lo ha chiamato Morso di Tigre. Non oso immaginare come tutti sia guadagnato quel soprannome, Lin, ma sono certo che non deve essere una storia molto edificante, non? Allors, il mio amico dice che il nostro Morso di Tigre è stato tradito da una donna. Ti ha detto come si chiama? No. Gliel'ho chiesto, ma non sapeva chi fosse. Ha detto che era giovane e molto bella, ma può esserselo inventato. Quant'è attendibile quel tizio? Didier sporse in fuori le labbra e lasciò sfuggire uno sbuffo d'aria. Temo che sia attendibile solo per quanto riguarda menzogne, truffe e rapine. D'altra parte credo che in questo caso non avesse motivo di mentire. Penso che abbia ragione. Sei stato vittima di una donna, Lin. Bene, così siamo in due. Io e te, fratello, esclamò Vikram intromettendosi nel nostro discorso. Aveva finito la birra e si era acceso una dei sigaretti lunghi e sottili che fumava più per completare il suo costume che per il piacere del tabacco. Ormai esci con le titia da tre mesi, osservò Didier. Aveva la fronte corrugata in una smorfia ostile. Che problema c'è? Ditemelo voi. La porto nei posti migliori, e non riesco neanche ad avvicinarmi alla prima base. Anzi, non arrivo neanche all'ingresso dello stadio. Vaffanculo lo stadio, yar. Non riesco neanche ad avvicinarmi al fottutissimo quartiere. Quella pupa mi uccide. Questo amore mi uccide. La pupa fa la difficile. Fratello, ci provo di brutto, ma non ottengo niente. Giuro che sto per scoppiare, cazzo. Ebbene, Vikram, disse Didier con gli occhi di nuovo scintillanti di sagacia e buon umore, conosco una strategia che potrebbe fare al caso tuo. Didier, amico, proverei di tutto. Le cose si mettono male, con questa storia dindirai tutto il resto, e devo sfruttare ogni opportunità finché posso. Chissà che ne sarà di noi domani, na? Sì, ma attention. Il mio piano richiede estrema audacia, accurata preparazione e precisione cronometrica. Altrimenti potrebbe costarti la vita. La vita? Sì. Non devi fare errori. Ma se ci riesci, credo che conquisterai il cuore di Letitia per sempre. Ebbene, pensi di avere abbastanza fegato, come si suol dire? Sono il figlio di puttana con più fegato in questo dannato salon, Yar. Dimmi tutto. Direi che è arrivato il momento di andarmene, prima che voi due siate troppo presi dai vostri intrighi, dissi alzandomi e stringendo la mano a entrambi. Grazie per la dritta, Didier. Te ne sono grato. E io ho un consiglio per te, Vikram, se ci tieni tanto alle tie, comincia a evitare di chiamarla la pupa popputta. Ogni volta che ti sente ti guarda come se stessi strangolando un coniglietto. Ma è una delle mie battute migliori, Yar. In Danimarca. Non sei più in Danimarca, fratello. Ok, Lin, concesse scoppiando a ridere. Ascolta, quando scopri la storia della prigione. Voglio dire, chi è il figlio di puttana che ti ha fatto finire in quella merda, e tutto il resto. Beh, se ti serve una mano conta su di me. Ok? Certo, dissi apprezzando il suo sguardo sincero. Non preoccuparti. Pagai il conto e me ne andai, camminando da solo lungo la cause vai fino alla rotonda del Regal Cinema. Era il crepuscolo, uno dei tre momenti migliori a Bombay. L'alba, prima che cominci il caldo, e la notte, quando si allenta la morsa dell'afa, sono momenti speciali, che offrono piaceri particolari, però non c'è nessuno in giro per le strade. Invece verso sera la gente esce sui balconi, rimane alla finestra e sulla soglia delle case. Di sera le strade si riempiono di gente che passeggia. La sera è una tenda color indaco che copre il circo della città, e le famiglie portano i bambini agli spettacoli in ogni angolo di strada, a ogni incrocio. La sera fa da caperona ai giovani amanti, e l'ultima ora di luce prima della notte ruba l'innocenza alle loro lente passeggiate. Non c'è momento del giorno o della notte in cui le strade di Bombay sono più affollate, e non c'è luce che renda attraente il volto umano come quella del crepuscolo a Bombay. Camminavo tra la folla, e amavo i volti dei passanti, amavo il profumo della pelle e dei capelli, amavo il colore dei vestiti e la melodia delle parole. Tuttavia ero solo, troppo solo, non avevo nessuno con cui spartire il mio amora per quel momento magico. E all'improvviso uno squalo nero iniziò a tracciare lente traiettorie circolari nel mare dei miei pensieri, uno squalo nero fatto di dubbio, rabbia e sospetto. Una donna mi ha tradito. Una donna. Una donna giovane e molto bella. Il fragore insistente di un clacson attirò la mia attenzione e vidi Prabhakar che mi faceva cenni dal suo taxi. Salii sulla macchina e gli chiesi di accompagnarmi al mio appuntamento serale con Khaled, dalle parti di Shofpati Beac. Quando il lavoro per Caderbai aveva cominciato a rendere bene, una delle prime spese che avevo fatto era stato comprare una licenza da taxista per Prabhakar. Nonostante il suo grande talento di risparmiatore, il costo della licenza era sempre stato proibitivo per lui. Di tanto in tanto dava il cambio al cugino Shantui guidava il suo taxi senza licenza, ma era un grosso rischio. Una volta regolarizzata la sua posizione poteva finalmente cercare di ingraziarsi uno dei grandi appaltatori di taxi, che possedevano vere e proprie flotte di veicoli che affittavano soltanto ai taxisti muniti di licenza. Prabhakar era un gran lavoratore e un uomo onesto, ma soprattutto era una delle persone più simpatiche che potesse capitare di incontrare. Gli appaltatori di taxi erano dei duri, ma non erano riusciti a resistere al suo fascino contagioso. Nel giro di un mese era riuscito a procurarsi un taxi quasi in pianta stabile, e lo trattava con ogni cura, come se fosse suo. Sul cruscotto aveva piazzato un altarino con un'immagine di Lakshmi, la dea dell'abbondanza. Ogni volta che Prabhakar schiacciava i freni negli occhi della statua si accendevano due minuscole lampadine rosse, che davano un'espressione feroce e inquietante al volto della statuina di plastica colorata di rosa, verde e oro. Ogni tanto Prabhakar si allungava con un gesto cerimonioso e schiacciava un tubo di gomma alla base della statuina. In quel modo spruzzava, tramite una specie di valvola situata nell'ombelico della dea, una potente e poco salubre miscela di profumi chimici sulla camicia e i pantaloni del passeggero. Dopo ogni spruzzata Prabhakar lustrava con aria assorta la targhetta d'ottone della sua licenza, che esibiva raggiante d'orgoglio. In tutta la città c'era soltanto una persona in grado di contendere l'affetto di Prabhakar per il suo taxi Fiat giallo e nero. Parvati. 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 Continuava a salmodiare Prabhakar mentre dopo avere superato la stazione di Shurgate sfrecciavamo verso Marine Drive. Era inebriato dalla musicalità del nome della sua bella. La amo troppo, Ling. È amore, sì, quando una terribile sensazione ti rende felice. Quando ti preoccupi di una ragazza più che del tuo taxi. È amore, vero? Un grande amore, vero? Mio Dio. Parvati. 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 È amore, Prabhu. E Johnny ha troppo amore per Sita, la sorella della mia Parvati. Oh, troppo amore. Sono contento per te, e anche per Johnny. È un brav'uomo. Siete due brave persone. Ah sì. Convenne Prabhakar, dando qualche manata al clacson per sottolineare il concetto. Siamo buoni amici. E stasera usciamo tutti e cinque, noi e le sorelle. Ci divertiremo troppo. C'è un'altra sorella? Un'altra? Sì. Hai detto tutti e cinque. Sono tre le sorelle? Pensavo fossero solo due. Sì, Ling, assolutamente solo due le sorelle. Allora volevi dire tutti e quattro? No, Ling. Parvati e Sita portano sempre la loro mamma, la moglie di Kumar, MRS Patak. Le ragazze stanno sedute da una parte, e MRS Nandita Patak sta nel mezzo, e io e Johnny Cigar insieme dall'altra parte. Tutti e cinque. Sembra. Molto divertente. Sì, divertente. Certo. Tanto divertente. E quando offriamo cibo e bevande a MRS Patak, possiamo guardare le ragazze, e loro possono guardare noi, anche. Questo è il nostro sistema. È così che sorridiamo alle ragazze e facciamo gli occhi molto dolci. Abbiamo una grande fortuna che MRS Patak ha un felice appetito, e mangerà senza fermarsi per tre ore in un film. Così c'è continuo passaggio di cibi, e un mucchio di occhiate alle ragazze. E MRS Patak. Grazie a Dio è impossibile riempire quella donna in un film solamente. Aspetta, rallenta. Sta succedendo qualcosa. Sembra. Una sommossa. Una folla enorme, migliaia di persone, stava sciamando verso Marine Drive, e avanzava verso di noi occupando tutta la strada, a circa trecento metri di distanza. Non è una sommossa, è una dimostrazione. La gente era visibilmente infuriata. Uomini e donne agitavano i pugni scandendo slogan. Avevano i volti alterati, il collo e le spalle tesi dalla rabbia. Inneggiavano a Indira Gandhi, chiedevano vendetta, minacciavano rappresaglie contro i Sikh. Guardai preoccupato la folla che avanzava verso di noi, ma arrivato al taxi il torrente umano si aprì e continuò a scorrere attorno al veicolo senza neanche sfiorare la carrozzeria. Non di meno gli occhi che ci osservavano erano colmi d'odio e crudelli. Sapevo che se fossi stato un Sikh, se avessi indossato un turbante o una bandana da Sikh, non avrebbero esitato a strapparmi fuori dalla macchina. Quando la strada fu di nuovo sgombra, mi accorsi che Prabhakar aveva gli occhi pieni di lacrime. Si frugò a lungo nelle tasche, e alla fine strasse un enorme fazzoletto a scacchi rossi e si asciugò gli occhi. È una situazione troppo triste, Limbabba, si inghiozzò. Lei non c'è più. Che ne sarà della nostra India senza di lei? Me lo chiedo, e non ho molte risposte. Era uno dei modi più diffusi di chiamare Indira Gandhi. Le categorie più disparate, giornalisti, contadini, politici e trafficanti, si rivolgevano alla premier indiana chiamandola semplicemente lei. Sì. È un bel pasticcio, Prabhu. Sembrava così disperato che per un po' rimasi in silenzio, fissando fuori dal finestrino il mare che si incupiva. Quando mi girai di nuovo a guardarlo vidi che Prabhakar stava pregando con il capochino in avanti e le mani giunte appoggiate alla base del volante. Osservai le labbra che vibravano mormorando una litania. Alla fine disgiunse le mani, si voltò verso di me e fece un gran sorriso, sollevando le sopracciglia un paio di volte, in rapida sequenza. Allora Alin, che ne dici, vuoi un bel po' di profumo sexy sul tuo bel vestito? Chiese protendendosi verso il bulbo sotto la stamina di Lakshmi. No. Urlai cercando di fermarlo. Troppo tardi. Schiacciò il bulbo, e dalla pancia della dea sgorgò uno schizzo vorticoso della micidiale miscela chimica, che andò a irrorarmi camicia e calzoni. Ora siamo pronti per la bella vita. Annunciò radioso riavviando il motore e riprendendo la marcia lungomarine drive. Siamo i tipi fortunati, non è vero? Senza dubbio, grugnì boccheggiando mentre cercavo di inalare aria pura dal finestrino spalancato. Pochi minuti dopo raggiungemmo il parcheggio dove avevo appuntamento con Khaled. Lasciami pure lì, Prabbo, vicino a quell'albero. Prabaker parcheggiò di fianco a un'alta palma da datteri, e scesi dalla macchina. Cominciò la schermaglia per il pagamento. Prabaker non voleva i soldi, ma io insistevo. Alla fine suggerì un compromesso, poteva accettare il denaro e usarlo per comprare un altro profumo per la sua dea di plastica. Oh, sì, Limbabba! Urlò accettando le rupie. Che bella idea che hai! Stavo proprio pensando che ho quasi finito le mie bottiglie di profumo, ed è così caro che non voglio comprarne più neanche un gallone. Ma adesso posso comprare una grande bottiglia, una nuova grande bottiglia, e per settimane posso riempire la mia Lakshmi come nuova. Troppe grazie. Non c'è di che, risposi ridendo mio malgrado. E buona fortuna per il tuo appuntamento multiplo. Il taxi di Prabaker si allontanò dal marciapiede e. Si tuffò nel traffico. Per salutarmi continuò a strombazzare con il clacson finché non scomparve alla vista. Khaled Ansari mi aspettava nel nostro taxi privato a una cinquantina di metri di distanza. Era seduto sul sedile posteriore con le portiere spalancate per fare entrare la brezza. Non ero in ritardo, e Khaled doveva essere lì da non più di quindici o venti minuti, ma c'erano già dieci cicche di sigaretta sull'asfalto di fianco alla portiera spalancata. Sapevo che ogni mozzicone era un nemico schiacciato sotto il tacco, un desiderio violento, una fantasia brutale sulle sofferenze che un giorno avrebbe inflitto a coloro che odiava. Ed erano molte le persone che odiava. Troppe. Khaled mi aveva detto che le immagini di violenza che gli riempivano la mente erano così reali che a volte gli davano la nausea. Aveva male alle ossa per la rabbia. L'odio gli serrava le macelle, gli faceva digrignare i denti dalla furia. Sentiva in bocca un gusto amaro, giorno e notte, amaro come il gusto del coltello annerito che stringeva fra i denti quando era un combattente di Alfata, quando strisciando sul terreno accidentato si era avvicinato di soppiato alla sua prima vittima. Ti ucciderà, Khaled, lo sai? È per questo che fumo così, cazzo. Non voglio vivere in eterno. Non parlavo del fumo, Khaled. Parlavo di ciò che hai dentro di te, del risentimento che ti spinge a fumare una sigaretta dopo l'altra. Parlavo di come ti riduci odiando il mondo in quel modo. Una volta qualcuno mi ha detto che se trasformi il tuo cuore in un'arma, prima o poi finisci per usarla contro di te. È una bella predica, fratello, disse scoppiando a ridere. La sua risata breve. La sua risata triste. Ma proprio non ti ci vedo come Babbo Natale, Ling. Kader mi ha raccontato di Shatila. Cosa ti ha detto? Che. Che hai perso tutta la famiglia. Deve essere stata dura. E tu che ne sai? Non voleva offendermi, non aveva usato un tono aggressivo, ma nella sua voce c'erano troppo dolore e troppo risentimento, e non potevo cambiare discorso come se nulla fesse. So cosa è successo a Sabra e Shatila, Khaled. Sono sempre stato impegnato in politica. Quando è successo ero in fuga, ma ho seguito ogni giorno le notizie, per mesi. È stata una tragedia atroce. Tanto tempo fa ero innamorato di una ragazza ebrea. Lo sapevi? Chiese Khaled. Rimasi in silenzio. Era bellissima, e intelligente, e. Credo che non conoscerò mai più un essere umano meraviglioso come lei. Eravamo a New York, studiavamo insieme. I suoi genitori erano ebrei riformisti. Sostenevano Israele, ma erano contrari all'occupazione dei territori. Ero insieme a quella ragazza, stavo facendo l'amore con lei la notte in cui mio padre morì in una prigione israeliana. Non puoi sentirti in colpa perché eri innamorato, Khaled. E non puoi sentirti responsabile di quello che hanno fatto a tuo padre. Oh, invece sì che posso, è come, disse rivolgendomi di nuovo il suo sorriso piccolo e triste. Comunque sono tornato in patria, giusto in tempo per la guerra d'ottobre, quella che gli israeliani chiamano guerra dello Yom Kippur. Ci hanno fatti a pezzi. Sono riuscito a rifugiarmi a Tunisi e sono rimasto per qualche tempo in un campo d'addestramento. Ho cominciato a combattere, e un'azione dopo l'altra sono arrivato fino a Beirut. Quando gli israeliani hanno invaso il Libano, ci siamo rifugiati a Shatila. C'era tutta la mia famiglia, e anche molti vecchi amici e vicini di casa. Erano, eravamo, tutti profughi, senza più una casa, senza un posto dove andare. Sei stato evacuato insieme agli altri combattenti? Sì. Non riuscivano a batterci, così negoziarono un armistizio. Lasciamo i campi profughi con le armi in mano, per mostrare che non eravamo stati sconfitti. Marciavamo come soldati, molti sparavano in aria. Qualche spettatore fu persino ucciso dalle pallottole vaganti. Era strano, sai? Una specie di parata, di festa nazionale. Poi, dopo che noi militari evacuammo i campi, ignorarono i patti, e mandarono i falangisti a uccidere, vecchi, donne e bambini. Tutti morti. Tutta la mia famiglia. Tutti quelli che avevo lasciato al campo profughi. Non so neanche che fine abbiano fatto i cadaveri. Li hanno nascosti, perché sapevano che era un crimine di guerra. E tu pensi che dovrei lasciare correre, Lin? Il parcheggio si trovava lungo la ripida salita sopra Marine Drive. Di fronte a noi c'era la grande distesa del mare e un pezzo di sciopati beacce. Sotto di noi la prima ondata di famiglie, coppiette e ragazzi aveva iniziato la passeggiata serale. Molti si divertivano lanciando freccette o sparando a palloncini legati a un bersaglio. I venditori di gelati e scerbei lanciavano richiami dai gazebo variopinti come uccelli del paradiso in cerca della compagna. L'odio che serrava il cuore di Caled era l'unico argomento su cui ci trovavamo in disaccordo. Da ragazzo avevo molti amici ebrei. Melbourne aveva una grande comunità ebraica, nella città in cui ero cresciuto vivevano molti sopravvissuti dell'Olocausto e i loro figli. Mia madre era una figura di spicco nella cerchia dei socialisti fabiani, ed era in contatto con molti intellettuali di sinistra delle comunità greche, cinesi, tedesche ed ebraiche. Molti miei amici avevano frequentato una scuola ebraica, il Montescopus College. Ero cresciuto insieme a quei ragazzi, leggevamo gli stessi libri, ci piacevano gli stessi film e la stessa musica, partecipavamo insieme alle manifestazioni. Alcuni di loro furono fra i pochi che mi rimasero vicini dopo che la mia vita si trasformò in un incubo di dolore e vergogna. Fu un amico ebreo ad aiutarmi a fuggire dall'Australia dopo che ero evaso dal carcere. Rispettavo, ammiravo e amavo tutti quegli amici. Khaled invece odiava tutti gli ebrei, tutti gli ebrei sulla faccia della terra. Sarebbe come se io odiassi tutti gli indiani solo perché alcuni di loro mi hanno torturato in prigione, dissi a bassa voce. Non è la stessa cosa. Non sto dicendo che è la stessa cosa. Sto solo cercando di. Ascolta, quando mi hanno incatenato nella prigione di Arturo ad e hanno cominciato a lavorarmi, sono andati avanti per ore. Dopo un po' sentivo solo l'odore e il gusto del mio sangue, e l'unico suono che udivo era il simbilo delle lati che mi strappavano la pelle. Lo so, Lynn, ma. No, lasciami finire. A un certo punto, per un attimo. È stato stranissimo. Mi sembrava di galleggiare nell'aria, guardavo il mio corpo e i miei carnefici, vedevo tutto quello che mi facevano. E. Ho provato questa strana sensazione. Una specie di comprensione molto particolare di quello che stava accadendo. Ho saputo chi erano, cosa erano, e cosa li spingeva a comportarsi così. In un attimo di estrema lucidità, ho capito che avevo due possibilità, odiarli o perdonarli. E. Non so perché era assolutamente chiaro che dovevo perdonarli. Dovevo farlo, se volevo sopravvivere. So che può sembrare pazzesco. No, non è pazzesco, disse Khaled in tono neutro, quasi con rincrescimento. A me sembra ancora pazzesco. Non me ne faccio ancora una ragione. Eppure è andata proprio così. E li ho perdonati. L'ho fatto davvero. E in qualche modo sento che è così che sono riuscito a farcela. Non voglio dire che non provavo più rabbia. Merda, se mi avessero liberato e mi avessero dato una pistola probabilmente li avrei ammazzati tutti. O forse no. Non so. Ma il punto è che li ho perdonati sul serio, proprio in quel momento, mentre si accanivano su di me. E sono certo che se non l'avessi fatto, se mi fossi limitato a odiarli, non sarei riuscito a sopravvivere fino al giorno in cui Caderby mi ha tirato fuori. Sarei stato spacciato. L'odio mi avrebbe ucciso. Comunque non è la stessa cosa, Ling. Capisco cosa intendi dire, ma per me è stato peggio. E in ogni caso se fossi stato in una prigione indiana, e mi avessero fatto quello che hanno fatto a te, odierei gli indiani per sempre. Li odierei tutti. Io non li odio. Li amo. Amo questo paese, questa città. Non puoi venirmi a raccontare che non vuoi vendicarti, Ling. Voglio vendicarmi, altro che. Hai ragione. È un desiderio che preferirei non provare. Vorrei essere migliore. Però voglio vendicarmi solo di una persona, quella che mi ha fregato, non di tutta una nazione. Beh, evidentemente non siamo fatti allo stesso modo, disse quietamente, fissando i bagliori distanti delle raffinerie in alto mare. Non capisci. Non puoi capire. Capisco che l'odio finirà per ucciderti, Caled. No, Ling, disse cercando di guardarmi nella debole luce del taxi. Gli scintillavano gli occhi, e un mezzo sorriso indugiava sul volto deturpato dalla cicatrice. Era un'espressione simile a quella di Vikram quando parlava di Lettie, o a quella di Prabhakar quando mi raccontava di Parvati. Era l'espressione che hanno alcuni uomini quando parlano della loro esperienza di Dio. Il mio odio mi ha salvato, disse quietamente, ma con uno zelo eccitato, febbricitante, che vibrava nella voce. L'accento americano, con le sue vocali strascicate, si meschiava con le forti aspirazioni dell'arabo, e il risultato era un misto tra Omar Sharif e Nicolas Cage. In un'altra epoca, in un altro luogo, in un'altra vita, Caled Ansari avrebbe recitato poesie in arabo e in inglese, commuovendo gli ascoltatori fino alle lacrime. L'odio è molto resistente, capisci? L'odio resiste a tutto. Ho dovuto nascondere il mio odio per molto tempo. La gente non poteva sopportarlo, ne era troppo spaventata. Perciò l'ho esiliato. È curioso, per anni sono stato un esule, lo sono ancora, e il mio odio è diventato un esule, proprio come me. L'ho esiliato fuori di me. La mia famiglia. Tutti uccisi. Li hanno violentati e macellati. E io ho ucciso uomini. Ho sparato, tagliato gole. Ma il mio odio è sopravvissuto. È diventato più forte, più esistente. E un giorno, lavoravo già per Cader, ed ero ormai ricco e potente, mi sono svegliato e ho sentito l'odio che piano piano tornava. E ora è qui, dentro di me, è di nuovo in patria. E sono felice. Mi piace. Ne ho bisogno, Ling. È più forte di me. È più coraggioso di me. Il mio odio è il mio eroe. Negli occhi di Khaled indugiò per un attimo lo sguardo fanatico, poi il palestinese si chinò verso l'autista appisolato sul sedile anteriore. Scialo, vai. Andiamo, fratello. Dopo un'altra breve pausa Khaled ruppe il silenzio facendomi una domanda. Hai sentito di Indira? Sì. Alla radio, a Leopold. I ragazzi di Cader Adeli hanno saputo i dettagli. Quello che non dicono alla gente. Hanno telefonato poco prima che venisse all'appuntamento. È stato un bel macello. Davvero? Risposi continuando a pensare alla sua apologia dell'odio. Non mi interessavano i dettagli dell'assassinio di Indira Gandhi, ma ero contento che il mio compagno cambiasse argomento. Stamattina alle nove stava uscendo dalla sua residenza, il palazzo del primo ministro. Ha salutato le due guardie SIC al cancello con le mani giunte. Conosceva quei due uomini. Aveva insistito perché rimanessero al loro posto. Dopo l'operazione Bluestar l'avevano avvisata di non tenere SIC fra gli addetti alla sicurezza. Ma lei aveva insistito, perché non poteva credere che le sue fedeli guardie del corpo le si sarebbero rivoltate contro. Non aveva proprio capito l'odio che aveva causato dando l'ordine di attaccare il Tempio d'Oro. Comunque sia, Indira li saluta con le mani giunte, sorride e dice Namaste. Una delle due guardie estrae la pistola d'ordinanza, una calibro 38, e spara tre colpi. La colpisce all'addome. Indira crolla sul vialetto. La seconda guardia del corpo le punta contro lo sten, e svuota il caricatore. 30 colpi. Lo sten è un mitra anticuato, ma a bruciapelo può fare un bel macello. Almeno sette colpi nell'addome, tre nel petto, uno dritto al cuore. Rimanemmo in silenzio. Fu il primo a parlare. Insomma, che reazioni pensi che ci siano sul mercato monetario? Penso che noi ci guadagneremo, rispose freddamente. Se la successione è chiara, come in questo caso, Rajiv è pronto a subentrare alla madre, un attentato è sempre positivo per gli affari. Ma ci saranno sommosse. Si parla già di bande armate che danno la caccia a Esik. Ho visto una dimostrazione, mentre venivo all'appuntamento. Sì, l'ho vista anch'io, disse Caledo voltandosi a guardarmi. Aveva gli occhi scuri, quasi neri, che scintillavano crudelli. Ma sarà comunque un bene per i nostri affari. Più sommosse ci sono, più gente viene uccisa, più cresce la domanda di dollari. Domattina alziamo i tassi. Le strade potrebbero essere bloccate. Se ci sono dimostrazioni o sommosse, potrebbe essere difficile fare il nostro giro. Passerò a prenderti alle sette, e andremo direttamente da Rayubai, disse alludendo al covo nell'area di Fort, dove l'organizzazione preparava i dollari da vendere al mercato nero. Rayu era l'uomo che lo dirigeva. Nessuno mi fermerà. La mia macchina la faranno passare. Cosa fai adesso? Vuoi dire quando finiamo la raccolta? Sì. Hai un po' di tempo? Certo. Cosa vuoi che faccia? Accompagnami a casa e resta sul taxi, disse, disse abbandonandosi sul sedile con un sospiro di sfinimento o di sconforto. Fai il giro di tutti i ragazzi. Avvertili di trovarsi da Rayubai domattina presto. Contattane più che puoi, e fai spargere la voce. Se si mette davvero male avremo bisogno di tutti gli uomini. Ok. Ci penso io. Tu cerca di dormire, Khaled. Sembri stanco. Sì, penso che lo farò, disse sorridendo. Nei prossimi giorni non riusciremo a dormire molto. Chiuse gli occhi per un attimo, e abbandonò la testa ai sobbalzi della macchina. Poi si svegliò di soprassalto, si raddrizzò e fiutò l'aria intorno a lui. Che cazzo di odore è, amico? È dopo barba, o qualcosa del genere. Mi hanno lanciato addosso dei lacrimogeni che avevano un profumo migliore. Non parlarmene, risposi facendo una smorfia a denti stretti, mentre mi strofinavo la chiazza di profumo che avevo sulla camicia. Khaled scoppiò a ridere e fissò l'oscurità priva di stelle dove la notte incontra il mare. Presto o tardi il destino ci fa incontrare tutte le persone che possono farci capire ciò che non dovremmo mai diventare. Prima o poi incontriamo l'ubracone, il perdigiorno, il traditore, la mente crudele, il cuore pieno d'odio. Ma naturalmente il destino trucca i dadi, perché di solito amiamo o proviamo pietà per le persone di quel genere. È difficile disprezzare chi ti ispira pietà, o evitare chi ami. Rimasi seduto nel buio di fianco a Khaled, mentre il taxi ci portava verso i nostri affari criminali. Rimasi seduto di fianco a lui guardando scorrere le ombre colorate della notte. Amavo la sua onestà e la sua durezza, provavo pietà per l'odio che lo ingannava e lo indeboliva. Il suo volto, riflesso di tanto in tanto nella notte che colmava il finestrino, appariva radioso e compreso nel proprio fato come quello dei santi pronti al martirio ritratti nei quadri antichi. Capitolo 23. In qualunque posto al mondo e in qualsiasi società i problemi della giustizia vengono affrontati allo stesso modo, disse Abdelkader Can, il mio capo mafia e surrogato paterno, che mi aveva assunto al suo servizio da ormai sei mesi. Basiamo leggi, indagini, processi e punizioni sulla percentuale di crimine che c'è nel peccato, anziché sulla percentuale di peccato che c'è nel crimine. Eravamo seduti a un tavolo del Saurab, un affollatissimo, fumosissimo e profumatissimo ristorante nell'area del Sassondok. Al Saurab servivano quelli che molti consideravano i migliori mas alla dosa di Bombay, in una città dove 5.000 ristoranti si contendevano il primato. Nonostante l'ambito riconoscimento, o forse proprio per quello, il Saurab era piccolo e relativamente sconosciuto. Il suo nome non appariva nelle guide turistiche o nelle rubriche per buon gustai dei quotidiani. Era un ristorante per lavoratori, e da mattina a sera era gremito di lavoratori e lavoratrici che apprezzavano la sua eccellenza ed evitavano di diffondere il segreto. Di conseguenza il cibo era a buon mercato, e l'arredo ridotto a un minimo funzionale. Non di meno il ristorante era pulitissimo, e le spettacolari, barocche vele dei dosa croccanti che i camerieri portavano di corsa ai tavoli erano ripiene della più deliziosa miscela di spezie che si potesse trovare in tutta la città. Secondo me, prosegui Caderbai mentre mangiavamo, è vero il contrario. Quello che conta è la percentuale di peccato in un crimine. Mi hai appena chiesto perché non facciamo affari con la prostituzione e la droga, come le altre organizzazioni. Ebbene, proprio per il peccato inerente a quei crimini. Per questo io non vendo donne, bambini, pornografia e droghe. Per questo non permetto crimini del genere nelle zone sotto il mio controllo. In casi del genere il peccato nel crimine è così grande che un uomo deve rinunciare alla propria anima in cambio del profitto. E se un uomo rinuncia alla propria anima, se diventa un uomo senza anima, gli serve come minimo un miracolo per riottenerla. Crede nei miracoli? Certamente. Nel profondo del cuore tutti crediamo ai miracoli. Io temo di no, dichiarai sorridendo. Sono sicuro di sì, insistette. Per esempio, non pensi che il tuo salvataggio dalla prigione di Arthur Road sia stato un miracolo. Devo ammettere che può sembrare un miracolo. E quando sei scappato dalla prigione in Australia, non è stato un evento miracoloso. Chiese paccatamente. Era la prima volta che menzionava la mia evasione. Ero sicuro che ne fosse informato, naturalmente, e che dovesse averci riflettuto parecchio. In realtà parlando dell'Australia alludeva a ciò che significava veramente avermi salvato dalla prigione di Arthur Road. In realtà mi aveva salvato da due prigioni, quella in India e quella in Australia, dove prima o poi mi avrebbero estradato, e gli ero doppiamente debitore. Sì, risposi scandendo le parole. Credo che sia stato una specie di miracolo. Se non hai obiezioni, voglio dire, se non lo ritieni troppo doloroso, mi piacebbe che mi raccontassi della tua foga in Australia. Ti confesso che per motivi personali la trovo molto affascinante, ne sono profondamente impressionato. Non c'è problema, risposi fissandolo negli occhi. Cosa vorresti sapere? Perché sei scappato? Caderbai era la prima persona a farmi quella domanda. Molti in Australia e Nuova Zelanda mi avevano chiesto dell'evasione. Volevano sapere come avevo fatto a scappare dalla prigione e come me l'ero cavata durante la fuga. Solo Cader mi aveva chiesto perché ero scappato. Nella prigione c'era un reparto punitivo. Le guardie che lo gestivano erano pazze. Non tutte, ma quasi. Ci odiavano. Nutrivano un odio folle nei confronti dei prigionieri. Non so perché, non riesco a spiegarmelo, ma era così. Ci torturavano quasi ogni notte, e io reagivo. Dovevo combatterli. È la mia natura, credo. Non sono il tipo d'uomo che riesce a incassare senza reagire. Naturalmente questo rendeva tutto più difficile. Perciò hanno cominciato ad accanirsi su di me, ed è stato. Piuttosto duro. Sono rimasto nelle loro mani, in quel reparto, solo per poco tempo. Ma avevo una lunga sentenza da scontare, e sapevo che prima o poi avrebbero trovato una ragione, o sarei stato così stupido da offrirgliela io stesso, per chiudermi di nuovo là dentro. Era molto probabile, credimi. Ho pensato che se finivo di nuovo nelle loro mani mi avrebbero torturato, e io avrei reagito, e alla fine probabilmente mi avrebbero ucciso. Perciò. Sono scappato. Come hai fatto? Dopo l'ultimo pestaggio, ho lasciato credere che mi avessero fatto a pezzi anche il morale. Mi hanno dato il tipo di lavoro che solo gli sconfitti possono fare. Un lavoro vicino al muro di cinta, dovevo spingere una carriola, fare piccole riparazioni. Al momento giusto ho tagliato la corda. Cader Bai ascoltava con attenzione. Mentre parlavo continuavamo a mangiare. Cader non mi interruppe mai. Mi fissava, e la luce sorridente nei suoi occhi era come un riflesso del fuoco che ardeva nei miei. Sembrava che apprezzasse sia la vicenda sia il mio modo di raccontarla. Chi era l'altro uomo, il tuo compagno di fuga? Un prigioniero che scontava una condanna per omicidio. Era un bravo uomo, un tipo generoso. Però non siete rimasti insieme? No, risposi distogliendo per la prima volta gli occhi da quelli di Cader Bai. Guardai l'ingresso del ristorante, osservando il flusso ritmico incessante della gente lungo la strada. Come potevo spiegare il motivo per cui avevo abbandonato il mio amico dopo la fuga, andandomene per la mia strada? Non lo sapevo bene neanch'io. Decisi di raccontare a Cader i fatti, lasciando che fosse lui a trarne le conclusioni. All'inizio ci siamo uniti a una banda di motociclisti. Il fratello minore del capo era stato in prigione con me. Era un ragazzo coraggioso, e circa un anno prima della mia fuga si era inimicato un uomo molto pericoloso. Non gli aveva fatto niente, ma a quel tipo dava fastidio il coraggio del ragazzo. Presi a cuore la faccenda, e salvai la pelle del ragazzo, che raccontò tutto al fratello maggiore, il capo della banda di motociclisti, il quale mi mandò a dire di essere in debito con me. Quando evasi andai a rifugiarmi da lui, e la banda accolse anche il mio compagno di fuga. Ci diedero armi, droga e denaro. Ci protessero e ci tennero nascosti per le prime due settimane, mentre gli sbirri passavano al setaccio la città per trovarci. Mi interruppi e ripulii il piatto dalle ultime tracce di cibo con un pezzo di roti alla farina di piselli. Caderbai finì il cibo nel suo piatto. Masticammo vigorosamente, osservandoci a vicenda con gli occhi che ardevano pieni di domande e riflessioni. Dopo due settimane, per l'esattezza era la tredicesima sera dal giorno della mia fuga, provai l'impulso irresistibile di visitare una persona, un mio vecchio insegnante, ripresi quando finimmo di mangiare. Era docente di filosofia nell'università della mia città. Un intellettuale ebreo, un uomo brillante e molto stimato. Non ho idea perché provai l'impulso di andare da lui. Non so spiegarmelo, ancora oggi non riesco a capirlo. Dovevo parlare con lui, tutto qua. Era una sensazione più forte di me. Così andai in città, rischiando la vita pur di incontrarlo. Lui disse che sapeva che sarei arrivato, mi stava aspettando. Mi avvertì che innanzitutto dovevo disfarmi delle armi. Cercò di convincermi che non mi sarebbero servite, e che se le avessi tenute mi avrebbero procurato solo guai. Mi esortò a rinunciare per sempre alle rapine a mano armata, il crimine per cui mi avevano arrestato. Disse che ormai avevo scontato i delitti che avevo commesso, ma che se li avessi ripetuti mi avrebbero ucciso o catturato immediatamente. Fa quello che credi per restare in libertà, disse, ma non commettere mai più quel crimine. Suggerì di separarmi dal mio amico, perché il mio compagno era rassegnato alla cattura, e se fossi rimasto con lui avrebbero preso anche me. Mi invitò a girare il mondo. E chiedi aiuto alla gente. Andrà tutto bene, non preoccuparti. La tua vita è una grande avventura, ed è appena cominciata. Feci un'altra pausa. Un cameriere si avvicinò al tavolo per portare via i piatti vuoti, ma Caderbae gli fece cenno di andarsene. Mi fissò con i suoi occhi dorati. Era uno sguardo deciso, ma anche incoraggiante, pieno di comprensione. Quando me ne andai, ci trovavamo nel suo ufficio all'università, sapevo che dopo quella breve conversazione era tutto cambiato. Tornai dalla banda di motociclisti e dal mio amico. Gli affidai le mie armi e dissi che dovevo andarmene. Fu catturato sei mesi più tardi, dopo uno scontro a fuoco con i poliziotti. Io sono ancora libero, per quanto possa essere libero un ricercato che non ha un posto al mondo dove andare. Ecco tutto. Adesso conosci la mia storia. Mi piacerebbe incontrare quell'uomo, disse lentamente Caderbae, quell'insegnante di filosofia. Ti ha dato un buon consiglio. Ma spiegami una cosa. So che l'Australia è un paese molto diverso dall'India, perché non torni là e informi le autorità delle torture che ti hanno inflitto in prigione? Forse così alla fine potresti tornare sano e salvo dalla tua famiglia. Da noi in prigione non si fa mai la spia, risposi, neanche contro i propri carnefici. Ma anche se tornassi in Australia per testimoniare contro le guardie, ammesso di trovare le prove, non è detto che servirebbe a qualcosa. Il sistema li proteggerebbe. Nessun uomo sano di mente si fida del sistema di giustizia creato dagli inglesi. Hai mai sentito di un ricco che si affida alla clemenza della corte? Impossibile. Nel mio caso il sistema difenderebbe gli aguzzini. La farebbero franca anche se avessi delle prove e io tornerei in galera, e sarei di nuovo in loro baglia. Mi sistemerebbero a dovere. Credo. Credo che mi ucciderebbero a calci nel reparto punitivo. Comunque non ci penso neanche. Non si tradisce la gente. Non si fa la spia per nessun motivo. Probabilmente è l'unico principio che ti resta quando ti chiudono in cella. Ma credi che quelle guardie continuino a torturare altri prigionieri, come hanno fatto con te? Sì, credo di sì. E tu potresti fare qualcosa per cercare di alleviare la loro sofferenza? Potrei. O forse no. Come ti dicevo, non penso che il sistema farebbe granché per difendere i detenuti. Tuttavia esiste una possibilità, anche se piccola, che ti ascoltino e mettano fine alle torture degli altri? C'è una possibilità, ma molto piccola. Ma è pur sempre una possibilità, vero? Sì, risposi in tono neutro. Dunque si può dire che in un certo senso sei responsabile delle sofferenze di altri uomini? Era una domanda offensiva, ma il tono era assolutamente gentile e comprensivo. Lo fissai negli occhi e debbi la certezza che non voleva offendermi o nuocermi. Cadermi aveva liberato dalla prigione indiana e, anche se indirettamente, da quella australiana di cui stavamo discutendo. Si può dire, risposi con calma, ma il principio non cambia. Non fai la spia per nessun motivo. Non sto cercando di fregarti o di metterti in imbarazzo, Ling. Tuttavia penso che grazie a questo esempio converrai che è possibile fare la cosa sbagliata per un motivo giusto. Sorrise per la prima volta da quando avevo iniziato a raccontargli della mia fuga. Ne riparleremo in seguito. Ho insistito tanto perché è un punto importante, e riguarda il modo in cui viviamo realmente le nostre vite, rispetto a come dovremmo viverle. Non occorre che ne parliamo adesso, ma sono certo che il problema riemergerà in un'altra discussione, e vorrei che te ne ricordassi. E per quanto riguarda il traffico di valuta. Chiesi cogliendo l'occasione per riportare l'argomento della conversazione dalla mia biografia alle concezioni morali di Cader Bay. Non rientra nella tua categoria di crimini e peccaminosi. No. Il traffico di valuta no, dichiarò con fermezza. Cader Bay aveva una voce profonda, le parole salivano dal diaframma al petto e passavano sonoramente attraverso la gola, come gemme in un bussolotto. Il risultato era un tono che risuonava con la devozione ipnotica di un recitatore di Corano anche quando parlava dei suoi crimini più redditizi. È il contrabbando d'oro? No. E neanche i passaporti. E neanche la pressione. Pressione era l'eufemismo che usava Cader Bay per descrivere il complesso sistema di interazioni fra la sua organizzazione criminale e la società in cui essa prosperava. Si trattava innanzitutto di tangenti, distribuite in un ampio assortimento che andava dalle speculazioni immobiliari basate su informazioni riservate alla concessione di appalti sontuosi. Cader Bay esercitava la sua pressione anche tramite il recupero crediti e il racket della protezione sulle attività commerciali nelle aree sotto il suo controllo e, naturalmente, con l'intimidazione, tramite la forza o il ricatto, di burrocrati e politici recalcitranti. Insomma, come si determina la percentuale di peccato presente in un crimine? Chi lo stabilisce? Il peccato è una misura del male, replicò piegandosi all'indietro per consentire al cameriere di togliere il piatto e le briciole sul tavolo di fronte a lui. D'accordo. Come fai a stabilire quanto male c'è in un dato crimine? Chi lo stabilisce? Se davvero vuoi parlare del bene e del male, dobbiamo fare una passeggiata e proseguire la nostra conversazione. Si alzò Ennazzir, il suo inseparabile compagno, lo seguì come un'ombra nel lavatoio, lavandino, rubinetto e uno specchio, alloggiato in una nicchia sul retro del ristorante. Si lavarono mani e faccia, si risciacquarono la bocca e sputtarono rumorosamente nel lavandino, come facevano tutti i clienti del ristorante a fine pranzo. Completata la stessa procedura, li raggiunsi e vidi Kaderbai che parlava con il proprietario del Saurab sul marciapiede davanti al ristorante. Quando si congedarono il proprietario abbracciò Kaderbai e gli chiese la sua benedizione. L'uomo era un hindu, e aveva sulla fronte il marchio della benedizione che aveva ricevuto in un tempio solo poche ore prima. Tuttavia quando Kaderbai gli strense le mani giunte e mormorò una benedizione islamica, il devoto hindu reagì con gioia e gratitudine. Ci incamminammo verso Colabba. Nazir, massiccio e scimmiesco, ci seguiva a circa un metro di distanza, tenendo d'occhio la strada. Al sassondoc attraversammo la strada e passammo sotto l'arco che sorgeva all'ingresso principale del vecchio arsenale. L'odore dei gamberi lasciati seccare al sole in alti mucchi rosa mi diede un urto allo stomaco, ma quando giungemmo in vista dell'acqua il tanfo fu disperso dalla intensa brezza marina. Avvicinandoci ai moli fumo costretti a farci strada in una calca di uomini che spingevano carretti e donne che trasportavano in equilibrio sulla testa ceste piene di ghiaccio e pesce. Le fabbriche che producevano il ghiaccio e lavoravano il pesce aggiungevano un sottofondo meccanico alle urla dei banditori e dei compratori. Al molo era ormeggiata una ventina di grandi barche da pesca di legno, identiche ai vascelli che cinquecento anni prima veleggiavano nelle acque del mare arabico, lungo la costa del Marastra. Qua e là, fra una barca e l'altra, erano alla fonda imbarcazioni più grandi e costose, in metallo. Il contrasto fra quelle carcasse arrugginite e sgraziate e le eleganti barche di legno raccontava una storia, una saga moderna, sul passaggio dal fascino romantico della vita marinaresca alla brama fredda e calcolata di profitto degli armatori. Sedemmo su una panchina di legno in un angolo tranquillo e ombroso del molo, dove a volte i pescatori si sedevano per dividere i loro pasti. Cader fisso i vascelli di legno che mossi dalla marea beccheggiavano genufle tendosi all'immensa distesa del mare. Aveva la barba e i capelli corti quasi completamente bianchi. La pelle ancora elastica del volto magro aveva il colore del grano maturo. Osservai il suo volto. Naso lungo e delicato, fronte ampia, labbra appena incurvate verso l'alto. Mi chiesi, non era la prima volta, e non sarebbe stata l'ultima, se l'amore per quell'uomo poteva costarmi la vita. Nazir, sempre vigile, rimase in piedi accanto a noi, scrutando il molo con la solita espressione corrucciata, ostile a tutto il mondo tranne che all'uomo seduto di fianco a me. La storia dell'universo è una storia di movimento, attaccò Caderbai continuando a fissare le barche che si scuotevano come cavalli alla briglia. L'universo che conosciamo, questa è solo una delle sue tante vite, cominciò con un'espansione così rapida e smisurata che possiamo parlarne, ma ci è impossibile capirla, o anche solo immaginarla. Gli scienziati la chiamano Big Bang, ma non fu un'esplosione paragonabile a quella di una bomba. Nei primi istanti dopo quella gigantesca espansione, nelle prime infinitesimali frazioni di secondo, l'universo era come una ricca zuppa fatta di ingredienti semplici. Talmente semplici da non essere ancora atomi. Mentre l'universo si espandeva e si raffreddava, quei piccoli elementi si unirono e formarono particelle. Poi le particelle formarono i primi atomi. Poi gli atomi costituirono le molecole. Poi le molecole si unirono e crearono le prime stelle. Le stelle eseguirono il loro ciclo, ed esplosero producendo una pioggia di nuovi atomi. I nuovi atomi si unirono e formarono altre stelle e pianeti. La materia di cui siamo fatti proviene da quelle stelle morenti. Siamo fatti di stelle. Fin qui mi segui? Certo, risposi sorridendo. Non so dove vuoi arrivare, ma fin qui tutto bene. Esattamente. Esclamò scoppiando a ridere. Fin qui tutto bene. Puoi verificare su qualsiasi testo scientifico. In effetti voglio che tu controlli tutto quello che dico, e tutto quello che impari dagli altri. Ma senza dubbio la scienza ha ragione, nei limiti di ciò che conosciamo. È un po' di tempo che studio questi argomenti con l'aiuto di un giovane fisico, e si tratta di dati sostanzialmente corretti. Sono felice di crederti sulla parola. Ero davvero felice, ma soprattutto di avere la rara opportunità di trovarmi in compagnia di Caderbai e godere di tutta la sua attenzione. Ebbene, nessuno dei processi di cui ho parlato può definirsi un evento casuale. L'universo ha una sua natura, se vogliamo simile alla natura umana. La natura dell'universo è di combinare, costruire, creare strutture via via più complesse. Agisce sempre in questo modo. Se le circostanze sono favorevoli, particelle di materia si uniranno per creare aggregati più complessi. Questa caratteristica del nostro universo, la tendenza a sviluppare un ordine, a creare combinazioni di elementi ordinati, ha un nome. La scienza occidentale la chiama tendenza alla complessità. È così che funziona l'universo. Tre pescatori in lungi e canottiera avanzarono timidamente verso di noi. Uno di loro portava due contenitori di vimini con bicchieri d'acqua e sciai fumante. Un altro reggeva un vassoio colmo di dolcissimi laddu. Il terzo teneva sui palmi delle mani un cilam e due goti di sciaraz. Desidera bere il tè, signore? Chiese educatamente in Indi uno degli uomini. Desidera fumare con noi? Caderbai sorrise e fece un cenno d'assenso oscillando il capo. I pescatori avanzarono in fretta, e porsero i bicchieri di sciai a Caderbai, a me e a Nazir. Si accovacciarono sul terreno di fronte a noi e prepararono il cilam. Caderbai ebbe l'onore di accendere la pipa, e a me toccò il secondo tiro. La pipa fece due volte il giro del gruppo, poi il terzo pescatore esalò un'ultima boccata di fumo azzurrino e svuotò il fornello mormorando, calas. Finito. Caderbai continuò a parlarmi in inglese. Ero sicuro che i tre pescatori non riuscissero a capirlo, ma rimasero con noi, fissando con attenzione il volto di Cader. Come dicevo, l'universo, così come lo conosciamo grazie ai dati in nostro possesso, è diventato sempre più complesso a partire dall'istante della sua nascita. Questo avviene perché è nella sua natura. La tendenza alla complessità ha portato l'universo da una semplicità quasi perfetta al tipo di complessità che vediamo tutto intorno a noi, ovunque volgiamo lo sguardo. L'universo è sempre in azione. Procede continuamente dalla semplicità alla complessità. Credo di capire dove vuoi arrivare. Caderbai scoppiò a ridere. I pescatori risero con lui. L'universo, proseguì, è partito da una semplicità quasi assoluta, e per quasi quindici miliardi d'anni è diventato sempre più complesso. Fra un miliardo d'anni sarà più complesso di come lo conosciamo ora. Fra cinque, dieci miliardi d'anni. Sarà sempre più complesso. L'universo progredisce verso una complessità assoluta. Procede verso. Qualcosa. Può darsi che noi non esisteremo. Può darsi che nella complessità assoluta non esisteranno più un atomo di idrogeno, una foglia, un essere umano, un pianeta. Tuttavia ci stiamo muovendo in quella direzione. Tutto nell'universo procede verso quella meta. E quella complessità suprema, la meta verso cui tutto è diretto, è ciò che ho scelto di chiamare Dio. Se non ti piace questa parola, Dio, chiama la complessità suprema. In ogni caso, qualsiasi nome tu decida di usare, l'intero universo procede verso quella meta. Non credi che nell'universo possa essere tutto molto più casuale? Chiesi cercando di anticipare lo sviluppo del ragionamento di Kader. Come giustifichi gli asteroidi giganti e cose del genere. Il nostro pianeta potrebbe essere fatto a pezzi da un asteroide gigante. Di fatto è una probabilità statistica non trascurabile. E il nostro sole è destinato a spegnersi. Non è forse l'opposto della complessità? La tua teoria come giustifica il fatto che il nostro complessissimo pianeta finirà a pezzi, si ridurrà di nuovo in atomi, e il sole si spegnerà? Buona domanda, rispose Kaderbai. Il sorriso soddisfatto mise in mostra i denti leggermente distanziati, color avorio. La discussione lo appassionava, e mi resi conto di non averlo mai visto Kaderbai così esaltato ed entusiasta. Agitava le mani nell'aria per illustrare o sottolineare i suoi argomenti. È vero, la Terra potrebbe finire in frantumi, e un giorno il nostro bel sole si spegnerà. E, per quanto ci è dato sapere, noi esseri umani siamo la manifestazione più sviluppata della complessità in questo angolo di universo. Sarebbe senza dubbio una grave perdita se venissimo distrutti, sarebbe un terribile spreco del processo di sviluppo. Tuttavia il processo continuerebbe. Noi siamo espressione di quel processo. I nostri corpi sono figli di tutti i sole e di tutte le stelle che con la loro distruzione hanno fornito gli atomi di cui siamo composti. E se venissimo annientati da un asteroide, oppure ci distruggessimo con le nostre stesse mani, ebbene, in un altro punto dell'universo il nostro livello di complessità, un livello di complessità dotato di coscienza in grado di capire il processo, verrebbe duplicato. Non intendo dire che ci sarebbe gente esattamente uguale a noi. Intendo dire che da qualche altra parte nell'universo si svilupperebbero esseri pensanti complessi. Noi cesseremmo di esistere, ma il processo continuerebbe. Forse mentre siamo qui a parlarne, sta accadendo in milioni di mondi. In effetti è molto probabile che si stia verificando in tutto l'universo, perché è così che funziona l'universo. Scoppiai a ridere. Ok, ok. Lasciami indovinare, vorresti dire che tutto ciò che aiuta questo processo è bene, giusto? Mentre tutto quello che va nella direzione opposta è male, «Na». Caderbai mi fissò con un sopracciglio sollevato in un'espressione di stupore o disapprobazione. O forse il suo volto severo esprimeva entrambe le emozioni allo stesso tempo. Era un'espressione che avevo visto più di una volta sul volto di Carla. Forse Caderbai pensava che il mio tono vagamente scherzoso fosse troppo irriverente. Non intendeva esserlo. Era semmai una sorta di autodifesa, perché non riusciva a trovare punti deboli nel suo ragionamento, ed ero profondamente impressionato dalla sua teoria. Ma forse Caderbai era semplicemente stupito. Molto tempo dopo mi disse che uno dei motivi per cui gli ero piaciuto fin dall'inizio era che non avevo paura di lui, spesso la mia temerarietà, che rasentava l'impudenza o la follia, lo lasciava interdetto. Qualunque fosse la causa del sorrisetto e del sopracciglio inarcato, ci volle un certo tempo prima che Caderbai riprendesse a parlare. In sostanza, hai ragione. Tutto ciò che potenzia, facilita o accelera il movimento verso la complessità suprema e bene, disse scandendo le parole in modo così lento e accurato che fui certo che doveva averle pronunciate molte altre volte. Tutto ciò che ostacola, rallenta o previene il movimento verso la complessità suprema e male. Il bello di questa definizione del bene e del male è che è allo stesso tempo oggettiva e universalmente accettabile. È possibile che esista qualcosa di veramente oggettivo? Chiesi, credendo di essere finalmente approdato su un terreno più sicuro. Quando diciamo che questa definizione di bene e male è oggettiva, intendiamo che è oggettiva per quanto possiamo esserlo in questo momento, in base alla conoscenza che abbiamo dell'universo. La definizione si fonda su ciò che conosciamo del suo funzionamento. Non deriva dalla saggezza rivelata di un credo religioso o di un'ideologia politica. Ha dei punti in comune con le migliori dottrine religiose e politiche, ma si basa su ciò che conosciamo, non su ciò che crediamo. Da questo punto di vista è oggettiva. Naturalmente ciò che conosciamo dell'universo e della nostra condizione al suo interno muta di continuo, a mano a mano che otteniamo nuove informazioni e sviluppiamo nuove idee. È impossibile essere del tutto oggettivi, è vero, ma possiamo esserlo in misura maggiore o minore. Se definiamo bene e male in base a ciò che conosciamo, in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili, siamo oggettivi per quanto possibile entro i limiti imperfetti della nostra comprensione. Sei d'accordo su questo punto? Se dici che per oggettivo non intendi assolutamente oggettivo, sì, sono d'accordo. Ma com'è possibile che i seguaci delle diverse religioni, per non parlare di atei e agnostici, o di quelli che come me sono totalmente confusi, possono considerare una qualunque definizione universalmente accettabile? Non vorrei sembrare offensivo, ma penso che la maggior parte dei credenti sia troppo convinta dei privilegi esclusivi che ottiene dalle proprie ipoteche su Dio e il Paradiso per potersi mai trovare d'accordo su argomenti del genere. È un'osservazione corretta, non mi sento offeso, disse pensieroso Kaderbai, fissando i pescatori seduti ai suoi piedi. Scambiò un grande sorriso con i tre uomini e proseguì. Quando diciamo che questa definizione di bene e male è universalmente accettabile intendiamo che ogni persona razionale, sia essa hindu, musulmana, buddista, cristiano o atea, può convenire che si tratta di una definizione ragionevole, perché è basata su ciò che conosciamo dell'universo. Credo di capire ciò che intendi dire, dissi dopo che Kaderbai rimase in silenzio, ma proprio non riesco a seguirti quando si tratta della fisica dell'universo. Com'è possibile accettarla come base della nostra moralità? Forse con un esempio riuscirò ad essere più chiaro, Ling. Userò l'analogia del sistema con cui si misura la lunghezza, perché è molto pertinente. Penso che converrai che è necessario avere una misura di lunghezza comune, vero? Intendi dire metri, yard e così via? Precisamente. Se non avessimo un criterio comune per misurare la lunghezza, sarebbe impossibile stabilire quanta terra appartiene all'uno o all'altro, o come tagliare le travi di legno per costruire una casa. Sarebbe il caos. Combatteremmo per il terreno, e le case crollerebbero. Dall'inizio della nostra storia abbiamo sempre cercato di stabilire un sistema comune per misurare la lunghezza. Sei ancora disposto ad accompagnarmi in questo piccolo viaggio della mente? Sono con te, dissi ridendo, chiedendomi dove volesse condurmi Caderbai con il suo nuovo ragionamento. Bene. Dopo la rivoluzione francese, scienziati e funzionari di governo decisero di dare un senso ai sistemi di misura. Introdussero un sistema decimale basato su un'unità di lunghezza che chiamarono metre, dal greco metron, che significa misura. Ok. All'inizio stabilirono che la lunghezza di un metro fosse un decimilionesimo della distanza fra Equatore e Polo Nord. Tuttavia i calcoli si basavano sul fatto che la Terra fosse una sfera perfetta, e oggi sappiamo che non è così. Perciò fu necessario trovare un altro sistema, e si decise di fissare la distanza fra due linee molto sottili su una barra di una lega al platino iridio. Platino. Iridio. Proprio così. Una lega estremamente robusta. Tuttavia una barra di platino iridio, anche se molto lentamente, decade e si riduce, per cui l'unità di misura muta di continuo. In tempi più recenti gli scienziati hanno capito che fra un migliaio di anni la barra di platino iridio che usavano come unità di misura potrebbe avere una lunghezza differente rispetto a oggi. È un problema grave? Non per la costruzione di case e ponti, rispose Caderbai prendendo la mia domanda più seriamente di quanto intendessi. Ma non sarebbe abbastanza accurata per gli scienziati? Azzardai rinunciando all'ironia. Esatto. Gli scienziati cercavano un parametro immutabile con cui misurare gli altri oggetti. Dopo diversi tentativi, e usando varie tecniche, la misura standard del metro è stata stabilita solo l'anno scorso, e la distanza che un fotone copre nel vuoto in un 300 millesimo di secondo. Ovviamente questo pone il problema di come un secondo possa essere considerato una misura del tempo. È una storia non meno affascinante. Se vuoi posso raccontartela, prima che ritorniamo a occuparci del metro. Per il momento le misure di lunghezza possono bastarmi, dichiarai scoppiando di nuovo a ridere mio malgrado. Molto bene. Credo che a questo punto tu capisca cosa intendevo dire, evitiamo il caos, nel costruire le case, nel dividere la terra, e così via, grazie a una misura di lunghezza standard accettata da tutti. L'abbiamo chiamata metro, e dopo numerosi tentativi abbiamo deciso come stabilire la lunghezza dell'unità base. Allo stesso modo, possiamo evitare il caos nel mondo degli affari umani solo con un'unità di misura standard di ciò che consideriamo morale. Sì, ti seguo. Al momento i modi in cui definiamo la qualità morale di un'azione sono per la maggior parte simili nell'intenzione, ma diversi nei dettagli. Perciò i preti di una nazione benedicono i loro soldati che vanno alla guerra, mentre gli imam di un'altra nazione benedicono i loro soldati che vanno ad affrontarli. E tutti quelli coinvolti nella carneficina sostengono che Dio è dalla loro parte. Non esiste una definizione oggettiva universalmente accettabile del bene e del male. Finché non la troveremo, continueremo a giustificare le nostre azioni e a condannare quelle degli altri. Per cui proponi di usare la fisica dell'universo come se fosse una specie di barra di platino iridio. Direi di sì, anche se in verità sono convinto che la nostra definizione sia più vicina all'accuratezza del fotone che a quella della barra di platino iridio. Penso che se cerchiamo un modo oggettivo di misurare il bene e il male, un sistema che tutti possano trovare ragionevole, non possiamo fare di meglio che usare come parametro la natura stessa dell'universo. Lo confermano tutti i testi sacri delle grandi religioni. Il Corano, per esempio, esorta spesso a studiare i pianeti e le stelle per trovare verità e significato. Sono costretto a ripetere la mia domanda, perché usare la tendenza alla complessità anziché un altro criterio? Non c'è comunque una scelta arbitraria? Non vorrei sembrare ottuso, ma continuo a sembrarmi un sistema arbitrario. Capisco i tuoi dubbi, disse Cader Bay sorridendo e alzando per un istante gli occhi all'orizzonte, verso il confine tra cielo e mare. Anch'io quando ho iniziato questo percorso ero molto scettico. Ma ormai sono convinto che per il momento non c'è modo migliore di definire bene e male. Non significa che sarà sempre la migliore definizione. Anche per misurare il metro in futuro si scoprirà un sistema migliore. In effetti il sistema più accurato al momento misura la distanza che un fotone copre nel vuoto. Ma sappiamo che quella di vuoto è una definizione relativa. Nel vuoto avvengono continuamente numerosissime reazioni. Sono certo che in futuro si troverà un sistema migliore per misurare il metro, ma al momento questo è il migliore disponibile. Per quanto riguarda la morale, la tendenza alla complessità, l'universo funziona in questo modo dappertutto, e da sempre, è il sistema migliore che possiamo usare per essere oggettivi sul bene e il male. Usiamo questo criterio, e non un altro, perché è quello più generale. Abbraccia l'intero universo, e tutta la sua storia. Se tu potessi propormi un modo migliore per valutare oggettivamente il bene e il male, in grado di includere gli uomini di tutte le fedi e i non credenti, nonché l'intera storia dell'intero universo, sarei estremamente felice di sentirlo. Bene, bene. Insomma, l'universo procede verso Dio, o verso una specie di complessità suprema. Tutto ciò che aiuta questo processo è bene. Tutto ciò che l'ostacola è male. Rimane il problema di chi giudica cosa è bene e cosa è male. Come facciamo a saperlo? Come stabiliamo se un'azione aiuta oppure ostacola il processo? Buona domanda. Caderbai si alzò e si raviò le pieghe degli ampi calzone di lino e della tunica ticotone lunga fino alle ginocchia. In effetti è la domanda giusta. E al momento opportuno ti darò una buona risposta. Si avvicinò ai tre pescatori che si erano alzati insieme a lui e aspettavano attenti. Per un attimo mi illusi di averlo messo in difficoltà con la mia domanda. Ma era solo presunzione, che si dissolse mentre lo guardavo parlare con i tre pescatori scalzi. Ogni affermazione di Caderbai era l'espressione di una certezza apodittica. La sua sicurezza di sé, assoluta e incrollabile, si manifestava persino nei silenzi. Ero certo che aveva una risposta alla mia domanda, e sapevo che l'avrei ricevuta quando lui l'avesse giudicato opportuno. Mi alzai anch'io, e cercai di seguire la conversazione di Cader con i pescatori. Domandò se avevano delle lamentele da fare, se qualcuno era stato prepotente con i poveri del molo. Rispose Rodino, e Cader si informò se c'era lavoro per tutti, se il lavoro era equamente distribuito fra i più bisognosi. Rassicurato anche su questo punto, chiese notizie delle famiglie e dei figli dei pescatori. Alla fine cominciarono a parlare della flotta di pescherecci del Sassondoc. Gli raccontarono delle onde di tempeste alte come montagne, delle fragili imbarcazioni, delle amicizie che nascevano in mare e degli amici che si perdevano in mare. Cader raccontò dell'unica volta che si era spinto a largo in una barca da pesca di legno come la loro. Era scoppiata una tempesta, si era legato alla barca, e non aveva smesso di pregare finché non aveva avvistato la terraferma. I pescatori risero e quando si congedarono cercarono di sfiorargli i piedi in segno di rispetto, ma Cader Bae li sollevò per le spalle e strinse le mani a tutti, uno dopo l'altro. Quando ci separammo si allontanarono con la schiena dritta e la testa alta. Come ti sei trovato con Khaled? Chiese Cader Bae mentre camminavamo sul molo diretti alla macchina. Molto bene. Khaled mi piace. Mi piaceva lavorare con lui. Sarei rimasto volentieri con lui, se non mi avessi mandato a lavorare con Maid. E con lui come va? Come ti trovi con il nostro Maid? Esitai. Carla un giorno disse che gli uomini rivelano ciò che pensano quando distolgono lo sguardo, e ciò che sentono quando appaiono esitanti. Per le donne, aggiunse, è vero il contrario. Sto imparando ciò che mi serve. È un buon insegnante. Però con Khaled Ansari avevi un rapporto più stretto, vero? Era vero. Khaled era rabbioso, e una parte del suo cuore era sempre piena d'odio, tuttavia mi piaceva. Maid era gentile, paziente e generoso nei miei confronti, ma suscitava in me solo una vaga e oscura sensazione di disagio. Dopo quattro mesi nel business valutario Kader Bai aveva deciso che dovevo imparare il contrabbando d'oro e mi aveva mandato da Maid Rustem. Nella sua casa sul mare, nel quartiere esclusivo di Yu, avevo scoperto i molti modi in cui si traffica l'oro in India. La formula di Khaled, avidità e controllo, era valida anche per quel tipo di traffico. I rigidi controlli imposti dal governo sull'importazione d'oro si scontravano con l'insaziabile avidità degli indiani per il prezioso metallo. Maid controllava le ingenti importazioni d'oro di Kader Bai, dirigeva il traffico da quasi dieci anni. Con inesauribile pazienza mi aveva insegnato tutto ciò che dovevo conoscere sull'oro e l'arte di contrabbandarlo. I suoi occhi scuri non smettevano di fissarmi da sotto le folte sopracciglia grigie durante le interminabili ore di lezione. Anche se aveva ai suoi ordini un vasto numero di uomini senza scrupoli, e all'occorrenza sapeva essere spietato, i suoi occhi catarrosi mi guardavano sempre con un'espressione gentile. Eppure Maid mi dava quella sensazione di disagio, come un oscuro presentimento. Quando me ne andavo da casa sua, alla fine delle lezioni, provavo sempre un profondo senso di sollievo, un sollievo che mi ripuliva la mente dal suono della sua voce e dall'immagine del suo volto proprio come l'acqua mi avrebbe lavato una macchia di sporco dalle mani. No, con Maid non c'è nessun rapporto personale, ma come dicevo è un buon maestro. Mi piaci, Limbabba, commentò Caderbai modulando con la sua voce profonda il nome con cui mi chiamavano allo slum. Arrossì per l'emozione. Era come se fosse stato mio padre a pronunciare quelle tre parole, tuttavia erano parole che il mio vero padre non aveva mai detto. L'effetto di quella semplice frase mi fece capire quanto potere Caderbai avesse su di me. Ormai aveva assunto nel modo più totale il ruolo di un padre. In un recesso profondo del cuore una parte di me, il ragazzino che ero stato, desiderava che Caderfesse mio padre, il mio vero padre. Come sta Tariq? Domandai. Molto bene, nusch cura là, grazie a Dio. Mi manca. È un ragazzo in gamba. Avevo nostalgia di Tariq, e in quel sentimento si sommavano la nostalgia di mia figlia, della mia famiglia e dei miei amici. Anche a lui manchi, disse lentamente Cader, quasi con una sfumatura di rammarico. Dimmi, Lin, che cosa vuoi? Perché sei qui? Che cosa vuoi veramente qui a Bombai? Eravamo quasi arrivate all'auto. Nazir ci precedette per aprire le portiere e avviare il motore. Io e Cader ci fermammono accanto all'altro, fissandoci negli occhi. Voglio essere libero, dichiarai. Ma sei libero, ribatte Caderbai. Non direi. Ti riferisci all'Australia? Sì. Non solo, ma in gran parte sì. Non preoccuparti. A Bombai sei al sicuro. Ti do la mia parola. Finché lavori per me, finché porti quella medaglietta al collo, nessuno ti farà del male. Qui sei al sicuro, insalla. Mi strinse le mani fra le sue e mormorò una benedizione proprio come aveva fatto con il proprietario del Saurab. Lo accompagnai alla macchina e lo guardai mentre si chinava per entrare nell'abitacolo. Su un muro sudicio poco lontano qualcuno aveva scritto il nome Sapna. La vernice era relativamente fresca, non doveva avere più di una settimana. Se Cader si accorse della scritta non lo diede a vedere. Nazzir chiuse la portiera del passeggero e si affrettò verso il posto di guida. La settimana prossima voglio che cominci a occuparti di passaporti con il mio amico Ghani, annunciò Caderbai. Nazzir avviò il motore e attese l'ordine di partire. Penso che la troverai un'attività interessante. Caderbai continuò a sorridermi mentre la macchina si allontanava, ma fu il grugno di Nazzir a rimanermi impresso. A quanto pareva quell'uomo mi odiava, e presto o tardi saremmo arrivati alla resa dei conti. Il fatto che aspettassi con ansia il momento di battermi con Nazzir la diceva lunga su quanto mi sentissi smarrito e solo nel mio esilio. Era più basso di me, ma altrettanto forte, e forse più pesante. Sarebbe stato un bello scontro. Archiviai fondamentalmente il combattimento con Nazzir fra le pratiche urgenti, fermai un taxi e mi feci accompagnare verso l'area di Fort. Era il distretto commerciale di tipografi, cartolai, magazzinieri e piccole fabbriche, che servivano i quartieri di uffici tutti intorno. I palazzi e le stradine di Fort erano tra i più antichi della città. L'atmosfera di un'altra epoca, un'epoca di cortesie rigide e formali, indugiava negli uffici legali, nelle case editrici e nelle altre imprese che da decenni potevano vantare un ufficio di rappresentanza a Fort. Da poco tempo nel quartiere si era aggiunta l'agenzia di viaggi che Cader Bay possedeva tramite un prestanome, e che era diretta da Maid Rustem. L'agenzia organizzava i viaggi delle migliaia di uomini e donne che lavoravano a contratto negli stati del Golfo. Sul piano legale l'agenzia si occupava di biglietti aerei, visti, permessi di lavoro e alloggi. Clandestinamente, invece, gli agenti di Maid facevano in modo che molti lavoratori al ritorno in India indossassero da 100 a 300 grammi d'oro a teste in braccialetti, spille, catene e anelli. L'oro arrivava nei porti del Golfo da diverse provenienze. Una parte era acquistata legalmente all'ingrosso, ma la maggior parte era rubata. Tossicodipendenti, borseggiatori e scassinatori in Europa e in Africa rubavano gioielli e li vendevano a spacciatori e ricettatori. Una percentuale dell'oro rubato a Francoforte, Johannesburgo Londra arrivava clandestinamente nei porti del Golfo. Gli uomini di Kaderbai a Dubai, Abu Dhabi, Barain e in tutte le altre capitali del Golfo fondevano l'oro in massicce catene, spille e braccialetti. Per una modesta ricompensa i lavoratori a contratto indossavano i gioielli al loro ritorno in India, e i nostri uomini li recuperavano all'aeroporto internazionale di Bombay. Ogni anno l'agenzia di viaggi nell'area di Forto organizzava il trasferimento di almeno 5.000 lavoratori a contratto. All'occorrenza l'oro che trasportavano era rilavorato in un piccolo laboratorio vicino all'agenzia e venduto allo Zaveri Bazar, il mercato dei gioielli. Il profitto dei traffici era superiore a 4 milioni di dollari l'anno, esenti da tasse, e i manager anziani di Kaderbai erano persone ricche e stimate. Mi presentai al banco della Transact Travel Agent Chi. Maide era fuori, ma i tre impiegati erano indaffarati. Quando avevo imparato come funzionava il contrabbando d'oro, avevo suggerito che l'agenzia di Kaderbai informatizzasse gli archivi. In questo modo avremmo potuto disporre di un database dei lavoratori a contratto che avevano portato a termine con successo una missione. Kaderbai aveva approvato la proposta e il personale era occupato a trasferire nei computer gli archivi cartacei. Constatai soddisfatto che il lavoro procedeva per il meglio. Scambiai quattro chiacchiere con gli impiegati, ma visto che Maide non tornava andai a cercarlo nel piccolo laboratorio accanto all'agenzia. Quando entrai nel laboratorio Maide mi accolse con un sorriso e tornò a concentrarsi sulla bilancia. Collane e braccialetti, divisi in base alle dimensioni, venivano pesati prima singolarmente, poi a mucchi. Le quantità venivano notate in un libro mastro, e venivano confrontate con un registro allo Zaveri Bazar. Neanche due ore dopo la discussione sul bene e il male con Kaderbai, osservai le pile di catene e braccialetti massicci pronte a essere pesate e catalogate e provai un'intensa sensazione di disagio. Ero contento che Kaderbai mi avesse ordinato di lasciare Maide per cominciare a lavorare con Abdul Ghani. Il metallo prezioso che eccitava milioni di indiani mi dava la nausea. Mi era piaciuto lavorare insieme a Kaledanzari al traffico di valuta. Sapivo anche che mi sarebbe piaciuto lavorare con Abdul Ghani nel business dei passaporti, tutto sommato era un'attività congeniale a un fuggitivo. Invece lavorare con simili quantità d'oro era inquietante. L'oro accende gli occhi d'avidità. Il denaro è quasi sempre un mezzo per raggiungere un fine, ma per molti l'oro è un fine in sé, un amore perverso che rovina il buon nome di un sentimento elevato. Presi definitivamente con Gedo da Maide. Mi limitai a dirgli che Kaderbai mi aveva destinato a un altro incarico, senza aggiungere che avrei cominciato a lavorare con Abdul Ghani nel traffico di passaporti. Maide e Ghani erano membri del consiglio mafioso di Kaderbai. Ero certo che conoscessero ogni decisione che mi riguardava ben prima che mi fosse comunicata. Ci stringemmo la mano. Maide venne verso di me nel tentativo goffo e rigido di abbracciarmi. Sorrise e mi augurò buona fortuna. Era un sorriso forzato, ma privo di cattiveria. Maide era il tipo d'uomo che pensa sia possibile sorridere a comando. Lo ringraziai per la sua pazienza, ma non ricambiai il sorriso. Feci il mio ultimo giro fra i gioiellieri dello Zaveri Bazar, tormentato da una frenetica sensazione di irrequietezza. Era il tipo di rabbia immotivata che spesso si accompagna a un senso di futilità, un'ansia che spinge a serrare i pugni e a sbarrare gli occhi, un male comune per chi sente di avere sprecato la propria vita. Avrei dovuto essere felice, o quanto meno più felice di quanto mi sentissi. Lavorare per Caderbae mi garantiva l'incolumità. Guadagnavo bene. Lavoravo ogni giorno fra mucchi d'oro alti un metro. Stavo per imparare tutto quello che mi serviva sul traffico di passaporti. Potevo comprarmi ciò che volevo. Ero in buona forma fisica, sano e libero. Avrei dovuto essere più felice. La felicità è un mito, mi aveva detto Carla, inventato per farci comprare cose inutili. Le sue parole emersero come schiuma nel cupo torrente delle mie riflessioni, mi ricordai il suo volto e la sua voce, e pensai che forse dopo tutto aveva ragione. Poi pensai a Caderbae che solo poche ore prima mi aveva parlato come a un figlio. Mi aveva reso felice, non potevo negarlo. Eppure non era sufficiente, per quanto fosse stata una sensazione profonda e pura, non era stata abbastanza forte da sollevarmi il morale. Quel giorno l'allenamento quotidiano con Abdullah fu particolarmente intenso. Il mio compagno accettò il mio umore taciturno, e affrontammo la nostra impegnativa serie di esercizi in silenzio. Dopo una doccia, si offrì di accompagnarmi a casa in moto. Lasciamo la costa di Breach-Candy e percorremmo August-Cranti-Marg diretti verso l'entroterra. Eravamo senza casco, un torrente d'aria calda e secca ci gonfiava i capelli e le ampie camice di seta. All'improvviso Abdullah fissò con attenzione un gruppo di uomini in piedi davanti a un caffè. Mi sembravano iraniani come lui. Abdullah fermò la moto a una trentina di metri dal gruppo. Tu resta qui, disse seccamente. Spense il motore ed estrasse il cavalletto con un calcio, senza distogliere gli occhi dal gruppo. Se si mette male, prendi la moto e fila via. Abdullah si avviò verso il caffè. Mentre camminava sul marciapiete si raccolse i capelli e li legò con un elastico, poi si sfilò l'orologio dal polso. Tolsi le chiavi dalla moto e lo seguì. Uno degli uomini riconobbe Abdullah, e avvisò gli altri, che si voltarono di scatto. Il combattimento iniziò senza una parola. Gli uomini si scagliarono contro Abdullah, agitandosi furiosamente e ostacolandosi a vicenda nella smania di colpirlo. Abdullah mantenne la posizione, riparandosi la testa con i pugni stretti saldamente sulle tempie. Quando la furia dell'attacco iniziale diminuì, Abdullah cominciò a colpire a destra e a sinistra, portando a segno ogni pugno. Corsi ad aiutarlo, e gli strappai un avversario che lo aveva agguantato alla schiena. Feci lo sgambetto all'aggressore, tirandolo sulla mia gamba tesa finché perse l'equilibrio. Cercò di divincolarsi, e mi trascinò a terra con lui. Caddi tenendogli premuto un ginocchio sul petto, e lo colpì con un pugno all'inguine. Fece per alzarsi ma lo colpì di nuovo quattro o cinque volte sulle guance e alla giuntura della mascella. Rotolò su un fianco e rimase raggomitolato con le ginocchia contro il petto. Alzai gli occhi e vide Abdullah che respingeva uno degli attaccanti con un gancio destro da manuale, che spiaccicò il naso del rivale in un'improvvisa esplosione di sangue. Balzai in piedi, mimisi alle spalle di Abdullah e assunsi una postura da karate. I tre uomini rimasti in piedi indietreggiarono, incerti sul da farsi. Abdullah li caricò urlando a squarciagola, e i suoi avversari girarono i tacchi e si diedero alla fuga. Guardai Abdullah, che scrollò la testa. Li lasciamo andare. La folla di indiani che si era radunata per assistere al combattimento ci seguì con lo sguardo mentre ritornavamo alla moto. Sapevo che se ci fossimo battuti con degli indiani, di qualsiasi parte dell'India, e di qualsiasi etnia, religione o classe sociale, tutti i passanti si sarebbero scagliati contro di noi. Siccome era un combattimento fra stranieri, gli spettatori erano curiosi e persino eccitati, ma non avevano alcuna intenzione di farsi coinvolgere. Quando partimmo in moto verso Colaba, la folla cominciò a disperdersi. Abdullah non mi rivelò mai il motivo della rissa, e io evitai sempre di chiederglielo. L'unica volta che ne riparlammo, anni dopo, disse che quel giorno avevo cominciato a piacergli sul serio, e non perché lo avessi aiutato nel combattimento, ma perché non gli avevo chiesto spiegazioni. Disse che il mio modo di fare in quella circostanza suscitava tutta la sua ammirazione. Sulla Colaba causevai, poco lontano da casa mia, chiesi ad Abdullah di rallentare. Avevo notato una ragazza che, come fanno gli indiani, camminava lungo la strada per evitare la calca sul marciapiedi. Era cambiata, aveva un aspetto diverso, ma riconobbi i capelli biondi, le gambe lunghe e belle, l'andatura dinoccolata. Era Lisa Carter. Chiesi ad Abdullah di fermarsi davanti a lei. Ciao, Lisa. Ah, sei tu, Gilbert, sospirò sollevando gli occhiali da sole e appoggiandoli sulla testa. Come va la vita l'ambasciata? Oh, sai, risposi ridacchiando, una crisi qua, un salvataggio là. Sembri in gran forma, Lisa. I capelli biondi erano più lunghi e folti rispetto all'ultima volta che l'avevo vista. Il viso era più pieno e colorito, ma la figura era snella e atletica. Indossava una canottiera bianca e una minigonna dello stesso colore, e dei sandali con i lacci. Le gampe e le braccia affusolate erano abbronzate, di un colore noce dorato. Era bellissima. Ho smesso di fare stronzate e mi sono curata, ringhiò imbronciata nonostante il sorriso radioso e fasullo. Che dire? Non si può avere tutto, bisogna fare delle scelte. Se sei sobrio e in forma, puoi fottere il mondo, anziché farti fottere. L'idea è questa, dissi ridendo fino a contagiare Lisa. Chi è il tuo amico? Abdullata eri, ti presento Lisa Carter. Lisa, ti presento Abdullà. Bella moto, mormorò sua dente. Ti piacerebbe? Fare un giro? Chiese Abdullà mettendo in mostra i denti forti e candidi. Lisa mi guardò, io alzai le mani al cielo come per dire, adesso cammini con le tue gambe, piccola, e scesi dalla moto. Questa è la mia fermata, annunciai. Lisa e Abdullà continuavano a fissarsi. Se vuoi c'è un posto libero. Ok, perché no? Disse sorridendo Lisa. Si arrotolò la gonna e salì sul sellino della moto. I due o tre passanti che non la stavano già fissando si unirono al coro di centinaia di occhiate. Abdullà mi strinse la mano, sorridendo come uno scolaretto. Inserì la marcia e partì rombando in mezzo al traffico. Bella moto, disse una voce alle mie spalle. Era George Melli. Sì, ma quelle infiel non sono mica tanto sicure, rispose un'altra voce con un forte accento canadese. Era George Scorpione. Vivevano sulla strada, dormivano nei portoni e sopravvivevano con le commissioni che riuscivano a spuntare dai turisti in cerca di droghe pesanti. Si vedeva. Erano sporchi, sciatti, con la barba incolta. Tuttavia erano anche intelligenti, onesti e assolutamente leali l'uno all'altro. Salve ragazzi. Come va? Bene, figliolo, molto bene, rispose George Melli con la tipica cantilena di Liverpool. Sai, abbiamo un appuntamento con un cliente verso le sei del mattino. Tocchiamo ferro, aggiunse Scorpione preoccupato. Dovrebbe filare tutto liscio, disse Allegro Gemelli. È un buon cliente. Sono soldi facili. Se qualcosa non va storto, ribadì Scorpione, pensieroso. Devono avere messo una pozione nell'acqua, borbottai osservando un riflesso della camicia bianca di Abdullah, o della minigonna di Lisa, svanire in lontananza. Cosa? Chiese Gemelli. Oh, niente. È che negli ultimi tempi sembra che tutti si innamorino facilmente. Pensavo a Prabhakar, a Vikram e a Johnny Cigar. Avevo riconosciuto la stessa espressione negli occhi di Abdullah mentre si allontanava in moto. Non era semplice attrazione. A proposito. Che ne pensi della motivazione sessuale, Ling? Chiese Scorpione. Prego? Beh. Si fa per dire, fece con aria allusiva Gemelli, strizzando un occhio maliziosamente. Andiamo. Cerca di essere serio, per una volta, lo riprese Scorpione. Motivazione sessuale, Ling. Che ne pensi? Insomma. Cosa intendi esattamente? Sai, abbiamo avuto un dibattito. Una discussione, lo corresse Gemelli. Non un dibattito. Si discute, non si dibatte. Abbiamo avuto una discussione sugli impulsi che danno una motivazione alla gente. Ti avverto, Ling, disse Gemelli sospirando rumorosamente. È due settimane che ne discutiamo, e Scorpione non vuole sentire ragione. Come dicevo, si discuteva su ciò che motiva le persone, insistette Scorpione. Il suo modo di fare professorale e l'accento canadese si combinavano producendo uno stile simile a quello della voce fuori campo di un documentario naturalistico, stile che irritavano un poco il suo compare inglese. Capisci, secondo Freud siamo motivati da impulsi sessuali. Adler non era d'accordo, sosteneva che l'impulso fondamentale è la ricerca di potere. Poi è venuto Victor Franchi, e ha detto che sesso e potere sono impulsi importanti, ma non fondamentali. Se mancano, rimane qualcosa in grado di darci una motivazione. Sì, sì, la ricerca di significato, aggiunse Gemelli. Che è poi sempre la stessa cosa detta in altre parole. L'impulso al potere esiste perché con il potere otteniamo il sesso, e la ricerca di significato ci aiuta a capire il sesso. Alla fine è sempre una questione di sesso, comunque la chiami. Le altre idee sono solo vestiti, per così dire. E quando ti togli i vestiti rimane solo una questione di sesso, dico bene. No, ti sbagli, obiettò Scorpione. Cerchiamo tutti un significato nella vita. Dobbiamo capire cosa ci stiamo a fare a questo mondo. Se fosse solo una questione di sesso e potere saremmo ancora degli scimpanze. È la ricerca di significato che ci fa esseri umani. È il sesso che fa gli esseri umani, Scorpione, disse Gemelli accentuando ancora di più il ghigno malizioso, ma è passato tanto tempo che probabilmente te ne sei dimenticato. Un taxi si fermò di fianco a noi. Il passeggero rimase per un attimo nascosto nell'ombra, poi si sporse lentamente dal finestrino. Era Ulla. Lin, disse trafelata. Mi serve il tuo aiuto. Aveva un paio di occhiali da sole neri calati sugli occhi, e i capelli biondo cenere nascosti sotto un fullard. Era pallida, tirata e smonta. Questa mi pare di averla già sentita, Ulla, dissi senza avvicinarmi al taxi. Ti prego. Dico sul serio. Per favore, sali sul taxi. Devo dirti qualcosa. Qualcosa che vuoi sapere. Rimasi immobile. Ti prego, Lin. So dove si trova Carla. Se mi aiuti te lo dico. Mi voltai e strinsi la mano ai due George. Approfittai del saluto per allungare una banconota da 20 dollari a scorpione. L'avevo preparata quando avevo sentito le loro voci, e l'avevo tenuta pronta per quando ci saremmo salutati. Sapevo che per il loro standard di vita, nel caso il buon cliente non si fosse fatto vivo, bastava passare una notte da nababbi. Aprii la portiera e salii sul taxi. L'autista si tuffò nel traffico, tenendomi d'occhio nello specchietto retrovisore. Non so perché ce l'hai con me, piagnucolò Ulla togliendosi gli occhiali e lanciandomi un'occhiata furtiva. Ti prego, non essere arrabbiato con me, Lin. Ti prego, non essere arrabbiato. Non ero arrabbiato. Per la prima volta da troppo tempo non ero arrabbiato. Scorpione ha ragione, pensai. È il significato che ci rende umani. Mi era bastato sentire un nome per sprofondare di nuovo in un oceano di emozioni. Cercavo una donna, cercavo Carla. Mi tuffavo ancora una volta nel mondo, per cercare Carla. Avevo una motivazione. Avevo uno scopo. In quel momento seppi cosa aveva causato il mio umore depresso da Maid, e perché avevo provato tanta rabbia senza capirne la ragione. Capii perfettamente che il mio sogno, il sogno infantile che Cader fosse il mio vero padre, mi aveva fatto provare il senso di profonda e desolata inquietudine che troppo spesso altera un rapporto fra padre e figlio. Questa constatazione mi diede la forza di sollevare il velo d'oscurità che mi opprimeva il cuore. Guardai un la. Fissai il labirinto azzurro dei suoi occhi e mi chiesi, senza provare rabbia né dolore, se fosse stata complice del mio tradimento, se avesse contribuito a farmi finire in prigione. Hulla mi appoggiò una mano su un ginocchio. Era una presa forte, ma la mano tremava. Sentivo il suo profumo, e i secondi che si dilatavano intorno a noi. Eravamo tutti e due in trappola, ognuno a modo suo. E ancora una volta il destino intrecciava i fili che ci tenevano prigionieri. Rilassati, se posso ti aiuterò, disse calmo e sicuro. Ma adesso dimmi di Carla. Capitolo 24. A mezzanotte la grande ruota lattiginosa delle stelle si elevava umida e tremolante all'orizzonte, mentre la luce gialla e argentea della luna gibbosa si spargeva sul mare placido, facendo luccicare i bordi sfrangiati delle onde. Era una notte calda e serena. Il ponte del traghetto per Goa era affollato, ma ero riuscito a trovare un posto libero vicino a un gruppo di turisti. Erano ragazzi giovani, quasi tutti sballati di erba, ascisce e acido. Da uno stereoportatile arrivava il ritmo pulzante di un pezzo dance. I ragazzi, stravaccati sugli zaini, si dondolavano e battevano le mani a tempo, ridevano, si chiamavano ad alta voce cercando di sovrastare la musica. Erano felici di essere in viaggio per Goa. I novellini erano diretti verso la destinazione a lungo sognata. Il veterano ritornava verso l'unica destinazione che poteva farlo sentire davvero libero. Quel traghetto mi avrebbe portato da Carla. Guardai le stelle, ascoltai i ragazzi sul ponte capì la loro eccitazione innocente e piena di speranza. In minima parte potevo anche condividerla, ma la durezza sul mio volto e nei miei occhi creava una barriera fra me e i ragazzi non meno netta e inviolabile del breve spazio sul ponte, poco più di un metro, che mi separava dalla loro festa scatenata. Cullato dal lieve rollio del traghetto pensai a Ulla, e alla paura che scintillava nei suoi occhi di zaffiro quando aveva iniziato a raccontarmi la sua storia nel sedile posteriore del taxi. Quella notte Ulla aveva bisogno di soldi, mille dollari, e glieli diedi. Voleva che l'accompagnassi alla sua stanza d'albergo, dove aveva lasciato i vestiti e i suoi effetti personali. L'accompagnai, e nonostante tre masse di paura, recuperammo le sue cose e pagammo il conto senza problemi. Erane i guai per via di un affare in cui erano coinvolti Maurizio e Modena. Come spesso accadeva quando c'era di mezzo Maurizio, l'affare era andato in malora. Gli uomini che avevano perso il loro denaro non erano per nulla soddisfatti, e non intendevano lasciar correre. Volevano indietro i loro soldi, e volevano far scorrere del sangue, non necessariamente in quest'ordine. Ulla non mi disse chi erano, né perché l'avevano scelta come vittima, né cosa le avrebbero fatto se l'avessero trovata. Io non feci domande. Fu un errore, naturalmente. Mi sarei risparmiato un mucchio di guai, e forse alla fine avrei salvato una vita o due. Ma di Ulla me ne importava poco. Volevo notizie di Carla. E a Goa, disse quando l'accompagnai fuori dall'hotel. Dove? Non lo so. In una delle spiagge. Ci sono molte spiagge a Goa, Ulla. Lo so, lo so, piagnucolò reagendo al mio tono irritato. Hai detto che sai dov'è? Certo. È a Goa. So che è a Goa. Mi ha scritto da Mapusa. L'ultima lettera l'ho ricevuta ieri. È da qualche parte vicino a Mapusa. Mi rilassai. Sistemammo i suoi bagagli sul taxi che ci aspettava e diedi all'autista l'indirizzo della casa di Abdullah Abreach Kandi. Scrutai con attenzione le strade attorno a noi, e mi parve che nessuno ci stesse spiando. Quando il taxi partì rimasi per un poco in silenzio, osservando le strade buie che scorrevano oltre il finestrino. Perché ha lasciato Bombay? Non lo so. Deve averti detto qualcosa. È una ragazza loquace. Ulla scoppiò a ridere. Non mi ha detto niente. Se proprio ci tieni a saperlo, secondo me se n'è andata per causa tua. Dibattuto fra tristezza e compiacimento, reagì in asprendo il tono di voce. Ci deve essere dell'altro. Aveva paura. Ulla scoppiò a ridere di nuovo. Carla non ha paura di niente. Tutti hanno paura di qualcosa. Tu di che cosa hai paura, Lynn? Mi girai lentamente e la fissai, cercando di capire se alludesse a qualcosa. Cos'è successo la notte che avevamo appuntamento a Leopold? Le domandai. Non sono riuscita a venire, non potevo. Modena e Maurizio hanno cambiato programma all'ultimo momento, e mi hanno fermata. Mi sembra di ricordare che volevi che venissi con te proprio perché non ti fidavi di loro. È vero. Cioè, di Modena mi fido, più o meno, ma è succube di Maurizio. Non riesce a dire di no, se Maurizio gli chiede di fare qualcosa. Non è una spiegazione. Lo so, sospirò Ulla visibilmente sconvolta. Sto cercando di spiegartelo. Maurizio aveva un affare in ballo, beh, più che un affare era un furto, e c'ero di mezzo anch'io. Maurizio voleva ossarmi perché i tipi che intendeva fregare avevano un debole per me, si fidavano. Sai com'è? Sì, lo so bene. Oh, ti prego, Lynn, non è colpa mia se quella notte non sono venuta all'appuntamento. Avevo paura di quegli uomini, perché sapevo che cosa aveva in mente Maurizio, e per questo ho chiesto il tuo aiuto. Poi hanno cambiato il piano, ci siamo trovati da un'altra parte, e non sapevo come fare ad avvisarti. Il giorno dopo ti ho cercato, per spiegarti tutto e scusarmi, ma. Eri sparito. Mi è dispiaciuto molto non incontrarti a Leopold come eravamo d'accordo. Quando hai saputo che ero in prigione. Dopo che sei uscito. Ho visto Didier e mi ha detto che eri conciato male. È stata la prima cosa che. Ma aspetta un attimo. Non crederai. Pensi che sia stata io a farti mettere dentro? È questo che pensi? La fissai negli occhi per qualche istante prima di rispondere. Tu che ne dici? Oh, cazzo. Oh, mio Dio. Urlò con un'espressione disperata. Scrollò la testa come se cercasse di impedire a un pensiero di prendere forma. Ferma l'auto. Autista. Ruchiao. Abbi, abbi. Ferma immediatamente. Il taxista accostò al marciapiede, vicino a una serie di negozi con le vetrine sbarrate. La strada era deserta. L'autista spense il motore, e ci scrutò nello specchietto. Ulla, in lacrime, cercò freneticamente di aprire la portiera. Nell'agitazione bloccò la maniglia, e la portiera non si aprì. Non preoccuparti, dissi togliendole delicatamente le mani dalla maniglia e tenendole fra le mie. Va tutto bene. Non preoccuparti. Non va bene un bel niente, si inghiozzò. Non so come mi sono ficcata in questo pasticcio. Modena non è capace di fare affari. Hanno rovinato tutto, lui e Maurizio. Hanno imbrogliato un sacco di gente, e l'hanno sempre passata liscia. Ma stavolta è diverso. Ho paura, non so cosa fare. Ci uccideranno tutti. E pensi che ti abbia tradito? Per quale motivo, Ling? Credi che possa fare una cosa del genere? Sono una persona così orribile, perché tu possa pensare questo di me. Per chi mi hai preso. Mi allungai sul sedile per aprire la portiera. Hulla uscì e rimase in piedi, appoggiata al taxi. La raggiunsi. Tremava e si inghiozzava. La strensi fra le braccia finché non smise di piangere. Va tutto bene, Hulla. Non penso che tu sia coinvolta in questa faccenda. Non l'ho mai pensato davvero, neanche quando non ti sei presentata a Leopold. Ma dovevo chiedertelo. Era un modo per metterci una pietra sopra, capisci? Mi guardò in faccia. Le luci della strada formavano un arco nei suoi grandi occhi azzurri. La bocca aveva una piega disperata per la paura e lo sfinimento, ma negli occhi scintillava un lontano barlume di speranza. La ami sul serio, eh? Sì. Che bello, disse in tono sognante e nostalgico, distogliendo lo sguardo. L'amore è una bella cosa. È Carla. Ha un gran bisogno d'amore. Anche Modena mi ama, sai? Mi ama sul serio. Si perse per alcuni istanti nelle sue fantasticherie, poi si voltò di scatto e tornò a fissarmi, appoggiandomi le mani sulle spalle. La troverai. Comincia a Mapusa, la troverai. Rimarrà a Goa ancora per qualche tempo. Me l'ha detto nella sua lettera. È da qualche parte, proprio sulla spiaggia. Mi ha scritto che dalla porta di casa vede l'oceano. Va e trovala, Ling. L'unica cosa che conta al mondo è l'amore. Solo l'amore. Le lacrime di Ulla, scintillanti di luce, induggiarono davanti ai miei occhi finché si dissolsero nei luccichii del mare attorno al traghetto. E le sue parole, solo l'amore, scorrevano in un sussurro speranzoso, come i grani di un rosario su un filo di possibilità, mentre attorno a me infuriavano la musica e le risate dei ragazzi. Quando le luci dell'alba cominciarono a rischiarare la lunga notte e il raghetto attraccò a Panjima, la capitale del piccolo stato di Goa, fu il primo a salire su un bus per Mapusa. L'itinerario di 15 chilometri da Panjima a Mapusa, che si pronuncia Mupsa, si snodava tra macchie di vegetazione folte e fronzute e vecchie di more costruite secondo lo stile e il gusto prodotto da 400 anni di dominazione coloniale portoghese. Mapusa era un nodo stradale verso il nord dello stato. Era venerdì, giorno di mercato, e la folla mattutina gremiva l'area del bazar. Mi feci strada verso i posteggi di taxi e moto. Dopo un'accesa contrattazione, durante la quale evocammo un augusto consesso di divinità di almeno tre religioni, ed elencammo le predilezioni sessuali delle sorelle di amici e parenti, un venditore accettò di noleggiarmi una infiel bulle per una cifra ragionevole. Pagai una cauzione e una settimana di noleggio in anticipo, avviai la moto e mi feci strada fra la calca del mercato, diretto alle spiagge. La Enfiel Dauphine di Abullet era una moto con un motore monocilindrico a quattro tempi da 350 cc, costruita sul modello originale della British Royal Enfiel degli anni 50. Famosa per la sua particolare manovrabilità, ma anche per affidabilità e robustezza, la Abullet esigeva molto dal guidatore, che doveva dimostrare pazienza, tolleranza e comprensione. D'altra parte, insieme ai non rari episodi di morte scampata per miracolo, la Abullet offriva l'esperienza unica di tuffarsi liberi nel vento, beatitudine celestiale di solito riservata agli uccelli. Trascorsi la giornata passando al setaccio le spiagge da Calangute a Sciapora. Controllai ogni albergo e questose, ammorbidendo il terreno arido con una pioggerella di piccole ma allettanti basiche. Su ogni spiaggia parlai con cambiavalute, spacciatori, guide turistiche, ladri e gigolò. Quasi tutti avevano visto delle ragazze occidentali che corrispondevano alla mia descrizione, ma nessuno poteva essere certo che si trattasse di Carla. Mi fermai a bere un tè o una spremuta o a mangiare uno spuntino nei principali ristoranti sulla spiaggia, e chiese informazioni ai proprietari e ai tamerieri. Erano sempre molto disponibili, perché parlavo in die marati. Tuttavia pareva che nessuno l'avesse vista, e quando le poche dritte si rivelarono un buco nell'acqua, conclusi il mio primo giorno di ricerche in preda allo sconforto. Il proprietario del Seashore Ristoranta Dagnuna, un corpulento giovane del Maharastra di nome Dashrant, fu l'ultima persona con cui parlai, mentre il sole cominciava a tramontare. Mi preparò una sostanziosa cena a base di foglie di cavolo ripiene di patati, fagiolini allo zenzero, melanzane con chutney agrodolce e ocra fritte. Quando finì di preparare il banchetto portò il suo piatto al mio tavolo e si sedette a mangiare insieme a me. A fine pasto insistette per farmi assaggiare una generosa porzione di liquore di cocco prodotto nella zona, seguito da un bicchiere altrettanto abbondante di liquore d'anacardo. Dashrant si rifiutò di accettare denaro da un ora che sapeva parlare la lingua della sua terra, chiuse il ristorante e salì sulla moto, deciso a farmi da guida. Considerava la mia ricerca di Carla molto romantica, molto indiana, per usare le sue parole, e si offrì di ospitarmi per la notte. Da queste parti ci sono alcune belle straniere, dichiarò. Una di loro, se Van Van vuole, potrebbe essere la ragazza che hai perso. Prima dormi, la cercheremo domani, con la mente fresca. Giusto? Imboccammo una strada soffice e sabbiosa fra le palme slanciate, procedemmo sulla moto tenendoci in equilibrio con le gambe tese a terra e raggiungemmo una minuscola abitazione. La casupola era quadrata, costruita con pali di cocco, bambù e fronde di palma. Da una parte si vedeva il profilo del ristorante, e dall'altra la vasta distesa scura del mare. All'interno c'era una stanza che Dashrant illuminò con candele lanterne. Pavimento di sabbia. Un tavolo con due sedie, un letto con un materasso di gomma senza lenzuola, una rastrelliera dove appendere i vestiti. In un angolo un grande matca pieno d'acqua dolce. Dashrant mi annunciò con orgoglio che l'acqua era stata attinta quello stesso giorno da un pozzo nei paraggi. Sul tavolo c'erano una bottiglia di licore di cocco e un paio di bicchieri. Il mio ospite garantì che io e la moto saremmo stati al sicuro, perché nei dintorni tutti sapevano che quella era casa sua. Mi diede la chiave del lucchetto che pendeva da una catena sulla porta e mi invitò a fermarmi lì finché non avessi ritrovato la mia ragazza. Mi fece un sorriso ammeccante e se ne andò. Lo udì cantare mentre camminava fra le palme, diretto al suo ristorante. Accostai la moto a una parete della capanna e la legai con un pezzo di corda a una gamba del letto. Nascosi la corda con un po' di sabbia, sperando che se qualcuno avesse cercato di rubarmi la moto il movimento mi avrebbe svegliato. Esausto e scoraggiato, crollai sul letto e mi addormentai in pochi secondi. Fu un sonno corroborante, senza sogni, ma quando mi svegliai quattro ore dopo ero troppo teso ed eccitato per riuscire a riaddormentarmi. Mi infilai le scarpe, riempì una lattina d'acqua e andai alla latrina dietro la capanna. Come molte latrine a Goa, consisteva semplicemente in una ripida pendenza dietro al buco su cui ci si accovacciava. Gli escrementi rotolavano lungo il pendio e si accumulavano in un canaletto. I maiali di Goa, neri e irsuti, razzolavano nei paraggi e tuffavano golosamente il grugno nei canaletti. Mentre tornavo verso la capanna per sciacquarmi le mani vide un piccolo branco di porci che si avvicinava trotterellando. Era un sistema efficiente ed ecologico per smaltire i rifiuti, ma la visione di quel banchetto suino era un eloquente argomento a favore del vegetarianesimo. Mi incamminai verso la spiaggia, che distava solo una cinquantina di passi dalla capanna di Dashrant, e mi accovacciai sulle dune per fumare una sigaretta. Era quasi mezzanotte, la spiaggia era deserta. La luna quasi piena sembrava appuntata come una medaglia sul petto del cielo. Una medaglia per cosa? Pensai. Ferito in azione, forse. Una medaglia al valore. Sembrava che le onde fossero spinte verso la battigia dalla luce della luna, come se una grande rete argente avesse imprigionato il mare e stesse tirando a riva un'onda dopo l'altra. Una donna venne verso di me tenendo in equilibrio un cesto sulla testa. I suoi fianchi oscillavano dolcemente al ritmo delle piccole onde che le lambivano le caviglie. Mi raggiunse, posò il cesto davanti a me, si accovacciò e mi fissò negli occhi. Era una venditrice di angurie, sui 35 anni, chiaramente abituata ai turisti e alle loro stranezze. Senza smettere di masticare con forza un involto di pan, indicò con un cenno della mano la mezza anguria che le rimaneva nella cesta. Era molto tardi, e pensai che stesse tornando a casa dopo avere accudito un bambino, o forse un parente ammalato. Vedendomi seduto li doveva avere sperato di concludere l'ultimo affare della giornata. Le dissi in marati che sarei stato lieto di comprarle una fetta d'anguria. Rimase felicemente stupita, e dopo la consueta sequela di domanda su come e dove avessi imparato la sua lingua, mi tagliò una fetta enorme. Mangiai la calinga, dolce e deliziosa, sputtando i semi sulla sabbia. La donna mi osservò mangiare, e protestò quando infilai nel cesto una banconota anziché la monettina che le avrei dovuto. Quando si alzò, aggiustandosi la cesta sul capo, cominciai a canticchiare la canzone di un vecchio film indie, molto triste e molto amata. I ed un'iglia, i e me filmere cam kinai. Del mondo e di gioiosa compagnia nulla mi importa. La donna si lasciò sfuggire un gridolino di felicità e accennò qualche passo di danza, poi si allontanò ad agio lungo la spiaggia. È per questo che mi piaci, sai? Disse Carla sedendosi accanto a me con un movimento rapido e aggraziato. Restai senza fiato e il cuore iniziò a battermi forte. Erano successe troppe cose dall'ultima volta che l'avevo vista, la prima volta che avevamo fatto l'amore. Sentì gli occhi bruciare per l'emozione. Se fossi stato un uomo diverso, un uomo migliore, sarei scoppiato a piangere. E chissà, forse le cose sarebbero andate diversamente. Ero convinto che non credessi nell'amore, risposi nascondendo le mie emozioni, deciso a non lasciarle capire quanto mi turbava la sua presenza, e fino a che punto ero in sua balia. Cosa intendi per amore? Pensavo che fosse di questo che stavi parlando. No, ho detto che è per questo che mi piaci, dissi ridendo e alzando gli occhi verso la luna. Comunque credo nell'amore. Tutti ci credono. Non direi. Penso che un sacco di gente abbia smesso di credere nell'amore. No, ti sbagli. Tutti sperano ancora di innamorarsi. Hanno solo smesso di credere nel lieto fine. Credono nell'amore, si innamorano, ma ormai sanno che. Che le storie d'amore iniziano bene ma finiscono male. Credevo che detestassi l'amore. Avevi detto così al villaggio nel cielo. Sì, detesto l'amore, così come detesto l'odio. Ma questo non significa che non ci creda. Sei proprio unica, Carla, mormorai sorridendo al suo profilo, mentre lei fissava la notte il mare. Non rispose. Allora, mi dici perché? Perché cosa? Perché ti piaccio? L'hai detto poco fa. Ah, disse sorridendo. Si girò a guardarmi e sollevò un sopracciglio. Perché sapevo che mi avresti provata, e che non avrei dovuto mandarti un messaggio per dirti dov'ero. Ero sicura che mi avresti provata. Sentivo che saresti arrivato. Non so come, lo sapevo e basta. Poi quando ti ho visto cantare la canzone a quella donna sulla spiaggia. Sei veramente pazzo, Lin, e questo mi piace davvero. Penso che la tua bontà dipenda da questo. Dalla tua pazzia. Bontà? Chiesi sinceramente stupito. Sì. In te c'è molta bontà, Lin. Ed è quasi impossibile resistere a un duro dal cuore tenero. Quando lavoravamo insieme allo slum non te l'ho detto, ma ero così orgogliosa di te. Sapevo che dovevi essere spaventato e terribilmente preoccupato, ma avevi sempre un sorriso per me, ed eri sempre presente, ogni volta che mi svegliavo, ogni volta che mi addormentavo. Ti ammiro molto per quello che hai fatto in quei giorni, e ti garantisco che non sono molte le persone che ammiro. Perché sei venuta a Goa, Carl? Perché hai lasciato Bombay? E tu che ci fai qui? Ho le mie ragioni. Esatto. E io avevo le mie ragioni per andarmene da Bombay. Carla si voltò a guardare una figura solitaria che avanzava sulla spiaggia. Sembrava un sagbo, una sceta errante, e si appoggiava a un lungo bastone. Osservai Carla che guardava il santone. Avrei voluto farle altre domande, volevo scoprire perché aveva lasciato Bombay, ma aveva lineamenti così tesi che decisi di aspettare. Cosa sai di Arthur Road? Trasalì, ma forse era solo un brivido causato dalla brezza marina. Indossava un'ampia canottiera gialla e una lungi verde. Aveva i piedi sprofondati nella sabbia, e si teneva le ginocchia strette fra le braccia. Che intendi dire? Gli sbirri mi hanno preso la notte che sono uscito da casa tua per incontrarmi con nulla. Mi hanno fermato poco dopo che ti ho lasciato. Cosa hai pensato quando hai visto che non tornavo? Quella notte non sapivo proprio cosa pensare. Hai creduto che. Che ti avessi piantata in asso. Carla rimase in silenzio e aggrottò la fronte. All'inizio sì. Qualcosa del genere. Penso di averti odiato. Poi ho iniziato a chiedere in giro. Quando ho scoperto che non eri tornato all'ambulatorio nello slum, e che nessuno ti aveva visto, ho pensato che forse. Forse stavi facendo qualcosa. D'importante. Qualcosa d'importante. Sbottai scoppiando a ridere. Non era una bella risata. Era una risata amara, piena di rabbia. Cercai di controllarmi. Mi dispiace Carla. Non potevo mandare messaggi. Non potevo avvertirti. Ero fuori di testa per la paura che tu. Che tu mi odiassi perché ti avevo lasciata in quel modo. Quando ho saputo che eri in prigione mi si è quasi spezzato il cuore. Era un brutto periodo. L'affare che stavo seguendo. Cominciava ad andare in malora. Le cose si mettevano male sul serio, pensavo che non sarei mai riuscita a riprendermi. Poi ho saputo di te, ed ero così. Beh, tutto è cambiato. Tutto. Non riuscivo a capire cosa intendesse dire. Ero certo che fosse importante, e avrei voluto chiederle di più, ma l'uomo sulla spiaggia era ormai a pochi metri da noi, e ci raggiunse a passi lenti e solenni. Non era il momento di fare domande. Era davvero una sceta. Alto, magro, la carnagione scura, color terra, indossava un perizoma e un'enorme quantità di collane, amuleti e braccialetti. Aveva i capelli aggrovigliati in spesse trecce che gli arrivavano fino alla vita. Appoggiò il bastone sulle spalle e uni le mani in segno di saluto e benedizione. Ricambiamo il saluto e lo invitammo a sedersi con noi. Avete del sharass? Chiese i nindi. Mi piacerebbe fumare in questa notte meravigliosa. Mi frugai in tasca e gli lanciai un pezzo di sharass e una sigaretta. Che Bhagavan benedica la vostra gentilezza, salmo Dio. E che le benedizioni di Bhagavan siano anche su di te, rispose Carla in un indi impeccabile. Siamo molto felici di incontrare un devoto di Shiva in questa notte di luna piena. La sceta sorrise mettendo in mostra i buchi fra i denti, e iniziò a preparare il cilam. Quando la pipa d'argilla fu pronta, sollevò i palmi delle mani per attirare la nostra attenzione. Prima che fumiamo, voglio ricambiare il vostro dono. Capite? Sì, capiamo, dissi fissandolo sorridendo negli occhi ardenti. Bene. Regalo a entrambi una benedizione. La mia benedizione rimarrà sempre con voi. Vi benedico in questo modo. Alzò la braccia sopra la testa e si piegò sulle ginocchia, toccando la sabbia con la fronte, le braccia distese. Si tirò su, e ripetè il gesto più e più volte, borbottando delle parole indistinte. Alla fine si rialzò in piedi, esibì di nuovo il sorriso sdentato e mi fece cenno di accendere la pipa. Fumammo in silenzio. Quando finimmo il sadhu fece per restituirmi il sharass avanzato, ma io lo rifiutai. La sceta accettò il dono con un solenne inchino, e si alzò per andarsene. Mentre lo guardavamo sollevò il bastone e lo puntò verso la luna quasi piena. All'improvviso capimmo cosa intendeva mostrarci, sia io che Carla vedemmo nei disegni sulla superficie della luna l'immagine di una figura inginocchiata con le mani sollevate in preghiera. Il sadhus neandori daccheando felice fra le basse dune di sabbia. Ti amo, Carla, dissi quando fummo di nuovo soli. Ti ho amata fin dal primo momento, penso di averti amata da quando al mondo esiste l'amore. Amo la tua voce. Amo il tuo viso. Amo le tue mani. Amo tutto ciò che fai, e amo il modo in cui lo fai. Quando mi tocchi è come una magia. Amo il tuo modo di ragionare, e le cose che dici. E anche se tutto quello che ti ho appena detto è vero, non riesco a capire, né a spiegare il mio amore. Ti amo e basta. Ti amo con tutto il cuore. Mi dai una ragione per vivere. Mi dai un motivo per amare il mondo. Mi baciò, e ci adagiamo sulla sabbia cedevole. Tuffò le mani nelle mie, e con le braccia distese sopra la testa facemmo l'amore mentre la luna in preghiera seduceva il mare, attraeva le onde e le spingeva a infrangersi in dolci mormori di schiuma sulla riva incantata e immutabile. Per una settimana giocammo a fare i turisti a Goa. Visitammo tutte le spiagge sulla costa del mar arabico da sciapora a caperama. Passammo due notti sull'incantevole sabbia d'oro e argento di cui va a Beac. Ispezionammo tutte le chiese di Old Goa. Il giorno della festa di San Francesco Saverio, nell'anniversario della morte del santo, ci mescolammo alla immensa folla di pellegrini felici ed esaltati. Le strade erano gremite di persone che sfoggiavano i loro vestiti più belli. Commercianti e ambulanti arrivati da tutta la regione esibivano mercanzie di ogni genere. Processioni di ciechi, storpi e malati si trascinavano verso la basilica nella speranza di un miracolo. Saverio, un monaco spagnolo, era uno dei primi sette discepoli di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dell'Ordine dei Gesuiti. Saverio morì nel 1552, ha soli 64 anni, ma la sua intensa opera di proselitismo in India e nell'estremo Oriente riuscì a creare una leggenda a duratura. Dopo numerose sepolture ed esumazioni, agli inizi del XVII secolo il corpo di San Francesco fu finalmente collocato nella basilica del bom Gesù Sagoa. Ancora ammirabilmente conservati, miracolosamente, secondo i devoti, i resti del santo venivano esposti in pubblico ogni dieci anni. Anche se in apparenza il corpo di San Francesco era immune alla corruzione, nel corso dei secoli aveva subito numerose amputazioni. Nel XVI secolo una donna portoghese aveva staccato uno degli alluci del santo, sperando di tenerselo come reliquia. Pezzi della mano destra erano stati donati ad altri santuari, e anche scampoli delle sacre viscere. Io e Carla, fra grandi risate, offrimmo cifre spropositate ai guardiani della basilica, che però si rifiutarono di lasciarci dare una sbirciatina alla venerabile Salma. Perché hai scelto di fare il rapinatore? Mi domandò una notte Carla mentre contemplavamo l'immenso drappo di seta nera del cielo, ascoltando i dolci sussurri della marea. Te l'ho detto. Il mio matrimonio è fallito, e mi hanno tolto mia figlia. Sono crollato, e ho cominciato a farmi di eroina. Rapinavo banche per pagarmi la droga. No, intendevo dire, perché proprio le rapine? Perché non qualcos'altro. Era una buona domanda, e nessuno nel sistema giudiziario, poliziotti, avvocati, giudice, psichiatra, guardie carcerarie, me l'aveva mai fatta. Ci ho riflettuto parecchio. Ti sembrerà strano, ma penso di essere stato in qualche modo influenzato dalla TV. Tutti gli eroi in TV hanno una pistola. E la rapina a mano armata ha qualcosa di. Eroico. So bene che in realtà è vero il contrario, spaventare la gente con una pistola in mano è da vigliacchi, ma in quel momento mi sembrava il modo più coraggioso di rubare denaro. Non avrei mai potuto dare una botta in testa a una vecchia e rubarle la borsetta, o andare a saccheggiare una casa privata. La rapina mi sembrava in qualche modo più leale, perché c'era sempre la possibilità che le mie vittime o i poliziotti mi facessero fuori a revolverate. Carla mi guardò in silenzio, respirando quasi al mio stesso ritmo. Poi in Australia avevamo una specie di eroe. Continua, mi incalzò Carla. Si chiamava Ned Kelly. Era un ragazzo diventato fuori legge suo malgrado. Era duro, giovane e impetuoso ma non era cattivo. Era diventato un fuori legge per colpa degli sbirri. Un poliziotto ubriaco era pazzo di sua sorella e aveva cercato di molestarla. Ned gli aveva dato il fatto suo, e così erano iniziati i suoi guai. Gli sbirri lo odiavano per varie ragioni, ma soprattutto per il suo spirito ribelle. Ned Kelly divenne il mio modello perché io ero un rivoluzionario. Ci sono state rivoluzioni in Australia? Chiese Carla scoppiando a ridere stupita. Non ne ho mai sentito parlare. No, niente rivoluzioni. Solo rivoluzionari, e io ero uno di loro. Ero un anarchico. Imparai a sparare e a preparare bombe. Ci preparavamo per il giorno in cui sarebbe scoppiata la rivoluzione. Che naturalmente non arrivò mai. Nel frattempo protestavamo contro il nostro governo che partecipava alla guerra del Vietnam. L'Australia era coinvolta nella guerra del Vietnam? Scoppiai a ridere. Sì. Fuori dall'Australia sono in pochi a saperlo, ma eravamo in guerra al fianco degli Stati Uniti. I soldati australiani morivano insieme a quegli americani, e i ragazzi australiani erano chiamati alle armi. Alcuni di noi si rifiutavano di partire, proprio come gli obiettori americani. Un sacco di ragazzi sono finiti in prigione perché si rifiutavano di combattere. Io riuscii a evitare la galera. Preparavo bombe, organizzavo manifestazioni, facevo a botte con gli sbirri sulle barricate. Poi il governo cadde, e la nuova amministrazione tolse l'appoggio agli Stati Uniti. Sei ancora un anarchico? Era una domanda difficile, perché mi costringeva a paragonare l'uomo che era un tempo con quello in cui mi ero lasciato trasformare. Gli anarchici. Cominciai, ma subito mi mancarono le parole. Nessuna delle filosofie politiche che conosco rispetta il genere umano come l'anarchia. Tutti gli altri sistemi dicono che la gente deve essere controllata, ordinata, governata. Solo gli anarchici hanno tanta fiducia negli esseri umani da lasciare che siano loro a darsi delle regole. Un tempo ne ero convinto anch'io, ero ottimista. Ma ora non più. Perciò. No, non sono più anarchico. E quell'eroe. Quando hai cominciato a fare le rapine a mano armata ti identificavi con lui. Sì. Ned Kelly era il mio idolo. Aveva una banda di ragazzi come lui, suo fratello minore e i suoi due migliori amici, e facevano rapine a mano armata. La polizia mandò un reparto speciale a catturarli, ma Ned riuscì a batterli, e un paio di sbirri ci lasciarono la pelle. Come andò a finire? Lo catturarono. Ci fu una sparatoria, il governo gli aveva dichiarato guerra. Mandarono un plotone di sbirri e riuscirono a circondare la banda in un hotel nel Bush. Nel Bush? Sì, è così che chiamiamo la campagna in Australia. Comunque, Ned e i suoi ragazzi vennero circondati e dall'esercito di sbirri. Il suo migliore amico fu colpito alla gola, e gli morì fra le braccia. Suo fratello e un altro ragazzo di nome Stewart si spararono a vicenda con gli ultimi proiettili rimasti, pur di non farsi catturare. Avevano diciannove anni. Ned aveva una specie di armatura, un elmetto e una piastra d'acciaio sul petto. Si lanciò verso gli sbirri sparando con le sue due pistole. In un primo momento gli sbirri se la fecero sotto e tagliarono la corda, ma gli ufficiali li costrinsero a tornare a combattere. Spararono Ned dalle gambe. Dopo un processo farsa lo condannarono a morte grazie alle false testimonianze. La sentenza fu eseguita? Già. Le sue ultime parole furono, così va il mondo. Non aggiunse altro. Lo impiccarono, gli tagliarono la testa e usarono il suo cranio come ferma carte. Prima di morire aveva detto al giudice che si sarebbero incontrati presto, in una corte più alta. Il giudice morì poco tempo dopo. Mentre parlavo Carla seguiva la storia leggendo le espressioni del mio volto. Presi una manciata di sabbia e la lasciai scivolare fra le dita. Due grandi pipistrelli ci passarono sulla testa. Erano così vicini che odemmo il fruscio delle ali, simile a quello di foglie secche mosse dal vento. Da ragazzino adoravo le avventure di Ned Kelly. E non ero il solo. Molti artisti, scrittori e musicisti si sono ispirati alla sua storia. In un certo senso fa parte dell'immaginario collettivo di noi australiani. È un po' il nostro Che Guevara, o il nostro Emiliano Zapata. Quando ho cominciato a farmi di eroina, in qualche modo sovrapposto la mia storia a quella di Ned Kelly, anche se le nostre vicende erano diametralmente opposte, lui era un ladro diventato rivoluzionario, io un rivoluzionario diventato ladro. Comunque sia, ogni volta che facevo una rapina, e ne ho fatte parecchie, ero sicuro che sarebbero arrivati gli sbirri e mi avrebbero ammazzato. In realtà speravo che succedesse. Mi figuravo tutta la scena. Vedevo gli sbirri che urlavano di fermarmi, io che cercavo di afferrare la pistola, e loro che sparavano per primi. Speravo che mi ammazzassero per strada. Volevo morire così. Carla si avvicinò e mi posò un braccio sulle spalle. Con la mano libera mi prese il mento e mi girò la faccia in modo che potessi vedere il suo sorriso. Come sono le donne in Australia. Chiese accarezzandomi i capelli. Scoppiai a ridere, e Carla mi sferrò un pugno sulle costole. Dico sul serio. Dimmi come sono. Beh, sono bellissime, dissi ammirando il suo volto meraviglioso. In Australia ci sono molte donne bellissime. Adorano chiacchierare, e far festa. Sono abbastanza scatenate. E sono molto dirette. Odiano le balle, e sanno come smerdarti. Smerdarti? Sì, smerdarti, dissi ridendo. Sanno come sgonfiarti se sei un pallone gonfiato, ti ridicolizzano, ti ridimensionano. È la loro specialità. E se ti ficcano uno spillo addosso per farti uscire l'aria che ti gonfia, puoi stare certo che te lo meritavi. Carla si sdraiò sulla sabbia, con le mani dietro la nuca. Penso che voi australiani siate davvero pazzi. Mi piacerebbe molto visitare il tuo paese. Avrebbe potuto essere bello. Avrebbe potuto essere incantevole, come i giorni e le notti d'amore che trascorremmo a Goa. Avremmo potuto vivere di stelle, di mare e di sabbia. E io avrei potuto ascoltarla. Non mi disse quasi nulla, ma mi dava indizi, e sapevo che nelle sue parole e nelle sue espressioni c'erano segnali chiari come le costellazioni che ammiravamo nel buio. Ma non l'ascoltai. Quando sei innamorato non badi quasi mai al vero significato di ciò che ti dice il tuo amore, perché sei inebriato fino all'estasi dal modo in cui lo dice. Ero innamorato dei suoi occhi, ma non leggevo ciò che vi era scritto. Amavo la sua voce, ma non udivo la paura e l'angoscia che esprimeva. L'ultimo giorno mi svegliai all'alba per prepararmi al viaggio di ritorno a Bombai, e vidi Carla in piedi sulla porta, che fissava il mare luccicante come una distesa di madreperla. Non andare, disse quando le posai le mani sulle spalle e la bacciai sul collo. Cosa? Dissi ridendo. Non tornare a Bombai. Perché no? Perché non voglio. Cosa vorresti dire? Esattamente quello che ho detto, non voglio che tu vada. Scoppiai a ridere, perché credevo che scherzasse. D'accordo, dissi sorridendo, perché non vuoi che vada? Occorre un motivo? Beh. Sì. Si dà il caso che abbia ottimi motivi, ma non ho intenzione di dirteli. No? No. Non credo di doverlo fare. Se dico che ho buone ragioni, dovrebbe bastarti. Ammesso che mi ami, come non ti stanchi di ripetere. Era così decisa, e il suo atteggiamento così inflessibile e inatteso, che rimasi troppo stupito per riuscire ad arrabbiarmi. Va bene, va bene, disse in tono conciliante. Ricominciamo da capo. Io devo tornare a Bombai, perciò perché non vieni con me, e rimarremo insieme nei secoli dei secoli, amen? Io non torno, disse se gelida. E perché mai? Non posso. E non voglio che tu torni a Bombai. Beh, non vedo il problema. Posso sbrigare le mie faccende, e tu puoi aspettarmi qui. Tornerò quando sarà tutto finito. Non voglio che tu torni a Bombai, ripete ostinata. Andiamo, Carla. Devo tornare in città. No, non devi. Il mio sorriso si trasformò in un'espressione preoccupata. Sì che devo. Ho promesso a Ulla che sarei tornato entro una decina di giorni. È ancora nei guai, lo sai. Ulla può badare a se stessa, si bilocarla continuando a evitare il mio sguardo. Sei gelosa di Ulla? Chiesi allungando una mano per accarezzarle i capelli. Non essere idiota. Sbottò Carla. Si voltò a guardarmi, sembrava furiosa. Ulla è un'amica, ma ti ripeto che può badare a se stessa. Calmati. Di che si tratta? Sapevi che sarei tornato a Bombai. Ne abbiamo già parlato. Mi fanno entrare nel giro dei passaporti, e sai quanto è importante per me. Te lo procuro io un passaporto. Te ne posso procurare a dozzine. Cominciavo a spazzentirmi. Non voglio che tu mi procuri un passaporto. Voglio imparare a farli e a scambiarli. Voglio imparare tutto. Tutto quello che posso. Mi insegneranno a falsificare i passaporti. Se imparo, sarò libero. E io voglio essere libero, Carla. Libero. È ciò che voglio. E perché mai tu dovresti essere diverso dagli altri? Cosa vuoi dire? Nessuno ottiene ciò che vuole. Nessuno. Nessuno. La rabbia di Carla sfumò in qualcosa di peggio, qualcosa che non avevo mai visto in lei, dolore, rassegnazione, sconfitta. Sapevo che è molto grave causare sentimenti del genere in una donna. E guardando il suo sorriso svanire fino a scomparire del tutto, seppi che prima o poi l'avrei pagata. Le parlai con dolcezza, ad agio, cercando di convincerla. Ho mandatola dal mio amico Abdullah, che sta badando a lei. Non posso lasciarla lì. Devo tornare. La prossima volta che verrai a cercarmi non mi troverai, disse Carla appoggiandosi di nuovo alla porta. Cosa vorresti dire? Quello che ho detto. È una specie di minaccia? Un ultimatum? Chiamalo come ti pare, rispose lentamente, come svegliandosi da un sogno. È un dato di fatto. Se torni a Bombay è finita. Non verrò con te, e non ti aspetterò. Rimani con me, adesso, o torna in città da solo. Sei libero di scegliere. Ma se torni a Bombay, fra noi è finita. La fissai sbalordito, furioso e innamorato. No, non è così semplice, dissi abbassando il tono di voce. Devi dirmi perché. Mi devi parlare, Carla. Non puoi darmi un ultimatum senza alcuna ragione, e aspettarti che lo accetti. La differenza fra una decisione e un ultimatum ha che quando prendi una decisione conosci i motivi e le cause, prima di scegliere. Non sono il tipo d'uomo a cui puoi imporre un ultimatum. Se lo fossi non sarei scappato di prigione. Non puoi dirmi cosa devo fare, Carla. Non puoi darmi un ordine senza spiegazioni. Non sono fatto così. Devi dirmi cosa sta succedendo. Non posso. Sospirai e parlai con calma, anche se a denti stretti. Temo di non riuscire a spiegarmi bene. Il fatto è che un uomo deve avere rispetto di sé. Il mio è quasi tutto andato, ma quel poco che resta. È tutto ciò che possiedo. Un uomo deve avere rispetto di sé, Carla, altrimenti non può rispettare gli altri. Se cedessi, e accettassi qualunque cosa tu mi chiedi di fare senza darmi uno straccio di spiegazione, perderei quel poco orgoglio che mi resta. E anche tu smetteresti di rispettarmi. Perciò, te lo chiedo di nuovo. Di che si tratta? Non. Non posso. Non vuoi. Dico davvero, non posso, mormorò fissandomi negli occhi. E non voglio. È così. Poco fa mi hai detto che faresti qualsiasi cosa per me. Bene. Voglio che resti qui. Voglio che non torni a Bombay. Se te ne vai, tra noi è finita. Che uomo sarei, dissi cercando di sorridere, se accettassi una cosa del genere. Immagino che questa sia la tua risposta, e che ormai tu abbia preso la tua decisione, sospirò uscendo dalla capanna. Preparai la borsa e la legai alla moto. Quando fu tutto pronto andai verso il mare. Carla uscì dall'acqua e camminò ad agio verso di me, trascinando i piedi nella sabbia cedevole. Canottiera e lungi bagnata derivano al corpo. I capelli neri luccicavano al sole ormai alto nel cielo. Era la donna più bella che avessi mai visto. Ti amo, dissi quando si abbandonò fra le mie braccia e ci baciammo. Ripetei quelle parole sulle sue labbra, sul suo viso, sui suoi occhi. La bracciai forte. Ti amo. Andrà tutto bene, vedrai. Torno presto. No, rispose impassibile. Il suo corpo non era rigido, ma assolutamente immobile, come prosciugato di tutta la vita e l'amore che conteneva. Non andrà tutto bene. È finita. E da domani non sarò più qui. La guardai negli occhi e sentì il mio corpo irrigidirsi, teso dall'orgoglio. Staccai le mani dalle sue spalle. Mi girai e andai verso la moto. Guidai fino all'ultima altura da cui si poteva vedere la spiaggia, la nostra spiaggia. Mi fermai e cercai di vedere Carla proteggendo gli occhi dal riverbero del sole con la mano tesa. Non c'era. C'erano solo onde che si infrangevano incurvandosi come schiene di delfini che giocano, e basse dune di sabbia senza tracce, vuote, modellate dal vento. Capitolo 25. Un servo sorridente aprì la porta e mi guidò nella sala, facendomi segno di non fare rumore. Precauzione superflua. La musica era così forte che non mi avrebbero sentito neanche se mi fossi messo a urlare a squarciagola. Il servo, senza aprire bocca, mi offri un tè mimando il gesto di bere da una tazza. Feci un cenno d'assenso e lui accostò la porta con delicatezza, lasciandomi solo con il padrone di casa. La sua massiccia silhouette spiccava nel mezzo di un alto bovindo. Abdul Ghani stava fessando in tento il panorama di giardini pensili, tetti color ruggine e candidi balcone su cui risplendevano le sare gialle e verdi stese ad asciugare. Era una sala immensa. Dai rosoni decorati sul soffitto pendevano massicce catene dorate che sostenevano tre sontuosi lampadari. A un capo della stanza, vicino all'ingresso principale, un lungo tavolo da pranzo con dodici sedie di tè con alti schienali. Addossato a una parete un armoire di mogano lungo quanto il tavolo, con un'enorme specchiera in vetro rosa. Il resto della parete era occupato da una libreria alta dal pavimento al soffitto. Sulla parete opposta attraverso quattro finestroni si scorgevano i rami più alti e le foglie fresche e ombrose dei platani che fiancheggiavano la strada sottostante. Al centro della stanza, fra la parete piena di libri e le finestre, una zona adibita a ufficio, con una poltrona dirigenziale rivolta verso l'ingresso e una grande scrivania. All'altra estremità della sala un angolo per il ricevimento degli ospiti, con soffà di cuoio e comode poltrone. Dietro le poltrone due enormi bovindo dominavano la stanza illuminandola con archi di luce brillante. Due porte finestre nei bovindo permettevano di accedere a un ampio balcone da cui si dominava il panorama della zona interna di Colaba, con i suoi giardini pensili, i panni stesi e i grondoni fatiscenti. Abdul Ghani era in piedi davanti a una portafinestra e ascoltava una canzone che usciva a tutto volume da un costoso impianto sistemato nella libreria. Era una sonorità familiare, e la riconobbi quasi subito. Erano i cantanti ciechi, che avevo ascoltato insieme a Cader Bay la prima notte che ci eravamo conosciuti. Non ricordavo la canzone, ma mi colpì la passione e la forza che trasmetteva. Quando il canto struggente terminò, restammo in un silenzio irreale. Pareva che anche i rumori del palazzo e della strada fossero cessati per incanto. Li conosci? Chiese Abdul Ghani senza voltarsi. Mi pare che siano i cantanti ciechi. Precisamente. Proprio loro, disse nel suo gradevole tono a metà strada fra la melodiosa cadenza della lingua indiana e il rigore di un annunciatore della BBC. Amo la loro musica più di ogni altra al mondo, Ling. Eppure c'è qualcosa che mi spaventa. Ogni volta che li ascolto, e quando sono a casa li ascolto tutti i giorni, ho la sensazione che cantino il mio requiem. Abdul Ghani continuava a darmi le spalle, e io rimasi in piedi al centro della sala. Deve essere. Abbastanza inquietante. Inquietante. Ripete a bassa voce. Sì. Inquietante. Dimmi, Lin, credi che un unico atto geniale ci permetta di perdonare tutti gli errori e i che hanno contribuito a crearlo? È una domanda difficile. Non so esattamente cosa intendi, ma immagino che dipenda da quanta gente ne trae beneficio, e a quanta invece ha causato sofferenza. Si voltò verso di me e mi accorsi che stava piangendo. Le lacrime scorrevano veloci e copiose dagli occhi grandi, e gocciolavano dalle guance grassocce sulla lunga tunica di seta. La voce di Abdul Ghani, invece, rimaneva quieta e composta. Sapevi che stanotte hanno ucciso Maid? No, dissi aggrottando le sopracciglia, scioccato dalla notizia. Ucciso? Sì. Assassinato. Macellato come un animale. Lo hanno fatto a pezzi a casa sua, e hanno ritrovato i pezzi sparsi in stanze diverse. Con il suo sangue hanno scritto il nome Sapna sulle pareti. La polizia dice che sono stati seguaci di quel balordo. Mi dispiace, Lin. Perdona il mio sfogo, ma credo che questa brutta vicenda mi abbia scosso profondamente. Figurati. Scusami, tornerò in un altro momento. Ah, no davvero. Ormai sei qui, e Caderbai vuole che cominci al più presto. Berremo il tè, mi riprenderò, e ti spiegherò il business dei passaporti. Abdul Ghani andò verso l'impianto stereo ed estrasse la cassetta dei cantanti ciechi. L'infilò in una custodia di plastica dorata, venne verso di me e me la spinse con forza in una mano. Voglio che la tenga tu. Te la regalo, disse con gli occhi e le guance ancora umidi di lacrime. È ora che io smetta di ascoltarla, e sono sicuro che tu l'apprezzerai. Grazie, mormorai confuso dal regalo quasi quanto dalla notizia della morte di Maid. Non c'è di che, Lin. Vieni, siediti accanto a me. Mi pare che tu fossi a Goa, giusto? Conosci il nostro giovane campione, Andrew Ferreira? Sì? Allora saprai che è di Goa. Va là spesso con Salman e Sanai, quando ci sono dei lavoretti da fare. Una volta dovresti andare con loro, ti mostrerebbero qualche posto speciale, se capisci cosa intendo. Allora dimmi, com'è andato il tuo viaggio? Gli risposi cercando di concentrarmi sulla conversazione, ma non riuscivo a non pensare a Maid. Maid era morto. Non potevo dire che mi piacesse, e neanche che mi fidassi di lui. Tuttavia il suo assassino mi aveva scosso, e mi aveva riempito di una strana, eccitata inquietudine. Maid era stato ucciso, macellato, aveva detto Abdul, nella casa di Giù dove avevo studiato con lui, dove mi aveva insegnato tutto sul contrabbando d'oro. Pensai alla casa. Ricordai la terrazza sul mare, la piscina con le piastrelle viola, la sala di preghiera verde e spoglia dove Maid prostrava le sue vecchie ginocchia cinque volte al giorno, appoggiando sul pavimento le sopracciglia bianche e folte. Io lo aspettavo davanti alla sala di preghiera, vicino alla piscina. Fissavo i riflessi violetti dell'acqua, e ascoltavo i mormorii della preghiera che si sovrapponevano a quelli delle fronde di palma che oscillavano attorno alla piscina. Ancora una volta ebbi la sensazione di essere in trappola, in baglia di un destino che non era plasmato dalle mie azioni e dai miei desideri. Era come se le costellazioni fossero maglie di un'immensa gabbia che ruotava e tornava nella stessa posizione, in modo imperscrutabile, nel momento voluto dal fato. C'erano troppe cose che non capivo. C'erano troppe domande che non potevo fare. Tuttavia quella coltre di misteri e collegamenti mi eccitava. Era inebriato dal profumo del pericolo, dal sentore della paura. Era una sensazione così intensa ed emozionante che solo un'ora più tardi, quando entrammo nel laboratorio dei passaporti, riuscì a prestare tutta l'attenzione a ciò che mi stava dicendo Abdul Ghani. Questo è Krisna, e questo è Villo, disse Abdul Ghani presentandomi due uomini bassi, scuri e mingerlini che si assomigliavano come fratelli. Nel nostro campo ci sono molti esperti, uomini e donne con un occhio eccezionale per i dettagli e la mano ferma come quella di un chirurgo. Ma dopo dieci anni di esperienza nell'arte della contraffazione ho imparato che i singalesi come Krisna e Villo sono i migliori falsari del mondo. I due uomini, lusingati, fecero un gran sorriso che mise in mostra ai denti candidi. Erano belli, avevano tratti e lineamenti delicati e armoniosi. Mentre Abdul mi faceva visitare la stanza, i due si rimisero al lavoro. Quello è il visore, spiegò Abdul Ghani indicando con la mano grasso c'è una scatola di legno appoggiata sul lungo tavolo. La parte superiore della scatola era una lastra di vetro lattiginosa, illuminata dall'interno. Krisna è il nostro specialista. Esamina al visore le pagine dei passaporti autentici e studia la filigrana e i disegni nascosti. All'occorrenza è in grado di duplicare ogni dettaglio. Mi chinai dietro a una spalla di Krisna e l'osservai mentre studiava la pagina dei dati di un passaporto inglese. Dalla sommità della pagina partiva un complesso intreccio di linee sinuose che avvolgeva la fotografia e terminava in fondo alla pagina. Accanto al passaporto autentico era appoggiato quello falso, e Krisna stava riproducendo con una penna finissima lo schema di linee intorno a una foto diversa. Di tanto in tanto sovrapponeva le due pagine e servendosi del visore controllava le eventuali discrepanze. Villu è lo specialista dei timbri, disse Abdul Ghani guidandomi verso un altro tavolone. Su una rastrelliera dietro al piano di lavoro erano allineati numerosi timbri di gomma. Villu è in grado di riprodurre qualsiasi timbro, anche quelli con i disegni più intricati. Visti d'entrata e uscita, permessi speciali. Qualunque cosa. Gli ho procurato tre nuove sagomatrici per riprodurre i timbri. Sono macchine sofisticate, le ho fatte arrivare dalla Germania e mi sono costate un occhio della testa. E ho dovuto spendere quasi la stessa cifra in Bakshish per farle passare alla dogana e trasportarle nel nostro laboratorio evitando domande indiscrete. Ma il nostro Villu è un artista, e spesso snobba le mie belle macchine e incide i nuovi timbri a mano. Villu stava creando un nuovo timbro da una sagoma di gomma. Copiava un ingrandimento fotografico dell'originale, un timbro di uscita dall'aeroporto di Atene, e incideva il nuovo timbro con scalpellini e attrezzi da gioielliere. Alla fine fece una prova con l'inchiostro, e scoprì alcuni piccoli difetti nella sua creazione. Li corresse, e con un pezzo di carta vetrata smussò un angolo del timbro di gomma. L'imperfezione dava al timbro d'inchiostro sulla pagina un aspetto più naturale e autentico. Una volta ultimato, il timbro fu riposto in una delle tante file sulla rastrelliera, in attesa di essere usato su un nuovo passaporto falso. Abdul Ghani mi fece fare il giro completo della fabbrica, mostrandomi computer, fotocopiatrici, stampanti, sagomatrici, scorte di carte e inchiostri speciali. Quando ebbi visto tutto quello che c'era da vedere, Abdul Ghani si offrì di riaccompagnarmi a Colabba. Risposi che avrei preferito fermarmi e passare un po' di tempo con i falsari singalesi. Abdul Ghani sembrò compiaciuto del mio entusiasmo, o forse era semplicemente stupito. Quando mi lasciò l'Udii sospirare sonoramente, di nuovo in preda alla tristezza. Sorseggiai una sha insieme a Krishna e Villu, e parlammo ininterrottamente per tre ore. Non erano fratelli, ma erano entrambi Tamil dello Sri Lanka, venivano dallo stesso villaggio sulla penisola di Yafna. Il loro villaggio era stato distrutto durante gli scontri fra le tigri Tamil, i guerriglieri indipendentisti, e l'esercito singalese. I loro familiari erano quasi tutti morti. I due ragazzi erano scappati, insieme alla sorella di Villu, un cugino, i nonni di Krishna e le sue due nipotine. che non avevano ancora compiuto cinque anni. Avevano raggiunto l'India su una barca da pesca che batteva la rotta fra Yafna e la costa del Coromandel trasportando clandestini. Erano riusciti ad arrivare a Bombai, dove avevano vissuto su un marciapiede, usando come unico riparo un foglio di plastica. Per un anno avevano campato dei lavoretti saltuari e malpagati e di piccoli crimini. Un giorno un loro vicino di marciapiede, sapendo che leggevano e scrivevano bene in inglese, chiese a Krishna e Villu di truccare una licenza. Fecero un buon lavoro, e da quel momento ci fu un flusso crescente di visitatori al loro rifugio di plastica lungo un marciapiede di Bombai. Abdul Ghani venne a sapere della loro bravura e consigliò a Kader Bai di metterli alla prova. Due anni più tardi, quando li conobbi, Krishna e Villu abitavano in una casa grande e confortevole con i superstiti delle loro famiglie, riuscivano a risparmiare una parte del generoso stipendio ed erano probabilmente i più apprezzati falsari di Bombai, capitale indiana della contraffazione. Volevo imparare tutto. Desideravo la mobilità e la sicurezza che poteva offrirmi la loro arte. Krishna e Villu parlavano un ottimo inglese. Il mio entusiasmo alimentò la loro naturale disponibilità, e la nostra prima conversazione proseguì con buon umore e simpatia reciproca. La nuova amicizia cominciava nel migliore dei modi. Dopo il primo incontro andai a trovare Krishna e Villu ogni giorno per una settimana. I due erano lavoratori instancabili, e mi capitò di rimanere con loro anche per dieci ore di seguito, li osservavo con la massima attenzione e facevo centinaia di domande. I passaporti destinati alla lavorazione si dividevano in due gruppi principali, quelli autentici e quelli vuoti, mai usati. I passaporti autentici erano rubati dai borsaioli, persi dai turisti o venduti da tossici disperati in Europa, Africa, America e Oceania. I passaporti vuoti erano rari. Venivano venduti da funzionari corrotti di ambasciate, consolati e uffici in migrazione di tutto il mondo. A titolo di esempio mi mostrarono un passaporto vuoto, mai usato, del Canada, che conservavano in una cassaforte a prova d'incendio insieme ad altri che arrivavano da Regno Unito, Germania, Portogallo e Venezuela. Disponendo di pazienza, esperienza e mezzi, i due falsari potevano modificare qualsiasi passaporto per adattarlo alle necessità del nuovo proprietario. Sostituivano le fotografie, e per riprodurre le dentellature del timbro si servivano di un semplice uncinetto. A volte rimuovevano con delicatezza le cuciture di un passaporto e toglievano un certo numero di pagine, sostituendole con quelle intatte di un altro passaporto. Date di scadenza e di rilascio, informazioni personali e timbri venivano modificati o cancellati con solventi chimici. I nuovi dati venivano inseriti scegliendo la sfumatura appropriata da una vasta gamma di inchiostri da stampa. Alcune modifiche non erano riconoscibili neanche dagli esperti, ed era pressoché impossibile che un passaporto falsificato da Chris Neville venisse riconosciuto durante un normale controllo. Mentre ero impegnato nella mia prima settimana di studi riuscì a trovare una nuova casa per Ulla, sicura e confortevole, dalle parti di Tardeo, non lontano dalla moschea di Aiali. Lisa Carter, che andava ogni giorno a trovare Ulla a casa di Abdullah, e ne approfittava per intrattenersi piacevolmente con quest'ultimo, accettò di dividere il nuovo appartamento. Trasferimmo le signore e i loro averi con una piccola flotta di taxi. Le due si intendevano, ed era nata una bella amicizia. Bevevano vodka, baravano a scarabeo e a ramino, vedevano gli stessi film in videocassetta, si scambiavano i vestiti. Avevano addirittura scoperto, durante le settimane trascorse nella cucina sorprendentemente ben equipaggiata di Abdullah, di apprezzare le rispettive specialità gastronomiche. La casa rappresentava un nuovo punto di partenza per entrambe e, nonostante Ulla continuasse a temere le conseguenze delle balordaggini di Maurizio, erano felici e ottimiste. Io continuavo i miei allenamenti di karate e sollevamento pesi con Abdullah, Salman e Samyai. Eravamo in forma, forti e veloci. Frequentandoci quotidianamente io e Abdullah eravamo diventati amici fraterni, proprio come Salman e Samyai. Era il tipo di intimità che non ha bisogno di parole, spesso ci incontravamo, andavamo in palestra, ci allenavamo ai pesi, combattevamo qualche round di boxe, e passavamo mezz'ora a studiare le mosse di karate senza scambiarci più di una decina di parole. A volte bastava un mio sguardo o una sua smorfia per perdere la serietà, cominciavamo a ridacchiare e in breve finivamo sul tappeto piegati in due dalle risate. In quel modo, senza parole, cominciai a poco a poco ad aprire il mio cuore ad Abdullah, e a provare per lui un profondo affetto. Al mio ritorno da Goa avevo parlato con Casimali, il capo dello slum, e con molti altri vecchi amici, fra cui Johnny Cigar. Vedevo Prabhakert sul suo taxi quasi ogni giorno. Ma ero così assorbito ed eccitato dalla mia nuova occupazione al laboratorio dei passaporti di Abdul Ghani che smisi del tutto di lavorare all'ambulatorio che avevo creato in quella che un tempo era la mia baratta. Nella mia prima visita allo slum dopo diverse settimane, vidi Prabhakert che si dimenava in una danza, mentre i musicisti dello slum provavano una canzone del loro repertorio. La piccola guida indossava la camicia color khaki da taxista e delle braghe bianche. Aveva una sciarpa viola al collo e sandali di plastica gialla ai piedi. Mi avvicinai senza farmi notare e mi fermai a osservarlo. Nella sua danza Prabhakert si sforzava di combinare mosse lascive ed eloquenti spinte delle e anche con espressioni facciali e delicati gesti delle mani di un'innocenza quasi infantile. Con grazia farse scappoggiava per un attimo il volto sorridente al palmo delle mani disteso, dopodiché spingeva avanti e indietro il bacino abbozzando un ghigno voluttuoso. Quando alla fine Prabhakert si girò e mi vide, il suo tipico sorriso incredibilmente ampio e affettuoso gli illuminò il volto, e si lanciò verso di me per darmi il benvenuto. Oh, Ling! strillò premendo la testa sul mio petto in un abbraccio commosso. Ho le notizie per te. Ho le fantastiche notizie. Ti cercavo in ogni posto, in ogni hotel con le donne nude, in ogni bar di trafficoni, in ogni slum più sporco, in ogni. Oh il quadro della situazione, Prabhu! Allora, quali novità? Sto per essere sposato. Sto per fare un matrimonio con Parvati. Non potrai mai crederci? Ci credo, e come. Congratulazioni. Immagino che ti stessi allenando per la festa di nozze. Oh, sì! Confermò spingendo avanti e indietro il bacino un paio di volte. Voglio una danza molto sexy per tutti, alla festa. È abbastanza sexy, vero? Sì. Sexy. Certo. Come vanno le cose da queste parti? Molto bene. Nessun problema. Oh, Ling! Ho dimenticato. Johnny fa anche lui il matrimonio. Sarà sposato con Sita, la sorella della mia bellissima Parvati. Dov'è? Vorrei salutarlo. È giù al mare, sai, nel posto dove si siede sugli scogli per essere da solo. Lo stesso posto dove anche tu godevi una buona solitudine. Lo trovi là. Mi allontanai, sbirciando di tanto in tanto Prabhacher che incitava la banda con le spinte a stantuffo delle sue minuscole anche. Trovai Johnny Cigar all'estrema propaggine dello slum, dove grandi massi neri sprofondavano nel mare. Indossava una canottiera bianca e una lungia a scacchi verdi. Aveva le braccia concerte, con le mani posate sulle spalle, stava leggermente piegato all'indietro e scrutava il mare. Era quasi il punto esatto dove mi aveva parlato dell'acqua salata, del sudore e delle lacrime la prima sera dell'epidemia di colera, molti mesi prima. Congratulazioni, dissi sedendomi di fianco a lui e offrendogli un abidi. Grazie, Lin, rispose sorridendo e facendo ciondolare la testa. Mi infilai il pacchetto in tasca, e per un po' osservammo in silenzio le piccole onde petulanti che si infrangevano sugli scogli. Sai, Lin? La mia vita è iniziata qui. Mi hanno concepito laggiù, a navi Nagar, disse indicando con un cenno del capo la zona recintata della marina indiana. L'area sorgeva al di là di una piccola baia, e si vedevano chiaramente alloggi, depositi e baracche. Mia madre era originaria di Delhi, e in famiglia erano tutti cristiani. Guadagnavano bene al tempo degli inglesi, ma persero impiego e privilegi dopo l'indipendenza. Quando si trasferirono a Bombay mia madre aveva 15 anni. Suo padre aveva trovato un lavoro da impiegato per la marina. Vivevano in uno slum poco lontano da qui. Mia madre si innamorò di un marinaio. Era un uomo alto e giovane di Amritsar, e aveva i piubbi e i baffi di tutta Navi Nagar. Quando mia madre rimase incinta la sua famiglia la cacciò via. Cercò di farsi aiutare dal marinaio, mio padre, ma era partito. Non lo vide mai più e non ebbe mai più sue notizie. Fece una pausa, e respirò dal naso con le labbra serrate. Teneva gli occhi socchiusi per proteggerli dal riverbero del mare e dalla brezza fresca e insistente. Sentivamo alle nostre spalle i rumori dello slum, i richiami degli ambulanti, gli schiocchi dei panni umidi sulle pietre nella zona della lavanderia, i bambini che giocavano, le urla di un battibecco, la musica fragorosa per le anche a stantuffo di Prabhakar. È stata dura per lei, Ling. Quando la cacciarono era già molto avanti con la gravidanza. Si trasferì su un marciapiedi occupato da altri poveracci nella zona del Crawford Market, e indossò la sari bianca delle vedove. Fece finta di avere un marito, e di essere rimasta vedova. Era obbligata a farlo, sarebbe rimasta vedova per tutta la vita, ancora prima di sposarsi. Per questo non mi sono mai sposato. Ho 38 anni. Leggo e scrivo bene, mia madre ha voluto che ricevesse una buona educazione, e tengo la contabilità di tutti i negozi e le attività commerciali dello slum. Calcolo le tasse di tutti quelli che le pagano. Vivo bene qui, e mi rispettano. Avrei dovuto sposarmi quindici o vent'anni fa. Ma mia madre è rimasta vedova tutta la vita, e lo ha fatto per me. Non potevo sposarmi, proprio non ce la facevo. Continuavo a sperare che un giorno l'avrei incontrato, il marinaio dai bi e i baffi. Mia madre aveva una vecchia foto sbiadita, si vedevano loro due con un'aria seria e compassata. È per questo che ho continuato a vivere qui. Ho sempre sperato di incontrarlo. E non mi sono mai sposato. È morta la settimana scorsa, Ling. Mia madre è morta la settimana scorsa. Si voltò verso di me, gli occhi scintillanti per le lacrime che non avrebbe mai versato. È morta la settimana scorsa. E adesso mi sposo. Mi dispiace per tua madre, Johnny. Ma sono sicuro che sarebbe stata felice del tuo matrimonio. Penso che sarai un buon padre. So che sarai un buon padre. Ne sono certo. Mi guardò, e i suoi occhi parlavano un linguaggio che percepivo, ma non potevo capire. Quando lo lasciai continuò a osservare il moto incessante del mare, e gli spruzzi di schiuma bianca sollevati dalle folate di vento. Tornai allo slume e andai all'ambulatorio. Parlai con Iubesi d'Arta, i due ragazzi che avevo istruito per prendere il mio posto. Mi dissero che tutto procedeva per il meglio. Diedi loro del denaro da usare in caso d'emergenza, e lasciai una somma anche a Prabhakar per i preparativi del matrimonio. Feci una visita di cortesia a Casimali Hussein, che volle a tutti i costi offrirmi il tè. Si unirono a noi anche Itendra e Anandrau, che erano stati miei vicini, e molte altre vecchie conoscenze. Casimali parlò di suo figlio Sadik che lavorava nel golfo. Poi, a turno, parlammo dei conflitti religiosi ed etnici in città, dei lavori alle torri gemelle, che sarebbero continuati per almeno due anni, e dei matrimoni di Prabhakar e Johnny Cigar. Fu un incontro schietto e amichevole, e quando me ne andai provai di nuovo la sensazione di forza e fiducia che quegli uomini onesti, semplici e dignitosi riuscivano ogni volta a trasmettermi. Feci solo pochi passi, e Anandrau, il giovane Sikh, mi raggiunse e iniziò a camminare di fianco a me. «Limbabba, abbiamo un problema», disse a bassa voce. Anche nei suoi momenti migliori Anand era sempre molto serio, ma in quel momento sembrava addirittura tetro. Ricordi Rafik, l'uomo con cui dividevo la baracca? «Sì, Rafik. Me lo ricordo», risposi pensando al giovane barbuto e irrequieto che era stato mio vicino, insieme ad Anand, per quasi un anno. «Sta facendo una brutta cosa», dichiarò bruscamente Anand Rao. «Sua moglie e sua cognata sono arrivate dal villaggio. Me ne sono andato dalla baracca quando sono arrivate. Da qualche tempo vivono da soli. Ebbene?», dissi mentre raggiungevamo insieme la strada. «Non avevo idea di dove volesse arrivare Anand, e non avevo voglia di stare ad ascoltarlo. Quando vivevo allo slum sentivo quasi ogni giorno la mente e le vague e insinuanti come quelle. Il più delle volte non portavano a niente, e in genere era molto meglio tenersene fuori. Ecco. Esittò Anand Rao, forse accorgendosi della mia impazienza, e. Lui. È una cosa molto brutta, e io. Bisognerebbe. Rimasi a fissarsi i sandali in silenzio. Appoggiai una mano sulla sua spalla larga e magra. Sollevò lentamente gli occhi, e mi guardò con un'espressione supplichevole, senza aprire bocca. «Si tratta di soldi?» chiesi frugandomi in tasca. «Hai bisogno di soldi?» sussultò come se lo avessi insultato. Per un attimo continuò a fissarmi, poi si girò di scatto e tornò verso lo slum. Camminai lungo le strade che avevo percorso tante volte, cercando di convincermi che andava tutto bene. Anand Rao e Rafik avevano diviso la stessa baracca per più di due anni. Era normale che litigassero, moglie e sorella di Rafik erano arrivate in città e Anand era stato cacciato dalla baracca. In ogni caso non erano affari miei. Sorrisi e scrollai la testa, cercando di capire perché Anand avessere agito così male alla mia offerta. Era legittimo credere che potesse avere bisogno di soldi. Durante la mezz'ora di cammino dallo slum a Leopold diedi del denaro ad altre cinque persone, inclusi due Gior dello Zodiaco. Qualunque cosa sia, gli passerà, mi dissi. E comunque io non centro niente. Ma le menzogne che ci raccontiamo sono come fantasmi che a mezzanotte tornano a infestare le nostre case deserte. Anche se mi sforzai di non pensare all'episodio di Anand, sentivo l'alito gelido del fantasma sfiorarmi il volto mentre camminavo della calura pomeridiana lungo l'affollatissima cause vai. Entrai a Leopold, e prima che potessi sedermi o aprire bocca di Die mi afferrò un braccio, mi fece girare su me stesso e mi trascinò verso un taxi in attesa davanti al locale. Ti ho cercato dappertutto, sbuffò Didi e mentre il taxi si allontanava dal marciapiede. Ho battuto i posti più indecenti per trovarti. La gente non fa che ripetermelo. Beh, Lin, dovresti cercare di passare più tempo nei locali dove servono alcol decente. Scovarti rimarrebbe un'impresa ardua, ma se non altro molto più gradevole. Dove stiamo andando, Didi e? In questo preciso istante il grande piano di Vikram, o meglio, la superba strategia da me congegnata, per catturare il freddo e petroso cuore inglese di Letitia è in pieno svolgimento. Ah sì? Bene, gli faccio i miei migliori auguri, dissi aggrottando la fronte, ma al momento muoio di fame, e ho intenzione di divorare nel più rumoroso dei modi un piatto di pulau a Leopold. Lasciami pure qui. Ma no. È impossibile. Obiettò Didi. Letitia è una donna estremamente cocciuta. Rifiuterebbe oro e diamanti, se qualcuno insistesse a offrirglieli. Non collaborerà al mio piano se qualcuno non la convince. È il compito spetta a te, mio caro amico. E questo deve avvenire entro mezz'ora. Esattamente alle tre e sei minuti. Cosa ti fa credere che Letitia mi ascolterà? Al momento sei l'unico di noi che Letitia non odia, e che non ha mai odiato in passato. In bocca a Letitia le parole non ti odio equivalgono ad appassionati versi d'amore. A te darà retta, ne sono certo. Senza il tuo aiuto il piano fallirà. E il buon Vikram, senza contare il fatto che amare una donna come Letitia è una prova sufficiente del suo deterioramento mentale, ha già rischiato la vita numerose volte per consentire l'attuazione del piano. Non puoi immaginare quanto io e Vikram ci siamo prodigati per arrivare a questo momento. Beh, a me nessuno ha detto niente, mi lamentai continuando a sognare lo squisito Pulao de Leopold. Ma è proprio per questo che ti ho cercato in tutta colabba. Non hai scelta, Lin, devi aiutarlo. Tu sei fatto come me, hai una malsana fiducia nell'amore, e un'irresistibile attrazione per la follia che l'amore scatena nelle sue vittime. Non è esattamente così, Didier. Puoi dire ciò che vuoi, ribatte Didier ridendo per la prima volta da quando c'eravamo incontrati, ma tu hai il mal d'amore, Lin. In cuor tuo sai che deve aiutare Vikram, e lo stesso vale per me. Oh, mio Dio. Mi arrendo, sospirai accendendo una bidi per placare i morsi della fame. Farò del mio meglio. Qual è il piano? E, è alquanto complicato. Un attimo, dissi alzando una mano per interromperlo. È un piano pericoloso? Beh. Saremo costretti a infrangere la legge. Beh. Lo immaginavo, perciò non dirmi nulla prima del tempo. Ho già abbastanza problemi di cui preoccuparmi. D'accordo. Sapevo di potere contare su di te. Allors, a proposito di problemi, ho una piccola notizia che potrebbe tornarti utile. Sentiamo. La donna che ti ha denunciato, la donna che ti ha fatto finire in galera, non è indiana. La notizia è certa. Si tratta di una straniera che vive a Bombai. Non c'è altro? No. Mi dispiace, per il momento è tutto qui. Ma non mi darò pace finché non sapremo tutta la storia. Grazie, Didi. Di niente. A proposito, hai un bel aspetto. Persino migliore di prima che ti mettessero in prigione. Grazie. Ho messo su qualche chilo, e sono più in forma. Forse anche un po' più folle? Scoppiai a ridere e distolsi lo sguardo, perché era vero. Il taxi si fermò alla Marine Line Station. Era la stazione più importante dopo quella centrale di Shurghate-de-Pot. Salimmo sul passaggio sopraelevato e scendemmo sulla pensilina di un binario dove trovammo ad aspettarci Vikram con molti suoi amici. Oh, cazzo! Grazie a Dio ci sei anche tu, fratello. Disse afferrandomi una mano e scuotendola freneticamente. Credevo che non saresti venuto. Dov'è Letitia? Chiese Didi. Là in fondo, Yar. È andata a prendersi una bibita. La vedi laggiù, dopo il chiosco del tè? Ah, sì. Non sa nulla del piano? Nulla di nulla, amico. Cazzo, sono troppo nervoso, non funzionerà, Yar. E se Letitia ci lascia le penne, Didi? Sarebbe il colmo se la uccidessi con la mia dichiarazione d'amore. Senza dubbio ammazzarla non sarebbe un buon inizio, riflettei. Non preoccuparti. Andrà tutto bene, cercò di tranquillizzarlo Didi. Nonostante l'aria sicura di sé, il nostro amico francese continuava ad asciugarsi nervosamente la fronte con un fazzoletto profumato, e non smetteva di scrutare il binario vuoto, in attesa dell'arrivo del treno. Funzionerà. Abbi fede. Non vorrei che fossero le ultime parole famose, Yar. Cosa devo fare, Vikram? Chiesi sperando di calmarlo. Ok, dichiarò ansimando come se avesse salito di corsa una rampa di scale. Ok. Innanzitutto Letitia deve fermarsi qui, davanti a te, in questo punto preciso. MMM. Deve essere qui, dove sono io. Esattamente qui. Abbiamo fatto centinaia di fottutissime prove, amico, e Letitia dovrà stare esattamente in questo punto. Capito? Credo di sì. Dunque Letitia deve essere proprio. Qui. Qui? Chiesi prendendolo in giro. Cazzo, amico, è una faccenda seria. Ok, tranquillo. Vuoi che Letitia stia qui? Sì. Proprio lì. E tu hai il compito di metterle la benda. La. Benda? Sì. Deve essere bendata, Lin, altrimenti il piano non funzionerà. E non deve togliersela, anche se sarà terrorizzata. Terrorizzata. Sì. È questo il tuo compito. Al nostro segnale devi convincerla a mettersi la benda, poi devi convincerla a non togliersela, Yar, anche quando comincerà a strillare. Strillare. Sì. All'inizio pensavamo di imbavagliarla, ma avrebbe potuto dar fuori di matto. Cazzo, andrà già abbastanza fuori di testa anche senza un fottuto bavaglio. Un. Bavaglio. Già. Ok, ecco che arriva. Attento al segnale. Ciao Lin. Ehi, ma che razza di grasso bastardo. Disse Lettie dandomi un bacio sulla guancia. Stai mettendo su ciccia, vero figliolo? Anche tu hai un bel aspetto, risposi sorridendo, contento di rivederla. Allora, di che si tratta? Sembra che abbiate riunito qui tutta la banda. Non lo sai? Risposi stringendomi nelle spalle. No, certo che no. Vikram mi ha solo detto che avrei trovato qui te e di di e, ciao di di e, ed eccoci qua. Che succede? In lontananza apparve il treno proveniente da sciurgate, e cominciò ad avvicinarsi al binario. Vikram mi diede il segnale convenuto spalancando gli occhi al limite del possibile e scuotendo furiosamente la testa. Appoggiai le mani sulle spalle di Lettie e la feci girare dolcemente su se stessa, finché non si trovò nella posizione voluta, con la schiena rivolta verso i binari. Ti fidi di me, Lettie? Abbastanza, rispose con un sorriso. D'accordo. Allora ascolta, voglio che tu faccia una cosa. Ti sembrerà strano, ma se non la fai, non saprai mai fino a che punto Vikram ti ama, e quanto tutti noi ti vogliamo bene. È una sorpresa che abbiamo organizzato per te. È una dimostrazione d'amore, Lettie. Il treno rallentò entrando in stazione. Gli occhi di Lettie scintillavano, e un sorrisetto le dischiuse le labbra. Era incuriosita ed emozionata. Dietro di lei Vikram e Didie gesticolavano come dei pazzi per farmi capire che dovevo sbrigarmi. Il treno si fermò con un lungo gemito metallico. Allora, Lettie. Devi metterti una benda, e devi promettere di non togliertela finché non te lo diciamo noi. Tutto è qua? Beh. Sì, dissi stringendomi nelle spalle. Mi fissò negli occhi. Sorrise. Inarcò le sopracciglia e abbassò gli angoli della bocca, pensierosa. Alla fine annui. Ok, disse ridendo, tentiamo pure. Arrivò Vikram con la benda e gliela legò intorno alla testa, chiedendo se fosse troppo stretta. Spinse indietro Lettie di un paio di passi, verso il treno, e le chiese di alzare le braccia sulla testa. Alzare le braccia? Come, così? Bada, Vikram, se mi fai il solletico me la paghi. Dal tetto della carrozza spuntarono alcuni uomini. Si chinarono verso il basso, afferrarono Lettie per le braccia e la sollevarono senza sforzo sul tetto. Lettie orlò, ma il grido penetrante fu coperto dal fischio del capotreno. Il treno cominciò a muoversi. Coraggio, sali. Mi urlò Vikram mentre si arrampicava sulla carrozza per raggiungere Lettie. Guardai Didie. No, amico mio, urlò. Questo non fa per me. Vai. Sbrigati. Trotterellai di fianco al treno, mi aggrappai alla carrozza e mi arrampicai sul tetto, dove erano accovacciati una dozzina di uomini. Alcuni erano musicisti, e stringevano in grembo tabla, piattini metallici, flauti e tamburelli. Poco più in là c'era un altro gruppo di persone, e Lettie era seduta nel mezzo, ancora bendata. Quattro uomini la tenevano per le braccia e per le spalle con fare protettivo. Vikram si inginocchiò davanti a lei. Mentre strisciavo sul tetto della carrozza per raggiungerli, sentì Vikram che parlava a Lettie in tono supplichevole. Te lo prometto, Lettie, sarà una bella sorpresa. Oh, è già una dannatissima sorpresa, urlò Lettie, ma non è niente in confronto a quella che ti aspetta quando scenderemo di qui, maledetto Vikram Patel. Ciao Lettie. Gridai. Che vista spettacolare, e. Oh, scusa, dimenticavo la benda. Beh, sarà spettacolare quando riuscirai a dare un'occhiata. È una fottuta pazzia, Ling. Mi urlò di rimando. Di a questi bastardi di lasciarmi andare. Non sarebbe prudente, Lettie, rispose Vikram. Ti tengono stretta per non farti cadere. E se ti alzi potresti essere trascinata via da un cavo, o qualcosa del genere. Ancora mezzo minuto e capirai tutto, te lo prometto. Capisco benissimo, non preoccuparti. Capisco che quando scendo di qui sei spacciato. Faresti meglio a buttarmi giù da questo maledetto treno finché sei in tempo, credimi. Se pensi che. Vikram tolse la benda e osservò Lettie che si guardava intorno, mettendo a fuoco il panorama dal tetto del treno in corsa. Spalancò la bocca, e a poco a poco distese il volto in un ampio sorriso. Accidenti. È. È davvero uno spettacolo. Guarda. Ordinò Vikram indicando un punto davanti al treno. C'era una sagoma tesa fra i binari, legata ai piloni della linea elettrica, molto più in alto del livello del tetto delle carrozze. Era un enorme stendardo, gonfio come una vela al vento. C'erano delle parole dipinte sul telone. Quando ci avvicinammo, la scritta divenne leggibile. I caratteri erano alti come un uomo, e occupavano l'intero stendardo teso dal vento, Lettia ti amo avevo paura che ti alzassi in piedi e ti facessi male, spiegò Vikram. Per questo i due ragazzi ti tenevano per le spalle. Nello stesso istante i musicisti attaccarono con fragore la melodia di una famosa canzone d'amore. Le voci si librarono sopra il pulsare dei tabla e il gemito dei flauti. Vikram e Lettie si guardarono negli occhi, e rimasero così, immobili, mentre il treno rallentava, si fermava in una stazione e ripartiva di nuovo. Poco dopo ci avvicinammo a un altro stendardo. Vikram staccò gli occhi da quelli di Lettie e guardò oltre la locomotiva. Lettie seguì il suo sguardo. Sul telone bianco era scritto, vuoi sposarmi? Passammo sotto l'ombra del telone, e tornammo a immergerci nella dolce luce del pomeriggio. Lettie piangeva. Vikram piangeva. Vikram la strinse fra le braccia. Si baciarono. Li osservai per un attimo e mi voltai verso i musicisti. Sorrisero, dondolarono la testa e scoppiarono a ridere senza smettere di cantare. Mi scatenai per loro in una danza di vittoria mentre il treno avanzava sobbalzando nei soborghi. Ogni giorno milioni di sogni nascevano tutto attorno a noi. Ogni giorno milioni di sogni morivano, per nascere di nuovo. Nella mia bomba e l'aria umida era satura di sogni. La mia città era un giardino di sogni racchiuso in una serrafosa e soffocante. E su quel tetto arrugginito era nato un nuovo sogno d'amore. Mentre sfrecciavamo nell'aria umida pensai alla mia famiglia. E pensai a Carla. E danzai su quel serpente d'acciaio che avanzava sinuoso vicino alla distesa infinita del mare. Lettie accettò la proposta di Vikram e i due scomparvero per una settimana. Anche in loro assenza, un senso di leggerezza e ottimismo simile alla felicità continuava a contagiare gli amici del Leopold. Quando riapparve, Vikram fu accolto con grande affetto. Io e Abdullah avevamo appena finito il nostro allenamento, e cominciammo a sfotterlo senza pietà per la sua aria esausta e folle di felicità. Dopodiché, mentre Vikram si sdilinquiva in discorsi d'amore, mangiammo a quattro palmenti chiudendoci in un ostinato silenzio. Didi era esultante, e andava in giro vantandosi del suo capolavoro strategico. In cambio chiedeva a tutti quelli che conosceva modesti tributi sotto forma di bevande alcoliche. Alzai gli occhi dal piatto e notai un ragazzo che mi stava chiamando con gesti nervosi e un'espressione preoccupata. Era uno dei tanti che stazionavano sul marciapiede e campavano chiedendo qualche soldo ai trafficanti. Mi alzai dal tavolo e lo raggiunsi sul marciapiede. Ling. Grosso guaio per te, disse trafellato, guardandosi intorno nervosamente. Tre uomini. Africani. Grossi. Molto forti. Ti cercano. Vogliono ucciderti. Uccidermi? Sì. Certo. Meglio che vai. Vai in fretta via da Bombai per qualche tempo. Fuggì via, e scomparve tra la folla. Incuriosito ma non preoccupato, tornai al tavolo. Feci in tempo a mangiare solo un paio di bocconi, e un uomo mi chiamò dalla strada. Era Giorgemelli. Temo che ci siano guai in vista, vecchio mio. Parlava in tono gioviale, ma aveva il volto teso e preoccupato. MMM. Pare che tre africani dal collo taurino, nigeriani, direi, abbiamo intenzione di procurarti qualche acciacco corporeo, non so se mi spiego. Chi sono? Non so, amico. Li ho visti parlare con i ragazzi sul marciapiede, poi sono saliti su un taxi e hanno tolto il disturbo. Sono dannatamente grossi, parola mia. Hanno riempito il taxi fino all'orlo. Quasi schizzavano fuori dai finestrini, per così dire. Di che si tratta? Non ho idea, amico. Non hanno detto cosa volevano, Ling. Hanno solo chiesto di te, e sembrano in cerca di guai. Fossi al tuo posto starei in guardia, puoi scommetterci. Mi frugai in una tasca, ma Giorg mi bloccò il polso. No, amico. Offre la ditta. Voglio dire, non so a che gioco vogliono giocare, ma di sicuro non te lo meriti. Si lanciò all'inseguimento di tre turisti tedeschi e io tornai nel ristorante. Dopo che al primo avvertimento si era aggiunto quello di Giorgio Melli, cominciavo a essere preoccupato sul serio. Impiegai più tempo del solito per finire il mio pasto. Subito dopo arrivò un terzo visitatore. Era Prabhakar. Ling. Disse con un'aria febbrile. Brutte notizie. Lo so, Prabhu. Tre uomini, africani, vogliono picchiarti e ucciderti e picchiarti. Fanno domande dappertutto. Quanto sono grossi. Come bufali. Devi fare una gran bella fuga. Impiegai cinque minuti a calmarlo, ma dovetti inventarmi una missione per lui, cercare gli africani negli hotel della zona, perché voleva darmi una mano a tutti i costi. Valutai la situazione insieme a Didiet, Vikram e Abdullah. Dopo un prolungato silenzio Vikram fui il primo a parlare. Molto bene. Ecco il mio piano. Troviamo quegli stronzi e gli spacchiamo la testa, suggerì guardando gli altri in cerca di appoggio. E poi li ammazziamo, aggiunse Abdullah. Vikram fece dondolare la testa in segno d'approvazione. Due cose sono certe, disse lentamente Didie. Innanzitutto, Lin, non devi mai restare solo fin che questa storia non si risolve. Vikram e Abdullah annuirono. Chiamerò Salman e Sannai, decise Abdullah. Non rimarrai solo, fratello. Secondo, proseguì Didiet, quei tre, chiunque essi siano, non devono rimanere a Bombay. Devono andarsene, in un modo o nell'altro. Ci alzammo per pagare il conto. Didiet mi fermò mentre gli altri si avviavano verso la cassa, e mi fece sedere su una sedia accanto a lui. Prese un tovagliolo, armeggiò brevemente sotto il tavolo e mi passò un fagotto. Era una pistola avvolta nel tovagliolo. Nessuno sapeva che Didiet andava in giro con un'arma, ero certo di essere il primo a vederla e a maneggiarla. La tenne stretta, mi alzai e raggiunsi gli altri che stavano uscendo dal ristorante. Mi girai a guardare Didiet, e lui annui con un'espressione seria, facendo tremolare i riccioli neri attorno alla testa. Li scovammo, ma ci volle tutto il giorno e buona parte della notte. Alla fine fu Asano Bikwa, che era nigeriano come loro, a darci la dritta giusta. Erano turisti, appena arrivati in città, e Bikwa non li conosceva. Non sapeva cosa facessero a Bombay, probabilmente un affare di droga, ma la rete di contatti del boss nigeriano aveva confermato che erano decisi a farmi fuori. Rahim, l'autista di Asan che ormai si era completamente ripreso dalle ferite del carcere, scoprì che alloggiavano in un albergo nella zona di Fort. Si offrì di risolvere lui la faccenda. Sapeva di essere in debito con me perché lo avevo fatto uscire dalla prigione di Arthur Road. Con un'espressione seria, quasi timida, si offrì di uccidere i tre uomini in modo lento e doloroso per farmi un favore personale. Pareva convinto che fosse il minimo che poteva fare, date le circostanze. Rifiutai. Per chiudere la vicenda definitivamente dovevo capire cosa c'era dietro. Rahim accettò la mia decisione e, visibilmente deluso, ci accompagnò al piccolo hotel a Fort. Rimasi ad aspettare vicino alle nostre due auto, e noi entrammo. Salman e Saniai restarono con lui a tenere d'occhio la strada. Avrebbero dovuto trattenere gli sbirri, nel caso fossero venuti a ficcare il naso, per darci il tempo di battercela dall'hotel. Un conoscente di Abdullah che lavorava all'hotel ci fece entrare di nascosto in una stanza di fianco a quella degli africani. Appoggiammo le orecchie al muro divisorio, e udimmo chiaramente le loro voci. Stavano scherzando, e parlavano del più e del meno. Alla fine uno dei tre disse una cosa che mi fece irrigidire dalla paura. Porta quella medaglia al collo. Deve essere d'oro. Io voglio tenermi la medaglia. A me piacciono le scarpe, disse un altro. Io mi tengo quelle. Cominciarono a parlare del loro piano. Ci fu una breve discussione, ma uno dei tre sembrava il capo, e gli altri accettarono la sua idea. Mi avrebbero seguito da Leopold fino al parcheggio dietro il mio palazzo, lì mi avrebbero pestato a morte e mi avrebbero portato via tutto. Era strano star sene al buio ad ascoltare i particolari del proprio assassino. Sentivo lo stomaco che si tendeva e si rilassava in un miscuglio di rabbia e nausea. Speravo di ottenere qualche indizio, di sentire qualcosa che mi permettesse di capire perché volevano aggredirmi, ma i tre africani non dissero nulla. Abdullah ascoltava con l'orecchio sinistro appoggiato alla sottile parete divisoria, io con l'orecchio destro. I nostri occhi erano a una spanna di distanza. Diedi il segnale d'attacco con un cenno del capo quasi impercettibile. Uscii nel corridoio con Vikram e Abdullah, ci piazzammo davanti alla porta della camera degli africani e infilai con cautela un passepartout nella serratura. Cominciammo il conto alla rovescia, 3, 2, 1. Poi girai la chiave e provai ad aprire la porta. Non era chiusa dall'interno. Arretrai e la sfondai con un calcio. Per pochi secondi rimanemmo immobili, i tre africani ci fissarono sbalorditi, con la bocca e gli occhi spalancati. Quello più vicino a noi era alto, massiccio e calvo, e aveva una serie regolare di profonde cicatrici sulle guance. Indossava una canottiera e dei boxer. Dietro di lui c'era un uomo di poco più basso, che aveva addosso solo un paio di calzoncini. Era piegato su un tavolino e sembrava impegnato a sniffare una pista di eroina. Il terzo uomo era più basso degli altri, ma aveva petto e braccia poderose. Era sdraiato sul letto in fondo alla camera, e aveva in mano un numero di playboy. C'era un forte odore nella stanza. Era odore di paura di sudore, e in parte ero anch'io a produrlo. Abdullah chiuse la porta alle sue spalle, lentamente e con delicatezza, e la chiuse con il chiavistello. Era vestito di nero, indossava quasi sempre una camicia nera e dei pantaloni dello stesso colore. Vikram aveva la solita tenuta nera da cowboy. Casualmente anch'io indossavo maglietta e pantaloni neri. Agli occhi strabuzzati dei tre africani potevamo sembrare i membri di una setta. «Che cazzo!» esclamò il più grosso. Scattai verso di lui e gli piazzai un pugno in bocca, ma gli restò la forza di alzarsi e di afferrarmi. Rimanemmo avvinghiati, tempestandoci di pugni. Vikram scattò verso l'uomo sul letto, e Abdullah si lanciò su quello al tavolino. Fu una lotta breve e sporca. Non c'era spazio, né possibilità di fuga. Abdullah finì il suo uomo in fretta. Udì un gemito soffocato, Abdullah aveva messo a segno un violento diretto alla gola dell'avversario. Vidi con la coda dell'occhio l'africano che cadeva all'indietro, stringendosi il collo con le mani. L'uomo sul letto balzò in piedi sul materasso e cominciò a scalciare, cercando di approfittare della posizione vantaggiosa. Abdullah e Vikram capovolsero il letto e l'africano rovinò a terra. Gli saltarono addosso e cominciarono a prenderlo a calci finché rimase immobile. Con la mano sinistra afferrai il mio uomo per il bordo della canottiera, e lo tempestai di pugni con la destra. Il mio rivale ignorò la gragnuola di pugni sulla testa, riuscì ad afferrarmi il collo e cominciò a strizzarlo. Avevo la gola stretta in una morsa, e sapevo che l'aria che mi restava nei polmoni avrebbe dovuto bastarmi finché non fossi riuscito a far fuori il mio avversario. Spinsi disperatamente la mano destra verso il suo viso e gli ficcai un pollice nell'occhio. Volevo spingerglielo nel cervello, ma l'africano scansò la testa, e il pollice scivolò sul massiccio osso della tempia. Riuscì a riportare il pollice in posizione e cominciai a spingere finché l'occhio schizzò fuori dall'orbita, e rimase a pensolare attaccato a dei fili sanguinanti. Allungai la mano per cercare di strapparglielo del tutto, o di ficcare il pollice nell'orbita vuota, ma l'africano allontanò la testa. L'occhio pensolava sulla guancia, e sferrai un pugno cercando di spiaccicarlo. Era un duro, e non cedeva. Strinse ancor più forte le mani attorno alla mia gola. Avevo il collo forte e muscoloso, ma sapevo che il mio avversario aveva la forza necessaria per uccidermi. Cercai la pistola che tenevo in tasta. Dovevo sparargli. Dovevo ammazzarlo, e non me ne importava nulla. Non avevo più aria nei polmoni, e il cervello cominciava a esplodermi in una serie di frattali colorati. Stavo morendo, e volevo ammazzarlo. Vikram schiantò un pesante sgabbello di legno sulla parte posteriore del cranio calvo del colosso. Non è facile stendere un uomo come si vede nei film. È vero che un colpo fortunato può mettere fuori combattimento un uomo all'istante, ma personalmente sono stato colpito con sbarre di ferro, bastoni, calci e pugni e sono svenuto una volta sola in vita mia. Vikram fu costretto a sbattere cinque volte lo sgabbello sul cranio dell'africano con tutta la sua forza, prima che il bestione crollasse stordito sul pavimento. Aveva la parte posteriore del cranio in poltiglia. Doveva essere fratturato in più punti, tuttavia l'uomo era ancora più o meno cosciente. Interrogammo i tre per mezz'ora, e alla fine riuscimmo a vincere la loro riluttanza a parlare. Rahim si unì a noi, e cominciò a fare domande in inglese e nel loro dialetto nigeriano. Secondo i passaporti erano cittadini nigeriani con un visto turistico. Frugando fra i bagagli scoprimmo che erano stati a Lagos prima di venire a Bombay. A poco a poco la storia venne fuori. Erano sicari mandati da un boss di Lagos per punirmi a causa di un grosso business di eroina e pastitti di mandrax che era finito in malora. Era una partita del valore di 60 mila dollari, e a Bombay qualcuno aveva fregato il boss. Il truffatore, chiunque fesse, aveva detto che io avevo ideato il piano e mi ero intascato i soldi. I sicari ci raccontarono la storia fino a questo punto, poi cominciarono a tempennare. Non volevano dirmi il nome del truffatore. Non volevano dire chi mi aveva incastrato. Non volevano tradirlo senza il permesso del loro boss. Alla fine riuscimmo a convincerli. Il nome dell'uomo era Maurizio Belcane. Cercai di sistemare l'occhio del mio avversario nell'orbita, ma il bulbo rimase girato con una strana angolazione. Dal modo in cui l'uomo voltò la testa per guardarmi capì che l'occhio era fuori uso, e sospettai che difficilmente sarebbe riuscito a recuperarlo. Bendammo l'occhio del colosso con del nastro adesivo, gli facciamo la testa e facemmo rialzare i suoi due compari. Alla fine parlai. Questi uomini vi accompagneranno all'aeroporto. Aspetterete nel parcheggio. Domattina prenderete l'aereo per Lagos. Compreremo i biglietti con i vostri soldi. Ve lo dico chiaro e tondo, io non centro niente in questa storia. Non è colpa vostra, è colpa di Maurizio, ma la cosa non mi rende più felice. Maurizio la pagherà, ve lo garantisco. Tornate dal vostro capo, e ditegli che Maurizio avrà quel che si merita. Se tornate qui vi ammazziamo. Capito? Se tornate a Bombay, siete spacciati. Sì, avete capito, cazzo. Urlò Vikram mollando un calcio al più vicino. Venite qui a rompere il cazzo agli indiani, fottute teste di cazzo. Con l'India avete chiuso. Se tornate qui ci penso io a tagliarvi le balle a tutti. Vedete il mio cappello? Vedete il segno sul mio cappello, fottuti by Incod? Avete ammaccato il mio fottuto cappello. Non si rovina il cappello di un indiano. Non si rompe il cazzo a un indiano, cappello o non cappello. Mai. E specialmente a uno col cappello. Li lasciai, presi un taxi e andai alla nuova casa di Ulla. Se c'era qualcuno che poteva darmi notizie di Maurizio era lei. Mi faceva male la gola, quasi non riusciva a parlare. Non facevo che pensare alla pistola che avevo in tasca. Era come se nella mia immaginazione si stesse gonfiando, fino a diventare enorme, vedevo i disegni in rilievo sul calcio grandi come i rilievi della corteccia in una quercia da sughero. Era una Walter P38, una delle migliori pistole semiautomatiche del mondo. Sparava pallottole calibro 9 e aveva un caricatore da otto colpi, e immaginai tutti gli otto colpi che si schiantavano nel corpo di Maurizio. Borbottai quel nome, Maurizio, Maurizio. E una voce dentro di me, una voce che conoscevo bene, disse, sbarazzati della pistola prima di trovarlo. Bussai con forza alla porta di casa, e quando Lisa venne ad aprire la spinsi da parte e mi diressi verso Ulla che era seduta su un divano insalotto. Stava piangendo. Quando entrai sollevò la testa per guardarmi, e vidi che l'occhio sinistro era gonfio, come se qualcuno l'avesse picchiata. Maurizio. Esclamai furioso. Dov'è Maurizio? Lin, non posso. Rispose singhiozzando. Moden. Non mi interessa Moden. Voglio Maurizio. Dimmi dov'è. Lisa mi diede un colpetto sulla spalla. Mi voltai e vidi che stringeva in mano un lungo coltello da cucina. Indicò con un cenno del capo la camera da letto. Guardai prima Ulla, poi di nuovo Lisa, che annui lentamente. Era nascosto in un armadio. Quando lo trascinai fuori mi supplicò di non fargli del male. Lo afferrai per la cintura, dalla schiena, e lo trascinai verso la porta di casa. Urlò per chiedere aiuto, e lo colpì in faccia con la pistola. Urlò ancora, e lo colpì molto più forte. Aprì la bocca per urlare di nuovo e gli sbatte il calcio della pistola sulla testa. Rimase quieto. Lisa si avvicinò puntandogli contro il coltello e ring io, sei fortunato che non te l'ho piantato nelle budella, figlio di puttana. Se la picchi ancora, ti ammazzo. Cosa voleva? Le domandai. È per via dei soldi. Lì a Modena. Ulla ha chiamato Maurizio. S'interruppe, sbalordita dalla espressione furiosa con cui guardai Ulla. Lo so, lo so, non avrebbe dovuto dirlo a nessuno. Invece gli ha detto dove eravamo. Dovevano venire tutti e due qui, stanotte. Ma Modena non si è fatto vedere. Ulla non c'entra, Ling. Non sapeva che Maurizio ti ha incastrato. Maurizio ci ha raccontato la storia un minuto fa. Ci ha detto che ha dato il tuo nome a un paio di sicari nigeriani. Ti ha incastrato per salvarsi la pelle. Ha detto che gli servivano i soldi per tagliare la corda, perché dopo averti sistemato sarebbero venuti a cercarlo. Il grande eroe ha cercato di picchiarla per farsi dire dove è nascosto Modena. Poi sei arrivato tu. Dove sono i soldi? Chiesi a Ulla. Non lo so, Lin, strillò. Vaffanculo i soldi. Io non li voglio. Modena si vergognava del mio lavoro. Non capisce. Io preferisco battere che farlo finire in un casino del genere. Lui mi ama. Mi ama. Io non centro niente con questa storia dei nigeriani, Lin, te lo giuro. È stata un'idea di Maurizio. Va avanti da settimane. Per questo avevo tanta paura. Poi stasera Modena è riuscito a mettere le mani sui soldi che Maurizio ha fregato agli africani, e li ha nascosti. L'ha fatto per me. Mi ama, Lin. Modena mi ama. Scoppiò in singhiozzi. Mi voltai verso Lisa. Lo porto via con me. Bene. Esclamò. Ve la sentite di rimanere qui da sole? Sì, non preoccuparti. Avete soldi? Sì, tranquillo. Vi mando Abdullah appena posso. Tenete la porta chiusa e non fate entrare nessuno, d'accordo? Contaci, disse con un sorriso. Grazie, Gilbert. È la seconda volta che mi salvi. Non ha niente. Non è vero. Me ne ricorderò, disse chiudendo a chiave la porta alle mie spalle. Vorrei potere dire che non lo picchiai. Era abbastanza grande e grosso e avrebbe potuto difendersi, ma non aveva il coraggio di combattere, e averlo preso a botte non è un gran vanto. Non cercò neanche di reagire. Piagnucolava, supplicava, urlava. Vorrei poter dire che a scatenare i miei pugni fu un severo senso di giustizia e di legittima rivalsa per il torto che avevo subito. Non ne sono tanto sicuro. Dopo tanti anni non ho ancora capito se in realtà la mia furia si scatenò per un motivo più oscuro, profondo e molto meno nobile di una legittima vendetta. Ero geloso di Maurizio da molto tempo. E in parte, una piccola ma terribile parte, la mia violenza potrebbe essersi scatenata a causa del suo bell'aspetto, e non del torto che mi aveva fatto. In ogni caso avrei fatto meglio a ucciderlo. Quando lo lasciai pesto e sanguinante vicino al San Giorgio Hospital una vocina mi disse che non sarebbe finita così facilmente. Esitai, guardando il suo corpo devastato con occhi assassini, ma non fui in grado di togliergli la vita. Mentre mi supplicava di non picchiarlo aveva detto una cosa che mi aveva colpito. Aveva detto che, dovendo inventarsi un colpevole del furto, aveva fatto il mio nome ai sicari nigeriani perché era geloso di me. Era geloso della mia sicurezza, della mia forza e delle mie amicizie. Era geloso di me, e per questo mi odiava. Tutto sommato non eravamo troppo diversi, io e Maurizio. Il giorno dopo non smisi di pensare alla storia anche dopo che i nigeriani furono partiti, e andai a Leopold per restituire la pistola ancora intatta a Didier. Continuavo a rimuginare la vicenda, tormentato dalla rabbia e confuso dal rimorso, anche quando incontrai Johnny Cigar che mi aspettava davanti al ristorante. Faticai a concentrarmi, e a capire ciò che mi stava dicendo. È una brutta storia, Ling. Stamattina Anandrau ha ucciso Rafik. Gli ha tagliato la gola. Non era mai successo. Sapevo cosa intendeva dire. Era il primo omicidio allo slum. Era la prima volta che un abitante dello slum di Cuffe Parade ne uccideva un altro. In quel piccolo spazio vivevano 25.000 persone, che discutevano, litigavano e si azzuffavano di continuo, eppure nessuno era mai arrivato a tanto. All'improvviso mi venne in mente Maid. Anche lui era stato assassinato. In qualche modo ero riuscito a rimuovere la sua morte, ma il pensiero era nascosto in un angolo oscuro della mia mente e non aveva smesso di logorare lo schermo d'indifferenza che avevo cercato di costruire. La notizia della morte di Rafik lo aveva fatto esplodere all'improvviso. E l'omicidio del trafficante d'oro, lo avevano macellato, come aveva detto Abdul Ghani, si confuse con il sangue che macchiava le mani di Anand. Anand. Il suo nome significava Beatitudine. Anand, che aveva provato a parlarmi, era venuto da me in cerca di aiuto, e non lo aveva trovato. Mi strinsi il volto fra le mani, poi le passai sui capelli. La strada intorno a noi era affollata e caotica come sempre. I clienti delle Opol dridevano, chiacchieravano e bevevano come al solito. Tuttavia qualcosa era cambiato nel mondo che avevamo conosciuto io e Ghani. L'innocenza era perduta, e nulla sarebbe stato mai più come prima. Odì le parole etteggiare nella mia mente. Nulla sarà mai più come prima. Nulla sarà mai più come prima. Una visione, una delle cartoline che a volte ricevi dal destino, mi balenò davanti agli occhi. Era una visione di morte, di terrore, di follia. Ma era una visione confusa. Non riuscivo a distinguerne i particolari. Non capivo se riguardava me o gli altri. In un certo senso non me ne importava nulla. Poteva costarmi vergogna, rabbia e rimorso, ma non me ne curavo. Sbattei gli occhi, mi schiarii la gola indolenzita, lasciai la strada e mi tuffai nella musica, nelle risate, nella luce. Quarta parte. Capitolo 26. Gli indiani sono gli italiani d'Asia, sentenziò Didier con un sorrisetto saggio e malizioso. Si potrebbe dire con altrettanta certezza che gli italiani sono gli indiani d'Europa, ma credo che tu abbia afferrato il concetto. Sia gli indiani sia gli italiani hanno bisogno di una madonna, non possono fare a meno di una dea, anche se la religione gliela nega. Sia in India sia in Italia ogni uomo diventa un cantante quando è felice, e ogni donna una ballerina quando va a fare la spesa dietro casa. Per questi due popoli il cibo è musica nel corpo, e la musica cibo nel cuore. E le loro lingue. Fanno d'ogni uomo un poeta, e ammantano di bellezza anche la peggiore banalità. Sono nazioni in cui l'amore fa di un gangster un cavaliere, e di una contadina una principessa, anche se solo per il breve istante in cui ti guardano negli occhi. Il segreto del mio amore per l'India, Lin, è che il mio primo grande amore è stato un italiano. Dove sei nato, Didier? E, Lin. Il mio corpo è nato a Marsiglia, ma cuore e anima sono nati a Genova, sedici anni più tardi. Didier attirò l'attenzione del cameriere con uno sguardo, e ruotò pigramente la mano per ordinare un'altra bevanda. Aveva appena assaggiato quella appoggiata sul tavolo, perciò dedussi che intendeva parlare a lungo. Erano le due del pomeriggio di un mercoledì nuvoloso, tre mesi dopo la notte degli assassini. Mancava ancora una settimana all'inizio del monsone, ma c'era nell'aria un senso d'attesa, una tensione che faceva trattenere il respiro a tutti gli abitanti della città. Era come se un immenso esercito stesse radunandosi alle porte della città, pronto a sferrare l'assalto. Mi piacevano le settimane che precedevano la stagione delle piogge, la tensione e l'eccitazione che vedevo negli altri erano lo specchio della cupa inquietudine che io provavo tutto l'anno. Mia madre era una donna fragile e bellissima, ma l'ho vista solo in fotografia, proseguì di die. Quando nacqui aveva solo diciotto anni, e morì due anni dopo, uccisa dall'influenza. Ma correva voce, voci crudeli, e le ho sentite molte volte, che mio padre la trascurasse che, come si suol dire, fosse troppo taccagno per pagarle le spese mediche. In ogni caso morì prima che io compissi due anni, e di lei non ho nessun ricordo. Mio padre insegnava matematica e chimica. Era molto più vecchio di mia madre. Quando cominciai ad andare a scuola, mio padre era il preside. Mi dissero che era un uomo brillante, perché solo un ebreo brillante poteva riuscire a diventare preside di una scuola francese. Nella zona di Marsiglia nell'immediato dopo guerra razzismo e antisemitismo erano come una malattia. Penso fesse dovuto ai sensi di colpa dei marsigliesi. Ma mio padre era un uomo cocciuto. Solo se si è cocciuti si può diventare matematici, dico bene? La matematica stessa è una forma di cocciutaggine, non credi? Può darsi, risposi sorridendo. Non ci avevo mai pensato, ma forse non hai tutti i torti. Ialors, dopo la guerra mio padre era tornato a Marsiglia, ed era andato a vivere nella stessa casa che era stato costretto a lasciare quando gli antisemiti avevano preso il controllo della città. Aveva combattuto con la resistenza, ed era rimasto ferito in un corpo a corpo con tedeschi. Per questo nessuno osava criticarlo. Almeno non apertamente. Ma sono sicuro che il suo viso ebreo, e il suo orgoglio ebreo, e la sua bellissima e giovane moglie ebrea ricordavano ai bravi marsigliesi le migliaia di ebrei che avevano tradito e lasciato sterminare. Per mio padre fu una specie di freddo trionfo tornare nella casa da cui era stato cacciato, in mezzo alla gente che lo aveva tradito. E quando mia madre morì quella freddezza gli invase il cuore. Anche le sue rare carezze erano gelide, se ci ripenso. Rimase in silenzio, beve un sorso dal bicchiere e lo rimise nell'esatta posizione di prima, indicata da un cerchio di umidità sul tavolo. Comunque era un uomo brillante, proseguì guardandomi negli occhi con un sorriso frettoloso. E, a parte un'unica eccezione, era un ottimo insegnante. L'eccezione ero io. Io ero il suo fallimento. Ero negato per le scienze e la matematica. Erano linguaggi che proprio non riuscivo a capire. Mio padre reagiva alla mia ottusità dando libero sfogo al suo carattere brutale. Da bambino avevo l'impressione che la sua mano gelida fosse così grande. Quando mi colpiva mi pareva che tutto il corpo rimanesse ammaccato e dolorante per colpa di quel palmo e di quelle nocche gigantesche. Lo temevo, e mi vergognavo per i miei fallimenti scolastici, perciò spesso marinavo le lezioni e frequentavo le cosiddette cattive compagnie. Finii più volte davanti al giudice, e prima di compiere tredici anni passai due anni in un carcere minorile. A sedici anni lasciai per sempre la casa, la città e la nazione di mio padre. Arrivai per caso a Genova. Ci sei mai stato? Credimi, è il gioiello nella tiara della costa Ligure. Un giorno su una spiaggia incontrai l'uomo che mi fece conoscere tutte le cose belle e buone che esistono al mondo. Si chiamava Rinaldo. Aveva quarantotto anni, e io sedici. Era di origini nobili, il suo albero genealogico risaliva ai tempi di Cristoforo Colombo. Ciononostante viveva senza ostentazione in una bellissima casa sulle colline. Era uno studioso, l'unico vero uomo del Rinascimento che abbia mai conosciuto. Mi insegnò i segreti dell'antiquariato, la storia dell'arte. Mi fece apprezzare la musica della poesia e la poesia della musica. Aveva i capelli argente e come la luna piena e gli occhi grigi e malinconici. Mentre mio padre aveva mani brutali e gelide, quelle di Rinaldo erano lunghe e affusolate, calde, espressive e trasmettevano dolcezza a tutto ciò che toccavano. Imparai cosa significa amare con tutto il corpo e tutta l'anima. Fra le sue braccia nacque a nuova vita. Didier cominciò a tossicchiare, provò a schiarirsi la gola ma la tosse degenerò in un violento accesso che gli piegò il corpo in spasmi dolorosi. Devi smettere di bere e fumare in quel modo, Didier, e ogni tanto dovresti fare un po' di esercizio fisico. Oh, ti prego. Gemette scrollando le spalle. Appena la tosse si placò spense la sigaretta che stava fumando e ne pescò un'altra dal pacchetto. Non c'è nulla di deprimente come un buon consiglio, e ti sarei grato se me lo risparmiassi. Francamente mi sorprendi. Dovresti saperlo, no? Qualche anno fa mi hanno dato un consiglio talmente buono che sono rimasto depresso per sei mesi di fila. C'è mantato un pelo. Per poco non mi riprendevo più. Mi dispiace. Non so che mi è preso. Ti perdono, sospirò trangugiando d'un fiato il bicchiere di whisky mentre il cameriere si avvicinava con la nuova ordinazione. Sai una cosa? Cercai di ammonirlo. Carla dice che la depressione viene solo a quelli che non sono capaci di essere tristi. Beh, si sbaglia. Dichiarò Didier. Io sono un esperto di tristesse. È lo stato d'animo umano più elevato. Ci sono molti animali in grado di esprimere la loro felicità, ma solo l'uomo possiede il genio di manifestare una sublime tristezza. Per me è una specie di meditazione quotidiana. La tristezza è l'unica arte che padroneggio perfettamente. Rimase immusonito per alcuni secondi, troppo irritato per continuare a parlare, poi sollevò gli occhi, mi guardò e scoppiò a ridere. Hai sue notizie? Mi chiese. No. Ma sai dov'è? No. Ha lasciato Goa? C'è un tizio che conosco, un certo Dashrant, il proprietario di un ristorante sulla spiaggia dove stavamo io e Carla, e gli ho chiesto di tenerle d'occhio, di badare che non le succedesse nulla di male. L'ho chiamato la settimana scorsa e mi ha detto che se n'è andata. Ha cercato di convincerle a fermarsi, ma lei. Beh, sai com'è fatta Carla. Didier sporse le labbra e fece un'espressione pensierosa. Guardammo in silenzio il frenetico via vai sulla strada a due metri dal nostro tavolo, oltre l'ampio ingresso del Leopold. E, bien, non preoccuparti per Carla, disse alla fine Didier. Se non altro gode di un'eccellente protezione. Pensai che Didier intendesse che Carla sapeva badare a se stessa, o che era nata sotto una buona stella. Mi sbagliavo. Non era quello che intendeva, c'era dell'altro. Avrei dovuto chiederglielo, naturalmente. Nei lunghi anni trascorsi da quella conversazione mi sono chiesto mille volte come sarebbe cambiata la mia vita se avessi chiesto spiegazioni a Didier. Invece, con la testa piena di supposizioni e il cuore pieno d'orgoglio, cambiai discorso. Allora. Cos'è successo? Prego? Chiese stupito Didier. Cos'è successo a te e a Rinaldo a Genova? Ah, già. Mi amava, e io l'amavo, è vero, ma mi aveva giudicato male. Mi sottopose a una prova d'amore. Mi mostrò il nascondiglio segreto dove custodiva un'enorme somma di denaro. Non seppi resistere alla tentazione. Presi il denaro e scappai. Lo amavo, ma presi il denaro e tagliai la corda. Per quanto fosse saggio, non sapeva che l'amore non può essere messa alla prova. Puoi verificare l'onestà e la lealtà di una persona, ma non l'amore. L'amore dura per sempre, anche se arriviamo a odiare la persona che amiamo. L'amore dura per sempre perché nasce in una parte di noi che è immortale. L'hai più rivisto? Sì, certo. Quindici anni dopo capitai per caso a Genova. Passeggiavo sulla stessa spiaggia dove mi aveva insegnato a leggere Rimbaud Everline. E lo vidi. Era seduto con un gruppo di uomini della sua età, ormai aveva più di sessant'anni, e guardavano due anziani che giocavano a scacchi. Indossava un cardican grigio e una sciarpa nera, anche se non faceva freddo. Aveva perso quasi tutti i capelli. La sua bella chioma argentea era scomparsa. Aveva il volto scavato, e un brutto colorito, come se stessi riprendendosi da una grave malattia. O forse stava morendo. Non so. Continuai per la mia strada e distolsi lo sguardo per non farmi notare. Feci persino finta di zoppicare, in modo che non riconoscesse la mia andatura. All'ultimo momento mi voltai a guardarlo, e vidi che tossiva violentemente coprendosi la bocca con un fazzoletto bianco. Mi parve di vedere delle macchie di sangue sul fazzoletto. A poco a poco accelerai il passo, e alla fine mi misi a correre a perdifiato. Rimanemmo ancora una volta a fissare la folla in silenzio, e per un attimo seguimmo con gli occhi un uomo con un turbante azzurro, poi una donna in shador, velata da capo a piedi. Vedi Lynn, ho vissuto quella che molti, quasi tutti, definirebbero una vita depravata. Ho commesso crimini che potevano costarmi la prigione crimini che in alcune nazioni potevano portarmi al pativolo. Ci sono molte cose di cui non sono orgoglioso, ma c'è solo un'azione nella mia vita di cui mi vergogno veramente. Sono scappato via da quella persona meravigliosa, e avevo soldi, tempo e salute per aiutarlo. Non sono scappato via per il rimorso di avergli rubato quei soldi. E neanche perché temevo la sua malattia e l'impegno che mi sarei dovuto accollare. Sono scappato da quell'uomo buono e geniale, che mi amava e mi aveva insegnato ad amare, semplicemente perché era vecchio. Sono scappato perché non era più bello come un tempo. Vuotò il bicchiere, osservò per un attimo il vetro vuoto e lo posò sul tavolo con attenzione e delicatezza, come se potesse andare in frantumi. Merde! Beviamo, amico mio! Sbottò alla fine, ma gli bloccai la mano per evitare che chiamasse il cameriere. Non posso, Didier. Ho un appuntamento con Lisa al Searock. Mi ha chiesto di raggiungerla lì in moto. Devo partire subito, altrimenti non ce la faccio. Didier serrò le mascelle come per trattenere qualcosa che stava per dire. Una domanda, forse, o un'altra confessione. Continuai a tenergli stretta la mano. Senti, se hai voglia puoi venire con me. Non è un incontro privato, ed è un bel giro in moto, fino a Ju. Didier sorrise triste e liberò la mano dalla mia stretta. Senza smettere di fissarmi negli occhi fece un gesto con un dito, e un cameriere arrivò al tavolo. Senza guardarlo Didier ordinò un altro whisky. Quando pagai il mio conto e uscì in strada aveva un nuovo accesso di tosse, era piegato in due, si teneva il petto con una mano e reggeva il bicchiere con l'altra. Un mese prima avevo comprato una moto, una Enfield Bullet. Da quando ero tornato a Bombay continuavo a rimpiangere l'emozione adrenalinica delle mie scorribande a Goa, alla fine mi arresi e andai con Abdullah dal suo meccanico di fiducia. Era un Tamil di nome Hussein che amava Abdullah quasi quanto l'emoto. Mi procurò una Enfield in perfette condizioni, che non mi diede mai problemi. Vikram fu così colpito che una settimana andò da Hussein e ne comprò una anche per sé. A volte giravamo insieme, con le tre moto affiancate, i volti sorridenti baciati dal sole. Quel pomeriggio dopo avere lasciato Didier guidà e piano, per avere il tempo di riflettere. Carla aveva lasciato la capanna ad Agnuna Beace e non aveva più dato sue notizie. Hulla mi aveva detto che Carla aveva smesso di scriverle, e non avevo motivo di credere che mi mentisse. Carla era svanita e non c'era modo di ritrovarla. La sognavo quasi ogni notte, e ogni mattina mi svegliavo pensando a lei. Ogni notte mi addormentavo con la lama del rimpianto conficcata nel petto. Mentre guidavo pensai a Cader Bay. Sembrava molto soddisfatto del mio piccolo ruolo nella sua rete criminale. Supervisionavo una parte dei traffici d'oro negli aeroporti, scambiavo somme di denaro con gli agenti negli hotel a 5 stelle e negli uffici delle compagnie aeree, compravo i passaporti dei turisti. Erano tutti lavori che un gora poteva svolgere in modo più efficiente e discreto rispetto a un indiano. Paradossalmente la mia visibilità era un ottimo travestimento. In India gli stranieri venivano guardati con curiosità. A un certo punto della sua lunga storia la civiltà indiana aveva elaborato un particolare tipo di sguardo curioso e disinvolto. Da quando ero a Bombay mi ero abituato a essere oggetto di un vasto repertorio di ispezioni ottiche, in una vasta gamma che andava dall'occhiata inaffettuosa e distratta allo sguardo fisso e sbalordito a occhi spalancati. Non erano sguardi ostili, le occhiate che ricevevo ovunque andassi erano innocenti, curiose e quasi sempre amichevoli. Quell'attenzione visiva mi tornava utile, perché quasi sempre le persone guardavano chi ero, non cosa facevo. Perciò entravo e uscivo dalle agenzie di viaggio e dagli hotel di lusso, dagli uffici delle compagnie aeree e delle aziende, seguito a ogni passo da gente che vedeva me, ma non i crimini che commettevo al servizio del Gran Can. Superai la moschea di Aiali e mi lanciai lungo il grande viale nell'intenso traffico pomeridiano. Mentre guidavo mi chiesi perché Abdelkader Can non mi avesse mai parlato dell'omicidio del suo amico e collega Maid. Quell'episodio continuava a tormentarmi e avrei voluto sentire l'opinione di Caderbai, ma l'unica volta che avevo provato ad accennargli il nome di Maid mi aveva guardato con un'espressione talmente affranta che mi era affrettato a cambiare discorso. Più passava il tempo e più trovavo difficile affrontare l'argomento. Era come se fossi io a mantenere il segreto, e anche se non smettevo di pensare a quell'omicidio, non riuscivo a confidarmi con Caderbai. Parlavamo di affari o di filosofia. Alla fine, nel corso di una delle nostre lunghe conversazioni, aveva risposto alla mia grande domanda. Ricordo come gli scintillavano gli occhi dall'eccitazione, o forse dell'orgoglio, quando gli dimostrai di avere capito il suo insegnamento. E mentre sfrecciavo in moto per raggiungere Lisa, il giorno della confessione di Didier, ricordai parola per parola e sorriso per sorriso la spiegazione del Gran Can. Dunque fin qui hai capito l'essenza del mio ragionamento? Sì. Era una settimana prima della confessione di Didier. Quella sera avevo raggiunto Caderbai nella sua casa a Dongri per riferirgli dei cambiamenti che avevo proposto e iniziato a organizzare nella fabbrica di passaporti di Abdul Ghani. Con l'approvazione e l'appoggio di Abdul Ghani avevamo esteso il nostro raggio d'azione a una vasta gamma di documenti d'identità, patenti di guida, conti bancari, carte di credito e persino tessere di club sportivi. Cader era molto soddisfatto delle novità, ma ben presto cambiò argomento e iniziò a parlare dei suoi temi preferiti, il bene e il male, il fine ultimo dell'esistenza. Allora forse puoi ricapitolarmelo, disse contemplando i giochi d'acqua e gli spruzzi della fontana. Aveva i gomiti appoggiati alla poltrona di vimini bianca, le dita delle mani unite in una cuspide che culminava sulle labbra, sotto i baffi argente e ben rassati. Beh. Certo. Mi hai spiegato che l'intero universo procede verso una complessità suprema. È un processo in atto fin dai primi attimi di vita dell'universo, e i fisici lo definiscono tendenza alla complessità. E. Tutto ciò che aiuta questo processo è bene, e tutto ciò che l'ostacola è male. Eccellente, commentò Caderbai sorridendo con un sopracciglio sollevato. Come sempre non capivo bene se intendesse esprimere approvazione o scherno. Sembrava che Caderbai non riuscisse a provare o a esprimere un'emozione senza sperimentare una piccola parte del suo opposto. In una certa misura ero fatto così anch'io. Ma nel caso di Abdel Cader Khan era impossibile capire ciò che pensava di te, o decifrare le sue emozioni. L'unica volta che nei suoi occhi si rivelò tutta la verità, ci trovavamo su una montagna innevata chiamata ricompensa del dolore, era ormai troppo tardi, e non vidi mai più quell'espressione. E questa complessità finale, aggiunse, può essere chiamata Dio, o Spirito universale, o complessità suprema, come preferisci. Per quanto mi riguarda non ho problemi a chiamarla Dio. L'intero universo procede verso Dio, tende alla suprema complessità che è Dio. Rimane sempre la domanda che ti ho fatto l'altra volta. Come si fa a decidere se un'azione è giusta o sbagliata? Come stabiliamo cosa è bene e cosa è male? È vero. Ho promesso che avrei dato una risposta a questa ottima domanda, e l'avrai, giovane M. R. Ling. Ma prima devi rispondere tu a una domanda. Perché è sbagliato uccidere? Beh, io non penso che sia sempre sbagliato. Ah, disse in tono pensieroso, con gli occhi d'ambra scintillanti e il sorriso sardonico di nuovo stampato sul volto. Ebbene, ti annuncio che è sempre sbagliato. Capirai meglio più avanti, procedendo nella nostra discussione. Per il momento, concentrati su un esempio di uccisione che ritieni davvero sbagliata, e dimmi perché. Beh, ecco. La soppressione di una vita in modo contrario alla legge. In base a quale legge? La legge della società. La legge di una nazione, azzardai sentendo il terreno filosofico franarmi sotto i piedi. E chi crea questa legge? Chiese gentilmente Caderbai. Ecco. I politici le approvano, ma le leggi penali nascono. Con la civiltà. Le leggi contro l'omicidio ci sono sempre state, forse fin dai tempi degli uomini delle caverne. E perché quei primitivi consideravano sbagliato l'omicidio? Intendi dire? Beh, direi perché la vita è unica, irripetibile. È la nostra unica occasione, e distruggerla è terribile. Anche un uragano è terribile. Ma basta questo per definirlo sbagliato o malvagio? No, naturalmente, risposi innervosito. Senti, mi sembra una domanda oziosa. Abbiamo una sola vita, e se distruggiamo una vita senza un motivo valido facciamo qualcosa di sbagliato. Sì, disse paziente Cader, ma perché è sbagliato? È così, e basta. Si arriva sempre a questo punto, concluse in tono più grave Cader Bai. Mise una mano sul polso che teneva appoggiato al bracciolo della poltrona accanto alla sua, e con un dito cominciò a scandire i punti importanti del suo discorso. Se chiedi a qualcuno perché l'omicidio, o qualunque altro crimine, è sbagliato, ti dirà che è contro la legge, la Bibbia, l'Eupanishad, il Corano, l'ottuplice sentiero del Buddha, i valori appresi dai genitori o da qualche altra autorità. Ma nessuno sa perché è sbagliato. Può darsi che le risposte che ottieni siano vere, ma nessuno sa per quale motivo. Per capire un'azione, un'intenzione o un effetto dobbiamo sempre porci due domande. Primo, cosa succederebbe se tutti facessero quell'azione? Secondo, l'azione aiuta o ostacola il movimento verso la complessità? Nazir venne verso di noi seguito da un servo e Kaderbai si interruppe. Il servo ci offrì alti bicchieri di tè nero e un vassoio d'argento pieno di dolci squisiti. Nazir guardò Kaderbai con un'espressione interrogativa e mi rivolse uno sguardo sprezzante. Kaderbai ringraziò lui e il servo, e i due ci lasciarono di nuovo soli. Prendiamo ad esempio l'omicidio, continuò Kaderbai dopo avere bevuto un sorso di tè stringendo una zolletta di zucchero fra i denti. Cosa succederebbe se tutti ammazzassero il prossimo? Aiuterebbe o ostacolerebbe il movimento verso la complessità? Dimmelo. Naturalmente se ci ammazzassimo fra noi la razza umana si estinguerebbe. Perciò. Non aiuterebbe. Sì. Noi esseri umani siamo il più complesso aggregato di materia che ci si è dato conoscere, ma non siamo il traguardo finale dell'evoluzione. Anche noi ci svilupperemo e cambieremo, come l'universo. Ma se ci uccidessimo indiscriminatamente, non raggiungeremmo la meta. Cancelleremmo la nostra specie, e il processo di sviluppo che dura da miliardi di anni sarebbe vanificato. Lo stesso vale per il furto. Cosa succederebbe se tutti rubassimo? Sarebbe un aiuto o un ostacolo? Sì, capisco. Se tutti rubassero diventeremmo così paranoici e sprecheremmo tanto tempo e denaro che il processo di sviluppo sarebbe rallentato, e non arriveremmo mai. Alla complessità suprema, concluse Caderbai. Per questo furto e omicidio sono sbagliati, non perché lo dice un libro, una legge o un maestro spirituale, ma perché se tutti lo facessero non arriveremmo mai insieme al resto dell'universo alla complessità suprema che è Dio. Ed è vero anche il contrario. Perché l'amore è bene. Cosa succederebbe se tutti c'è Massimo? Sarebbe un aiuto o un ostacolo? Un aiuto, convenni sorridendo dall'interno della trappola in cui mi aveva cacciato. Sì. L'amore universale accelererebbe enormemente il movimento verso Dio. L'amore è bene. L'amicizia è bene. La lealtà è bene. La libertà è bene. L'onestà è bene. Lo sapevamo già, lo abbiamo sempre saputo nel profondo del cuore, e tutti i grandi maestri ce l'hanno insegnato, ma questa definizione di bene e male ci permette di capire perché certe azioni e certi sentimenti sono positivi, e altri negativi. Eppure esiste anche la legittima difesa, obiettai. Come valutiamo un omicidio per legittima difesa? È un'ottima obiezione, Ling. Voglio che immagini questa scena. Sei in piedi in mezzo a una stanza, e davanti a te c'è un tavolo. Dall'altra parte della stanza c'è tua madre. Un uomo malvagio le tiene puntato un coltello alla gola. L'uomo ucciderà tua madre. Sul tavolo davanti a te c'è un bottone. Se lo schiacci, l'uomo morirà. Se non lo schiacci, ucciderà tua madre. Hai solo queste due possibilità. Se non fai nulla, tua madre muore. Se schiacci il bottone, l'uomo muore e tua madre è salva. Cosa scegli? Quel tipo è spacciato, risposi senza esitare. Proprio così, sospirò Caderbai, forse deluso dalla mia scelta immediata. E in questo caso, salvando tua madre dall'assassino, hai fatto la cosa giusta o sbagliata? La cosa giusta, dissi altrettanto rapidamente. No, Lin, temo Dino, disse Caderbai aggrottando la fronte. Abbiamo appena visto che secondo la nostra definizione oggettiva di bene e male uccidere è sempre sbagliato, perché se tutti lo facessero non progrediremmo verso Dio, la complessità suprema, insieme al resto dell'universo. Perciò è sbagliato uccidere. Ma i tuoi motivi erano buoni. Dunque hai fatto la cosa sbagliata per un motivo giusto. Una settimana dopo quella piccola conferenza sull'etica, mentre sfrecciavo nel vento zizzagando nel caos di veicoli moderni e primitivi sotto una coltre di nubi nere e minacciose, le parole di Caderbai continuavano a risuonare nella mia mente. La cosa sbagliata. Per un motivo giusto. Continuai a guidare e alla fine smisi di pensare alle teorie di Cader. Tuttavia quella frase continuava echeggiare in un angolo oscuro della mente, nella vaga zona di penombra dove i ricordi si fondono con le intuizioni. Ora so che quelle parole erano come un mantra e che il mio istinto, il mormorio del fatto nelle tenebre, cercava di mettermi in guardia continuando a ripeterlo. La cosa sbagliata. Per un motivo giusto. Tuttavia lasciai che quei sussurri a monitori piano piano svanissero. Non avevo voglia di pensare ai motivi, giusti o sbagliati che fossero, che mi avevano spinto a fare quello che avevo fatto, e non mi importava di valutare le azioni di Caderbai né di chiunque altro. Mi piacevano quelle discussioni sul bene e il male, ma le vedevo come un gioco, un passatempo. Non mi interessava conoscere la verità. Ero nauseato dalla verità, soprattutto dalla mia, e non potevo affrontarla. Perciò pensieri e premonizioni echeggiarono sempre più fiocchi, e alla fine furono spazzati via dalle folate di aria umida che mi investivano mentre guidavo sul lungomare. Quando mi lanciai lungo l'ultima insenatura prima del Sea Rock Hotel, la mia mente era sgombra come il vasto orizzonte sul mare scuro e agitato. Il Sea Rock, un albergo lussuoso e opulento come tutti i Cinque Stelle di Bombay, aveva la peculiarità di essere costruito sulla scogliera di giù. Dai ristoranti, dai bar e da centinaia di finestre si potevano ammirare i picchi e gli avvallamenti eternamente mutevoli del mare arabico. L'hotel offriva anche uno dei buffet meglio assortiti della città. Ero affamato, e vidi soddisfatto che Lisa, puntuale, mi stava venendo incontro nell'atrio. Indossava una camicia azzurro cielo con il colletto rivoltato, e una gonna corta dello stesso colore. La chioma bionda era raccolta all'indietro dalle dita serrate di un grosso fermacappelli. Si era disintossicata da più di un anno. Era abbronzata, in forma, sicura di sé. Ciao Lin, disse accogliendomi con un sorriso e un bacio sulla guancia. Sei arrivato appena in tempo. Magnifico. Muoio di fame. No, volevo dire appena in tempo per conoscere Calpana. Eccola che arriva. Una donna sui 26 anni, con i capelli tagliati corti, jeans all'ultima moda e una t-shirt rossa aderente stava venendo di buon passo verso di noi. Aveva un cronometro legato al collo con un cordino e stringeva in mano una tavoletta per appunti con fermaglio. Salve, dissi quando Lisa ci presentò. È vostra l'attrezzatura qua fuori? I camion con i generatori, e tutti quei cavi. State girando un film? L'idea sarebbe questa, Yar, rispose con il marcato accento di Bombay che amavo e cercavo inconsapevolmente di imitare. Ma il regista è sparito con una ballerina. Dovrebbe essere un segreto, Yar, ma tutto il dannato Seth ne parla. Abbiamo tre quarti d'ora di pausa, anche se da quello che si dice delle sue doti potrebbero bastare cinque minuti. Molto bene, proposi sfregandomi le mani. Allora abbiamo il tempo di pranzare. Vaffanculo il pranzo. Prima sballiamo, Yar, obiettò Calpana. Hai della shish? Sì, dissi stringendomi nelle spalle, certo. Sei venuto in macchina? Ho una bulle. Ok, usiamo la mia macchina, è nel parcheggio. Uscimmo dall'albergo e salimmo sulla Fiat nuova di Zecca di Calpana. Mentre preparavo la canna mi raccontò che era assistente di produzione del film che stavano girando al Sea Rock, e di molti altri ancora. Tra i suoi compiti c'era quello di supervisionare il casting dei ruoli secondari. Aveva dato il subappalto a un'agenzia, ma faticavano a trovare stranieri per i ruoli di contorno. Calpana me ne ha parlato a una cena la settimana scorsa, spiegò Lisa mentre Calpana cominciava a fumare. Mi ha detto che i suoi ragazzi non riescono a trovare comparse straniere, capisci, la gente in discoteca o ai party, oppure gli inglesi ai tempi del Rai nei film storici, ruoli del genere. Così ho pensato a te. MMM. Mi saresti di grande aiuto se trovassi Gora quando ne ho bisogno, disse Calpana offrendomi un sorriso seducente che pareva frutto di una lunga pratica. In ogni caso era dannatamente efficace. Procuriamo il taxi per portarli sul set e riaccompagnarli a casa. Offriamo un pasto completo durante la pausa. Paghiamo duemila rupie a testa al giorno. Diamo i soldi a te, e in più prendi una commissione per ogni comparsa. Quanto li paghi, è affar tuo. Di solito sono quasi tutti felici di lavorare gratis, e rimangono stupiti quando scoprono che li paghiamo per comparire in un film. Che ne dici? Mi chiese Lisa, gli occhi luccicanti e arrossati dallo sballo. Mi interessa. Stavo valutando i possibili vantaggi di un lavoro del genere. Alcuni erano evidenti. I cineasti erano una vasta e ricca categoria di persone sempre in viaggio, e a volte avevano bisogno di dollari al mercato nero e documenti falsi. Inoltre capivo che per Lisa era un lavoro importante. Sarebbe bastato questo a convincermi. Lisa mi piaceva, ed ero contento che cominciasse ad apprezzarmi. Bene, concluse Calpana uscendo dalla macchina e incamminandosi nel parcheggio. Tornammo nell'atrio dell'hotel, tutti e tre con gli occhi ben nascosti dietro gli occhiali da sole. Ci salutammo nello stesso punto in cui c'eravamo incontrati mezz'ora prima. «Voi andate pure a mangiare», disse Calpana. «Io torno sul set. Siamo nella sala dei ricevimenti. Quando hai finito, Lynn, segui i cavi e mi troverai. Ti presenterò ai ragazzi, e potrai cominciare subito. Domattina abbiamo bisogno di qualche straniero per le riprese, qui all'hotel. Due uomini e due donne, iar. Biondi, genere svedese, se riesci a trovarli. Ehi, quello era a fumo del Kashmir, vero? Io e te ci intenderemo a meraviglia, Lynn. Ciao. Ciao, baby. Al buffet io e Lisa riempimmo i nostri piatti a dismisura e ci sedemmo a mangiare davanti a una vetrata affacciata sul mare. «Calpana è un tipo a posto», disse Lisa fra un boccone e l'altro. «A volte è orribilmente sarcastica, e di sicuro è una donna ambiziosa, non ne fa un mistero, ma almeno ti dice le cose in faccia ed è una vera amica. Quando mi ha parlato del lavoro di casting ho subito pensato a te. Pensavo che. Potesse interessarti. Grazie», dissi fissandola negli occhi per cercare di capire i suoi pensieri. «Te ne sono grato. Vuoi entrare in società con me?» «Sì», rispose immediatamente. «Speravo. Speravo che tu me lo chiedessi. Potremmo dividerci i compiti, proposi. Non credo di aver problemi a trovare stranieri disponibili, ma il resto del lavoro non mi interessa. Potresti pensarci tu, se ne hai voglia. Potresti organizzare i trasferimenti, tenere d'occhio gli stranieri mentre sono sul set, occuparti dei pagamenti e così via. Io li contatto, poi subentre tu. Sarai felice di lavorare con te, se ti interessa». Lisa sorrise. «Era un bel sorriso, di quelli che vorresti continuare a guardare. Mi piacerebbe molto», mormorò arrossendo per l'imbarazzo. «Devo assolutamente trovare qualcosa da fare, Lynn, e ormai penso di essere pronta. Quando Calpana mi ha parlato di questo lavoro avrei voluto accettare al volo, ma da sola avevo paura di non farcela. Grazie. Di niente. Come va con Abdullah? MMM». Borbottò finendo di masticare un boccone. «Ho smesso di lavorare, sai di che lavoro parlo, e questo è già qualcosa. Non lavoro più al palace e ho smesso di farmi di eroina. Abdullah mi ha dato dei soldi. Un sacco di soldi. Non so dove li abbia presi. In vita mia non ho mai visto tanto denaro tutto in una volta. Era in una scatola di metallo. Me l'ha data e mi ha chiesto di custodirgliela, e ha detto che potevo spenderne quanto volevo. È stato un po' macabro, non so. Come se fossero le sue ultime volontà, o un testamento, qualcosa del genere. Sollevati involontariamente un sopracciglio, facendo un'espressione perplessa. Lisa se ne accorse, riflettè un attimo e proseguì. «Mi fido di te, Lynn. In questa città sei l'unico di cui mi fido. È buffo. Abdullah mi ha dato i soldi, e penso di amarlo, anche se in un modo un po' folle, eppure non mi fido di lui. È orribile dire una cosa del genere della persona con cui vivi, vero? No. Tu ti fidi di lui? Cecamente. Perché? Esitai, perché non trovavo le parole giuste. Finimmo di mangiare e rimanemmo seduti a guardare il mare. Abbiamo fatto delle cose insieme, dissi dopo una lunga pausa, ma non è solo per quello. Mi fidavo di lui anche prima di conoscerlo meglio. Non so da cosa dipenda. Forse un uomo si fida di un altro quando si riconosce in lui. O forse quando vede nell'altro le qualità che vorrebbe avere. Rimanemmo ancora una volta in silenzio, pensierosi. Eravamo entrambi impegnati, ognuno a modo suo, in una sfida cocciuta contro il destino. Sei pronta? Le chiesi. Fece un cenno di assenso. Allora via, si va al cinema. Seguimmo le matasse di cavi neri che partivano dai generatori parcheggiati davanti all'hotel. Entrammo da un ingresso di servizio, e ci trovammo in mezzo a un gran via vai di assistenti indaffarati. Raggiungemmo la sala dei ricevimenti, che era stata affittata per ospitare il set del film. La sala era piena di gente, di fari potentissimi, di abbaglianti pannelli a specchio per riflettere la luce dei fari, di cineprese, di attrezzature varie. Pochi secondi dopo che fummo entrati nella sala qualcuno urlò, silenzio, prego. Ed ebbe inizio uno scatenato numero di danza. I film indi non sono per tutti i palati. Più di uno straniero mi aveva detto di trovare nauseante il miscuglio di canzoni sdolcinate e balletti fantasmagorici che partono nei momenti più improbabili nel bel mezzo di scene con madri in lacrime, innamorati sospirosi e scazzottate fra buoni e cattivi. Potevo capire quelle critiche, ma non le condividevo. Un anno prima Johnny Cigar mi aveva detto che nelle mie vite precedenti dovevo avere incarnato almeno sei diversi personaggi indiani. L'avevo considerato un complimento molto lusinghiero, ma non compresi cosa intendesse dire esattamente finché non vidi il mio primo film di Bollywood. Ho amato fin dal primo istante e con tutto il cuore le canzoni, i balletti e la musica. I produttori avevano noleggiato un amplificatore da 2000 Watt. La musica esplose nella sala dei ricevimenti e ci fece vibrare le ossa. I colori erano quelli di un mare tropicale. Le mille luci erano abbaglianti come un lago inondato di sole. I volti erano belli come quelli scolpiti sui muri di un tempio. Il balletto fondeva un erotismo allusivo ed esuberante alla maestria austera e stilizzata delle danze tradizionali. Vita e amore, dramma e farsa si univano nel modo più coerente e improbabile nel gesto elegante di una mano aggraziata o nella piega allusiva di un sopracciglio. Rimanemmo a guardare per oltre un'ora, mentre il numero di danza veniva provato, rifinito e infine filmato. Poi ci fu una pausa, e Calpana ne approfittò per presentarmi Cliff De Souza e Shandrameta, due dei quattro produttori del film. De Souza era nativo di Goa, era un uomo sui trent'anni, piccolo, con i capelli ricci. Aveva un sorriso disarmante e quando camminava sembrava che marciasse. Shandrameta aveva una quarantina d'anni. Era abbondantemente sovrappeso, ma appariva totalmente a suo agio, era uno di quegli uomini che con la propria mole sembrano volere simboleggiare l'enorme stima che hanno di se stessi. Mi fecero entrambi una buona impressione, e anche se erano troppo indaffarati per dilungarsi in chiacchiere fu un incontro cordiale ed espansivo. Domandai a Lisa se voleva che la riaccompagnassi in città, ma era d'accordo di tornare a casa con Calpana, e preferì aspettarla. Le diedi il mio numero di telefono e le dissi di chiamarmi a casa se avesse avuto bisogno di me. Mentre attraversavo l'atrio vidi Cavitasin che proprio in quel momento stava uscendo dall'albergo. Negli ultimi mesi eravamo stati talmente occupati, lei a descrivere i crimini sul suo giornale, io a commetterli, che non ci vedevamo da parecchie settimane. Cavita. Urlai correndo verso di lei. Proprio la donna che fa al caso mio. La migliore giornalista del migliore quotidiano di Bombay. Come stai? Hai un aspetto. Favoloso. Indossava un taglier di seta avorio e stringeva in mano una borsetta di lino dello stesso colore. La giacca monopetto aveva una profonda scollatura, ed era evidente che sotto non portava altri indumenti. Oh, piantala. Sbottò facendo un sorriso imbarazzato. È la mia tuta da combattimento. Avevo un'intervista con Vasant Lai. L'ho appena lasciato. Bazzichi persone influenti, commentai ricordando le foto che avevo visto del leader populista. I suoi incitamenti alla violenza avevano provocato scontri fra comunità religiose, incendi e linciaggi. Ogni volta che lo vedevo in televisione o leggevo uno dei suoi discorsi deliranti sui giornali, mi veniva in mente il pazzo criminale che si faceva chiamare Sapna, Vasant Lai era la versione legale e politica di quello psicopatico. La sua suite era una fossa dei serpenti, credimi. Ma ho avuto la mia intervista. A un debole per le tettone. Mi agitò un dito davanti alla faccia. Non azzardarti ad aprire bocca. Ehi! Cercai di calmarla alzando le mani ed ondolando la testa. Non dico niente. Assolutamente niente. Guardo soltanto, e mi dispiace non avere qualche occhio in più. Ma non dico niente di niente. Bastardo! Sibilò ridendo a denti stretti. Ah, merda, che mondo è mai questo? Cosa si può pensare quando uno dei pezzi grossi della città si rifiuta di parlarti, ma concede un'intervista di due ore alle tue tette? Gli uomini sono proprio dei gran stronzi, non trovi? Parole sante, sospirai. Dei porci fottuti, Iar. Non c'è dubbio. Quello che è giusto è giusto. Mi guardò con sospetto. Perché sei così dannatamente condiscendente, Ling? Senti, cavita, sei impegnata? Cosa? Dove stai andando. A cercare un taxi per tornarmene in città. Adesso abito vicino a Flora Fontaine. Che ne dici se ti do un passaggio in moto? Devo parlarti. Vorrei che mi aiutassi a risolvere un problema. Cavita non mi conosceva bene. Mi squadrò da capo a piedi con gli occhi color cannella spruzzati di pagliuzze d'oro, e l'accurata ispezione sembrò rassicurarla. Che genere di problema. C'è di mezzo un omicidio, risposi. Mi piacebbe che tu ne facessi una storia da prima pagina. Ti dirò tutto a casa tua. Lungo la strada puoi raccontarmi di Vasant Lai. Sarai costretta a urlare a squarciagola dal sedile di dietro. Vedrai che servirà a toglierti il peso dallo stomaco. 40 minuti più tardi eravamo seduti nell'appartamento di cavita al quarto piano di un palazzo senza ascensore nell'area di Fort, vicino a Flora Fontaine. Era un appartamento minuscolo, con un divano letto, un cucinino e centinaia di vicini chiassosi. In compenso c'era un bagno sontuoso, abbastanza largo da alloggiare comodamente una lavatrice e un'asciugatrice. Un vecchio balcone in ferro battuto si affacciava sulla larga e affollata piazza intorno alla fontana. Si chiama Anand Rao, le spiegai sorseggiando l'espresso forte e profumato che mi aveva offerto. Divideva una baracca con un certo Rafik. Erano miei vicini quando vivevo allo slum. Poi da un villaggio del Raya Stan son arrivate la moglie e la cognata di Rafik, e Anand se n'è andato dalla baracca per lasciare il posto alle due sorelle. Aspetta, mi interruppe Cavita, è meglio che prenda appunti. Si alzò e andò a recuperare da una grande scrivania un blocco per appunti, una penna e un registratore a cassette. Si era tolta il tagliere e indossava una canottiera e ampie braghe di lino. La guardai camminare e osservando i suoi movimenti rapidi, sicuri e aggraziati mi resi conto per la prima volta di quanto fosse bella. Tornò accanto a me, sistemò il registratore, accovacciò le gambe sulla poltrona, pronta a scrivere sollevò gli occhi e si accorse che la stavo fissando. Beh? Niente, risposi sorridendo. Dunque, Anandrao conosce la moglie e la sorella di Rafik, e le trova simpatiche. Sono timide, ma amichevoli, allegre e gentili. Ripensandoci può darsi che Anand avesse un debole per la sorella. Comunque sia, un giorno Rafik dice a sua moglie che l'unico modo per sistemarsi, volevano aprire un negozietto, e che lui venda un rene in una clinica privata. Lei non è d'accordo, ma alla fine si convince che non hanno altre possibilità. Rafik torna dall'ospedale e dice a sua moglie che ha una notizia buona e una cattiva. La buona è che sono davvero disposti a pagare un rene. La cattiva è che non vogliono il rene di un uomo, ma quello di una donna. Capisco, sospirò Cavita scuotendo la testa. Già. Proprio un bel tipo. Comunque, la moglie è comprensibilmente riluttante, ma Rafik riesce a convincerla, e la poveretta va a farsi operare. Sai in quale clinica? Sì. Anandrau ha fatto delle indagini, e ha riferito a Casimali, il capo dello slum. Conosciamo tutti i dettagli. Allora. Quando la moglie di Rafik torna dall'ospedale Anandrau viene a sapere della faccenda e sin furia. Conosce bene Rafik, tieni presente che hanno diviso una baracca per due anni sa che è un imbroglione. Anandrau dice il fatto suo a Rafik, ma non serve a niente. Rafik sembra indignato. Si versa addosso del cherosene e dice ad Anand di dargli pure fuoco, se non si fida di lui e lo ritiene capace di una passezza simile. Anand lo esorta a prendersi cura delle donne, e per il momento non insiste oltre. Quando è successo? L'operazione è stata sei mesi fa. Ma non è finita qui. Rafik dice a sua moglie che è andato venti volte all'ospedale per vendere il suo rene, ma proprio non lo vogliono. Le spiega che il denaro che hanno guadagnato è solo la metà di quanto serve per aprire il negozio. Le dice che all'ospedale hanno bisogno di un altro rene di donna, e cerca di convincerla a vendere anche quello della sorella. La moglie si oppone, ma Rafik riesce a convincere la sorella, dicendole che se anche, lei non vende un rene il sacrificio della moglie sarà stato inutile. Alla fine le due sorelle si arrendono. Rafik accompagna la più giovane all'ospedale, e dopo qualche tempo la ragazza torna allo sluma con un rene in meno. Proprio un bravo uomo, quel Rafik, borbottò Cavita. Già. Non mi è mai piaciuto. Era uno di quei tipi che ti sorridono per dovere, e non perché lo sentono veramente. Una specie di sorriso da scimpanze. Poi cosa è successo? Immagino che sia scappato con i soldi. Già. Rafik prende i soldi e taglia la corda. Le due sorelle sono sconvolte. La loro salute comincia a deteriorarsi rapidamente. Le ricoverano in ospedale. Entrano in coma, una dopo l'altra. Le dichiarano morte a pochi minuti di distanza l'una dall'altra, e le lasciano stese su due letti vicini. Anandrau era al loro capezzale, insieme a pochi altri dello slum. È rimasto finché hanno steso i lenzuoli sul volto delle due sorelle. Poi è corso via. Era fuori di sé dalla rabbia. E anche per il rimorso, credo. Ha cercato Rafik dappertutto. Conosceva tutti i posti dove Rafik andava a obbracarsi. L'ha trovato ubriaco Marcio, dormiva steso su un mucchio di spazzatura. Aveva pagato due ragazzini per tenere lontani i topi. Anand ha cacciato via i due piccoli sorveglianti, si è seduto di fianco a Rafik e l'ha sentito russare. Poi gli ha tagliato la gola, e ha aspettato che uscisse tutto il sangue. Terribile, mormorò Cavita senza alzare gli occhi dal blocco per appunti. Sì. Anand è andato a costituirsi e ha confessato tutto. È accusato di omicidio. E vuoi che io. Voglio che tu faccia arrivare la storia in prima pagina. Voglio che tu riesca a creare una specie di movimento d'opinione sul caso di Anand Rao, in modo che quando lo metteranno in carcere, e non c'è dubbio che lo faranno, saranno costretti a trattarlo bene. Voglio che riceva aiuto mentre è in prigione, e voglio che resti in prigione il minor tempo possibile. Non è poco. Lo so. Ascolta Lynn, disse Cavita aggrottando la fronte. È una storia interessante, ma devo avvisarti che ogni giorno abbiamo fin troppi episodi del genere. Mogli bruciate vive, finti incidenti per impossessarsi della dote, prostituzione infantile, schiavitù, infanticidi. In India è in atto una guerra contro le donne, Lynn. È una lotta senza quartiere, e le vittime sono quasi sempre donne. Vorrei aiutare il tuo amico, ma non mi sembra una notizia da prima pagina, yar. In ogni caso non ho abbastanza agganci per finire in prima pagina. Non dimenticare che sono l'ultima arrivata al giornale. Non è tutto qui, insistetti. Il bello della storia è che le due sorelle non sono morte. Mezz'ora dopo che le hanno dichiarate morte, la moglie di Rafik si è agitata sotto il lenzuolo. Pochi minuti dopo sua sorella si è mossa e ha cominciato a gemere. Adesso sono vive e stanno bene. La loro baracca nello slum è diventata una specie di tempio. Arriva gente da tutta la città per vedere le sorelle del miracolo tornate dalla morte. Per i commercianti dello slum è una pacchia. Fanno affari d'oro con i pellegrini. E le sorelle sono più ricche di quanto avessero mai sognato. La gente le copre di monete, una o due rupie alla volta, e ne stanno ammucchiando un bel po'. Hanno fondato una specie di istituto di beneficenza per le mogli abbandonate. Credo che la loro storia, le sorelle resuscitate, capisci, possa finire in prima pagina. Arre, Yar! Esclamò Cavita. Ok, innanzitutto devi mettermi in contatto con le due donne, che sono la chiave di tutta la vicenda. Poi devo intervistare Anandrao in prigione. D'accordo, ti accompagnerò. No. Devo parlargli da sola. Potresti condizionarlo. Devo vedere come se la cava da solo. Se creiamo un movimento d'opinione attorno al suo caso, dovrà sapersela cavare da solo, Yar! Comunque prima puoi andare a parlargli tu, così mi prepari il terreno per l'intervista. Cercherò di vederlo nel giro di due o tre settimane. Abbiamo un sacco di lavoro da fare. Discutemmo per un paio d'ore la campagna a favore di Anandrao, e risposi alle numerose domande di Cavita. Quando me ne andai era felice ed eccitata, tutta presa dal nuovo progetto. Raggiunsi in moto Nariman Point e comprai qualcosa da mangiare a uno dei chioschi sulla spiaggia. Non ero affamato come pensavo, e lasciai metà delle cibarie. Scesi fra gli scogli per sciacquarmi le mani. Ero poco lontano dal luogo in cui avevo conosciuto Abdulla tre anni prima. Ancora una volta le parole di Caderbaia affiorarono sulla corrente rapida e poco profonda dei miei pensieri, la cosa sbagliata per un motivo giusto. Pensai ad Anandrao chiuso nella prigione di Arthur Road, nel grande dormitorio con i pidocchi e i sorveglianti. Rabbrividi, e lasciai che la brezza disperdesse i miei ricordi. Cavita mi aveva chiesto perché il caso di Anandrao mi stesse tanto a cuore. Non le avevo detto che era venuto da me prima di commettere l'omicidio, appena una settimana prima di tagliare la gola a Rafik. Non le avevo detto che l'avevo trattato male, e lo avevo offeso cercando di liquidare il suo dilemma con un po' di denaro. Le avevo lasciato credere che stavo soltanto cercando di aiutare un amico, che volevo solo fare la cosa giusta. Caderbaia una volta mi disse che ogni azione virtuosa è ispirata da uno scuro segreto. Forse non era una verità assoluta, ma nel mio caso era abbastanza giusto. Le mie poche buone azioni erano sempre offuscate da un'ombra oscura. A quei tempi lo ignoravo, ma ora so che alla fine sono le buone azioni a prevalere. Quando la colpa e la vergogna per il male che abbiamo fatto esauriscono la loro forza d'inerzia, sono le buone azioni compiute che ci possono salvare. Tuttavia i moventi più oscuri delle nostre azioni continuano a emergere strisciando dall'ombra, e non è facile distaccarsene. Il cammino verso la redenzione è più impervio se il bene che abbiamo compiuto è macchiato da una vergogna segreta. Ma a quei tempi non lo sapevo. Mi lavai le mani nella fredda acqua del mare, e la mia coscienza rimase silenziosa e remota come le stelle che rilucevano mute e irraggiungibili. Capitolo 27. I passaporti usati, che noi falsari e trafficanti chiamavamo libri, dovevano essere controllati prima di poter essere venduti al mercato nero. C'era sempre la possibilità che i drogati, i fuggiaschi o gli stranieri indigenti che li vendevano ai nostri contatti fossero ricercati per qualche crimine grave nel loro o in un altro paese. Parecchi trafficanti erano stati catturati in quel modo. Avevano comprato un passaporto, lo avevano adattato alle loro esigenze, erano partiti in missione ed erano stati arrestati in un aeroporto straniero perché il vero proprietario del documento era ricercato per omicidio, rapina o altri crimini. Per garantire la soddisfazione dei nostri clienti, Abdul Ghani sottoponeva ogni passaporto che compravamo a due livelli di controllo. La prima verifica era effettuata da un funzionario doganale che aveva accesso ai computer dell'aeroporto di Bombay. In un luogo in un momento da lui stabiliti, il funzionario riceveva un elenco che specificava paese d'origine, numero di passaporto i nomi del vero proprietario di ogni libro che dovevamo controllare. Dopo un paio di giorni il funzionario ci restituiva l'elenco, avendo cura di sottolineare quelli segnalati nel database del computer. Alcuni passaporti erano segnalati perché esisteva un mandato d'arresto a carico del loro proprietario, altri perché il proprietario era sospettato di traffici illegali, o aveva qualche trascorso politico non gradito ai servizi di sicurezza. Qualunque fosse il motivo, i passaporti segnalati non potevano essere venduti al mercato nero o usati dai corrieri di Caderby. I passaporti segnalati tornavano comunque utili. Si potevano staccare le pagine e usarle sui libri che avevano superato i controlli, oppure potevano servire così come erano entro i confini indiani. Anche se gli stranieri quando si registravano negli alberghi erano tenuti a mostrare il passaporto, in ogni città dell'India esistevano posti che non si curavano troppo della scarsa corrispondenza fra un passaporto e il suo proprietario. In quegli alberghi qualsiasi passaporto andava bene. Anche se era impossibile usarli per uscire dall'India, i passaporti segnalati potevano servire egregiamente per girare il paese indisturbati, soddisfando le precauzioni legali dei direttori di hotel. I libri non segnalati che passavano il primo livello di controllo venivano sottoposti a una seconda ispezione negli uffici delle compagnie aeree. Tutte le principali compagnie avevano una loro lista di segnalazioni. Un passaporto poteva finire nella lista per una varietà di motivi, che andavano dalle irregolarità nei pagamenti al comportamento violento di un passeggero su un aeroplano. Ovviamente i trafficanti che usavano passaporti falsi cercavano di evitare ogni minimo controllo da parte del personale delle compagnie aeree, dei funzionari di Dogana e della polizia. Un passaporto segnalato, anche se solo per un motivo banale, per i nostri clienti era inutilizzabile. Gli agenti di Abdul Ghani negli uffici delle principali compagnie aeree controllavano nome e numero dei passaporti che avevamo comprato, e ci riferivano quali erano segnalati. I libri puliti, che passavano i due livelli di controllo, poco più della metà di quelli che riuscivamo a procurarci, erano venduti o usati dai corrieri, di Kaderbai. I clienti che compravano i passaporti contraffatti di Abdul Ghani si dividevano in tre categorie principali. I primi erano i rifugiati per motivi economici, gente costretta a scappare dalla propria patria, o che cercava fortuna in un altro paese. Erano turchi che volevano lavorare in Germania, albanesi che volevano lavorare in Italia, algerini che volevano lavorare in Francia e abitanti di numerosi paesi asiatici che volevano lavorare in Canada e negli Stati Uniti. Famiglie, gruppi di famiglie e a volte interi villaggi univano le loro scarse risorse per comprare uno dei passaporti di Abdul Ghani e mandare il figlio prediletto nella terra promessa. Una volta raggiunta la meta, il prescelto lavorava per ripagare il prestito, ed eventualmente comprare nuovi passaporti per altri suoi compaesani. I passaporti di questa categoria costavano fra i 5 e i 25 mila dollari. La rete di Caderbai vendeva ogni anno un centinaio di passaporti di questo tipo, e il profitto, tolte tutte le spese, ammontava più di un milione di dollari. La seconda categoria era quella dei rifugiati politici. Erano vittime di guerre o conflitti sanguinosi scoppiati per motivi religiosi, etnici o politici. A volte i rifugiati non scappavano a causa di conflitti cruenti, ma per decisioni politiche, per esempio migliaia di cittadini di Hong Kong che non erano riusciti a ottenere la cittadinanza inglese divennero nostri potenziali clienti quando, nel 1984, l'Inghilterra decise che da lì a 13 anni avrebbe restituito il suo possedimento coloniale alla Cina. Al mondo c'erano 20 milioni di rifugiati, che vivevano in campi e aree protette. Gli agenti di Abdul Ghani non restavano mai con le mani in mano. Un nuovo libro costava ai clienti di questa categoria dai 10 ai 50 mila dollari. Il prezzo più alto era determinato dai rischi maggiori che comportava vendere in zone di guerra, e dalla maggiore domanda di gente che voleva fuggire. Il terzo gruppo di acquirenti dei libri di Abdul Ghani era costituito da criminali. A volte erano uomini come me, ladri, trafficanti, sicari, che avevano bisogno di una nuova identità per sfuggire alla polizia. In gran parte, tuttavia, i clienti speciali di Abdul Ghani erano uomini che più che finire nelle prigioni le costruivano e le riempivano delle loro vittime. Erano dittatori, militari che si erano impadroniti del potere con un colpo di Stato, agenti segreti e burocrati corrotti e obbligati a fuggire quando i loro crimini venivano scoperti, o il regime cadeva. Un latitante ugandese, ero stato proprio io a trattare l'affare con lui, aveva rubato più di un milione di dollari destinati dalle agenzie internazionali per opere pubbliche nel suo paese, tra cui un ospedale per bambini. L'ospedale non venne mai costruito. Invece i bambini malati, feriti e moribondi furono trasferiti in un campo remoto e abbandonati al loro destino. Organizzai un incontro a Kinsasa, nello Zaire, l'uomo mi pagò 200.000 dollari per due libri, un passaporto svizzero perfetto e un passaporto canadese originale, ancora intatto, e raggiunse indisturbato il Venezuela. Gli agenti di Abdul Ghani in Sud America, Asia e Africa stabilivano contatti con malversatori, carnefici, alti funzionari e tirapiedi che avevano sostenuto le tirannie cadute. Trattando con persone del genere provavo un senso di vergogna e rabbia che non avevo mai sentito facendo altri lavori al servizio di Cader Bay. Quando ero giovane e libero avevo scritto articoli appassionati su giornali e opuscoli. Avevo passato anni facendo ricerche per smascherare i crimini e le violazioni di diritti civili dei regimi dittatoriali. Mi ero esposto fisicamente in centinaia di manifestazioni e scontri con la polizia per sostenere le vittime dei governi corrotti. Quando trattavo con i dittatori in fuga o i loro complici provavo l'antico odio e un senso soffocante d'ingiustizia. Ma la vita di un tempo era finita. Il rivoluzionario, l'attivista sociale aveva smarrito i suoi ideali nell'eroina e nel crimine. E anch'io ero un ricercato. Anch'io avevo una taglia sulla testa. Ero un criminale, e vivevo alla giornata. Lavorare per l'organizzazione mafiosa di Cader Bay era l'unica possibilità che avevo di evitare la prigione e la tortura. Perciò svolgevo il mio ruolo nella rete di Abdul Ghani. Quando un regime dittatoriale crollava le vittime ripagavano i carnefici con la loro stessa moneta, e io aiutavo quegli assassini a scappare dalle condanne a morte che troppo spesso avevano inflitto ai loro sudditi. Ma era un lavoro sporco, quei personaggi non mi piacevano e glielo lasciavo capire chiaramente. Ogni volta li mettevo con le spalle al muro, e mi consolavo un poco vedendo la loro rabbia. Trattavano furiosamente, quei violatori di diritti umani, erano indignati di dover spendere tutto quel denaro che avevano rubato dalle tasche della gente. Ma alla fine accettavano le nostre condizioni. Alla fine pagavano bene. A quanto pareva ero il solo nella rete di Cader Bay a provare un senso di rabbia e disgusto per quel genere di affari. Probabilmente non esiste una categoria più cinica verso la politica e i politicanti di quella dei criminali di professione. Ai loro occhi tutti i politici sono spetati e corrotti, e tutti i sistemi politici favoriscono i ricchi e i potenti a scapito dei più poveri. In parte cominciai a condividere la loro opinione, perché conoscevo per esperienza diretta i presupposti su cui si fondava. In prigione si diventa esperti di violazioni dei diritti umani, e oniglio giorno i tribunali di tutto il mondo confermavano le nostre teorie, i ricchi, in ogni paese e in ogni sistema politico, grazie ai loro soldi riescono sempre ad avere un trattamento di favore. Per contro i criminali dell'organizzazione di Cader Bay praticavano un egualitarismo che avrebbe suscitato l'invidia ammirata di comunisti e cristiani gnostici. Gli uomini di Cader Bay non badavano a colore, credo, razza o convinzioni politiche dei loro clienti, e non li giudicavano in base al loro passato. Non importava se un cliente era innocente o colpevole, il giudizio su di lui si limitava a una sola domanda, quanto bisogna dei libri? La risposta determinava il prezzo, e ogni cliente che poteva permetterselo rinasceva a nuova vita, senza passato e senza peccato, nel momento in cui concludeva il contratto. Nessun cliente era migliore o peggiore di un altro. Abdul Ghani, spinto da un'ineffabile mancanza di scrupoli, soddisfaceva le richieste di generali, mercenari, appropriatori in debiti di fondi pubblici e feroci torturatori senza manifestare la minima traccia di biasimo o riprovazione. La libertà di simili personaggi fruttava circa due milioni di dollari all'anno, al netto delle spese. Tuttavia, anche se non era per nulla schizzinoso sull'origine dei guadagni, Abdul Ghani era più che scrupoloso sul modo di spenderli. Ogni dollaro ricavato dal salvataggio di quella malefica clientela era destinato a un programma di aiuti ai profughi di guerra iraniani e afghani voluto da Kaderbai. Ogni passaporto comprato da un signore della guerra o da uno dei suoi tirapiedi serviva a comprare 50 libri, carte d'identità o documenti di viaggio per i profughi iraniani e afghani. In quel modo gli alti prezzi pagati dai tiranni servivano a salvare un gran numero di vittime della tirannia, era uno dei bizzarri paradossi con cui il fatto adorna paura e avidità. Krishna e Villu mi avevano insegnato tutto ciò che potevano sul business dei passaporti, e con l'andare del tempo cominciai a fare esperimenti creandomi nuove identità certificate da libri americani, canadesi, olandesi, tedeschi e inglesi. Le mie opere non erano eccellenti come quelle dei miei due maestri, e non lo sarebbero mai state. I buoni falsari sono degli artisti. La loro grandezza si rivela non solo nella minuziosa riproduzione dei dettagli, ma nella creazione di piccole imperfezioni deliberate che danno autenticità a ogni pagina. Ogni foglio di passaporto è una miniatura, una minuscola espressione della maestria del suo artefice. L'angolazione di un bollo leggermente consunto, la casuale scoloritura di un timbro nei piccoli capolavori sono importanti quanto la forma, la posizione e il colore di una rosa caduta da un vaso nel ritratto di un grande maestro. L'effetto finale, indipendentemente dalla maestria tecnica, è sempre frutto dell'intuizione dell'artista. E l'intuizione non si può insegnare. Le mie capacità riuscivano a esprimersi meglio nelle storie che bisognava inventare per ogni nuovo passaporto. Spesso nei libri che compravamo dagli stranieri c'erano interruzioni di mesi, se non di anni, fra una registrazione e l'altra dei loro spostamenti. Qualcuno si fermava oltre la scadenza del visto, e bisognava cancellare l'anomalia prima di poter riutilizzare il passaporto. In casi del genere aggiungevo un timbro d'uscita dall'aeroporto di Bombay con una data precedente alla scadenza del visto, come se il proprietario avesse lasciato l'India entro il limite consentito. A quel punto dovevo creare una storia di spostamenti da un paese all'altro, usando il vasto campionario di timbri d'ingresso e uscita creato da Villu? A poco a poco aggiornavo il passaporto, e alla fine lo completavo con un nuovo visto per l'India il timbro d'ingresso dell'aeroporto di Bombay. La serie di spostamenti era sempre studiata con attenzione. Krishna e Villu avevano una vera e propria biblioteca, di giornali di bordo delle principali linee aeree, dove erano annotati date e orari di partenza e di arrivo di tutti i voli in Europa, Asia, Africa e America. Se per esempio mettevamo un timbro su un libro inglese che dichiarava che il proprietario era arrivato ad Atene il 4 luglio, dovevamo essere sicuri che quel giorno ci fosse un volo della British Airways. In quel modo ogni libro aveva una sua storia, confermata da giornali di bordo, orari e dati meteorologici, che dava al nuovo proprietario una maggiore credibilità. Il mio esordio con passaporti falsificati con le mie mani fu su un volo interno, applicando la cosiddetta tecnica del doppio trucco. Migliaia di esuli iraniani e afghani a Bombay cercavano di ottenere asilo politico in Canada, negli Stati Uniti, in Australia e in altre nazioni, ma i rispettivi governi si rifiutavano di rilasciare visti. Tuttavia se riuscivano a raggiungere una nazione occidentale, gli esuli potevano dichiararsi rifugiati politici, per poi iniziare la procedura per ottenere il riconoscimento ufficiale della loro condizione. Siccome erano davvero rifugiati politici in cerca d'asilo, le loro domande venivano quasi sempre accettate. Il problema era solo di riuscire a entrare in Canada, Svezia, o nelle altre nazioni disponibili. In questi casi usavamo il sistema del doppio trucco. Gli iraniani o gli afghani residenti a Bombay che cercavano di comprare i biglietti aerei per le nazioni dove avrebbero potuto fare richiesta di asilo dovevano esibire un visto valido. Tuttavia per gli esuli era impossibile ottenere il visto legalmente, mentre i visti fasulli erano inutili perché venivano immediatamente controllati su un registro consolare. Perciò andavo io a comprare un biglietto per il Canada o la Svezia con un visto contraffatto. In quanto Gora, straniero ben vestito e dall'aspetto nordico, venivo sottoposto a un controllo molto superficiale. Nessuno si prendeva la briga di verificare se il mio visto era autentico. Il rifugiato che dovevo aiutare nel frattempo comprava un biglietto per il tratto interno del volo, da Bombay a Delhi, sul mio stesso aereo. Al check-in ci consegnavano la carta d'imbarco, verde per i voli internazionali, rossa per quelli interni. Dopo essere saliti sull'aereo ci scambiavamo le carte d'imbarco. All'aeroporto di Delhi potevano restare a bordo solo i passeggeri con la carta d'imbarco internazionale. Io scendevo a Delhi, e lasciavo che il rifugiato proseguisse per la destinazione prescelta. All'arrivo si sarebbe dichiarato rifugiato politico, e sarebbe iniziata la procedura di riconoscimento. Io passavo la notte in un hotel a 5 stelle, poi compravo un biglietto aereo per ripetere il processo, il doppio trucco, con un altro esule sulla rotta Bombay Delhi. Il sistema funzionava. In quegli anni riuscimmo a fare entrare clandestinamente nelle nazioni che preferivano centinaia di dottori, ingegneri, architetti, accademici e poeti iraniani e afghani. Io guadagnavo 3000 dollari per un doppio trucco, e per qualche tempo ne feci un paio al mese. Dopo tre mesi di voli interni fra Bombay, Delhi, Calcutta e Madras, Abdul Ghani mi affidò il primo incarico come corriere internazionale. Dovevo portare dieci passaporti in Zaire. Usando le fotografie dei destinatari, spedite da Kinsasa, la capitale, Krishna e Villu avevano trasformato i passaporti in perfetti libri falsi. Dopo averli sigillati con un foglio di plastica me li attaccai al corpo con del nastro adesivo, lì nascosi sotto tre strati di vestiti e raggiunsi il caos ribollente dell'armatissimo aeroporto internazionale di Kinsasa. Era una missione pericolosa. A quel tempo lo Zaire era una terra di nessuna neutrale fra nazioni dilaniate da guerre sanguinose, Angola, Mozambico, Namibia, Sudan, Uganda e Congo. Lo Zaire era il feudo privato del folle dittatore Mobutu, e una percentuale del profitto su ogni crimine perpetrato nel regno finiva nelle sue tasche. Mobutu era il beniamino delle potenze occidentali perché era sempre disposto a comprare qualsiasi arma letale gli offrissero. A quanto pareva gli occidentali non erano per nulla disturbati dal fatto che Mobutu usasse le armi contro sindacalisti, riformisti sociali e oppositori del suo regime crudele. I governi occidentali offrivano al dittatore sontuosi ricevimenti mentre centinaia di uomini e donne venivano torturati a morte nelle sue prigioni. Quegli stessi governi mi davano la caccia tramite la loro agenzia di polizia internazionale, l'Interpol, e non avevo dubbi che il loro alleato africano sarebbe stato molto lieto di farmi fuori per conto loro, un gentile omaggio agli amici, per così dire, se la mia missione fosse andata male e mi fossi ritrovato in una prigione della capitale. Nonostante tutto mi piaceva l'atmosfera senza regole di Kinsasa. La città era una specie di enorme bazar aperto a ogni forma di contrabbando, dall'oro, alle droghe, ai lanciarazzi. Era il rifugio di mercenari, fuggiaschi, criminali, contrabbandieri e avventurieri dallo sguardo febbrile provenienti da tutta l'Africa. Mi sentivo a casa, e mi sarei fermato più a lungo, ma nel giro di tre giorni consegnai passaporti e ricevetti in cambio 120.000 dollari in contanti. Era denaro di Kaderbai, ed ero ansioso di consegnarglielo. Saltai sul primo volo per Bombay e andai a fare rapporto ad Abdul Ghani. Dalla missione ricavai 10.000 dollari, oltre a una preziosa conoscenza del territorio e degli uomini della filiale africana di Abdul Ghani. Al mio ritorno ero convinto che sarebbe valsa la pena di correre il rischio anche solo per l'esperienza, e che il denaro non contava. Avrei potuto svolgere il lavoro per metà della paga, e anche meno. Sapevo che la pelle della maggior parte degli abitanti di Bombay valeva molto meno. Ma più di ogni altra cosa era il rischio ad attrarmi. Per alcuni il rischio è una specie di droga, se non addirittura un afrodisiaco. Per me, che vivevo ogni giorno e ogni notte con la paura di essere ucciso o catturato, il rischio era qualcosa di diverso. Era la lancia con cui uccidevo il drago della tensione. Mi aiutava a dormire. Quando andavo in luoghi pericolosi per svolgere missioni rischiose, provavo una paura diversa, che riusciva a sovrastare il terrore che troppo spesso mi teneva sveglio la notte. Una volta che la missione era finita, e la nuova paura lentamente svaniva, mi abbandonavo a una sensazione di pace e sfinimento. Non ero l'unico a cercare avidamente lavori pericolosi. Nel corso della missione avevo conosciuto altri agenti, trafficanti e mercenari, e mi ero riconosciuto nei loro occhi eccitati e nei gesti resi febbrili dall'adrenalina. Come me fuggivano da qualcosa, temevano qualcosa che non erano in grado di dimenticare o affrontare. Il denaro guadagnato pericolosamente, a costo di rischi terribili, era un modo di evadere per qualche ora da ciò che li tormentava, l'unico modo per dormire un sonno tranquillo. Dopo quel primo viaggio in Africa ne seguirono altri, e tutti si conclusero senza incidenti. Usavo tre passaporti diversi, in India partivo dagli aeroporti internazionali delle grandi città, e alla fine della missione tornavo a Bombai con un volo interno. Continuavo a praticare il doppio trucco fra Delhi e Bombai, e Calè dei trafficanti d'oro mi affidavano sempre gli incarichi più delicati. Ero sempre molto impegnato, abbastanza per non pensare troppo a lungo e troppo dolorosamente a Carla. Verso la fine del monsone andai in visita allo slum e mi unì a Casimali in una delle sue ispezioni quotidiane. Mentre controllava i canali di scolo e ordinava la riparazione delle baracche danneggiate, mi ricordai di quanto lo ammirassi e dipendessi da lui ai tempi in cui vivevo nello slum. Camminando dietro Casimali con i miei jeans neri e gli stivaletti nuovi di zecca guardai i giovani forti, a piedi scalzi, che indossando solo una lungi scavavano la terra a mani nude, come avevo fatto anch'io a suo tempo. Li guardai rinforzare i muri e pulire gli scarichi intassati, per fare in modo che lo slum rimanesse all'asciutto fino alla fine delle piogge. Provai invidia per quegli uomini. Invidiai l'importanza del loro lavoro e il modo scrupoloso e devoto con cui lo svolgevano. Avevo assaporato anch'io quell'impegno entusiasta, quell'abnegazione. Era un lavoro sporco e faticoso, ma alla fine mi ero guadagnato i sorrisi orgogliosi e riconoscenti degli abitanti dello slum. Ma ormai per me quella vita era finita. Avevo sperimentato gioie e soddisfazioni inestimabili, ma ormai erano remote e irraggiungibili come la vita che avevo assaporato e perso in Australia. Forse accorgendosi del mio umore tetro, Casimali mi guidò verso la spianata dove Prabachere e Johnny avevano cominciato i preparativi per i loro matrimoni. Johnny e una dozzina di suoi vicini stavano innalzando la struttura dello Shamiliana, il grande tendone dove si sarebbero svolte le cerimonie nuziali. Poco lontano altri uomini stavano costruendo un piccolo palco dove le due coppie si sarebbero sedute per ricevere regali di parenti e amici. Johnny mi salutò calorosamente e mi spiegò che Prabachere stava lavorando con il suo taxi in affitto, e sarebbe tornato dopo il tramonto. Mi fece fare il giro della struttura, e mentre esaminavamo la costruzione discutemmo di costi, pregi e difetti dei tendoni di cotone e di plastica. Johnny mi invitò a bere un tè e mi accompagnò dagli uomini che stavano costruendo il palco. Il mio ex vicino i tendra era il supervisore del progetto. Sembrava essersi ripreso dal dolore che lo aveva consumato per mesi dopo la morte di sua moglie durante l'epidemia di colera. Non era molto robusto, la sua caratteristica pancia sporgente si era ridotta a un piccolo rilievo, appena visibile sotto la maglietta, ma gli occhi brillavano nuovamente di speranza, e il sorriso non era forzato. Suo figlio Satisce era cresciuto in fretta dopo la morte della madre. Quando gli strinsi la mano, gli passai senza farmi notare una banconota da cento rupie. Le accettò con altrettanta discrezione, e le fece scivolare in una tasca dei calzoncini. Mi sorrise calorosamente, ma era ancora ferito dalla morte della madre. Gli occhi sembravano svuotati, un buco nero di attonita sofferenza che inghiottiva tutte le domande e non lasciava trapelare risposte. Quando si rimise al lavoro, doveva tagliare pezzi di corda in fibra di cocco e passarli agli uomini che li legavano attorno ai pali di bambù, il suo giovane volto assunse un'espressione di assoluta indifferenza. Conoscevo quell'espressione. L'avevo vista guardandomi allo specchio. È il modo in cui ci mostriamo quando la parte di felicità fiduciosa e innocente che abbiamo in noi viene strappata via con violenza e, giusto o sbagliato che sia, ci rimproveriamo della sua perdita. Sai perché mi chiamo così? Mi domandò Johnny mentre sorseggiavamo la deliziosa shai dello slum. No, risposi sorridendo ai suoi occhi luccicanti di gioia. Non me l'hai mai detto. Sono nato su un marciapiede vicino al Crawford Market. Mia madre era riuscita a farsi un piccolo rifugio con due bastoni e un foglio di plastica. La plastica era legata a un muro, sotto a un'insegna pubblicitaria. L'insegna era tutta rotta, rimanevano solo due brandelli di vecchi manifesti. Da una parte c'era il vecchio cartellone di un film con la scritta Johnny. Di fianco a quello spuntava la pubblicità di una marca di sigari, e, come puoi immaginare, rimaneva visibile solo la scritta Cigar. E a tua madre piaceva, conclusi per lui, perciò. Mi chiamò Johnny Cigar. Come sa i suoi genitori l'avevano cacciata dopo che l'uomo che l'aveva messa incinta, mio padre, l'aveva abbandonata. Per questo motivo mia madre non voleva assolutamente usare i nomi delle due famiglie. Durante il travaglio continuava a guardare l'insegna e, scusa il bisticcio, l'ha appreso come un segno, e quando mi ha messo al mondo su quel marciapiede mi ha chiamato Johnny Cigar. Era una donna molto, molto caparbia. Johnny osservò i tendra, Satisce e gli altri che issavano sulla struttura le tavole di compensato che sarebbero servite come pavimento del palco. Johnny ha un bel nome, dissi dopo un po'. Mi piace. E ti ha portato fortuna. Johnny sorrise, e il sorriso si trasformò in una risata. Beh, meno male che su quel cartellone non c'era la pubblicità di un lassativo, o qualcosa del genere. Scoppiamo tutti e due a ridere, spruzzandoci addosso il tè che stavamo sorseggiando. State prendendo vela comoda, osservai quando riuscimmo a parlare di nuovo. Perché tutto questo ritardo? E, sai. Kumar ci tiene a fare il ricco uomo d'affari, e vuole dare una bella dote alle sue figlie. Io e Prabhakar gli abbiamo detto che non crediamo in queste cose. Non vogliamo la dote, capisci? Sono vecchie usanze, che ormai hanno poco senso. Bada bene, il padre di Prabhakar non è della stessa opinione. Ha mandato una lista dal villaggio, con i regali che ha in mente per la dote. Fra le tante cose vuole un orologio d'oro, un seico automatico, e una bicicletta. Noi gli abbiamo detto che il modello di bicicletta che ha chiesto è troppo grande per lui. Ha le gambe così corte che non arriverebbe ai pedali, e meno che mai riuscirebbe a sfiorare la terra, ma è pazzo per quella bicicletta. Insomma, stiamo aspettando che Kumar metta insieme la dote. I matrimoni sono previsti per l'ultima settimana di ottobre, prima della Divai. Sarà una settimana intensa. Anche il mio amico Vikram si sposa proprio quella settimana. Verrai al nostro matrimonio, Lin? Mi chiese aggrottando leggermente la fronte. Johnny era un uomo generoso e disinteressato, sempre pronto a fare favori senza la minima esitazione. Come spesso accada le persone come lui, non riusciva a chiedere favori o a esprimere i propri desideri con altrettanta facilità. Non mancherei per nulla al mondo, risposi ridendo. Farò un ingresso in grande stile, mi sentirai arrivare da lontano. Quando lo lasciai, Johnny si mise a parlare con Satish. Il ragazzo lo ascoltava attento, ma lo guardava con occhi inespressivi come una pietra tombale. Mi ricordai il modo in cui si era aggrappato alla mia gamba il giorno in cui Carla era venuta a trovarmi allo slum, e il sorriso timido e sincero che le aveva rivolto. Il ricordo trafisse il mio cuore insensibile. Si dice che è impossibile tornare sui propri passi, e ovviamente è abbastanza vero. Tuttavia è vero anche il contrario. Bisogna tornare sui propri passi, ed è un'esperienza inevitabile, anche se ci si sforza di resistere con tutte le proprie forze. Avevo bisogno di distrarmi e decisi di fare un salto agli studi cinematografici. RK lanciai la Enfiel da tutto gas, zizzagando troppo spesso e troppo in fretta fra le macchine. Il giorno prima avevo scritturato otto stranieri e li avevo mandati da Lisa. Non avevo difficoltà a trovare ragazzi disposti a fare le comparse nei film di Bollywood. Gli stessi turisti tedeschi, svizzeri o americani che avrebbero accolto con ostilità ed effidenza gli agenti di casting indiani reagivano con entusiasmo alle mie proposte. Negli anni in cui vivevo allo slume e facevo la guida turistica, avevo incontrato turisti di ogni tipo. Avevo elaborato una formula grazie alla quale riuscivo a conquistare la loro fiducia molto in fretta. La ricetta del mio successo era la seguente, due parti di strione, due parti da adulatore, una parte di seduttore, un'idea di malizia, una spruzzatina di condiscendenza e un pizzico di non curanza. Grazie al lavoro come guida mi ero creato molte amicizie nei ristoranti più strategici di Colabba. Per anni avevo deviato i miei gruppi al Cafè Mondegar, al Piccadilli, al Deep Disjuice Bar, all'Edward Teigt, al Mezban Restaurant, alla Psara Café, alla Strand Coffee House, all'Idele e in altri locali delle zone turistiche. In quei locali incoraggiavo i miei clienti a consumare e a spendere, con grande soddisfazione dei gestori. Se avevo bisogno di stranieri per le particine nei film di Bollywood facevo il giro di quei locali. Proprietari, direttori e camerieri mi salutavano calorosamente. Quando notavo un gruppo di ragazzi e ragazze che mi sembravano adatti li avvicinavo e chiedevo se fossero disposti a lavorare in un film indiano. Il personale del locale garantiva per me, e di solito riusciva a conquistare la fiducia dei turisti e ad arrivare a un accordo nel giro di pochi minuti. Dopodiché telefonavo a Lisa Carter e organizzavo i trasferimenti sul set per il giorno successivo. Il sistema funzionava bene. Lavoravamo insieme solo da pochi mesi, e Lisa era riuscita a ottenere in appalto il lavoro di casting per le maggiori compagnie di produzione. Il gruppo di stranieri che avevo ingaggiato il giorno prima era il nostro primo lavoro per la RK, una delle più celebri case di produzione di Bollywood. Ero curioso di visitare gli studi dove erano stati girati alcuni dei più famosi film indiani, e quando superai il cancello ammirai incantato gli altissimi frontoni grigi del tetti gotici. A Lisa Carter, e ad altri come lei, il mondo di sogno del cinema ispirava quasi un timore riverenziale. Non era il mio caso, ma non ero immune al suo fascino. Ogni volta che entravo nel mondo incantato di uno studio cinematografico, una piccola parte della magia che serve a fare un film si impossessava di me, e con mio grande stupore riusciva a sollevarmi dalla cupa palude in cui troppo spesso si trasformava la mia vita. I sorveglianti mi indicarono il set dove si trovavano Lisa e il suo gruppo di tedeschi. Arrivai durante una pausa della lavorazione, e trovai Lisa che serviva tè e caffè ai giovani stranieri. Erano seduti a due tavoli, due dei tanti disposti intorno a un palcoscenico, su un set che doveva riprodurre l'ambiente di un nigt club. Li salutai e scambiai qualche battuta, poi Lisa mi prese in disparte. Come se la cavano. Le chiesi quando restammo da soli. Alla grande, rispose allegra. Sono calmi e rilassati, e credo che si divertano. Faranno un buon lavoro. Nelle ultime due settimane hai mandato gente in gamba, Ling. Le case di produzione sono molto soddisfatte. Potremmo. Sai, potremmo davvero avere successo con questo lavoro. Ti piace, vero? Certo. Esclamore galandomi un sorriso abbagliante. Poi fece un'espressione più solenne e determinata, il tipo di determinazione che vedi nella gente che ottiene ogni cosa lottando senza speranza. Era bellissima, una bellezza da spiaggia californiana nella giungla carnale di Bombay, una ragazza pom-pom che era riuscita a uscire dal tunnel dell'eroina e dalla prigione dorata di Madame Zou. Aveva la pelle chiara e abbronzata. Gli occhi azzurri come il cielo risplendevano di entusiasmo. Portava i capelli lunghi e ricci raccolti dietro la nuca, in un'elegante acconciatura che si addiceva al sobrio decoro del taier color avorio. È riuscita a battere l'eroina, pensai quando i nostri sguardi si incontrarono. Ce l'ha fatta. È riuscita a uscirne fuori. All'improvviso mi resi conto di quanto fosse coraggiosa. E il coraggio in lei, quando sapevi che c'era, e come riuscire a vederlo, era palpabile e affascinante come la minaccia feroce e impersonale negli occhi di una tigre. Mi piace questo lavoro, proseguì Lisa. Mi piace la gente, la vita. Credo che dovrebbe piacere anche a te. A me piaci tu, dissi sorridendo. Lisa sorrise, mi prese sotto braccio e mi portò a visitare il set. Il film si intitola Punch Papi, mi informò. Cinque baci punto. No. Papi, non Papi. È un gioco di parole. Papi significa ladro, e Papi bacio. Perciò in realtà è cinque ladri, ma con il doppio senso, perché è una commedia romantica. La protagonista femminile è Kimi Katkar. La trovo favolosa. Come ballerina non è niente di eccezionale, ma è una ragazza splendida. Il protagonista maschile è Shunkei Pandey. Potrebbe essere bravo, davvero bravo, se non fosse uno stronzo micidiale. Già che siamo in argomento, non hai avuto più guai con Maurizio? Mai più visto. Ma sono preoccupata per Ulla. È stata via per un giorno e una notte. L'altra sera Modena le ha telefonato e lei se n'è andata in fretta e furia. Non usciva di casa da settimane. Non l'ho più sentita, anche se mi aveva promesso che mi avrebbe chiamato. Mi passai una mano sulla fronte corrucciata e tra i capelli. Ulla sa quel che fa, brontolai. Non sono affari tuoi, e non sono affari miei. L'ho aiutata perché me l'ha chiesto, e mi è simpatica. Ma questa storia, il triangolo Ulla Modena Maurizio, comincia a stufarmi, capisci? Modena le ha detto qualcosa dei soldi? Non saprei. Può darsi. Beh, i soldi sono spariti, e Modena pure. Me l'hanno detto i ragazzi delle Opold. Maurizio cerca Modena disperatamente. Non si arrenderà finché non lo trova. Ulla non se la passa meglio. Sessantamila bigliettoni. In fondo non è tanto, ma la gente uccide per molto meno. Se Modena ha ancora quei soldi, farebbe meglio a stare alla larga da Ulla, finché Maurizio lo cerca. Lo so, lo so. All'improvviso gli occhi di Lisa erano sbarrati e impauriti. Non sono preoccupato per Ulla, dissi più dolcemente. Sono in pena per te. Se Modena è tornato, dovresti stare per un po' con Abdullah, o con me. Mi guardò con le labbra serrate, come se avesse qualcosa da dirmi, ma non volesse o non ci riuscisse. Raccontami della scena che dovete girare, proposi cercando di uscire dai vortici freddi e tenebrosi della vita di Ulla. Di cosa parla il film? Siamo in un nigt club. L'eroe ruba un gioiello a un ricco politicante, o almeno credo, e viene qui a nascondersi. Guarda la ragazza, Kimi, che fa il suo numero di danza, e se ne innamora. Quando arrivano i poliziotti, le nasconde il gioiello fra i capelli. Il resto del film racconta i tentativi del protagonista di avvicinare la ballerina per riprendersi il gioiello. Lisa si interruppe e mi scrutò, cercando di decifrare l'espressione dei miei occhi. E. Immagino che tu lo trovi stupido. No, niente affatto, risposi scoppiando a ridere. Mi piace. Mi piacciono questi film. Nel mondo reale quel tipo darebbe una botta in testa alla ragazza e si riprenderebbe il gioiello. O forse la farebbe fuori a colpi di rivoltella. Preferisco la versione di Bollywood. Anch'io, disse Lisa ridendo. L'adoro. Riescono a creare un mondo con fondali colorati e pezzi di legno, e. È come se costruissero dei sogni. So che può sembrare stucchevole, ma lo penso davvero. Amo questo mondo, Lin, e non voglio tornare in quello vero. Ehi, Lin! gridò qualcuno dietro di me. Era Chandra Meta, uno dei produttori. Hai un minuto di tempo? Lasciai Lisa con i turisti tedeschi e raggiunsi Chandra Meta sotto un traliccio metallico che sosteneva un grappolo di fari luminosi. Chandra portava un cappello da baseball con la tesa all'indietro, e il copricapo aderente faceva sembrare la faccia ancora più rotonda. Indossava un paio di levi stinti abbottonati sotto la pancia prominente, e un lungo curta che copriva i jeans fin sotto il ginocchio. Nel set chiuso l'aria era calda e umida, e Chandra era tutto sudato. Ehi, amico, come va? Speravo proprio di vederti, Yar, disse in un bisbiglio, con un tono da cospiratore. Usciamo a prendere una boccata d'aria. Qui si crepa dal caldo, Yar. Mentre passeggiavamo fra gli edifici sormontati da alte cupole metalliche incrociamo attori in costume e uomini che trasportavano apparecchiature. A un certo punto un gruppo di nove graziose ballerine con dei costumi esotici guarniti di pennacchi ci superarono dirette verso il palco. Mi voltai ammirato, e dovetti fare uno sforzo per proseguire nella direzione opposta. Chandra Meta non le degnò di uno sguardo. Senti, Lin, c'è una cosa di cui volevo parlarti. Disse stringendomi un braccio all'altezza del gomito mentre continuavamo a camminare. Sai, ho un amico, un uomo d'affari, e ha un sacco di lavoro negli Stati Uniti. Bene, come dire. Ha un problema di flusso monetario. Sai, rupie. Dollari. Ecco, speravo che. Un uccellino mi ha detto che te ne intendi di problemi del genere. Immagino che per bilanciare il flusso servirebbero dei dollari, vero? Sì, rispose sorridendo. Sono lieto che tu colga il punto della questione. È un problema serio? Oh, penso che diecimila pezzi potrebbero risolvere egregiamente la situazione. Gli riferì gli ultimi tassi di cambio di calè danzari, e accettò i termini della transazione. Presi accordi per trovarmi sul set il giorno seguente. Lui doveva portare le rupie, un fagotto molto più ingombrante del corrispettivo in dollari, dentro a uno zainetto che avrei sistemato sulla moto. Siglammo l'affare con una stretta di mano. Ricordando l'uomo che rappresentavo, Abdelkader Khan, un nome che ne io ne metto avremmo mai menzionato, strinsi la mano appena più forte del dovuto. Un po' di dolore serviva a rafforzare lo sguardo gelido con cui accompagnai il mio sorriso amabile. Non entrare in questa faccenda se non sei sicuro che tutto filerà liscio, Shandra, lo ammonii mentre il dolore della stretta pulzava nei suoi occhi. A nessuno piace essere preso per il culo, e meno che mai ai miei amici. Oh, no, certo che no, Baba. Disse allegramente Shandra Meta, senza riuscire a spegnere l'uccichio allarmato negli occhi. Non c'è problema. Koi Batnain. Non preoccuparti. Ti sono molto grato, sei molto gentile a risolvere. Il problema del mio amico. Ritornammo sul palcoscenico, e trova Elisa con l'altro produttore, Cliff de Souza. Ehi, amico. Capiti a proposito. Disse Cliff afferrandomi un braccio e trascinandomi in mezzo al set, fra i tavolini del Nigt Club. Guarda Elisa, ma lei si limitò a sollevare le mani come per dire, devi cavartela da solo, bello mio. Che succede, Cliff? Abbiamo bisogno di un altro uomo, Yar. Ci serve un Gora che stia seduto fra queste due belle figliole. Ah, no. Non fa per me, protestai cercando di divincolarmi con scarsi risultati. Eravamo di fianco a un tavolino. Le due tedesche si alzarono e cercarono di trascinarmi sulla sedia accanto a loro. No. Non posso. Ho il panico da cinepresa. Non fa per me. Na, come un shon. Ora uff. Disse una delle ragazze. Non eri tu quello che diceva che è un gioco da ragazzi? Erano donne attraenti. Avevo scelto quel gruppo proprio perché erano tutti ragazzi belli e in forma. Le due ragazze mi guardarono con un sorriso di sfida. Pensai alle conseguenze. Sarei apparso in un film che avrebbero visto 300 milioni di spettatori in almeno 10 nazioni diverse, ed ero un evaso, uno dei criminali più ricercati in Australia. Era pazzesco. Era pericoloso. Oh, al diavolo, perché no? Sospirai stringendomi nelle spalle. Cliff e i tecnici uscirono dal campo delle macchine da presa, e attori e comparse si disposero sulla scena. La star, Shunkei Pandey, era un attore giovane, bello e atletico di Bombay. Mi piaceva andare al cinema con i miei amici indiani e avevo visto qualche film con Shunkei Pandey. Scoprì con stupore che era molto più bello e carismatico di persona che sullo schermo. Un truccatore reggeva uno specchio, e Shunkei si pettinava e si scompigliava i capelli ad arte. L'intensità dello sguardo riflesso nello specchio era pari a quella di un chirurgo impegnato in un'operazione delicata impegnativa. Ti sei perso la parte migliore, mi sussurrò una delle ragazze tedesche. Il nostro eroe ci ha messo un bel po' a imparare le mosse di danza per questa scena. Continuava a incasinarsi, e ogni volta saltava fuori quell'omino con lo specchio, e il nostro eroe ricominciava da capo a pettinarsi come sta facendo adesso. Se avessero filmato tutta la scena, l'eroe che incasina il balletto, l'omino che salta fuori, e Pandey che ricomincia a pettinarsi, sarebbe venuta fuori una commedia di successo, puoi scommetterci. Il regista era di fianco agli operatori, guardò dentro l'obiettivo di una cinepresa e diede le ultime istruzioni ai tecnici delle luci. Al suo segnale l'aiuto regista ordinò di fare silenzio. Gli operatori annunciarono che la pellicola stava girando. Vai con l'audio. Ordinò il regista azione. La musica, proveniente da enormi altoparlanti da stadio, prese a martellare il set. Non avevo mai sentito la musica di un film indiano a quel volume, e rimasi estasiato. L'eroina, Kimi Katkar, entrò pavoneggiandosi sul finto palcoscenico del Nigt Club insieme alle altre ballerine. Attraversò la scena ancheggiando, scese dal palco e cominciò a passare da un tavolo all'altro danzando e mimando la canzone che rimbombava nella sala. L'eroe si unì a lei nella danza, e quando arrivarono gli attori che interpretavano i poliziotti all'improvviso scivolò sotto un tavolo. L'intera sequenza nel film non sarebbe durata più di cinque minuti, ma per realizzarla servirono un'intera mattina di prove e buona parte del pomeriggio per le riprese. La mia prima apparizione nel mondo dello spettacolo si limitò a ora un paio di rapide carrellate che immortalarono il mio ampio sorriso mentre Kimi indugiava con fare seducente dietro alla mia sedia nel corso della sua danza fra i tavoli. Radunammo le comparse straniele su due taxi, e diedi un passaggio in città a Lisa sulla mia bulle. Era una serata calda, e Lisa si tolse la giacca e il fermaglio che teneva raccolti i suoi lunghi capelli. Mi passò le braccia attorno alla vite e appoggiò una guancia sulla mia schiena. Era un buon passeggero, si abbandonò completamente e adattò il corpo ai movimenti del mio corpo. Attraverso il velo sottile della camicia bianca sentivo i suoi seni che mi premevano sulla schiena. Avevo la camicia aperta che svolazzava nel vento caldo, e Lisa si teneva stretta alla pelle nuda della mia vita. Non portavo mai il casco. Ne tenevo uno legato sul portapacchi per i passeggeri, ma Lisa decise di non metterselo. Di tanto in tanto, quando ci fermavamo per un ingorgo del traffico o per imboccare un'altra strada, una folata di ventole scompigliava i capelli lunghi, biondi e ricci, che mi arrivavano sulle spalle fino in bocca. Sulle labbra mi rimaneva un profumo di fiori di verbena. Lisa teneva le cosce strette contro le mie e, nel tocco delicato delle sue gambe, c'era la promessa o la minaccia di tutta la forza che possedevano. Ricordai le sue cosce, la pelle dolce come il chiaro di luna sul palmo delle mie mani, quella notte a casa di Carla. Poi, come se Lisa mi avesse letto nel pensiero o avesse seguito le mie stesse associazioni di idee, mentre eravamo fermi a un semaforo mi fece una domanda. Come sta il ragazzo? Chi? Il ragazzino che era con te è quella notte a casa di Carla, ti ricordi? Sta bene. L'ho visto la settimana scorsa da suo zio. Non è più tanto piccolo, cresce in fretta. Adesso è in collegio. Non gli piace molto, ma se la caverà bene. Ti manca? Il semaforo scattò, innestai la marcia e diedi gas, lanciando la moto rombante attraverso l'incrocio. Naturalmente mi mancava. Era un bravo ragazzo. Mi mancava mia sorella. Mi mancavano mia madre e tutta la mia famiglia. Mi mancavano i miei amici. Mi mancavano tutti i miei cari, e in quegli anni disperati ero certo che non li avrei mai più rivisti. Li amavo, e provavo una sensazione di lutto angosciante, resa ancora peggiore dal fatto che, almeno per quanto ne sapevo, non erano morti. Il mio cuore a volte sembrava un cimitero pieno di lapidi senza nome. E ogni notte, quando rimanevo solo nel mio appartamento, quel senso di lutto e di abbandono mi toglieva il respiro. Avevo pacchi di denaro sul tavolo, e passaporti freschi di stampa grazie ai quali avrei potuto raggiungere qualsiasi luogo al mondo. Ma non sapevo dove andare, non esisteva un luogo dove potessi sfuggire allo strazio per la mancanza di tutti coloro che avevo perso per sempre. Ero io il fuggiasco. Ero io a essere svanito nel nulla. Eppure dalla mia prospettiva erano i miei cari ad essere scomparsi. Dal mio punto di vista di esule era tutto il mondo che avevo conosciuto a essere svanito. I fuggiaschi si sforzano loro malgrado di annichilire il passato, di fare scomparire ogni traccia che possa rivelare ciò che sono, da dove vengono, quali persone amano. Cercano di estinguersi per sopravvivere, ma falliscono immancabilmente. Possiamo negare il passato, ma è impossibile sfuggire ai suoi tormenti, perché il passato è un'ombra che mormora, e ci segue passo dopo passo, segue la verità di ciò che siamo, fino alla morte. Dalla tavolozza viola e rosa del giorno morente nacque una notte blu e nera. Ci tuffammo insieme alla brezza marina in gallerie di luce. Il mantello del tramonto scivolò dalle spalle della città. Le mani di Lisa si muovevano sulla mia pelle come le onde del mare. E per un attimo diventammo un solo essere, un solo desiderio, una sola promessa che si dissolveva nell'incertezza, una sola bocca che assaporava un rivolo di pericolo e delizia. Qualcosa, poteva essere amore, o paura, mi spinse a fare una scelta, sussurrando nel vento tiepido, è giovane e libera come tu non sarai mai. È meglio che me ne vada. Non vuoi bere un caffè, o qualcos'altro. Chiese, la mano sulla chiave del suo appartamento. È meglio che me ne vada. Cavita è molto presa dalla storia che le hai raccontato, le due ragazze dello sluma che sono resuscitate. Non parla d'altro. Le chiama le sorelle azzurre. Non so perché, ma è un bel nome. Lisa chiacchierava per trattenermi. Guardai il cielo azzurro dei suoi occhi. È meglio che me ne vada. Due ore dopo ero ancora completamente sveglio. Lisa mi aveva dato il bacio della buonanotte e continuavo a sentire il tocco morbido delle sue labbra. Non mi stupì di sentire squillare il telefono. Puoi venire qui subito? Disse quando risposi. Rimasi in silenzio, cercando disperatamente di trovare un modo per dirle di no senza che sembrasse un rifiuto. Ho cercato Abdullah, ma non risponde, continuò. Finalmente mi resi conto che parlava con un tono cantilenante, depresso, impaurito, sconvolto. Che c'è? Cos'è successo? Abbiamo avuto dei problemi. C'è stato qualche problema. È stato Maurizio? Ti senti bene? È morto, borbottò. L'ho ucciso. C'è nessuno lì? Nessuno? Ripetè con una voce opaca. C'è qualcuno in casa oltre a te? No. Voglio dire, sì. C'è un là, e lui, sul pavimento. È un. Stammi a sentire. Ordinai. Chiudi la porta. Non lasciare entrare nessuno. Ha sfondato la porta, mormorò con la voce sempre più flebile. Ha rotto il lucchetto. Ok. Spingi qualcosa contro la porta. Una sedia, o un mobile. Tienila chiusa finché arrivo. Un la è ridotta male. È. Molto sconvolta. Non preoccuparti. Blocca la porta. Non telefonare a nessun altro. Non parlare con nessuno, e non lasciare entrare nessuno. Prepara due tazze di caffè con molto latte e molto zucchero, quattro cucchiai di zucchero. Siediti accanto a Ulla e cerca di farle bere il caffè. Dalle anche qualcosa di forte, se serve. Sto arrivando. Sarò lì tra dieci minuti. Rimani in casa, e stai tranquilla. Mi lanciai nella notte, nelle strade affollate, sfrecciando con la moto nella ragnatela di luci della città. Non provavo nulla, niente paura, niente panico, neanche un brivido d'eccitazione. Nel gergo dei motociclissi spingere sul rosso significa dare tutto gas a ogni cambio di marcia, in modo che l'ago del contaggiri schizzi sempre oltre il limite rosso che indica il massimo dei giri. Ognuno a modo suo, era quello che facevamo tutti, io, Carla, Didier e Abdullah, spingevamo su rosso le nostre vite. E lo stesso faceva Lisa. E Maurizio. Spingevamo l'ago in quell'esigua zona rossa. Un mercenario olandese a Kinsasa mi aveva detto che l'unico momento in cui smetteva di odiarsi era quando il rischio era talmente grande da costringerlo ad agire senza pensare e senza provare nessuna emozione. Avrei preferito che non me lo dicesse, perché sapevo esattamente cosa significava. Guidai a tutta velocità nella notte, e l'indifferenza che provavo somigliava molto a una sensazione di pace. Capitolo 28. Nel mio primo combattimento al coltello avevo imparato che ci sono due tipi di uomini che lottano all'ultimo sangue, quelli che uccidono per vivere e quelli che vivono per uccidere. Quelli a cui piace uccidere si buttano nella lotta con ferocia, ma di solito a spuntarla è chi combatte per sopravvivere, chi uccide solo per salvarsi la pelle. Quando gli uomini assettati di sangue cominciano a perdere il combattimento, si demotivano. Invece gli uomini che lottano per la vita quando si trovano in difficoltà raddoppiano la furia e l'energia. L'esito di un combattimento con armi letali è determinato dalla motivazione che resta ai combattenti quando comincia a scorrere il sangue. Se si combatte per salvare la propria vita si è molto più motivati e tenaci che se si combatte solo per il gusto di uccidere. La mia prima lotta al coltello avvenne in carcere. Come gran parte dei combattimenti in prigione iniziò per motivi futtili e finì nel modo più cruento. Il mio avversario, un veterano di molte battaglie, era forte e in forma. Era un prepotente, uno di quei tipi che in prigione aggrediscono i più deboli per un po' di denaro o di tabacco. Ispirava paura a molti e, non avendo grandi capacità di giudizio, scambiava quella paura per rispetto. Io di certo non lo rispettavo. Detesto i prepotenti perché sono dei vigliacchi, e li disprezzo per la loro crudeltà. Non ho mai conosciuto un vero duro che si approfittasse dei più deboli. I duri odiano i prepotenti quasi quanto i prepotenti odiano i duri. E io ero un duro. Ero cresciuto in un quartiere povero, e combattevo da quando ero bambino. In prigione non lo sapeva nessuno perché non ero un pregiudicato, e non potevo vantare un curriculum penale consistente. Quando entrai in carcere ero incensurato. Come se non bastasse ero un intellettuale, e tutti se ne accorgevano. Alcuni mi rispettavano, altri mi prendevano in giro, ma a nessuno incutevo timore. D'altra parte la mia lunga condanna, vent'anni di lavori forzati per rapina a mano armata, lasciava perplessi molti di loro. Ero un'incognita. Nessuno sapeva come avrei reagito a una vera prova, e non pochi erano curiosi di sperimentarlo. Quando giunse il momento fu una prova di acciaio scintillante, denti rotti e occhi strabuzzati come quelli di cani rabbiosi. Mi attaccò nella lavanderia della prigione, l'unico posto che non era controllato a vista dalle guardie che facevano la ronda sulle passerelle fra le torri di sorveglianza. Fu il genere di attacco a sorpresa, senza provocazione, che nel gergo del carcere veniva chiamato taglia e fila. Era armato di un coltello da tavola d'acciaio, affilato con pazienza malvagia e infinita sul pavimento di pietra della cella. La lama era così tagliente che ci si poteva fare la barba, o tagliare la gola a un rivale. Prima di entrare in prigione non ero mai andato in giro con un coltello, e non ne avevo mai usato un in vita mia. Ma in prigione c'erano aggressioni al coltello un giorno sì e un giorno no, e avevo deciso di seguire il consiglio dei duri che erano riusciti a sopravvivere per anni. Meglio avere un'arma e non averne bisogno, mi avevano detto più di una volta, che averne bisogno e non averla. Il mio coltello era un punteruolo di metallo affilato, spesso come un dito e poco più lungo di una mano. L'impugnatura era fatta con nastro da pacchi, e tenendo le dita distese riuscivo a nascondere l'arma in una mano. Quando iniziò il combattimento il mio aggressore non sapeva che ero armato, ma, anche se in modo diverso, eravamo entrambi consapevoli che sarebbe stato un combattimento mortale. Lui voleva uccidermi e io ero certo che per sopravvivere avrei dovuto uccidere lui. Commise due errori. Il primo fu di mettersi sulla difensiva. Mi attaccò di sorpresa, si scagliò su di me e mi fece due tagli profondi sul petto e su un avambraccio. Avrebbe potuto continuare l'attacco e finirmi subito, invece arretrò e rimase a fissarmi facendo roteare il coltello. Forse si aspettava che mi arrendessi, quasi tutte le sue vittime alla vista del proprio sangue si spaventavano e rinunciavano a lottare. Forse era così sicuro di vincere che decise di divertirsi un po', rimandando il piacere del colpo di grazia. In ogni caso perse il vantaggio, e indietreggiando segnò la sua sconfitta, perché mi diede il tempo di estrarre il coltello dalla maglietta e di prepararmi a usarlo. Vidi il suo sguardo esterrefatto, e fu come un segnale per lanciarmi al contrattacco. Il secondo errore del mio avversario fu di tenere il coltello come se fosse una spada, assumendo una postura da incontro di scherma. Quando un uomo impugna il coltello dal basso si aspetta che sia la sua arma a combattere per lui, come una pistola. Ma naturalmente un coltello non è una pistola, e in una lotta al coltello non è l'arma che combatte, ma l'uomo. Il coltello serve solo a finire più in fretta il combattimento. Il modo migliore per maneggiare un coltello è tenerlo come un pugnale, con la lama verso il basso e la mano che lo stringe serrata a pugno, pronta a essere usata contro l'avversario. Quel tipo di impugnatura consente la massima potenza nei colpi dall'alto al basso, e il pugno chiuso permette di colpire l'avversario con violenza. Il mio aggressore si muoveva di lato, con la schiena e le gampe piegate, e roteava il coltello con il braccio destro teso verso di me. Adottai una posizione da pugile mancino, con il pugnale nella mano destra. Portai avanti la gamba destra, e bilanciandomi sulla sinistra sferrai l'attacco. Il mio avversario agitò un paio di volte il coltello e scattò in avanti. Lo scansai e lo picchiai con una sequenza destro-sinistro-destro. Uno dei tre pugni fu fortunato. Gli spaccai il naso, e per il dolore gli si riempirono gli occhi di lacrime, offuscandogli la visione. Scattò di nuovo in avanti, cercando di sferrare una pugnalata di sbieco. Gli afferrai il polso con la sinistra, mi feci avanti all'improvviso e lo pugnalai al petto. Volevo colpire il cuore o un polmone. Non ci riuscii, ma comunque gli ficcai la lama fino all'impugnatura nella carne molle sotto la clavicola. La punta emerse dalla schiena, appena sotto l'osso della spalla. Era bloccato nel piccolo spazio fra la lavatrice e l'asciugatrice. Usando il mio punteruolo per trattenerlo, e continuando a tenergli fermo il polso con la sinistra, cercai di mordergli la faccia e il collo, ma quello scansava la testa così velocemente che optai per una serie di testate. Cinzucammo più volte, finché, in un ultimo disperato tentativo di divincolarsi, il mio avversario riuscì a farci finire tutte e due lunghi distesi sul pavimento. Nella caduta perse il coltello, ma il punteruolo gli si sfilò dal petto. Cominciò a trascinarsi verso la porta della lavanderia. Non saprei dire se volesse scappare o cercasse una posizione migliore per contrattaccare. Non gliene diedi la possibilità. Avevo la testa a livello delle sue gambe. Mentre ci trascinavamo sul pavimento gli afferrai la cintura dei pantaloni, la usai per far leva e lo pugnalai due volte a una coscia, poi continuai a conficcargli la lama nella gamba. Più di una volta colpii l'osso, e sentii l'urto violento che si ripercuoteva sul mio braccio. Mollai la cintura, allungai il braccio sinistro per cercare di togliergli la sua arma e colpirlo anche con quella. Non si mise a strillare, devo dargliene atto. Mi urlò di fermarmi, mi urlò che si arrendeva, ma non si mise a strillare. Mi fermai, e non lo uccisi. Mi alzai in piedi. Cercò ancora di strisciare verso la porta della lavanderia. Lo fermai mettendogli un piede sul collo, poi gli diedi un calcio in testa. Dovevo farlo. Se fossi riuscita a uscire dalla lavanderia mentre io ero ancora lì e le guardie lo avessero visto, avrei passato sei mesi o più nel reparto punitivo. Mentre mugolava sul pavimento, mi tolsi i vestiti sporchi di sangue e mi infilai una divisa fresca di boccato. Uno dei prigionieri addetti alle pulizie era fermo sulla soglia della lavanderia e ci guardava ghignando, senza nascondere il divertimento. Gli passai il fagotto di abiti sporchi. Lo fece sparire nel secchio degli stracci e andò a buttarlo nell'inceneritore dietro le cucine. Mentre mi allontanavo dalla lavanderia allungai due coltelli a un altro prigioniero, che li sotterrò nel giardino della prigione. Quando ero ormai al sicuro, l'uomo che aveva cercato di uccidermi si trascinò zoppicando nell'ufficio del direttore della prigione e si lasciò sul pavimento. Lo trasportarono in infermeria. Non lo vidi mai più, e non aprì mai bocca. Devo dargli atto anche di questo. Era un violento e un prepotente, e aveva cercato di uccidermi senza alcun motivo, ma non era una spia. Dopo il combattimento rimasi solo nella mia cella ed esaminai le ferite. La pugnalata al braccio aveva tagliato di netto una vena. Non potevo presentarmi in infermeria, perché l'ufficiale medico avrebbe subito collegato le mie ferite al combattimento e all'altra vittima. Potevo solo sperare che il taglio guarisse. Un'altra profonda ferita andava dalla spalla sinistra al centro del petto. Anche quello era un taglio netto, e sanguinava copiosamente. Bruciai due pacchetti di cartine da sigaretta in una tazza metallica, e strofinai la cenere bianca sulle due ferite. Fu doloroso, ma i tagli si sigillarono immediatamente e smisero di sanguinare. Non dissi una parola sul combattimento, ma i prigionieri vennero a saperlo quasi subito. Avevo superato la prova. La cicatrice bianca sul petto, che tutti vedevano ogni giorno nelle docce della prigione, diceva che ero pronto a combattere. Era un avvertimento, come le strisce di colori sgargianti sulla pelle di un serpente marino. Dopo tanti anni la cicatrice è ancora lì, lunga e bianca come un tempo. Ed è ancora una specie di avvertimento. La sfioro e rivedo l'assassino che implora pietà, ricordo, riflessa nelle sue pupille colme di paura, lo specchio del fato, l'immagine della creatura squilibrata e malvagia in cui mi ero trasformato durante il combattimento. La mia prima lotta al coltello non fu l'ultima, e mentre osservavo il cadavere di Maurizio Belcane affiorarono i ricordi freddi e taglienti delle pugnalate che avevo dato e ricevuto. Maurizio era inginocchiato a faccia in giù, con la parte superiore del corpo appoggiato a un angolo del divano e le gambe sul pavimento. Sul tappeto, vicino alla mano destra piegata mollemente, c'era uno stiletto affilato come un rasoio. Aveva un tagliacarte con il manico nero conficcato nella schiena, poco a sinistra della spina dorsale, appena sotto la scapola. Il tagliacarte aveva una lama lunga e larga. L'avevo già visto in mano a Lisa, l'ultima volta che Maurizio aveva commesso l'errore di presentarsi a casa sua senza essere invitato. Era una delle lezioni di cui bisognerebbe fare immediatamente tesoro, ma naturalmente nessuno di noi impara mai le cose al volo. Meglio così, mi aveva detto Carla, perché se tutti imparassimo quello che bisogna imparare fin dal primo momento, non avremmo più bisogno dell'amore. Beh, Maurizio alla fine aveva imparato la lezione, ma nel modo più duro, con la faccia immersa nel proprio sangue. Era diventato quello che Didier definiva una persona perfettamente matura. Una volta avevo accusato scherzosamente il mio amico francese di essere immaturo, e lui aveva risposto che ne era orgoglioso e soddisfatto. A una persona perfettamente matura, aveva detto, rimangono sì e no due secondi di vita. I miei pensieri si inseguivano, cozzavano e si sovrapponevano come le sfere d'acciaio in mano al capitano Quegg. Era colpa del coltello, naturalmente, il ricordo dei colpi che avevo inferto e ricevuto. Ricordavo con vividezza ogni ferita ricevuta. Ricordavo il coltello che squarciava la carne, che penetrava nel mio corpo. Sentivo ancora le lame d'acciaio dentro di me. Era una sensazione bruciante, come una scottatura. Come l'odio. Come il peggiore dei pensieri malvagi. Scrollai la testa, respirai profondamente e tornai a esaminare il cadavere. Probabilmente il coltello aveva trafitto un polmone ed era penetrato nel cuore. In ogni caso Maurizio era morto in fretta. Era crollato sul divano, e da lì non si era più mosso. Afferrai i capelli folti e neri e sollevai la testa. Gli occhi erano mezzi aperti, le labbra leggermente ritratti dal rigor mortis in un macabro sorrisetto. C'era pochissimo sangue, il divano lo aveva assorbito quasi tutto. Dobbiamo sbarazzarci del divano, pensai con distacco. Il tappeto era quasi intatto, si poteva ripulire. Anche nella stanza c'erano poche tracce di violenza. Il tavolino aveva una gamba spezzata e il lucchetto della porta era scardinato. Mi dedicai alle due donne. Ulla aveva un taglio sulla faccia che andava da uno zigomo fin quasi al mento. Pulì la ferita e uni i lembi con del nastro adesivo per tutta la lunghezza. Il taglio non era profondo, sarebbe guarito in fretta, ma ero sicuro che avrebbe lasciato una cicatrice. Per fortuna la lama aveva seguito la curvatura naturale della guancia e della mascella, e poteva quasi sembrare una sottolineatura dei lineamenti del viso. Guastava la bellezza del volto, ma non lo deturpava. Gli occhi di Ulla tuttavia erano spalancati in modo innaturale, colmi di un terrore che non accennava a diminuire. C'era una lunghe appoggiata allo schienale del divano. Gliela misi sulle spalle e Lisa le diede una tazza di tè bollente e zuccherato. Quando stesi una coperta sul cadavere di Maurizio, Ulla rabbrividì. Il suo volto si contrasse in una smorfia di sofferenza e per la prima volta scoppiò a piangere. Lisa era calma. Indossava jeans e pullover, una tenuta che solo un abitante di Bombay poteva sopportare in una notte così umida e affosa. Aveva lividi attorno a un occhio e su una guancia. Quando Ulla si tranquillizzò andai a parlare con Lisa vicino alla porta, in modo che la sua amica non potesse sentirci. Lisa prese una sigaretta, si chinò per accenderla sul fiemmifero che le accesi e aspirò il fumo avidamente, guardandomi negli occhi per la prima volta da quando ero entrato nell'appartamento. Sono contenta che tu sia venuto. Sono contenta che tu sia qui. Non ho potuto farci niente. Dovevo farlo, lui. Basta così, Lisa. La interruppi. Avevo usato un tono imperioso, ma la mia voce era calma e affettuosa. Non sei stata tu a pugnalarlo. È stata lei. Glielo leggo negli occhi. Conosco quello sguardo. Lo sta ancora pugnalando. Continua a rivivere la scena. Andrà avanti così per un po'. Tu cerchi di proteggerla, ma mentire a me non migliorerà la situazione. Sorrise. Date le circostanze era un bel sorriso. Se non fossi stato di fianco a un cadavere con un coltello piantato nel cuore lo avrei trovato irresistibile. Cosa è successo? Non voglio che Ulla soffra, tutto qui, rispose in tono neutro. Il sorriso svanì, trasformandosi in un solco triste fra le labbra tese. Neanch'io. Cosa è successo? Ha sfondato la porta e le ha dato una coltellata. Era fuori di sé, credo che fosse fatto di brutto. Lui urlava e lei non riusciva a rispondergli. Ulla era ancora più fuori di lui. Era qui da un'ora, prima che arrivasse Maurizio. Mi ha detto di Moden. Cristo, non mi stupisce che fosse così fuori di testa. E. Cazzo, Lynn, è una brutta storia, e lei era fuori di testa. Comunque, Maurizio ha sfondato la porta come un gorilla e le ha dato una coltellata. Era coperto di sangue. Quello di Modena, credo. Faceva paura, cazzo. Ho provato a saltargli addosso con un coltello da cucina. Mi ha dato un pugno in un occhio e un calcio nel culo. Sono finita sul divano. Mi è saltato addosso e stava per usare su di me quella specie di rasoio, ma Ulla l'ha colpito alla schiena. È crepato all'istante. Te lo juro, in un istante. Così. Mi guardava, e un attimo dopo era morto. Ulla mi ha salvato la vita, Lynn. Penso che sia stata tua a salvargliela, Lisa. Se non fossi stata qui, ci sarebbe Ulla stesa su quel divano con un coltello nella schiena. Lisa cominciò a tremare, scossa da brividi. La presi fra le braccia e la strensi forte. Quando si calmò le portai una sedia dalla cucina, e lei si misa a sedere, ancora scossa. Feci un giro di telefonate, e trovai Abdullah. Gli spiegai l'accaduto in poche parole, gli disse di contattare Asan Obikva nel ghetto africano e di accompagnarlo all'appartamento in macchina. A poco a poco, mentre aspettavamo Abdullah e Asan, venne fuori tutta la storia. Ulla all'improvviso si sentiva sfinita, ma non potevo lasciarla dormire. Non ancora. Dopo un po' cominciò a parlare, aggiungendo altri particolari al racconto di Lisa. Maurizio Belcane aveva conosciuto Sebastian Modena a Bombay, dove tutti e due guadagnavano procacciando lavoro alle prostitute straniere. I genitori di Maurizio erano una ricca coppia di Firenze, ed erano morti in un incidente aereo quando lui era ancora bambino. Stando al suo racconto, che Maurizio ripeteva a Ulla ogni volta che era ubriaco, era stato allevato con indifferenza da lontani parenti che solo per senso del dovere lo avevano accolto con riluttanza nel rifugio privo di amore della loro casa. A 18 anni Maurizio incassò la prima fetta della sua eredità e scappò al Cairo. A 25 anni aveva già dilapidato il patrimonio dei suoi genitori. I parenti lo cacciarono di casa, vuoi per la sua indigenza, vuoi per la scia di scandali che aveva seguito i suoi spostamenti in Medio Oriente e Asia. A 27 anni arrivò a Bombay, dove cominciò a fare l'intermediario per le prostitute europee. L'uomo di fiducia di Maurizio a Bombay era Sebastian Modena, il trentenne spagnolo cupo diffidente. Era Modena che cercava e contattava i ricchi clienti arabi e indiani. Il fisico mingerlino e i modi timidi lo aiutavano, Modena riusciva a far sentire a loro agio i clienti e a vincere la loro diffidenza. Prendeva un quinto della percentuale che Maurizio intascava dalle ragazze straniere. Secondo Ulla, Modena era soddisfatto di quel rapporto poco equo, a lui toccava la maggior parte del lavoro sporco, e a Maurizio la maggior parte del denaro sporco, perché si vedeva come un pesce pilota, mentre l'italiano alto e bello era lo squalo. La storia di Modena era molto diversa da quella di Maurizio. Era uno dei tredici figli di una famiglia di zingari andalusi, e aveva sempre avuto una bassa opinione di sé. Sapeva a stento leggere e scrivere e aveva frequentato più i criminali che le scuole. Campando di piccole truffe, imbrogli e furtarelli aveva attraversato Turchia, Iran e Pakistan, ed era arrivato in India. Le sue vittime erano i turisti stranieri, parlava poco e non si fermava mai a lungo nello stesso posto. Poi aveva conosciuto Maurizio, e per due anni aveva aiutato il magnaccia italiano, procurandogli i clienti e facendoli incontrare con le ragazze della sua scuderia. Il sodalizio avrebbe potuto continuare indisturbato per molto tempo, ma un giorno Maurizio si presentò da Modena con Ulla. Ulla capì subito che Modena si era perdutamente innamorato di lei dal primo momento che l'aveva vista. Lo incoraggiò, perché la devozione dello spagnolo poteva tornarle utile. Era stata riscattata dal palace di Madame Zou, e Maurizio era deciso a recuperare il costo del suo investimento nel più breve tempo possibile. Perciò ordinò all'innamoratissimo Modena di trovarle lavoro due volte al giorno, tutti i giorni, finché non fossi riuscita a ripagargli il debito. Modena era disperato perché gli sembrava che il suo grande amore fosse continuamente tradito, e chiese a Maurizio di condonarle il debito. Maurizio si rifiutò, derise l'infatuazione dello spagnolo per una delle sue dipendenti, e insistette perché le trovasse lavoro giorno e notte. Ulla interruppe il racconto quando un leggero colpo alla porta annunciò l'arrivo di Abdullah. L'alto iraniano entrò in silenzio, interamente vestito di nero, sembrava avvolto nella notte. Mi salutò con un abbraccio e fece un cenno gentile a Lisa. Lei andò a dargli un bacio su una guancia. Abdullah sollevò la coperta per esaminare il cadavere di Maurizio. Annui e storse gli angoli della bocca, dimostrando il suo apprezzamento professionale per la coltellata che aveva ucciso Maurizio sul colpo, poi lasciò cadere la coperta e mormorò una preghiera. Hasan è impegnato. Arriverà fra un'ora circa, disse alla fine. Gli hai detto cosa voglio che faccia? Lo sa, rispose sollevando un sopracciglio in un sorrisetto tirato. Fuori è tutto tranquillo. Ho controllato prima di entrare. Il palazzo è tranquillo, e anche le strade qui intorno. Finora i vicini non si sono fatti vivi. Lisa dice che a Maurizio è bastato un solo calcio per sfondare la porta, e loro non hanno urlato troppo. Quando sono arrivato io dalla porta accanto veniva musica ad alto volume. Doveva esserci una festa, o qualcosa del genere. Credo che non se ne sia accorto nessuno. Noi. Dobbiamo chiamare qualcuno. Strillò Ulla all'improvviso, alzandosi di scatto. La lungile scivolò dalle spalle. Dobbiamo. Chiamare un dottore. La polizia. Abdul la scattò verso di lei e la strinse fra le braccia con un atteggiamento incredibilmente dolce e compassionevole. La fece sedere e la cullò, mormorando frasi rassicuranti. Provai un po' di vergogna perché sapevo che avrei dovuto farlo io, fin dal primo momento in cui ero arrivato. Ma la morte di Maurizio mi metteva nei guai, e avevo paura. Avevo ottime ragioni per volerlo morto, e lo avevo già pestato a sangue. In altre parole, avevo un buon movente per un omicidio, e la gente lo sapeva. Ero in quella stanza con Lisa Ulla, e sembrava che le stessi aiutando, che fosse accorso in risposta al loro appello disperato, ma non era affatto così. Ero lì per aiutare me stesso. Ero lì per fare in modo che neanche un lembo della rete appiccicosa della morte di Maurizio mi rimanesse attaccato addosso. Per questo non riusciva a essere gentile, e l'unico a comportarsi con affetto e premura era un killer iraniano di nome Abdullah Taheri. Ulla ripresa a parlare. Lisa le preparò un bicchiere di vodka e succo di lime. Ulla lo traccannò, e proseguì il racconto. Ci volle un po' di tempo, perché era nervosa e impaurita. Di tanto in tanto saltava particolari importanti, e aveva difficoltà a collocare i fatti nel tempo, raccontava gli avvenimenti come erano capitati a lei anziché seguire la sequenza reale dei fatti. Eravamo costretti a interromperla spesso, cercando di ottenere un racconto più coerente. A poco a poco riuscimmo a ricostruire tutta la storia. Modena era stato il primo a conoscere il nigeriano, l'uomo d'affari che voleva comprare 60.000 dollari d'eroina. Lo presentò a Maurizio, che in poco tempo e senza troppe difficoltà riuscì a soffiargli i soldi. Maurizio voleva tagliare la corda, ma Modena aveva altri progetti. Colse al volo l'occasione di liberare Ulla e sbarazzarsi di Maurizio, l'uomo che la trattava come una schiava. Modena fregò i 60.000 dollari a Maurizio, si nascose e fece in modo che il nigeriano sguinzagliasse la sua squadra punitiva a Bombai. Per distrarre gli africani comprensibilmente assetati di sangue e avere il tempo di rintracciare Modena, Maurizio fece il mio nome, dicendo che ero stato io a rubare il denaro. Io e Abdullah conoscevamo bene il resto di quella parte della storia. Nonostante la paura della mia vendetta e il terrore che i nigeriani tornassero a cercarlo, Maurizio Belcane non poteva lasciare la città. Non poteva ignorare la furia omicida che provava per Modena, ed era smagnoso di riavere i soldi. Per settimane pedinò Ulla dappertutto. Era certo che presto o tardi Modena l'avrebbe contattata. Quando lo spagnolo si fece vivo, Ulla andò all'appuntamento, senza sapere che Maurizio la stava seguendo nell'alberghetto da quattro soldi a Dadar dove si nascondeva Modena. Maurizio fece irruzione nella stanza, ma trovò solo Modena. Ulla se n'era già andata con il malloppo. Modena era ridotto male, aveva una malattia grave, che secondo lei poteva essere malaria. Maurizio lo imbavagliò, lo legò a letto e cominciò a lavorarlo con lo stiletto. Modena, più duro di quanto si pensasse e taciturno fino alla fine, si rifiutò di dirgli che Ulla era nascosta nella stanza accanto, a pochi passi di distanza, con tutto il denaro. Quando Maurizio ha smesso di usare il coltello. Quando ha finito di tagliarlo. E se n'è andato, o ha aspettato a lungo, disse Ulla. Rabbrivi di sotto la coperta. Non alzava gli occhi dal tappeto. Lisa era seduta ai suoi piedi, sul pavimento. Le tolse delicatamente il bicchiere di mano e le diede una sigaretta accesa. Ulla l'accettò, ma la tenne fra le dita senza fumare. Fissò Lisa negli occhi, poi si girò a guardare Abdullah, e infine me. Avevo tanta paura, piagnucolò. Troppa paura. Dopo un po' sono entrata nella stanza, e l'ho visto. Era steso sul letto. Aveva il bavaglio stretto sulla bocca. Era legato, e poteva muovere solo la testa. Aveva tagli dappertutto. Sulla faccia. Sul corpo. Dappertutto. C'era tanto sangue. Tanto sangue. Continuava a guardarmi, non smetteva di fissarmi con i suoi occhi neri. L'ho lasciato lì e. Sono scappata via. L'hai lasciato lì. Così? Ansimò Lisa. Ulla annui. Non l'hai neanche slegato? Annui una seconda volta. Cristo Santo. Sbottò amaramente Lisa. Alzò la testa per guardare me e Abdullah. Questa non me l'aveva raccontata. Ulla, ascoltami. Pensi che Modena sia ancora là? Ulla annui per la terza volta. Guardai Abdullah. Ho un buon amico ad Adar, disse Abdullah. Dov'è l'albergo? Come si chiama? Non so, Borbottola. È vicino al mercato. Sul retro, dove buttano la spazzatura. C'è un puzzo terribile. No, aspetta, ora ricordo. Ho detto il nome al taxista. Kabir. Si chiama Hotel Kabir. Oh, mio Dio. Quando l'ho lasciato pensavo che. Ero sicura che lo avrebbero trovato. E. Lo avrebbero liberato. Pensate che sia ancora su quel letto? Abdullah telefonò al suo amico, e disse di mandare qualcuno a controllare. Dove sono i soldi? Chiesi a Ulla. Esitò. I soldi, Ulla. Dammeli. Si alzò, e sorretta da Lisa si diresse barcollando verso la camera da letto. Subito dopo tornò con una borsa da viaggio, me l'allungò con un'espressione stranamente contraddittoria, ostile e provocante allo stesso tempo. Apri la borsa e tirai fuori diversi rotoli di banconote da 100 dollari. Contai 20.000 dollari, infilai il resto nella borsa e gliela restituì. 10.000 sono per Asan, dichiarai. 5.000 per comprarti un nuovo passaporto e un biglietto per la Germania. 5.000 per ripulire qui, e sistemare Lisa in una nuova casa al capo opposto della città. Il resto è tuo. È di Modena, se ce la fa. Ulla stava per rispondere, ma un colpetto delicato alla porta annunciò l'arrivo di Asan. Il nigeriano massiccio e muscoloso entrò e salutò calorosamente me e Abdullah. Come tutti noi era abituato al clima di Bombay, e indossava una pesante giacca di lana e jeans color verde bottiglia senza mostrare il minimo segno di disagio. Sollevò la coperta che nascondeva Maurizio, tastò la pelle, piegò un braccio del cadavere e lo fiutò. Ho della buona plastica, disse, poi buttò sul pavimento un pesante telone di plastica e cominciò a distenderlo. Dobbiamo togliere tutti i vestiti, e tutti gli anelli e le catene. Solo il corpo, ci serve. I denti li strappiamo dopo. Fece una pausa, perché si era accorto che non rispondevo, e fissavo le due donne che avevano il volto contratto dall'orrore. Forse è meglio che aiuti Ulla a fare una doccia, disse a Lisa con un sorrisetto cupo. Fattela anche tu. Non credo che ci metteremo molto. Lisa accompagnò Ulla in bagno e aprì il rubinetto della doccia. Buttammo il cadavere di Maurizio sul telo di plastica e gli togliemmo i vestiti. La pelle era pallida e opaca, in alcuni punti grigionnola. In vita Maurizio era un ragazzo alto e robusto. Morto e nudo sembrava più smunto, quasi gracile. Avrei dovuto provare pietà per lui. Quando si guarda e si tocca un morto bisognerebbe provare pietà, anche solo per un momento. La pietà è la parte dell'amore che non chiede nulla in cambio, e per questo ogni atto di pietà è una specie di preghiera. E i morti esigono una preghiera. Il cuore silenzioso, la cupola in rovina del petto svuotata dal respiro, gli occhi spenti come moccoli di candela richiedono una preghiera. I morti sono come templi in rovina, e se i nostri occhi si inoltrano fra quelle macerie dovremmo provare pietà, dovremmo pregare. Ma io non provavo pietà per Maurizio. Hai avuto quello che ti meriti, pensai mentre avvolgevamo il corpo nel telo di plastica. Mi sentivo spregevole e meschino, ma quelle parole si insinuavano nel mio cervello come il mormorio assassino che si propaga in mezzo a una folla inferocita. Hai avuto quello che ti meriti. Hasan aveva portato una cesta su rotelle, come quelle del servizio lavanderia degli alberghi. La spingemmo lungo il corridoio fino all'appartamento. Il cadavere di Maurizio cominciava a irrigidirsi, e per farlo entrare nella cesta fummo costretti a spezzargli le gambe. Lo trasportammo giù per due rampe di scale e lo spingemmo nella strada deserta senza che nessuno ci notasse. Accanto al marciapiede era parcheggiato il furgone di Hasan. I suoi uomini lo usavano tutti i giorni per consegnare pesce, pane, frutta, verdura e cherosene ai negozi nel ghetto africano. Sollevammo il carrello della lavanderia nel vano posteriore del furgone e ricoprimmo il cadavere avvolto nella plastica con pagnotte di pane, cesti di verdura e vaschette di pesce. Grazie Hasan, dissi stringendogli la mano e passandogli i 10.000 dollari. Hasan fece sparire il rotolo di banconote in una tasca della giacca. No, rugì con la sua voce da basso che nel ghetto africano incuteva un rispetto assoluto. Sono molto felice di fare questo lavoro per te. Adesso siamo pari, Ling. Non ti devo più niente. Fece un cenno di saluto ad Abdullah e se ne andò verso la macchina che aveva parcheggiato mezzo isolato più avanti. Raim si sporse dal furgone e mi fece un gran sorriso, poi accese il motore con uno scatto del polso. Si allontanò senza voltarsi indietro. Hasan lo seguì in auto a qualche centinaio di metri di distanza. Non sentimmo mai più parlare di Maurizio. Si diceva che Hasan o Bikva avesse una fossa al centro del suo slum. Alcuni sostenevano che la fossa era piena di topi. Secondo altri era piena di granchi. Altri giuravano che nella fossa c'erano dei maiali. Tutti concordavano che, qualunque fossero, le creature affamate venivano nutrite di tanto in tanto con il cadavere di un uomo, un pezzo alla volta. Soldi spesi bene, mormorò Abdullah con espressione assente mentre il furgone si allontanava. Ritornammo nell'appartamento e rabberciammo il lucchetto in modo che la porta si chiudesse dall'interno. Abdullah telefonò a un'altra sua conoscenza, e dispose che due uomini fidati venissero all'appartamento il giorno dopo. Dovevano portare una sega, tagliare il divano a pezzi e portarlo via dentro a sacchi della spazzatura. Poi avrebbero pulito il tappeto e lasciato l'appartamento in ordine, facendo sparire ogni traccia di chi lo aveva abitato. Abdullah riattaccò, e subito dopo squillò il telefono. Il contatto a Dadar aveva novità, Modena era stato scoperto dal personale dell'albergo, e lo avevano portato di corsa all'ospedale. Il contatto di Abdullah era andato all'ospedale, dove gli avevano detto che il paziente, ferito e debolissimo, aveva voluto farsi dimettere. L'avevano visto che si allontanava in fretta su un taxi. Il dottore che lo aveva medicato dubitava che riuscisse a superare la nottata. È strano, dissi quando Abdullah mi riferì le notizie. Sai, conoscevo Modena. Posso dire che lo conoscevo bene. L'avrò visto a Leopold. Non so, centinaia di volte. Eppure non riesco a ricordare la sua voce. Proprio non ci riesco. Mi piaceva, disse Abdullah. Questa non me l'aspettavo. Perché? Non saprei, risposi. Era così. Mite. Sarebbe stato un buon soldato. Sollevai le sopracciglia, sempre più stupito. In realtà a me pareva che Modena non fosse solo mite, lo consideravo un debole. Non capivo cosa volesse dire Abdullah. A quei tempi non sapevo che i buoni soldati si giudicano dalle sofferenze che sopportano, e non da quelle che infliggono. Quando i capi sciolti di quella vicenda si annodarono, o furono recisi del tutto, quando Ulla lasciò Bombay diretta in Germania Elisa si trasferì in un nuovo appartamento, e gli ultimi interrogativi su Modena, Maurizio e Ulla trovarono una risposta, e tutto svanino il silenzio, io continuai a pensare allo spagnolo misteriosamente scomparso nel nulla. Nelle due settimane successive feci due doppi trucchi, avanti e indietro da Delli. Poi Abdul Ghani mi mandò per tre giorni a Kinshasa con altri dieci passaporti. Cercavo di tenermi occupato, facevo del mio meglio per concentrarmi sul lavoro, ma sullo schermo della mia mente si proiettava troppo spesso l'immagine di Modena legato al letto che fissava Ulla, e la vedeva scappare con i soldi. Imbavagliato. Senza poter urlare. Vedendola entrare nella stanza doveva avere pensato, sono salvo. E chissà cosa aveva provato scorgendo il terrore sul volto di Ulla. Ma negli occhi della ragazza c'era dell'altro. Ripugnanza, o qualcosa di ancora più orribile. Forse sembrava sollevata? Forse sembrava felice di sbarazzarsi di lui? E cosa aveva pensato quando l'aveva vista voltarsi e se n'era andata chiudendosi la porta alle spalle? Quando ero in prigione in Australia mi innamorai di una donna, faceva l'attrice ed era la protagonista di un programma televisivo molto popolare. Era venuta in prigione per tenere un corso di recitazione al nostro gruppo teatrale. Come si suol dire, scoccò la scintilla. Lei era una brava attrice, io uno scrittore. Lei era la voce e i gesti. Io vedevo le mie parole respirare e muoversi in lei. Comunicavamo nel codice degli artisti di tutto il mondo, ritmo ed eccitazione. Dopo qualche tempo mi disse che era innamorata di me. Le credetti, e sono ancora convinto che fosse sincera. Per mesi alimentammo la nostra storia con boccone di tempo strappati ai corsi di recitazione, e lunghe lettere che riuscivo a farle arrivare grazie al sistema di posta clandestina della prigione. Finì nei guai. Mi sbatterono nel reparto punitivo. Non so come le guardie fossero riuscite a scoprire la nostra relazione, ma appena arrivai nel reparto cominciarono a interrogarmi, facendomi domande su di lei. Erano furibondi. La storia d'amore dell'attrice con un prigioniero, che andava avanti da mesi sotto il loro naso, era un affronto umiliante alla loro autorità, e forse anche alla loro mascolinità. Mi presero a pugni, a calci e a manganellate, cercando di costringermi ad ammettere che io e l'attrice eravamo stati amanti. Volevano usare la mia confessione per incriminarla. Durante un pestaggio attaccarono a un muro una sua fotografia. Era la foto di una pubblicità con il suo volto sorridente. Mi dissero che per fermare il pestaggio mi sarebbe bastato indicare la fotografia. Basta un cenno della testa, mi dissero tenendo la foto davanti al mio volto insanguinato. Un cenno della testa, non devi fare altro, e sarà tutto finito. Non parlai. Tenevo chiuso il mio amore nel santuario del cuore, e loro cercavano di raggiungerlo attraverso la mia pelle e le mie ossa. Poi un giorno, mentre ero seduto nella mia cella dopo un pestaggio, e cercavo di fermare il sangue che mi scorreva in bocca dall'osso della mandibola scheggiato e dal naso rotto, lo spioncino si aprì di scatto. Una lettera svolazzò a mezz'aria e finì sul pavimento. Lo spioncino si richiusi di scatto. Strisciai fino alla lettera, e tornai strisciando sulla brandina per leggerla. Era una lettera dell'attrice. Era una lettera da Dio. Diceva che aveva conosciuto un uomo. Un musicista. I suoi amici avevano sempre cercato di convincerla a rompere la nostra relazione, perché dovevo scontare vent'anni di prigione e non avevamo futuro. Amava il suo nuovo uomo, e pensava di sposarlo non appena fesse tornato da una tournée con la sua orchestra sinfonica. Sperava che la capissi. Le dispiaceva, ma quella era una lettera da Dio. Addio per sempre. Non ci saremmo mai più rivisti. Il sangue gocciolava sui fogli di carta dalla mia faccia martoriata. Naturalmente le guardie avevano letto la lettera prima di darmela. Ridevano davanti alla mia cella. Per loro era una specie di vittoria, o una consolazione nella sconfitta. Mi chiesi se il suo nuovo uomo, il musicista, sarebbe stato disposto a farsi torturare per lei. Forse sì. Non si può mai sapere cosa nasconde il cuore di un uomo finché non cominciano a rubare ciò che contiene, finché non strappano via una speranza dopo l'altra. Non so come, nelle settimane dopo la morte di Maurizio il volto di Modena, o quantomeno l'immagine mentale che mi ero fatto del suo volto con gli occhi sbarrati, imbavagliato e sanguinante, si confuse con i ricordi dell'amore che avevo perso in prigione. Non sapevo perché, non c'era un motivo particolare che facesse intrecciare il fato di Modena con il mio. Eppure era così, e sentivo come una zona d'ombra che si allargava dentro di me, troppo inerte per causare dolore e troppo fredda per suscitare rabbia. Cercavo di combatterla tenendome occupato il più possibile. Feci la comparsa in altri due film di Bollywood, come invitato a un party e in una scena di strada. Incontrai Cavita, e la esortai ad andare a trovare Anand in prigione. Quasi tutti i pomeriggi mi allenavo insieme ad Abdullah, sollevamento pesi, boxe e karate. Ogni tanto passavo una giornata all'ambulatorio dello slum. Aiutavo Prabhak e Regioni nei preparativi dei loro matrimoni. Ascoltavo le lezioni di Kaderbai e mi immergevo nella lettura di libri, manoscritti, pergamene e incisioni su antiche ceramiche della vasta collezione privata di Abdul Ghani. Tuttavia non c'era lavoro o fatica che riuscisse a diradare quella zona d'ombra dentro di me. A poco a poco il volto torturato dello spagnolo e i suoi occhi silenziosi e urlanti si sovrapponevano ai miei ricordi, il sangue che gocciolava sulla pagina, e il silenzio della mia bocca che avrebbe voluto ululare di dolore. Tutti i momenti della vita in cui le nostre urla laceranti rimangono inespresse reclamano e ottengono un angolo nascosto nel nostro cuore. È lì che gli amori, come elefanti feriti, si trascinano per morire indisturbati. È il luogo in cui l'orgoglio si concede il balsamo del pianto. In quelle notti insonni e in quei giorni febbrili il volto di Modena era sempre lì, e mi fissava da quella soglia oscura. Mentre io lavoravo e mi riusciavo, il Leopold era cambiato per sempre. Il gruppo che lo frequentava si era disperso senza lasciare traccia. Carla se n'era andata. Hulla se n'era andata. Modena se n'era andato, probabilmente era morto. Maurizio era morto. Un giorno, in quel periodo in cui ero troppo occupato per fermarmi a bere, passai davanti all'ingresso e non vidi nessun volto noto. Solo Didier stazionava ogni sera al suo tavolo preferito, faceva i suoi affari e accettava i drink che gli offrivano i vecchi amici. Gradualmente attorno a lui si aggregò una nuova compagnia, con uno stile diverso. Una sera Lisa Carter portò a Leopold Calpana ieri, e la giovane produttrice divenne una cliente assidua del locale. Vikram e Lettie stavano ultimando i preparativi del matrimonio, e si fermavano per una birra, un caffè o uno spuntino quasi ogni giorno. Cavita Singh invitò due suoi giovani colleghi giornalisti, Anwar e Dilip, a dare un'occhiata al locale. La sera della loro visita a Leopold c'erano Lisa, Calpana, Cavita, Lettie e tre ragazze tedesche che avevano fatto le comparse per Lisa, sette ragazze belle, intelligenti e vivaci. Anwar e Dilip erano giovani e liberi. Da quella sera cominciarono a frequentare Leopold quotidianamente. L'atmosfera del nuovo gruppo era diversa da quella che riusciva a creare Carla Sauranen. L'intelligenza e lo spirito tagliente di Carla stimolavano discorsi profondi e un tipo di umorismo più fine e sottile. L'accentratore del nuovo gruppo era Didiette, che alternava l'incisiva sagacia del suo sarcasmo a una predilezione per tutto ciò che era volgare, osceno e scorrile. Di conseguenza le risate erano più grasse e forse più frequenti, ma a meno rimanevano impresse frasi memorabili come ai tempi di Carla. Poi una sera, il giorno dopo il matrimonio di Vikram e Lettie e poche settimane dopo che Maurizio era scomparso nella fossa di Asano Vicva, mentre ero seduto con il nuovo gruppo delle Opold che per l'ilarità strepitava, starnazzava e si agitava come se uno stormo di gabbiani si fosse posato sul tavolo, vidi Prabhakar fermo sulla soglia che mi faceva cenne con la mano. Lasciai gli altri e salii sul taxi parcheggiato poco lontano. Ehi là, Prabhu, stavamo festeggiando il matrimonio di Vikram. Lui e Lettie si sono sposati ieri. Sì, Limbabba. Mi dispiace disturbare nuovi sposi. Non preoccuparti, loro non ci sono. Sono partiti per Londra, Vikram va a conoscere il genitore di Lettie. Ma dimmi. Qual buon vento. Quale vento, Limbabba. Ecco. Voglio dire, che ci fai da queste parti? Domani è il tuo gran giorno. Credevo ti stessi ubbracando con Johnny e gli altri ragazzi allo Zopadopatti. Solo dopo questo discorso. Poi andrò, rispose tamburellando nervosamente le dita sul volante. Le portiere anteriori erano spalancate per lasciare entrare l'aria. Era una serata calda. Le strade erano affollati di coppie, famiglie e ragazzi che cercavano un filo d'aria, o qualche curiosità che li distraesse dall'afa. Il fiume di folla che scorreva di fianco alle macchine parcheggiate cominciò a creare dei molinelli davanti alla portiera aperta di Prabhakar, che la chiuse di scatto. Ti senti bene? Oh, sì, Lin, sto molto molto bene, rispose. Poi mi guardò negli occhi e aggiunse, no. In realtà, no, Baba. E infatti a proposito, sto molto molto male. Che succede? Bene, come dirti questa cosa, Lin Baba. Sai che domani mi sposo in matrimonio con Parvati. Sai, Baba, la prima volta che ho mai visto la mia Parvati era sei anni prima, quando lei aveva sedici anni soltanto. Quella prima volta, quando lei è venuta per la prima volta a Zopadopatti, prima che suo padre avesse il suo negozio della Shai, lei viveva in una piccola baracca con la mamma, il papà e la sorella, la sita che è la sposa per giorni. A quel primo giorno, Parvati portava un matca di acqua dal pozzo del cantiere. Lo portava sulla sua testa. Prabaker fece una pausa e osservò l'acquario brulicante della strada attraverso i vetri del taxi. Ricominciò a tamburellare le dita sulla finta pelle di leopardo che aveva applicato al volante. Rimasi in attesa. Comunque, proseguì, io la guardavo e lei cercava di trasportare quel pesante matca e di camminare sul sentiero pieno con le buche. E quel matca doveva essere molto vecchio, e l'argilla molto fragile, perché all'improvviso va in mille pezzi, e tutta l'acqua cade su di lei. Ha urlato tanto e anch'io ho urlato tanto. L'ho guardata e mi sono sentito. Si fermò di nuovo, e riprese a guardare il viavai lungo la strada. Dispiaciuto? Azzardai. No, babba. Mi sono sentito. Triste? Ti ha fatto pena? No, babba. Mi sono sentito un'erezione nei miei pantaloni. Sai, quando il penne diventa tutto duro, e i tuoi pensieri pure. Per l'amor di Dio, Prabhu. So cos'è un'erezione. Brontolai. Vai avanti. Cos'è successo? Niente è successo, rispose stupito e vagamente inibito dalla mia irritazione. Ma da quel momento solo, non ho mai dimenticato il mio grosso, grosso sentimento per lei. Ora mi sposo in matrimonio, a quel grosso, grosso sentimento diventa più grosso ogni giorno di più. Non sono sicuro che mi piaccia dove stai andando a parare, Prabhu, borbottai. Io ti devo chiedere, Lin, disse con voce strozzata. Si voltò verso di me. Aveva gli occhi pieni di lacrime, e i goccioloni scivolavano lungo le guance e finivano sul grembo. Lei è troppo bella, riprese singhiozzando. Io sono un uomo molto corto e piccolo. Pensi che possa essere un marito buono e sexy? Guardai Prabhaker che piangeva seduto sul suo taxi, e gli dissi che l'amore fa gli uomini grandi, e l'odio li rende piccoli. Gli assicurai che il mio piccolo amico era uno degli uomini più grandi che avessi mai conosciuto, perché in lui non c'era neanche una bricioa d'odio. Gli dissi che più lo conoscevo e più appariva grande ai miei occhi, e cercai di spiegargli che era una virtù rara. E scherzai con lui, risi insieme a lui finché il sorriso smisurato, grande come il più grande desiderio di un bambino, ritornò a illuminare quel volto rotondo e gentile. Avviò il motore e partì per la festa di addio al celibato che lo aspettava allo slum, lanciando squilli trionfali di clacson finché scomparve, inghiottito dal traffico. Camminando nella notte, molto tempo dopo che Prabacher se n'era andato, mi sentivo più solo del solito. Non ero tornato a sedermi a Leopold. Percorsi a piedi la cause vai, superai il mio appartamento e prosegui verso lo slum di cuffe parade. Ritrovai il posto dove io e Taric avevamo combattuto contro il branco inferocito nella notte dei cani randaggi. C'era ancora un piccolo mucchio di pietre e legname. Mi sedetti sul basso cumulo di rifiuti del cantiere e fumai nelle tenebre, osservando la solenne eleganza degli abitanti dello slum che tornavano alle baracche percorrendo i viottoli polverosi. Sorrisi. Quando pensavo al poderoso sorriso di Prabacher non potevo evitare di sorridere a mia volta, come per un riflesso condizionato. Era come guardare un bambino felice e pieno di salute. Poi fra la luce tremolante delle lanterne e le spire di fumo tra le baracche cominciò a materializzarsi il volto di Modena, ma svanì prima di formarsi del tutto. Dallo slum arrivò una musica. Un gruppo di ragazzi che un attimo prima passeggiava tranquillamente si precipitò verso il frastuono. Era iniziata la festa di addio al celibato di Prabacher. Mi aveva invitato, ma non riuscivo a decidermi. Rimasi abbastanza vicino per udire la felicità e abbastanza lontano da non esserne coinvolto. Per anni avevo continuato a ripetermi che era stato l'amore a darmi la forza di resistere quando le guardie mi picchiavano per indurmi a tradire l'attrice. In qualche modo Modena mi aveva fatto capire la verità. Non era l'amore per quell'attrice che mi aveva fatto tenere la bocca chiusa, non ero così coraggioso. Era cocciutaggine. Un'ostinata, dolorosa cocciutaggine. Non c'è niente di nobile nel mio comportamento. Nonostante tutto il mio disprezzo per la codardia dei prepotenti, non ero diventato anch'io come loro, quando ero sprofondato nella più nera disperazione. Quando le crisi di astinenza da eroina mi affondavano denti di drago nella schiena diventavo un uomo piccolo e spreggevole. Così piccolo che dovevo usare una pistola. Dovevo puntare una pistola contro le mie vittime, molte delle quali erano donne, per ottenere il denaro che mi serviva. Ero poi così diverso da Maurizio che maltrattava le donne e le sfruttava per arricchirsi? E se mi avessero fatto fuori durante una delle rapine, se gli sbirri mi avessero sparato, come mi aspettavo e desideravo, la mia morte non avrebbe suscitato maggiore pietà di quella dell'italiano fuori di testa. Mi alzai e mi stiracchiai, mi guardai intorno e pensai ai cani, alla nostra battaglia e al coraggio del piccolo taric. Quando mi avviai verso la città, udì un improvviso scoppio di risate nello slum, seguito da uno scroscio di applausi. La festa di Prabhakar. Mentre camminavo la musica sfumò in distanza, fino a diventare flebile e quasi impercettibile, come ogni momento di verità. Mentre camminavo solo nella notte, amai la mia città come ai tempi in cui vivevo nello slum. All'alba comprai un giornale, trovai un caffè e mi concessi una ricca colazione, prolungando il piacere con una seconda e poi con una terza teiera colma di shai. Sulla terza pagina del giornale c'era un articolo che descriveva le virtù miracolose delle sorelle azzurre, come ormai tutti chiamavano la vedova di Rafiki e sua sorella. L'articolo era firmato Kavita Singh, ed era stato pubblicato su tutti i giornali indiani attraverso un'agenzia di stampa. La mia amica giornalista raccontava brevemente la storia, poi riportava le testimonianze dirette di guarigioni miracolose il cui merito era attribuito ai poteri mistici delle ragazze. Una donna sosteneva di essere guarita dalla tubercolosi, un'altra di essere stata curata dalla sordità, un anziano signore giurava che gli era bastato sfiorare le vesti azzurro cielo delle due sorelle e i suoi polmoni malconci erano tornati sani e vigorosi. Kavita spiegava che non erano state le due ragazze a farsi chiamare sorelle azzurre, si vestivano sempre d'azzurro perché quando si erano risvegliate dal coma tutte e due avevano sognato di fluttuare nel cielo, e i devoti avevano cominciato a chiamarle così. L'articolo si concludeva con il resoconto di un incontro personale di Kavita con le due sorelle, la giornalista era convinta che fossero senza dubbio creature speciali, e forse anche soprannaturali. Pagai il conto e mi feci prestare una penna dal cassiere per evidenziare l'articolo. Mentre sulle strade si dipanava il groviglio mattutino di traffico, suoni, colori e trambusto, presi un taxi e mi lasciai sballottare nel caos incessante fino alla prigione di Arthur Howard. Dopo tre ore di attesa, mi fecero entrare nel reparto visite. Era una lunga stanza divisa al centro da due reticolati separati da uno spazio vuoto largo un paio di metri. Da una parte c'erano i visitatori, schiacciati uno contro l'altro, che si aggrappavano alla rete per non perdere il posto. Oltre lo spazio vuoto, dietro l'altro reticolato, stipati e abbarbicati al filo di ferro come i visitatori, c'erano i prigionieri. Erano circa una ventina, mentre dalla parte dei visitatori si ammassava una quarantina di persone. Tutti i presenti, uomini, donne e bambini, urlavano a più non posso in un'incredibile varietà di linguaggi. Ne riconobbi sei diversi, poi mi interruppi perché si aprì la porta della zona riservata ai prigionieri. Entrò Anand, che cominciò a farsi largo verso la rete. Anand. Anand. Da questa parte. Urlai. Mi vide e mi salutò con un sorriso. Limbabba, che piacere vederti. Urlò di rimando. Sembri in gran forma, amico. Strillai verso di lui. Aveva davvero un bell'aspetto. Sapevo quanto fosse difficile tenersi curati in quel posto. Sapevo quanta fatica doveva costargli spidocchiarsi i vestiti ogni giorno e lavarsi nell'acqua infestata dai vermi. Hai proprio un bell'aspetto. Arre, ti trovo bene, Ling. Non era vero, e lo sapevo. Ero stanco, preoccupato e mi sentivo in colpa. Sono. Un po' stanco. Il mio amico Vikram. Te lo ricordi? Si è sposato ieri. Cioè, l'altro ieri. Sai, ho camminato tutta notte. E casi mali? Sta bene? Si, si, sta bene, risposi arrossendo leggermente di vergogna, perché non frequentavo più quell'uomo nobile e generoso come quando vivevo nello slum. Guarda, Anand. Guarda questo giornale. C'è un articolo sulle sorelle. Parlano anche di te. Può essere utile. Possiamo creare un movimento d'opinione per sostenerti, prima che il tuo caso arrivi in tribunale. Il volto allungato, scarno e bello di Anand si rabbugliò. Pegò verso il basso le sopracciglia e strinse le labbra riducendo la bocca a una increspatura stretta e sprezzante. Non devi farlo, Ling. Urlò. Quella giornalista, quella cavita Sing, è venuta da me. L'ho mandata via. Se torna, la mando via di nuovo. Non voglio aiuto, e non lascerò che nessuno mi aiuti. Voglio essere punito per ciò che ho fatto a Rafik. Ma non capisci. Insistetti. Le ragazze ormai sono famose. La gente è convinta che siano due sante, che facciano miracoli. Ogni settimana arrivano allo slum migliaia di devoti. Quando la gente verrà a sapere che hai solo cercato di aiutarle ti capiranno. Otterrai metà della pena, forse anche meno. Urlavo a squarciagola, cercando di farmi sentire in mezzo al frastuono della sala. In quella calca di corpi ammassati faceva così caldo che la camicia era già madida di sudore e mi stava appiccicata alla pelle. Avevo capito bene? Mi pareva impossibile che Anand rifiutasse l'opportunità di ottenere una sentenza più mite. Senza l'aiuto di una campagna d'opinione gli avrebbero dato come minimo quindici anni. Quindici anni in questo inferno, pensai fissando il volto accigliato di Anand attraverso la rete. Come può rifiutare il nostro aiuto? Lin, no. Urlò più forte di prima. Ho fatto quella cosa a Rafik. Sapevo quello che stavo facendo. Sapevo come sarebbe andata a finire. Sono rimasto accanto a lui un bel po' di tempo prima di farlo. Ho preso una decisione. Devo essere punito. Ma io devo aiutarti, devo almeno provarci. No, Lin, ti prego. Se non vengo punito, quello che ho fatto non avrà più nessun significato. Non ci sarà più onore. Né per me, né per loro. Non capisci? Mi sono conquistato la punizione. Ho deciso il mio destino. Ti chiedo un favore da amico. Fa in modo che non scrivano più nulla di me. Scrivano pure delle signore, le due sorelle. Sì. Ma lasciatemi affrontare in pace il destino che ho scelto. Me lo prometti, Lin Baba? Me lo giuri? Avevo le dita strette fra le losanghe della rete. Sentivo il metallo freddo e arrugginito mordermi le ossa delle mani. Il frastuono nella sala sembrava quello di un'acquazzone sui tetti di lamiera dello slum. Suppliche, lamenti, preghiere, urla e risate si sovrapponevano in un coro isterico che rimbalzavo da una gabbia all'altra. Giuramelo, Lin, disse a Nand con uno sguardo supplichevole che riuscì a trasmettermi tutta la sua angoscia. D'accordo, d'accordo, risposi cercando di lasciare sfuggire le parole dall'angusta cella della mia bocca. Giuralo. Va bene. Te lo giuro. Per l'amor di Dio, te lo giuro. Non cercherò di aiutarti. Il volto di Nand si destese. Il suo sorriso tornò a risplendere, abbagliandomi con la sua bellezza. Grazie, Lin Baba. Urlò felice. Ti prego, non pensare che sia ingrato, ma non voglio che torni qui. Non voglio che vieni a trovarmi. Se credi ogni tanto puoi farmi arrivare un po' di soldi. Ma ti prego, non tornare qua. Ormai la mia vita è questa. Se vieni a trovarmi rendi tutto più difficile. Voglio avere il tempo di pensare. Ti ringrazio molto, Lin, e ti auguro tutto il bene possibile. Staccò le mani dalla rete e le uni in un gesto di preghiera e benedizione. Chinò la testa e non riuscì più a guardarlo negli occhi. Senza l'appiglio della rete finì in baglia della folla di prigionieri e in pochi secondi fu risucchiato via e scomparve dietro il muro brulicante di volti e mani. La porta della stanza dalla parte dei prigionieri si aprì, e vidi Anand che si stagliava dalla luce gialla incandescente del giorno, a testa alta e con le spalle magre ma dritte e orgogliose. Uscii sulla strada davanti alla prigione. Avevo i capelli e gli abiti fradici di sudore. Osservai la strada con gli occhi socchiusi per il bagliore del sole, cercando di abbandonarmi al ritmo frenetico dei passanti, sporzandomi di non pensare ad Anand nella grande stanza con i sorveglianti, a big growl, alla fame, alle botte, alla sporcizia e ai parassiti. Quella sera sarei andato a festeggiare i matrimoni di Johnny Prabhakar, gli amici di Anand, mentre Anand si sarebbe sdraiato a dormire su una coperta infestata dai pidocchi, schiacciato su un pavimento di pietra insieme ad altri duecento uomini. E quella sarebbe stata la sua vita, ogni giorno e ogni notte, per altri quindici anni. Presi un taxi, mi feci portare a casa e rimasi a lungo sotto la doccia bollente, cercando di rimuovere la sensazione di brulichio sulla pelle e il prurito che mi avevano scatenato i ricordi della prigione. Poi telefonai a cavità singhelle dissi che Anand voleva che interrompessimo la campagna. Mi parve sollevata. Cavita era una ragazza sensibile ed era in pena per Anand, aveva temuto fin dal primo momento che potesse illudersi e poi soffrire se avessimo fallito. Era anche felice che Anand apprezzasse i suoi servizi sulle sorelle azzurre. Le due ragazze l'affascinavano, e Cavita aveva preso accordi con un regista di documentari per andare a riprenderle allo slum. Avrebbe voluto parlarmene, capii che il progetto la eccitava molto, ma la interruppi, promettendole che l'avrei richiamata. Uscii a torso nudo sul balconcino del mio appartamento e mi lasciai investire dai suoni e dagli odori della città. Vidi in un cortile tre ragazzi che cercavano di imitare le mosse di danza di un film di Bollywood. Era la scena di un party, e quando sbagliavano un passo scoppiavano a ridere a crepapelle, se invece riuscivano ad arrivare in fondo alla sequenza senza errori urlavano esultanti. In un altro cortile erano accovacciate alcune donne, lavavano i piatti con piccoli pezzi arrotolati di corda di fibra di cocco e una lunga barra di sapone color corallo. Riuscivo a udire la loro conversazione, ridevano e strillavano, e inorridivano raccontandosi pettegolezzi e commenti sarcastici sulle strane abitudini dei mariti delle vicine. Poi guardai verso l'alto e vidi un anziano seduto a una finestra proprio davanti a me. Ci guardammo, e gli sorrisi. Mi aveva visto osservare la scena nei cortili. Feci oscillare la testa e ricambiò il mio sorriso con un'espressione gioiosa. Andava tutto bene. Mi vestì e scesi in strada. Feci il giro dei centri di raccolta del denaro per il mercato nero, controllai la fabbrica di passaporti di Abdul Ghani, ispezionai la rete di trafficanti d'oro che avevo riorganizzato per conto di Caderbai. In tre ore commisi più o meno una trentina di crimini. E sorrisi quando la gente mi sorrideva. Quando era necessario facevo la faccia cattiva per incutere paura e rispetto. Camminavo come un gundà, e mi facevo capire in tre lingue diverse. Avevo un bell'aspetto. Facevo il mio lavoro. Guadagnavo un mucchio di soldi ed ero ancora libero. Ma nella camera oscura nel profondo della mia mente si aggiunse una nuova immagine alla galleria segreta, un'immagine di Anand con le mani giunte e il sorriso radioso che diventava una preghiera e una benedizione. Ogni cosa che percepiamo con il tatto, il gusto, la vista o anche solo con il pensiero, ha un piccolo effetto su di noi. Certe percezioni, il cinguettio di un uccello che vola accanto alla finestra, un fiore che scorgiamo con la coda dell'occhio, hanno un effetto così infinitesimale che non riusciamo a notarlo. Certe emozioni, come l'esultanza per una vittoria, o il dolore per una pena straziante, e alcune immagini, per esempio il tuo volto riflesso negli occhi di un uomo che hai appena pugnalato, rimangono nella galleria segreta e ti cambiano la vita. L'ultima immagine di Anand, da quel momento non lo vidi mai più, mi fece esattamente quell'effetto. Non era la compassione per il mio amico a toccarmi in modo così profondo, anche se comprendevo la sua sofferenza come solo un uomo che ha provato il morso delle catene e in grado di fare. Non era la vergogna, anche se mi vergognavo profondamente di non avere ascoltato Anand quando aveva cercato di parlarmi di Rafik. Era qualcosa di diverso, un'emozione così anomala che ho impiegato anni per riuscire a rendermene conto, l'invidia. Era l'invidia che aveva fissato quell'immagine nella mia mente. Avevo invidiato Anand quando si era voltato verso la porta e con la testa alta e la schiena dritta era andato ad affrontare interminabili anni di sofferenza. Avevo invidiato la sua pace e il suo coraggio e la sua perfetta comprensione del proprio essere. Caderbai una volta mi disse che se invidi qualcuno per i motivi giusti sei a metà strada nel cammino verso la saggezza. Spero che si sbagliasse. Spero che la buona invidia porti ben oltre, perché è passata una vita dal giorno in cui vidi Anand in prigione, e ancora invidio la sua quieta comunione con il destino, e la desidero con tutto il mio cuore imperfetto, il mio cuore che continua ad avanzare a fatica lungo una strada impervia. Capitolo 29. Occhi incurvati come la spada di Perseo, come le ali di un falco in volo, come le labbra sinuose di una conchiglia nell'oceano, come foglie d'eucalipto d'estate, gli occhi indiani, gli occhi delle danzatrici, gli occhi più incantevoli del mondo, si fissavano con assoluta concentrazione negli specchi sorretti dalle loro assistenti. Le danzatrici che avevo ingaggiato per i matrimoni di Johnny e Prabhakar erano già in costume, e si nascondevano pudicamente dietro i loro scialli. In un chiosco del tè svuotato per l'occasione, stavano dando gli ultimi ritocchi al trucco e all'acconciatura con piccoli gesti svelti e professionali, circondati da un brusio di chiacchiere eccitate. Il sottile telo di cotone appeso alla porta rivelava il chiarore giallognolo di una lampada sagome indistinte ma promettenti, che accendevano di desiderio la folla di ragazzi assiepati davanti alla soglia sulla quale ero piazzato di guardia per tenere a bada i curiosi. Quando furono pronte, scostai la cortina, e uscirono le dieci ballerine del corpo di ballo della Film City. Indossavano abiti tradizionali, corpetti aderenti, le scioli, e sari di seta. I costumi erano un arcobaleno giallo limone, rubino, blu pavone, smeraldo, rosa tramonto, viola, argento, avorio e mandarino. I gioielli, fermacappelli, nappe tempestate di brillanti per le trecce, orecchini, piccole pietre preziose applicate alle narici, collane, cinture, braccialetti e cavigliere, riflettevano la luce delle lanterne e delle lampadine producendo una tale fantasmagoria di riflessi che la gente era costretta a stringere, gli occhi per guardare quella meraviglia. Sulle pesanti cavigliere erano applicate centinaia di campanellini d'argento, e quando le danzatrici cominciarono a camminare lentamente, dondolandosi languide in mezzo agli abitanti dello sluma mutoliti e adoranti, nell'area immobile si udì soltanto il tintinnio ritmico dei minuscoli pendagli. Poi cominciarono a cantare, aia saian, aia aia saian, aia. Vieni, mio amato, vieni vieni mio amato, vieni. La folla che precedeva e circondava le danzatrici esplose in un boato entusiasta. Un gruppo di bambini avanzava carpone davanti alle ragazze. I ragazzini toglievano sassi e bastoni dal sentiero dissestato e lo ripulivano con scope fatte di foglie di palma. Altri ragazzini camminavano di fianco alle danzatrici, e le rinfrescavano agitando grandi ventagli ovali di fibre intrecciate. Più avanti il gruppo di musicisti in uniforme rossa e bianca, che avevo ingaggiato insieme alle ballerine, si stava avvicinando in silenzio al palco dove erano seduti Prabhakar e Parvati da un lato e Johnny e Sita dall'altro. I genitori di Prabhakar, Kishan e Rukmabai, erano arrivati da Sundar per assistere alla cerimonia. Avevano deciso di fermarsi un mese in città, e avrebbero alloggiato in una baracca di fianco a quella di Prabhakar. Erano seduti sul bordo del palco insieme a Kumarenandita Patak. Alle loro spalle campeggiava l'enorme immagine di un fiore di loto, e sopra le loro teste luccicava un intrico di lampadine colorate. Le danzatrici salirono sul palco continuando a cantare la canzone d'amore. Poi si fermarono e batterono i piedi sulla piattaforma di compensato in un perfetto unisono. Cominciarono a roteare in senso orario, sempre con una straordinaria sincronia. Le braccia si muovevano con l'eleganza di un collo di cigno. Le mani e le dita vibravano come sciarpe di seta mosse dalla brezza. Poi all'improvviso batterono tre volte i piedi, e i musicisti attaccarono una versione scatenata della più popolare canzone del momento. Fra le urla del pubblico in delirio, le ragazze danzarono materializzando un milione di sogni. Nessuno di quei sogni mi apparteneva. Avevo ingaggiato musicisti e danzatrici senza sapere che genere di spettacolo avrebbero allestito per il matrimonio di Prabhakar. Chandra Meta me le aveva raccomandate, e mi aveva assicurato che erano sempre loro a decidere il programma. Il mio primo affare con Meta, i 10.000 dollari che gli avevo procurato al mercato nero, aveva dato buoni frutti. Grazie al produttore avevo conosciuto altre persone nel mondo del cinema che volevano oro, dollari e documenti. Negli ultimi mesi le mie visite agli studi di produzione si erano fatte più frequenti, e i guadagni per caderbai aumentavano a ritmo costante. I traffici erano alimentati anche da una specie di attrazione reciproca, la gente del cinema trovava molto eccitante avere a che fare, seppure a debita distanza, con il famigerato boss della malavita, e da parte sua il can non era del tutto indifferente al fascino rutilante del mondo di Bollivode. Quando due settimane prima del matrimonio avevo contattato Shandra Meta per farmi aiutare a organizzare lo spettacolo, il produttore aveva immaginato che Prabhakar fosse un importante gundà al soldo di caderbai. Perciò si era dedicato al compito con particolare impegno, scegliendo personalmente le migliori danzatrici che conosceva, e contattando i musicisti più abili che lavoravano negli studi di registrazione. Dopo qualche tempo assistemmo allo show in anteprima, e capì che avrebbe soddisfatto anche il manager del locale più malfamato della città. La banda suonava una lunga selezione dei successi più in voga. Le ragazze ballavano e cantavano le canzoni, sottolineando nel modo più esplicito e seducente tutti i sottintesi erotici dei versi. Una esigua minoranza fra le centinaia di vicini invitati alla festa dello slum sembrava abbastanza scandalizzata, ma la maggior parte dei presenti, primi fra tutti Prabhakar e Regioni, non nascose il proprio entusiasmo per l'audacia delle danze. Per quanto mi riguarda, rendendomi conto di quanto fosse lasciva la versione non censurata dei balletti, cominciai a considerare sotto una nuova luce i gesti meno espliciti che avevo visto tante volte nei film di Bollywood. Come regalo di nozze consegnai a Johnny Cigar una busta con 5.000 dollari. Sarebbero bastati a comprare la piccola baracca che il mio amico sognava da tempo, nello slum di Navinagar, vicino al luogo in cui era stato concepito. Era uno slum autorizzato, e Johnny non avrebbe più dovuto temere di essere sfrattato. Avrebbe avuto una casa sicura dove proseguire il suo lavoro di contabile e consulente non ufficiale per le centinaia di lavoratori e piccoli imprenditori degli slum dei dintorni. A Prabhakar regalai l'atto di acquisto del suo taxi. Il proprietario della piccola flotta di taxi per cui lavorava Prabhakar me lo aveva ceduto dopo una feroce trattativa senza esclusione di colpi. Avevo sborsato una cifra esagerata per il veicolo e la licenza, ma non mi importava nulla dei soldi. Era denaro nero, e il denaro nero scorre fra le dita più in fretta di quello legale, guadagnato con il sudore della fronte. Il denaro ha poco valore se non si rispetta il modo in cui lo si guadagna. I soldi non servono a nulla, se non possiamo usarli per migliorare la vita delle nostre famiglie e delle persone che amiamo. Non di meno, per ossequio alla tradizione, una volta conclusa la trattativa scagliai al proprietario della flottiglia di taxi la più forbita e terribile delle maledizioni usate nelle transazioni commerciali, che tu possa avere dieci figlie, e che tutte trovino un buon marito. Un'eventualità del genere basterebbe a consumare anche il più solido dei patrimoni. Prabhakar fu così sorpreso ed emozionato dal regalo, che l'atteggiamento solenne e austero che aveva assunto interpretando il ruolo di sposo si disintegrò in una fragorosa esplosione di gioia. Balzò in piedi e con il bacino accennò qualche colpo di stantuffo della sua danza sexy, fu però ben presto sopraffatto dalla solennità della circostanza, e tornò a sedersi accanto alla sposa. Mi tuffai nella giungla densa e roteante degli uomini di fronte al palco, e danzai finché la camicia mi si appiccicò alla pelle come alghe in una pozza d'acqua scaldata dal sole. Quella notte tornando a casa sorrisi pensando alla differenza fra i matrimoni di Prabhakar e Gioni e quello di Vikram. Due giorni prima Vikram si era sposato con le tie. A causa della passionata e a volte feroce opposizione della sua famiglia, Vikram aveva preferito una cerimonia civile. Rispondeva alle lacrime e alle suppliche dei suoi cari con una frase stereotipata, questa è l'India moderna, Yar. Pochi dei suoi parenti si sentirono in grado di affrontare l'angoscia di un aperto ripudio dell'antica e fastosa cerimonia induista che da tempo sognavano per Vikram. Alla fine, solo la madre e le sorelle di Vikram trovarono il coraggio di unirsi alla ristretta cerchia di amici di Lettie, per guardare lo sposo e la sposa che giuravano di amarsi e rispettarsi per il resto dei loro giorni. Fu una cerimonia senza musica, colori, danze. Lettie indossava una giacca color oro bruciato e un ampio cappello di paglia in tinta, decorato con rose d'organza. Vikram sfoggiava uno spolverino nero, una tunica di broccato nera e bianca, calzoni neri da gaucco con burdi argentati e il suo amato cappello. La cerimonia durò pochi minuti, poi io e Vikram fummo quasi costretti a portare a braccia la madre affranta fino alla macchina in attesa. Il giorno dopo il matrimonio accompagnai in macchina Vikram e Lettie all'aeroporto. Avrebbero ripetuto la cerimonia a Londra con la famiglia di Lettie. Lettie andò a telefonare a sua madre per confermarle l'orario di arrivo, e Vikram colse l'occasione per parlarmi col cuore in mano. Grazie per il lavoro che hai fatto sul mio passaporto, amico, disse ghegnando. Sai, quella fottuta condanna per detenzione di stupefacenti in Danimarca. Una cosuccia da niente, ma avrebbe potuto darmi un bel gratto a capo. Non c'è problema. E grazie dei dollari. Cazzo, sei riuscito davvero a farci avere un buon cambio. So quanto ti sei impegnato, e quando torno in qualche modo ti ricambierò il favore, puoi scommetterci. Non preoccuparti. Sai, Lin, credo proprio che tu ti debba sistemare. Non voglio portarti scalogna, Yar. È solo un consiglio da amico, di un amico che ti ama come un fratello. Finirai nei guai, amico. Ho un brutto presentimento. Ecco, io credo che tu ti debba sistemare. Sistemare. Sì, amico. Questo è il punto, Yar. Il punto. Di che? Il punto di questa fottutissima vita. Sei un uomo. E un uomo è questo che deve fare. Non voglio farmi i cazzi tuoi, ma è triste che tu non l'abbia ancora capito. Scoppiai a ridere, ma Vikram rimase serio e accigliato. Lin, un uomo deve trovarsi una brava donna, e quando la trova deve conquistare il suo amore. Poi deve conquistare il suo rispetto. Poi deve nutrire la sua fiducia. Poi deve continuare così tutta la vita. Finché uno dei due muore. Tutto qui. È l'unica cosa importante al mondo. Ecco cos'è un uomo, Yar. Diventi un vero uomo quando riesci a conquistare l'amore di una donna, a ottenere il suo rispetto, e riesci a fare in modo che si fidi di te. Fino a quel momento non sei un vero uomo. Prova a dirlo a Didier. No, amico, non hai capito. Per Didier è lo stesso, solo che lui si deve trovare un bravo ragazzo. È lo stesso per tutti. Sto solo cercando di dirti che tu una donna l'hai già trovata. Carla è una brava donna, amico. E tu sei riuscita a conquistare il suo fottuto rispetto. Me l'ha detto un paio di volte, amico. Mi ha parlato dall'epidemia di colera e di quello che hai fatto allo slum. L'hai stesa con le tue stronzate da croce rossina, amico. Ti rispetta. Ma tu te ne sbatti. Non ti fidi di lei, Lin, perché non ti fidi di te stesso. Sono preoccupato per te, amico. Senza una brava donna un uomo come te, o come me, può solo finire nei guai, Yar. Lettie ci raggiunse. L'espressione grave svanì dal volto di Vikram, dissolta dallo sguardo affettuoso che rivolse alla sposa. Stanno imbarcando i passeggeri del nostro volo, l'incaro, disse Lettie. Aveva un sorriso più tristi di quanto mi aspettassi, e colto di sprovvista sentì più forte il dolore della separazione. Sarà meglio che andiamo. Ecco, voglio che tu accetti questo regalo da parte nostra. Mi porse un involto di tessuto nero. Lo srotolai, era una fascia lunga quasi un metro e larga una spanna. In mezzo trovai un bigliettino. E la benda, spiegò Lettie. Quella che mi avete messo in stazione il giorno della proposta di Vikram. Vogliamo che la tenga tu. Come ricordo, capisci. Sul biglietto c'è l'indirizzo di Carl. Ci ha scritto. È ancora a Goa, ma in un altro posto. Magari può interessarti. Arrivederci, caro. Abbi cura di te. Li guardai allontanarsi. Ero felice per loro, ma troppo occupato con il lavoro per Caderbai e i preparativi per il matrimonio di Prabhakar per riflettere sui consigli che mi aveva dato Vikram. Dopo la visita ad Anand, l'ultima visita, la voce di Vikram si era confusa nel coro caotico di riflessioni, avvertimenti e opinioni che risuonava nella mia mente. Ma quando la notte del matrimonio di Prabhakar restai da solo nel mio appartamento e tolsi la benda con il biglietto dalla tasca dei pantaloni, ricordai ogni parola che mi aveva detto Vikram. Sorseggiai un drink e fumai una sigaretta dopo l'altra. Il silenzio era così profondo che riuscivo a sentire il fruscio del tessuto della benda fra le dita. Dopo aver riaccompagnato le danzatrici seducenti e tintinnanti al loro bus, diedi loro un extra cospicuo. Prabhakar e Gionni erano andati in taxi con le loro mogli in un hotel semplice ma confortevole appena fuori città. Per due notti avrebbero conosciuto le gioie dell'amore privato, prima di tornare agli amori pubblici dello slum sovraffollato. Vikram e Lettie erano già a Londra. e si preparavano a ripetere il giuramento che sembrava così importante al mio amico con la mania dei cowboy. E io ero seduto nella mia poltrona, con ancora indosso il vestito del matrimonio, completamente solo. Non mi fidavo di Carla, aveva detto Vikram, perché non mi fidavo di me stesso. Alla fine mi addormentai e la benda e il biglietto mi scivolarono fra le dita. Per tre settimane, dopo quella notte, cercai di sfuggire al senso di solitudine provocato da quei tre matrimoni felici accettando ogni lavoro che mi offrivano e cercando di concludere tutti gli affari che riuscivo a procacciare. Feci un'altra spedizione a Kinsasa per vendere passaporti e mi fermai, come da istruzioni, alla Pierre Hotel. Era uno squallido edificio a tre piani in una viuzza parallela al lungo viale centrale di Kinsasa. Il materasso era pulito, ma pavimento e pareti sembravano fatti con legno riciclato da casse da morto usate. Il puzzo di tomba era insopportabile, e l'umidità soffocante mi riempiva la bocca di sapori sinistri e misteriosi. Come antidoto fumavo una gitane dopo l'altra, e mi sciacquavo la bocca con whisky belga. I corridoi erano pattugliati da acchiappatopi che trascinavano enormi sacchi di iuta pieni di animali grassi e zampettanti. Una nutrita comunità di scarafaggi sembrava regnare incontrastata nel guardaroba, perciò avevo appeso indumenti e oggetti vari a ganci e grossi chioti ricurvi ficcati in ogni superficie che riuscisse a reggerli. La prima notte fui svegliato di soprassalto dal mio sonno leggero da una serie di colpi di rivoltella nel corridoio, Udì un tonfo sordo, come di un corpo che cadeva al suolo, poi dei passi strascicati come se qualcuno trascinasse qualcosa di pesante sulle assi di legno del corridoio. Impugnai il coltello e spalancai la porta. Sulla soglia di altre tre stanze c'erano altri tre uomini, svegliati come mei dal frastuono. Erano tutti europei. Due avevano una pistola in mano, il terzo un coltello simile al mio. Ci fissammo, poi osservammo la scia di sangue che macchiava tutto il corridoio. Come in risposta a un segnale segreto chiudemmo tutti la porta senza dire una parola. Dopo Kinsasa andai in missione alle Mauritius, l'hotel sull'isola fu decisamente un piacevole e gradito salto di qualità. Si chiamava Mandarine e si trovava Curripippe. La struttura originale era la riproduzione in scala di un castello scozzese. Le mura merlate si scorgevano avvicinandosi lungo il vialetto tortuoso che attraversava un curatissimo giardino all'inglese. All'interno dell'edificio, tuttavia, gli ospiti si trovavano in un tripudio barocco di cineserie progettato dalla famiglia cinese che aveva rilevato l'albergo. Seduto ai piedi di enormi draghi dall'alito fiammeggiante e alla luce di lanterne di carta mangiai broccoletti cinesi e taccole, spinaci all'aglio, tofu fritto e funghi in salsa di soia, mentre dalla finestra potevo ammirare spalti merlati, archi gotici e cespugli scolpiti tempestati di rose. I miei contatti, due indiani di Bombay che vivevano alle Mauritius, arrivarono su una BMW gialla, come d'accordo. Salii sul sedile posteriore, riuscì a malapena a salutarli e il guidatore partì a tutta velocità, facendo gemere i pneumatici e scaventandomi in un angolo del sedile. Imboccammo una serie di stradine secondarie superando di almeno quattro volte i limiti di velocità, e dopo un quarto d'ora di Gymcana da brivido ci fermammo in un boschetto silenzioso e deserto. Il motore surriscaldato cominciò a raffreddarsi emettendo tintinni e tonfi sordi. I due puzzavano di rum. Ok, dacci i libri, disse uno dei due, sporgendosi dal sedile del guidatore. Non ce li ho, ringhiai a denti stretti. I due si scambiarono un'occhiata e tornarono a fissarmi. Il guidatore si tolse gli occhiali a specchio. Sembrava che avesse tenuto gli occhi tutta notte in un bicchiere d'aceto sul comodino. Non hai i libri? No. Ho cercato di dirvelo mentre mi portavate in questo cazzo di posto, ma voi continuavate a dire, tranquillo. Tranquillo. Senza darmi retta. Bene, adesso siamo tranquilli. Per niente, amico, grugni il passeggero. Mi vidi riflesso nelle lenti dei suoi occhiali. Non avevo un'aria allegra. Razza di idioti. Ruggii passando all'Indy. A momenti ci ammazzavamo per niente. Ma dovevate guidare come il più stronzo dei taxisti di merda di Bombay con gli sbirri attaccati al culo. I passaporti sono nel mio fottutissimo hotel del cazzo. Li ho lasciati lì perché prima volevo essere sicuro di voi due figli di puttana. Adesso l'unica cosa di cui sono sicuro è che fra tutti e due non avete il cervello di due pulci sulle palle di un cane randaggio. Il passeggero si sfilò gli occhiali. Lui e il compare mi fecero il sorriso più largo che riuscirono a mettere insieme nei postumi della sbronza. Dove cazzo ha imparato a parlare Lindy così? Chiese il guidatore. Cazzo, è incredibile, Yar. Parli proprio come un figlio di puttana di Bombay. È fantastico, Yar. Davvero impressionante, amico. Aggiunse il suo compare, scuotendo ammirato la testa. Fatemi vedere i soldi, dissi seccamente. Scoppiarono a ridere. I soldi, ripetei. Voglio vederli. Il passeggero sollevò una borsa che teneva fra le gambe e l'aprì, mostrandomi una gran quantità di mazzi di banconote. Cos'è quella merda? Sono i soldi, fratello, rispose il guidatore. Quelli non sono soldi, dissi. I soldi sono verdi. I soldi dicono, in Godway Trust. Sui soldi c'è l'immagine di un americano morto, perché i soldi vengono dall'America. Quelli non sono soldi. Sono rupie delle Mauritius, fratello, si bilò il passeggero, offeso dall'insulto alla valuta del suo paese. Quella merda si può spendere solo alle Mauritius, dissi in tono sprezzante, ricordando ciò che avevo imparato quando lavoravo per Calè Dansari. È una valuta vincolata. Certo, Baba, lo sappiamo, ammise il guidatore. Ma siamo d'accordo con Abdul. Al momento non abbiamo dollari, amico. Sono tutti investiti in altri affari. Perciò ti paghiamo in rupie delle Mauritius. Puoi cambiarle in dollari mentre torni a casa, Yar. Sospirai, respirai profondamente e cercai di placare il vortice di ostilità che stava iniziando a rotearmi in testa. Guardai fuori dal finestrino. Eravamo parcheggiati in una radura in mezzo alla foresta. Tutto intorno a noi alte piante verdi come gli occhi di Carla si agitavano mosse dal vento. Il luogo era completamente deserto. Bene, vediamo un po'. Dieci passaporti a settemila dollari al pezzo, fanno settantamila dollari. Ha un tasso di. Beh, mettiamo trenta rupie delle Mauritius a dollaro. Fanno almeno due milioni e cento. Ecco perché avete una borsa così grossa. Ebbene, miei cari signori, perdonate se posso sembrarvi ottuso. Ma secondo voi dove cazzo cambierei due milioni di rupie in dollari senza uno straccio di certificato? Non c'è problema, si affrettò a rispondere il guidatore. Abbiamo un cambiavalute, Yar. Un uomo di primordine. È pronto a fare l'affare. È già tutto organizzato. Ok, dissi. Andiamo a trovarlo. Dovrai andarci da solo, amico, disse il passeggero ridacchiando. Vive a Singapore. Singa cazzo pore. Urlai mentre il mulinello di rabbia riprendeva a vorticare furiosamente. Non scaldarti, Yar, rispose gentilmente il guidatore. È tutto organizzato. Abdul Ghani sa tutto. Ti chiamerà oggi all'hotel. Ecco, prendi questo biglietto. Mentre torni a casa vai a Singapore, d'accordo, non è proprio sulla strada per Bombay, ma se prendi un volo diretto, al ritorno è sulla strada, no? Insomma, scendi a Singapore e vai a trovare il tizio del biglietto. È un cambiavalute autorizzato. È un uomo di caderbai. Ti cambierà tutte le rupie in dollari, e sarai a posto. C'è persino un extra per te. Vedrai. Ok, sospirai. Torniamo all'hotel. Se Abdul conferma, l'affare è fatto. All'hotel. Ripetè il passeggero, calandosi gli occhiali sugli occhi iniettati di sangue. A Singapore filò tutto liscio, e quel contrattempo alla fine fruttò alcuni benefici inaspettati. Il cambiavalute di Singapore, un indiano di Madras di nome Shekhi Ratnam, era un contatto prezioso, e mentre ero in città afficcai il naso nei redditizi traffici di macchine fotografiche e articoli elettronici da Singapore a Bombay. Consegnai i dollari ad Abdul Ghani, intascai la mia parte, e filai in moto all'Oberai Hotel, dove avevo un appuntamento con Lisa Carter. Per la prima volta da troppo tempo mi sentivo ottimista e pieno di speranza. Cominciai a pensare che forse stavo uscendo dalla depressione che mi perseguitava dalla sera del matrimonio di Prabhakar. Ero entrato in Zaire, a Mauritius e a Singapore con i miei passaporti falsi senza sollevare il minimo sospetto. Allo slum vivevo alla giornata grazie alle piccole commissioni che ricevevo dai turisti, e avevo solo un passaporto neozelandese ben poco affidabile. Appena un anno dopo vivevo in una bella casa, avevo le tasche gonfi del denaro guadagnato con i traffici clandestini, possedevo cinque passaporti di cinque nazionalità diverse, e su ognuno di essi c'era un nome diverso e la mia fotografia. Mi si apriva davanti un intero universo di possibilità. L'Oberoi Hotel sorgeva a Nariman Point, sul manico della falce dorata di Marine Drive. Shurgate Station e Flora Fontaine erano a soli cinque minuti di cammino. Da Flora Fontaine in altri dieci minuti si raggiungevano colabba il gatevaio of India. Forse all'Oberoi mancava lo sfarzo oleografico del Thai Hotel, ma lo superava per stile e personalità. Il piano bar, per esempio, era un minuscolo capolavoro di luce e se pare sapientemente disposti, e la brasserie ambiva a buon diritto al titolo di miglior ristorante della città. Passando dal bagliore della luce solare ai locali opulenti e ombrosi della brasserie, mi fermai e strizzai gli occhi finché non riuscii a vedere Lisa e il suo gruppo. Con lei c'erano altre due ragazze, Cliff de Souza e Chandra Meta. Spero di non essere in ritardo, disse stringendo la mano a tutti. No, no. È che noi siamo tutti in anticipo, scherzò Chandra Meta facendo risuonare la voce nel locale. Le ragazze scoppiarono a ridere istericamente. Si chiamavano Rita e Gita. Erano aspiranti attrici e stavano affrontando il primo passo importante della loro carriera, un invito a pranzo con due produttori di prestigio, con un entusiasmo che rasentava il panico. Mi accomodai nella sedia fra Lisa e Gita. Lisa indossava un maglioncino rosso lava e una camiciola sotto una giacca di seta nera. Il top argenteo e i jeans bianchi elasticizzati di Gita sottolineavano i suoi generosi attributi anatomici. Era una bella ragazza sui vent'anni, con i lunghi capelli raccolti in una vistosa coda di cavallo. Continuava a cincischiare il tovagliolo, arrotolando e srotolando un angolo del tessuto. Rita aveva i capelli corti, un viso minuscolo e i lineamenti da monella. Indossava una camiciola gialla con una profonda scollatura e un paio di jeans. Cliff e Chandra erano in giacca, e sembrava che venissero da un appuntamento importante, o dovessero andarci dopo pranzo. Muoio di fame, disse Lisa tutta allegra. Il tono di voce era spensierato e sicuro di sé, ma sotto il tavolo mi strinse la mano così forte da lasciarmi il segno delle unghie. Per lei era un incontro importante. Fino a quel momento i nostri incarichi di casting erano sempre stati saltuari, e lei sapeva che Meta pensava di farci diventare soci della sua casa di produzione. Lisa ci teneva molto, desiderava l'approvazione formale che solo un contratto può dare. Voleva che il suo futuro fosse scritto nero su bianco. Ordiniamo. Che ne dite se ordino io per tutti? Propose Chandra. Visto che paghi tu, a me sta bene, commentò Cliff ridendo e strizzando l'occhio alle ragazze. Certo, dissi io, fa pure. Chandra chiamò il cameriere con un cenno degli occhi, mise da parte il menu ed elencò a memoria la sua lista di preferenze. Cominciò con una delicata zuppa di agnello cotto in latte di mandorle, proseguì con del pollo al forno marinato in un intingolo di peperoncino, comino e mango, e concluse, dopo una profusione di contorni, con macedonia di frutta, frittelline al miele gelato. Dalla elaborata ordinazione di Meta capimmo tutti che sarebbe stato un pranzo lungo. Mi rilassai, abbandonandomi al flusso di piatti deliziosi e piacevoli conversazioni. Insomma, non mi hai ancora detto cosa ne pensi, disse Meta rivolto al suo socio. Mi sembra che ti preoccupi troppo, dichiarò Cliff de Souza agitando una mano per liquidare l'argomento. No, amico, lo incalzò Meta. È successo proprio davanti al mio dannato ufficio, Yar. È difficile far finta di niente quando diecimila persone urlano di volerti uccidere davanti alla finestra del tuo dannato ufficio. Non si riferivano a te personalmente, Chandra Babu. No, però ce l'hanno con quelli come me. Andiamo, per te non è così grave, devi ammetterlo. La tua famiglia è di Goa, e parlate con cani. Con cani e Marami sono lingue molto simili, e tu parli la Marati bene quanto l'inglese. Io invece non so neanche una parola di quella dannata lingua. Eppure sono nato qui, Yar, e mio padre prima di me, e ha ancora tutti i suoi affari a Bombay. Paghiamo le tasse qui. I miei ragazzi vanno a scuola qui. Tutta la mia vita è qui a Bombay, amico. Ma quelli urlano, il Maras tra i Marati, e vogliono cacciarci via a calci dall'unica casa che abbiamo. Devi provare a vedere le cose dal loro punto di vista, disse Cliff pacatamente. Ma certo, vedrò il mio sfratto dal loro punto di vista. Ribatte Meta con tale veemenza che i clienti degli altri tavoli si girarono a guardarci. Meta proseguì con un tono di voce più moderato, ma con altrettanta foga. Dovrei vedere il mio assassino dal loro punto di vista, vero? E, amico mio. Io ti voglio bene come se fossi il mio terzo cognato, rispose Cliff ghignando apertamente. Meta scoppiò a ridere, e le ragazze si unirono subito a lui, contente che la tensione si allentasse. Non voglio che a nessuno venga fatto del male, e meno che mai a te, Chandrabai. Dico solo che devi sforzarti di vedere le cose dal loro punto di vista se vuoi capire ciò che provano. Sono nati qui, e parlano Marati. Sono nati in Marastra. I loro nonni e i loro antenati sono nati tutti qui da. Chissà, forse da tremila anni, se non di più. E adesso si guardano attorno e vedono che tutti i lavori migliori, tutte le aziende e tutti i traffici ereditizi sono in mano a gente che viene da fuori. Questa cosa li fa impazzire. E penso che non abbiano tutti i torti. E i lavori riservati? Protestò Meta. Poste, polizia, scuole, banche, trasporti. Tutti hanno posti riservati per i cittadini che parlano Marati. Ma a quegli stronzi fuori di testa non basta. Vogliono sbatterci tutti fuori a calci da Bombay e dal Marastra. Madame Iretta, se ci riuscissero perderebbero tutto il denaro e il talento e l'intelligenza che fa di questa città un posto speciale. Cliff de Souza si strinse nelle spalle. Non che io sia d'accordo. Ma forse è un prezzo che sono disposti a pagare. Penso solo che gente come tuo nonno, che è arrivato qui dall'Uttar Pradesh senza un soldo in tasca ed è riuscito ad accumulare un patrimonio, debba qualcosa a questo stato. Quelli che hanno molto dovrebbero dividere la loro fortuna con quelli che non hanno nulla. I fanatici hanno un seguito perché in quello che dicono c'è un briciolo di verità. La gente è arrabbiata, e dà la colpa a quelli che vengono da fuori e hanno fatto i soldi. Andrà sempre peggio, mio caro terzo cognato, e non voglio neanche pensare come potrebbe finire. Tu che ne pensi, Lin? Mi chiese Chandra Meta in cerca di appoggio. Tu parli Marati e vive qui, ma vieni da fuori. Che ne dici? Ho imparato la Marati in un piccolo villaggio chiamato Sundar, risposi. Lì si parla solo Marati, conoscono un po' la Hindi, e non sanno una parola d'inglese. Parlano una Marati Shuddha, pura e incontaminata, e vivono in Maharastra da almeno duemila anni. Lavorano questa terra da cinquanta generazioni. Mi fermai per permettere agli altri di fare commenti o domande su quello che avevo appena detto. Continuarono tutti a mangiare, ascoltandomi con attenzione, perciò proseguì il discorso. Quando sono tornato a Bombai con Prabhakar, la mia guida, sono andato a vivere allo slum, in mezzo ad altre venticinquemila persone. C'erano molti come Prabhakar, gente del Maharastra, che arrivava da villaggi come Sundar. Erano tutti molto poveri, per guadagnarsi un pasto dovevano sudare sangue e lavorare come schiavi. Sì, penso che soffrissero quando vedevano la gente che veniva da altre parti dell'India vivere in belle case mentre loro erano costretti a lavarsi nei canali di scolo della loro capitale. Mangiai qualche boccone di cibo, aspettando che Meta replicasse. Dopo una breve esitazione approfittò della mia pausa. Andiamo lì, non è così semplice, disse. La situazione è ben più complessa. Hai ragione. La realtà dello slume è molto più complessa. Non ci sono soli i Marati. C'è gente del Paniab, del Tamil Nadu, del Karnataka, del Bengala, della Same e del Kashmir. E non sono solo Hindu. Ci sono Sikh, musulmani, cristiani, buddhisti, parsi e jaina. I problemi dello slume non riguardano solo i nativi del Maharastra. Poveri e ricchi arrivano da ogni parte dell'India. Ma i poveri sono troppi, e i ricchi troppo pochi. Arre. Sbuffò Chandra Meta. Mi sembra di sentire Cliff, quel fottuto comunista. Sembra uno dei suoi sproloqui, Yar. Non sono comunista e non sono capitalista, dichiarai sorridendo. Sono più un non rompetemi il cazzista. Non dategli retta, intervenne Lisa. Se finite nei guai, l'ina è l'uomo giusto a cui rivolgersi. La guardai. Ci fissammo a lungo, quanto bastò a farci sentire bene e in colpa allo stesso tempo. Il fanatismo è l'opposto dell'amore, dissi ricordando una delle lezioni di Kader Bai. Una volta un uomo saggio, un musulmano, badate bene, mi ha detto di sentirsi più vicino a un ebreo, a un cristiano, a un buddista o persino a un ateo razionale e ragionevole che ha un fanatico della sua stessa religione. Sono d'accordo, la penso esattamente allo stesso modo. E sono d'accordo con Winston Churchill, secondo il quale un fanatico è una persona che non cambia opinione e non è capace di cambiare argomento. E con questo, disse Lisa ridendo, direi appunto di cambiare argomento. Coraggio, Cliff, mi devi raccontare tutti i pettegolezzi della storia d'amore sul set di Canon. Cosa sta succedendo? Sì. Sì. Strillò Rita tutta eccitata. E parlaci della nuova ragazza. Si raccontano certe cose su di lei che non riesco neanche a dire il suo nome ad alta voce, Yar. E voglio sapere tutto, ma proprio tutto, di Anil Kapur. Lo amo alla follia. È di Sanyaidut. Aggiunse Gita, tremando platealmente solo a pronunciare il suo nome. È vero che sei andato al suo party a Versova? Oh, mio Dio! Quanto avrei voluto esserci! Dicci tutto! Incoraggiato dalla febbrile curiosità delle ragazze, Cliff de Souza cominciò a scodellare Vita-Morte e Miracoli delle star di Bollywood, Chandrameta interveniva di tanto in tanto aggiungendo una spruzzata di pettegolezzi. Nel corso del pranzo risultò evidente che Cliff aveva un debole per Rita, mentre Chandrameta puntava la sua attenzione su Gita. Il lungo pranzo era solo il preludio di un giorno e una notte che progettavano di passare insieme. I due produttori cominciarono ad accalorarsi, e forse pregustando i piaceri della notte, passarono a illustrare scandali e pettegolezzi a sfondo sessuale. Erano storie divertenti, e non di rado alquanto bizzarre. Stavamo ridendo a crepapelle quando Cavita si ingentrò nel ristorante. Venne al nostro tavolo, e quando la presentai gli altri stavano ancora sghignazzando. Scusatemi, disse con la fronte aggrottata da una preoccupazione troppo grave per dissolversi nel buon umore della compagnia. Ti devo parlare, Ling. Siediti e parlaci della tua inchiesta, Cavita, dissi ancora allegro per le risate. Vedrai che interesserà a tutti. La mia inchiesta non c'entra, disse decisa. Si tratta di Abdullata Eri. Mi alzai di scatto, mi scusai con i miei commensali e feci un cenno a Lisa per dirle di aspettarmi. Segui Cavita nell'atrio dell'hotel. Quando restammo soli, la giornalista cominciò a parlare. Il tuo amico Abdullà è nella merda fino al collo. Che vuoi dire? Voglio dire che mi è arrivata la soffiata di un redattore del Times. Mi ha detto che Abdullà è sulla lista nera della polizia. Hanno l'ordine di sparare a vista. Cosa? Gli sbirri hanno ricevuto l'ordine di prenderlo vivo, se possono, ma non devono lasciargli la possibilità di reagire. Sanno che è armato, e che aprirà il fuoco se cercheranno di arrestarlo. Al minimo gesto sospetto hanno l'ordine di sparargli come a un cane. Perché? Di cosa si tratta? Pensano che sia lui quel Sapna. Hanno una soffiata attendibile, ci sono delle prove. Sono sicuri che sia lui, e lo prenderanno. Oggi. Potrebbero anche averlo già preso. C'è poco da scherzare con gli sbirri di Bombay. Specie quando si tratta di una faccenda così seria. Sono due ore che ti cerco. Sapna? Non ha senso, commentai. Invece aveva senso, e come? Era perfettamente plausibile, anche se non riuscivo a capire perché. Mi mancavano troppi elementi, c'erano troppe domande che non avevo fatto, e che avrei dovuto fare dal tempo. Sensata o meno, questa è la situazione, disse cavita con voce tremante, stringendosi nelle spalle con un'espressione di rassegnazione e pietà. Ti ho cercato dappertutto. Didier mi ha detto che eri qui. So che taeri è un tuo caro amico. Sì. È un amico, dissi ricordandomi all'improvviso che stavo parlando con una giornalista. Fissai il tappeto scuro, e cercai di placare la bufera che infuriava nella mia mente. Poi alzai gli occhi e fissai la mia amica. Grazie cavita. Apprezzo molto il tuo gesto. Grazie mille. Adesso devo andare. Senti, disse cavita in tono più dolce. Ho diffuso la notizia. Appena l'ho saputa, ho telefonato in redazione. Se esce nei notiziari della sera, può darsi che gli sbirri ci vadano un po' più cauti. Io non credo che sia stato lui. Non posso crederci. Mi è sempre piaciuto. Per un po' ho avuto una mezza cotta per lui, dopo che l'hai portato a Leopold la prima volta. E forse ho ancora un debole per lui, Iar. In ogni caso non penso che sia lui Sapna, e non credo che abbia fatto. Quelle cose orribili. Quando si allontanò mi sorrise, ma aveva gli occhi pieni di lacrime. Tornai al tavolo, dissi che mi dispiaceva di dovere interrompere il pranzo e raccontai una vaga scusa per giustificare la mia fretta. Senza chiederle se volesse venire via con me, scostai la sedia di Lisa e le presi la borsetta appesa all'alto schienale. Dai, Lin, devi proprio andartene? Si lamentò Chandra. Non abbiamo neanche parlato del nostro affare. L'agenzia di casting. Conosci davvero Abdullata Eri? Chiese Cliff incuriosito, ma con un lievissimo tono di accusa. Lo guardai di traverso. Si. E ti porti via la nostra splendida Lisa, intervenne Chandra imbronciato. Ci fai doppiamente torto. Ho sentito molte cose su di lui, Yar, insistette Cliff. Come l'hai conosciuto? Mi ha salvato la vita, Cliff, dissi più bruscamente di quanto intendessi. La prima volta che l'ho visto mi ha salvato la vita. Eravamo alla fumeria degli Standing Babas. Mentre tenevo aperta la porta della brasserie per fare uscire Lisa, mi voltai a guardare il tavolo. Cliff e Chandra stavano confabulando a bassa voce, e parevano ignorare le ragazze. Quando salimmo in moto raccontai a Lisa tutto quello che sapevo. Impalli di visibilmente, ma si riprese in fretta. Fu d'accordo che dovevamo innanzitutto andare a Leopold. Abdullah poteva essere lì, o forse aveva lasciato un messaggio a qualcuno. Lisa aveva paura, lo capivo dai muscoli tesi delle sue braccia strette attorno alla mia schiena. Sfrecciammo nel traffico che procedeva a rilento, e guidai affidandomi a estinto e fortuna come avrebbe potuto fare Abdullah. A Leopold trovammo Didier che stava sprofondando in un abisso alcolico. È finita, balbettò versandosi un altro bicchiere dalla bottiglia di whisky che aveva davanti a sé. È finita. Gli hanno sparato neanche un'ora fa. Tutti ne parlano. Alla moschea di Don Gristanno per celebrare la preghiera per i morti. Come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? La preghiera per i morti, borbottò mentre la testa gli cadeva in avanti. Che frase ridicola e ridondante. Come se esistessero altre preghiere. Ogni preghiera è per i morti. Lo afferrai per il babbero della camicia e lo scossi violentemente. I camerieri, affezionati a Didier quanto me, guardarono la scena calcolando fino a che punto potevano lasciarmi fare. Didier. Ascoltami. Come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? Dov'è successo? È venuta qui la polizia, disse improvvisamente lucido. I suoi palli di occhi azzurri scrutarono i mei come se cercassero qualcosa sul fondo di uno stagno. Sono andati a vantarsi con Memè, uno dei proprietari. Conosci Memè, è iraniano come Abdullah. Un po' di sbirri della stazione di Colaba, il commissariato qui di fronte, hanno partecipato all'imboscata. Hanno detto di averlo circondato in una stradina vicino al Crawford Market. Gli hanno urlato di arrendersi. È rimasto perfettamente immobile. Hanno raccontato che i lunghi capelli e i vestiti neri sventolavano mossi dal vento. Lin, non ti sembra strano che gli sbirri parlassero dei vestiti? E dei capelli? Cosa vorrà dire? Abdullah ha estratto due pistole dalla giacca e ha cominciato a sparare. Gli sbirri hanno aperto il fuoco tutti insieme. L'hanno colpito tante volte che gli hanno mutilato il corpo. L'hanno fatto a pezzi. Lisa scoppiò a piangere. Si sedette vicino a Didier, e lui le passò un braccio sulle spalle. Era un gesto automatico, il nostro amico francese sembrava sconvolto dal dolore e dallo shock. Non guardò Lisa, non si accorse neanche di lei. Le diede qualche colpetto sulle spalle e la acullò facendola dondolare lievemente da una parte all'altra, ma era come se Lisa non ci fosse. Didier sembrava perso nella sua solitudine, il volto assente e pietrificato dalla sofferenza. C'era una gran folla, proseguì, erano tutti infuriati. La polizia era nervosa. Volevano portare il cadavere all'ospedale con un furgone, ma la gente l'ha assalito, e gli sbirri sono stati costretti a cambiare strada. Hanno dovuto portare il corpo al commissariato di Crawford Market. La folla li ha seguiti, urlando insulti e minacce. Credo siano ancora tutti là. Il commissariato di Crawford Market. Dovevo andare. Dovevo vedere il corpo. Dovevo vederlo. Forse era ancora vivo. Aspettami qui, disse a Lisa. Aspetta con Didier, oppure prendi un taxi e torna a casa. Poi ti raggiungo. Mi sembrava che una lancia mi attraversasse le costole, trafiggesse il cuore e uscisse dalla sommità del petto. Era la lancia della morte di Abdullah, la lancia del pensiero della sua morte, del suo corpo fatto a pezzi. Guidai fino al Crawford Market, e a ogni respiro la lancia si rigirava nel petto. Vicino al commissariato fui costretto ad abbandonare la moto perché la strada era invasa da una folla brulicante. Proseguì a piedi, e fui inghiottito dalla calca inferocita e farneticante. Erano quasi tutti musulmani. Udì i cori e slogan. Non c'erano solo lamenti di cordoglio. La morte di Abdullah aveva appiccato il fuoco dello scontento nella prateria desolata della zona intorno al mercato. Gli uomini urlavano la propria disperazione, davano fragorosamente voce alle loro rivendicazioni, ai loro problemi quotidiani. Qua e là i cori di protesta si mischiavano alle salmodie delle preghiere. In mezzo alla schiera di uomini urlanti regnava il caos assoluto, e dovetti lottare aspramente per avanzare passo dopo passo verso la stazione di polizia. La folla era scossa da ondate che mi spingevano di lato, mi trascinavano avanti e mi risucchiavano indietro. La gente si faceva largo a spintoni, calci e pugni. Più di una volta fui sul punto di essere travolto e calpestato, ma mi salvai aggrappandomi all'ultimo momento a una camicia, a una barba, a uno scialle. Alla fine riuscì a scorgere la stazione di polizia e i poliziotti. Indossavano il metti e impugnavano scudi di plastica, ed erano disposti in tre o quattro file attorno a tutto l'edificio. Un uomo di fianco a me e mia ferrò la camicia e cominciò a tempestarmi di pugni la testa e la faccia. Non avevo idea del perché mi avesse aggredito, forse non lo sapeva neanche lui, ma poco importava. Mi aveva scelto come vittima, e i colpi andavano a segno. Mi riparai la testa con le mani e cercai di divincolarmi. Lo sconosciuto si era abbinghiato alla mia camicia, e non riuscì a scrollarmelo di dosso. Balzai in avanti, gli ficcai le dita negli occhi e gli sferrai un pugno sulla tempia. Mollò la presa e crollò a terra, ma altri cominciarono a picchiarmi. La folla si aprì intorno a me e cominciai a farmi strada sferrando pugni all'impazzata e colpendo chiunque mi venisse a tiro. Era una brutta situazione. Sapevo che prima o poi avrei perso l'energia e il vantaggio della sorpresa e non sarei più riuscito a tenere a bada la folla inferocita. Per il momento gli aggressori si avventavano contro di me uno alla volta, senza nessuna tecnica. Li colpivo duramente, e loro indietre streggiavano. Scattavo da una parte all'altra, colpendo chiunque mi si avvicinasse, ma ero circondato e non avevo nessuna possibilità di vittoria. Molti erano curiosi di assistere al combattimento, e questo evitava che la folla mi travolgesse stritolandomi in una morsa di corpi. Una falange determinata di otto o dieci uomini avanzò verso di me, e mi trovai faccia a faccia con Khaled Ansari. Spinto dalla foga, stavo per colpirlo. Khaled alzò le mani e mi fece cenno di fermarmi. I suoi uomini aprirono un barco tra la folla, e Khaled mi spinse dietro di loro. Qualcuno da dietro mi colpì alla nuca, mi voltati in ferocito e mi scagliai di nuovo in mezzo alla calca. Volevo combattere ogni abitante di quella città, volevo combattere fino a crollare esanime, per non sentire più quella lancia, la lancia della morte di Abdullah che mi trafiggeva il petto. Khaled e due dei suoi mi afferrarono e mi trascinarono via dall'inferno folle e ribollente in cui si era trasformata la strada. Il suo corpo non è qui, disse Khaled quando ritrovammo la mia moto. Mi asciugò la faccia imbrattata di sangue con un fazzoletto. Un occhio si stava gonfiando rapidamente, il sangue mi gocciolava dal naso e dal labbro inferiore spezzato. Non mi ero accorto dei colpi. Non sentivo dolore. Il dolore era concentrato nel petto, accanto al cuore, e lo percepivo a ogni respiro. La folla è riuscita a entrare nella stazione di polizia prima che arrivassimo. Erano centinaia. Quando gli sbirri sono riusciti a cacciarli fuori, sono tornati nella cella dove avevano sistemato il corpo di Abdullah e l'hanno trovata vuota. La folla ha liberato tutti i prigionieri, e ha portato via il cadavere. Oh, Cristo, gemetti! Oh, cazzo! Oh, Dio! Abbiamo mandato qualcuno, disse Khaled quieto e sicuro di sé. Scopriremo cosa è successo. Lo troveremo. Troveremo il suo corpo. Tornai in moto a Leopold e trovai Johnny Cigar seduto al tavolo di Didier. Didier e Lisa se n'erano andati. Mi accasciai su una sedia di fianco a Johnny, proprio come aveva fatto Lisa poche ore prima, quando Didier si era messa a consolarla meccanicamente. Appoggiai i gomiti sul tavolo e mi strofinai gli occhi con i palmi delle mani. Ma! Che cosa terribile, disse Johnny. Già! Non doveva succedere. No! Non doveva finire così. Già! Non doveva caricare quei clienti. Era l'ultima corsa della notte, ma non ne aveva bisogno. Aveva già lavorato abbastanza durante il giorno. Ma di che parli? Domandai irritato. Dell'incidente di Prabhakar, rispose Johnny. Eh? L'incidente, ripetì. Che incidente! Oh, mio Dio, Lin, pensavo che lo sapessi, balbetto arrossendo, mentre la voce gli si strozzava in gola. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Credevo che lo sapessi. Quando ti ho visto con quella faccia, pensavo che te lo avessero detto. Ti aspetto da quasi un'ora. Sono venuto a cercarti appena uscito dall'ospedale. Ospedale. Ripetè in ebetito. Il ST. George Hospital. È nel reparto rianimazione. L'operazione. Quale operazione? Prabhakar è ferito. È molto grave, Lin. L'operazione. È ancora vivo, ma? Ma cosa? Johnny scoppiò a piangere disperatamente, poi riuscì a controllarsi respirando profondamente e serrando le mascelle. Ieri a tarda notte, in effetti erano le tre del mattino, Prabhakar ha caricato sul suo taxi due passeggeri. Un uomo e la figlia che volevano andare all'aeroporto. Sulla strada c'era un carro tirato a mano. Sai che di notte quei poveracci per raccorciare il percorso entrano nei viali della circonvallazione. È vietato, ma lo fanno lo stesso, perché risparmiano chilometri di strada, e spingere quei carri è faticoso, iar. Il carro era carico di tondine d'acciaio per un cantiere. Lunghi pezzi d'acciaio. Su una salita hanno perso il controllo. Il carro è sfuggito di mano, e ha cominciato a scendere verso il basso. Prabhakar arrivava da una curva, e il carro ha centrato il taxi. I tondini d'acciaio hanno sfondato il parabrezza. L'uomo e la donna sul sedile posteriore sono morti sul colpo. Decapitati, le teste staccate di netto. Prabhakar è stato colpito in faccia. Johnny scoppiò di nuovo a piangere, e lo strensi a me per consolarlo. I clienti e i proprietari del locale ci guardarono ma distolsero lo sguardo in fretta. Quando Johnny si riprese gli ordinai un whisky. Lo trangugiò tutto d'un fiato, come aveva fatto Prabhakar il primo giorno che lo avevo incontrato. È molto grave? Il dottore ha detto che morirà di sicuro, Lynn, disse Johnny singhiozzando. Non ha più la mascella. L'acciaio l'ha strappata via completamente. Ha strappato via tutto. Tutti i denti. C'è solo un grosso buco. Solo un grosso buco, dove prima c'erano la bocca e la mascella. Il collo è aperto. Non gli hanno neanche bendato la faccia, perché ci sono troppi tubi e cannucce che entrano nel buco. Servono a tenerlo in vita. Nessuno sa come sia sopravvissuto dentro al taxi ridotto così. È rimasto intrappolato fra le lamiere per due ore. I dottori temono che morirà stanotte. Per questo sono venuto a cercarti. Ha brutte ferite al petto, allo stomaco e alla testa. Morirà, Lynn. Morirà. Dobbiamo andare da lui. Entrammo nel reparto rianimazione e di fianco al letto di Prabhakar trovammo Kishan e Rukmabai che si inghiozzavano appoggiati l'uno all'altra. Ai piedi del letto, in solenne silenzio, c'erano Parvati, Sita, Litendra e Casimali. Prabhakar era incosciente. Una fila di apparecchiature monitorava le sue funzioni vitali. Aveva una selva di tubi e cannucce metalliche attaccate alla faccia. E ciò che restava della faccia. Il grande sorriso era scomparso, quel sorriso splendido, solare, era stato letteralmente strappato via dal suo volto. In una sala al piano terra trovai il dottore che si occupava di Prabhakar. Gli offrì come anticipo un fascio di banconote da cento dollari, e gli chiesi di addebitare a me ogni spesa medica. Non volle un soldo. Disse che non c'era speranza. A Prabhakar restavano poche ore, forse pochi minuti di vita. Perciò aveva lasciato che genitori e amici restassero al suo capezzale. Non restava altro che aspettare insieme a lui, guardarlo morire. Tornai nella stanza di Prabhakar e diedi i soldi a Parvati, aggiungendo tutto quello che avevo guadagnato nella mia ultima missione. Trovai una toilette e mi lavai il viso e il collo. Le ferite mi facevano male, e mi costringevano a pensare ad Abdullah. Erano pensieri insopportabili. Non potevo immaginare il mio amico iraniano circondato dagli sbirri, che apriva il fuoco e veniva fatto a pezzi. Fissai lo specchio, e sentii il bruciore acido delle lacrime. Cercai di riprendermi, e tornai al reparto di Prabhakar. Rimasi con gli altri ai piedi del letto per tre ore. Ero esausto. Cominciai a vacillare, e capii che non riuscivo più a rimanere sveglio. Accostai due seggiole al muro in un angolo relativamente tranquillo, mi stesi e mi addormentai. Quasi immediatamente cominciai a sognare. Ero a Sundar, e fluttuavo cullato dal mormorio di voci che avevo udito la prima notte che avevo trascorso al villaggio, quando il padre di Prabhakar mi aveva appoggiato una mano sulla spalla e mi ero addormentato alla luce delle stelle. Quando mi risvegliai dal sogno c'era davvero il padre di Prabhakar seduto accanto a me, e mi teneva una mano su una spalla. Lo guardai, e scoppiamo entrambi a piangere disperatamente. Prabhakar sarebbe morto, non c'erano speranze. Lo sapevamo tutti e ormai lo avevamo accettato, ma per giorni e notti fummo costretti a vegliare il suo piccolo corpo coraggioso che soffriva, a guardare ciò che era rimasto di lui, quel semi Prabhakar dal sorriso amputato. Alla fine, dopo giorni di agonia, cominciai a sperare che morisse, poi lo desiderai con tutto il cuore. Lo amavo tanto che trovai un angolo appartato nel ripostiglio delle pulizie, dove un rubinetto gocciolava di continuo dentro a una vasca di cemento, mi inginocchiai in un punto del pavimento segnato da due impronte umide, e supplicai Dio che lo lasciasse morire. E alla fine morì. Nella baracca che suo figlio aveva diviso con la moglie Parvati, Rukmabai si sciolse i bia e i capelli lunghi fino alle cosce. Era seduta sulla soglia, dava le spalle al mondo. I capelli neri erano come una cascata nella notte. Cominciò a tagliarli vicino al cranio muovendo rapidamente un paio di forbici affilate, le folte ciò che cadevano al suolo come ombre evanescenti. All'inizio, quando amiamo veramente una persona, la nostra più grande paura è che smetta di amarci. Ciò che invece dovrebbe davvero terrorizzarci è che non smetteremo di amarla, anche quando sarà scomparsa per sempre. Perché io ti amo con tutto il cuore, Prabhakar. Ti amo ancora. E a volte, amico mio, l'amore che provo e non posso darti mi toglie il fiato. A volte, come in questo momento, il mio cuore sprofonda in un abisso di pena dove non esistono le stelle, i sorrisi e il sonno. Capitolo 30. L'eroina è una vasca di deprivazione sensoriale per l'anima. Galleggiando sul mar morto dello sballo, non si percepiscono dolore, rimorso, vergogna, depressione e desideri. Un universo ipnotico penetra e avviluppa ogni atomo dell'esistenza. Una quietà, indifferente immobilità dissolve paura e sofferenza. I pensieri fluttuano come alghe sull'oceano e svaniscono in una sonnolenza opaca e distante, senza essere percepiti, indecifrabili. Il corpo soccombe a un sonno criogenico, il cuore apatico batte debolmente, il respiro s'affievolisce e si riduce a un soffio saltuario. Una torpidezza estatica paralizza le membra e a poco a poco si scivola e si sprofonda nell'abisso dell'oblio, verso lo sballo perfetto ed eterno. La soluzione chimica viene pagata, come ogni cosa nell'universo, in luce. La prima luce che perde un eroinomane è quella degli occhi. Gli occhi di un eroinomane sono privi di luce come quelli di una statua greca, come una lastra di piombo, come il buco di una pallottola nella schiena di un cadavere. La seconda luce che si perde è quella del desiderio. Un eroinomane uccide il desiderio con la stessa arma che oessa per eliminare speranze, sogni e dignità, un randello fatto con le proprie aspirazioni. E quando tutte le luci della vita sono svanite, l'ultima a estinguersi è quella dell'amore. Prima o poi, quando arriva all'ultimo stadio, un eroinomane abbandona la donna che ama, e presto o tardi diventa un demone solitario. Levitavo. Galleggiavo sospeso nel denso liquido dentro al cucchiaio, e il cucchiaio era grande come una stanza. La zattra della paralisi oppiacea scivolava sul piccolo lago nel cucchiaio, e la simmetria delle travi che si incrociavano sopra la mia testa sembrava contenere una risposta. Fissavo le travi, sapendo che quella risposta poteva salvarmi. Poi tornavo a chiudere i miei occhi di piombo, e la risposta mi sfuggiva. Ogni tanto mi svegliavo, ed ero abbastanza lucido da desiderare di stordirmi con altra droga. Ogni tanto ero abbastanza lucido da ricordare tutto. Non c'era stato il funerale di Abdullah, perché non avevamo il corpo da seppellire. Il cadavere era scomparso, inghiottito dalla folla inferocita. Era scomparso come quello di Maurizio, come una stella che alla fine del suo ciclo esplode in una nube di gas evanescente. Trasportati insieme agli altri il corpo di Prabach era al luogo della cremazione. Camminai insieme a loro lungo le strade. Camminai sostenendo il fardello inghirlandato del suo corpo minuscolo, cantando i nomi di Dio, poi guardai il cadavere consumarsi tra le fiamme. Dopo la cerimonia una pena straziante continuò ad aggirarsi fra i viottoli dello slum, e non potei rimanere a piangere Prabachir insieme al gruppo di amici e parenti. Si erano riuniti vicini al punto in cui poche settimane prima si era sposato. Dai tetti di alcune baracche pendevano ancora brandelli di festoni colorati. Scambiai qualche parola con Casimali, Johnny, Litendra e Kishan Mango, poi me ne andai e raggiunsi in moto d'Ungri. Avevo delle domande da fare a sua eccellenza Abdelkader Khan, domande che strisciavano dentro di me come le creature nella fossa di Asano Bikva. La casa vicino alla moschea nabila era chiusa e avvolta nel silenzio, il portone serrato con pesanti catenacci. Domandai all'ingresso della moschea e nei negozi lungo la strada, ma nessuno seppe dirmi dov'era andato Kaderbai, o quando sarebbe tornato. Frustrato e furente andai da Abdul Ghani. La sua casa era aperta, ma i servi mi dissero che era fuori città, un vacanza, e sarebbe stato via per alcune settimane. Andai alla fabbrica di passaporti e trovai Krishna e Villu intenti al loro lavoro. Mi confermarono che Abdul Ghani aveva lasciato istruzioni e fondi in modo che potessero lavorare per diverse settimane, e anche a loro aveva detto che si prendeva una vacanza. Quando raggiunsi in moto la casa di Khaled Ansari, il guardiano mi disse che Khaled era in Pakistan. Non aveva idea di quando sarebbe tornato. Anche gli altri membri del consiglio mafioso di Kader erano di punto in bianco strategicamente scomparsi. Farid era a Dubai. Il generale Soban Mamud era in Kashmir. Quando bussai alla porta di Kekido Rabbi non rispose nessuno, e le finestre erano sbarrate. Rayubai, che non aveva mai saltato un giorno di lavoro nel suo ufficio contabile di Fort, era corso a trovare un parente malato a Delli. Anche i boss di secondo livello e luogotenenti erano fuori città o irreperibili. I pochi membri dell'organizzazione rimasti, agenti e corrieri che smerciavano oro, valuta e passaporti, si dimostrarono cortesi e amichevoli. Continuavano a lavorare con i ritmi di sempre. Anche il mio lavoro era garantito. In tutti i luoghi che frequentavo abitualmente, gioiellerie, uffici di cambio, agenzie, i boss avevano lasciato istruzioni per me. Non capivo se era una lusinghiera dimostrazione di fiducia, i capi potevano contare su di me anche il loro assenza, o, al contrario, la prova che mi consideravano così privo di importanza e innocuo da potersene andare senza darmi spiegazioni. In ogni caso mi sentivo desolatamente solo in città. Avevo perso Prabhakere e Abdullah, i miei amici più cari, nel giro di una settimana, e con loro avevo perso il segno nella mappa psichica che dice voi siete qui. Personalità e identità sono come coordinate nella piantina di una città tracciate dall'intersecarsi delle nostre amicizie. Sappiamo chi e cosa siamo grazie ai punti di riferimento delle persone che amiamo, e dei motivi per cui le amiamo. Io ero il punto nel tempo e nello spazio dove la feroce violenza di Abdullah si intersecava con la gentilezza e la dolcezza di Prabhakere. La loro morte mi aveva disorientato e in qualche modo privato di identità, e capii con stupore e disagio quanto dipendessi da cadere e dal suo consiglio dei capi. Credevo che i miei rapporti con loro, a parte poche eccezioni, fossero superficiali, eppure la sicurezza che mi dava la loro presenza in città mi mancava quasi quanto la compagnia dei miei amici scomparsi. Ed ero furioso. Ci volle del tempo per capire che Kaderbai era l'oggetto e l'istigatore della mia rabbia. Credevo che la morte di Abdullah fosse colpa sua, perché non lo aveva protetto e non lo aveva salvato. Non potevo credere che Abdullah, l'amico che amavo, fosse il pazzo feroce che chiamavano Sapna. Tuttavia ero pronto a credere che Abdelkader Khan fosse in qualche modo coinvolto con Sapna e i suoi omicidi. Inoltre mi sentivo tradito per il modo in cui Kaderbai aveva lasciato la città. Era come se mi avesse abbandonato per affrontare. Qualcosa. Da solo. Era un'idea ridicola, naturalmente, e piuttosto presuntuosa. In realtà centinaia di uomini di Kader continuavano a lavorare a Bombai, e avevo a che fare con loro ogni giorno. Eppure mi sentivo tradito e abbandonato. Una fredda lama fatta di dubbi, paura e rabbia cominciò a insinuarsi nel nucleo di affetto che provavo per Kaderbai. Continuavo ad amarlo e a considerarlo come un padre, ma non era più il mio eroe adorato e senza macchia. Umuia ed in una volta mi disse che nel corso della vita il fatto dà a ognuno di noi tre maestri, tre amici, tre nemici e tre grandi amori. Ma queste dodici persone sono sempre travestite, e non possiamo scoprire la loro vera identità finché non le amiamo, le conosciamo o le combattiamo. Kaderbai era uno dei dodici, ma il suo travestimento era sempre il migliore. In quei giorni di rabbia e abbandono, mentre il mio cuore si trascinava zoppicando verso un abisso di disperazione, cominciai a considerarlo uno dei miei nemici, il mio amato nemico. Affare dopo affare, crimine dopo crimine, giorno dopo giorno la mia volontà e la mia determinazione barcollavano sull'orlo del baratro. Alla fine Lisa Carter era riuscita a firmare il contratto con Cliff de Souza e Chandra Meta. Spinto dall'affetto che mi legava a Lisa, andai con lei a concludere l'accordo, e firmai il contratto nel quale figuravo come suo socio. Per i due produttori era importante che anch'io fossi coinvolto nell'affare. Per mio tramite potevano accedere al denar nero della mafia di Kaderkan, una fonte sempre disponibile e pressoché inesauribile. Al momento i due produttori non fecero alcun cenno ai miei contatti, ma erano senza dubbio un fattore determinante per firmare il contratto con Lisa. L'accordo specificava che io e Lisa avremmo ingaggiato stranieri in qualità di artisti subalterni, così venivano chiamate le comparse, per conto di tre importanti studi di produzione. I termini di pagamento e le commissioni erano fissati per un periodo di due anni. Dopo l'incontro Lisa mi accompagnò a piedi fino alla moto che avevo parcheggiato sul muretto del lungomare di Marine Drive. Ci sedemmo nel punto esatto dove Abdullah, anni prima, mi aveva appoggiato una mano sulla spalla mentre la mia mente stava sprofondando nel mare in tempesta. Io e Lisa eravamo soli, e all'inizio parlammo come fanno le persone sole, frammenti di recriminazioni, ritagli di dialoghi già elaborati nella solitudine della nostra mente. Sapiva che sarebbe accaduto, disse Lisa dopo un lungo silenzio. Per questo mi aveva dato il denaro nella cassetta. Ne abbiamo parlato. Mi ha parlato del rischio di essere uccisi. Sai della guerra in Iran? La guerra con l'Iraq? Abdullah ha rischiato la vita più di una volta. Sono sicura che quelle esperienze l'hanno segnato. Credo che volesse morire, perché si sentiva in colpa per essere fuggita abbandonando i suoi amici e la sua famiglia. In realtà voleva andarsene così, con le armi in pugno. Forse, risposi guardando la distesa sublime e indifferente del mare. Una volta Carla mi ha detto che nel corso della nostra vita tutti tentiamo di suicidarci più di una volta, e prima o poi ci riusciamo. Lisa scoppiò a ridere perché la citazione l'aveva sorpresa, ma la risata si spense in un lungo sospiro. Sollevò la testa, e lasciò che il vento le scompigliasse i capelli. La storia di Ulla, disse pacatamente, mi sta uccidendo, Ling. Non riesco a togliermi Modena dalla mente. Ogni giorno leggo tutti i giornali, sperando di trovare sue notizie. Punto magari del suo ritrovamento, o qualcosa del genere. È strano. Sai, la morte di Maurizio mi ha fatto star male per settimane. Scoppiavo a piangere di continuo, mentre camminavo per strada, o mentre leggevo un libro, o quando cercavo di dormire. E non riuscivo a mangiare senza provare un senso di nausea. Non riuscivo a non pensare al cadavere. E al coltello. A ciò che avrà sentito Maurizio quando Ulla gli ha piantato la lama nella schiena. Ma adesso è tutto svanito. È ancora tutto lì, sai, ma non mi sconvolge più come prima. E anche Abdullah. Non so se sia lo shock, una rimozione o chissà cosa. Ma non. Non riesco a pensare a lui. È come se. Avessi accettato la sua morte. Invece con Modena. Va sempre peggio. Non riesco a non pensare a lui. Anch'io lo vedo, mormorai. Vedo il suo volto, e io non c'ero in quella camera d'albergo. Non è una bella sensazione. Avrei dovuto prenderla a pugni. Ulla? Sì, Ulla. Perché? Quella. Insensibile. Puttana. L'ha lasciato legato in quella stanza. Ha creato solo guai, a te, a me e. A Maurizio. Invece quando ci ha raccontato di Modena l'ho presa sotto braccio, l'ho accompagnata alla doccia e mi sono presa cura di lei come se mi avesse detto che si era scordata di dar da mangiare al suo pesciolino rosso. Avrei dovuto prenderla a schiaffi, o darle un pugno in faccia, o prenderla a calci nel culo. E adesso se n'è andata, e io continuo a tormentarmi per Modena. Ci sono persone fatte così, dissi sorridendo alla sua rabbia, perché era lo stesso sentimento che provavo anch'io. Ci sono persone che riescono sempre a suscitare la nostra pietà, anche se poi ci sentiamo stupidi e proviamo rabbia per come ci siamo comportati. Sono per così dire i canarini nelle miniere dei nostri cuori. Se quando ci piantano in asso smettiamo di provare pietà per loro, è il segnale che ci troviamo in guai seri. Comunque io non mi sono lasciato coinvolgere in questa storia per aiutare lei. L'ho fatto per te. Oh, lo so, lo so, sospirò Lisa. Non è colpa di Ulla. Al palace è uscita di testa. Lavorare in quel posto l'ha fatta uscire di testa completamente. In un modo o nell'altro tutte quelle che hanno lavorato per Madame Zou sono sbiellate. Avresti dovuto vedere Ulla quando ha cominciato a lavorare per lei. Era splendida. È anche. Innocente. Diversa da tutte noi, capisci? Io quando ho cominciato a lavorare al palace ero già fuori di testa. E lì mi sono incassinata ancora di più. Noi. Eravamo costrette. Dovevamo fare cose strane in quel posto. Me l'hai già detto, dissi gentilmente. Te l'ho detto? Sì. Cosa ti ho detto? Beh. Mi hai descritto certe cose che eravate costrette a fare. La notte che sono venuto a casa di Carla a riprendermi i vestiti insieme al piccolo Taric. Eri ubriaca e sballata. E ti ho raccontato quelle cose? Già. Cristo. Non lo ricordo proprio. Cominciavo a sentire l'astinenza. Era la prima notte che cercavo di non farmi. La prima notte che sono riuscita a non farmi di eroina. Però mi ricordo il ragazzino. E ricordo che non hai voluto fare sesso con me. Oh, avrei voluto e come. Si girò di scatto e mi guardò negli occhi. Sorrideva, ma aveva la fronte leggermente corrugata. Indossava uno shaluar camizze rosso. La brezza dal mare faceva aderire al seno e al corpo la tunica lunga e ampia. Gli occhi azzurri scintillavano di coraggio e altri misteri. Era impavida, fragile e dura allo stesso tempo. Era riuscita a uscire dall'abisso in cui era sprofondata nel palace di Madame Zou, e aveva sconfitto l'eroina. Per difendere la sua vita e quella di un'amica era diventata complice di un omicidio. Aveva perso il suo amante, il mio amico Abdullah, che era stato mutilato e fatto a pezzi dalle pallottole della polizia. Ed era tutto lì, nei suoi occhi e nel suo viso magro, più magro di quanto sarebbe dovuto essere. Era tutto lì, se si sapeva cosa e dove guardare. Come se è finita al palace. Chiesi all'improvviso, facendola trassalire lievemente. Non so, sospirò. Sono scappata di casa da bambina. Non ce la facevo proprio, e me ne sono andata appena ho potuto. Sono finita a Los Angeles, e nel giro di un paio d'anni sono diventata una tenagher fatta d'eroina, che si prostituiva e si faceva pestare dal magnaccia di turno. Poi ho conosciuto Matt, un tipo simpatico, tranquillo, solitario e gentile. Ho perso la testa per lui, è stato il mio primo vero amore. Era un musicista, ed era stato un paio di volte in India. Pensava che se fossimo riusciti a portare un po' di droga da Bombay negli Stati Uniti potevamo fare abbastanza soldi per ricominciare una nuova vita. Disse che lui avrebbe pagato i biglietti, se io ero disposta a trasportare la roba. Quando siamo arrivati a Bombay è sparito con tutto quello che avevamo, i nostri soldi, il mio passaporto. Tutto. Non so cosa sia successo. Non so se si sia spaventato, o se abbia trovato qualcun altro per fare il lavoro, o abbia deciso di fare tutto da solo. Non so. Morale della favola, mi sono ritrovata a Bombay con una bella scimmia addosso, senza soldi e senza passaporto. Ho cominciato a lavorare in una stanza d'albergo, e tiravo avanti con imbrogli e piccoli furti. Dopo un paio di mesi è arrivato uno sbirro nella mia camera e mi ha detto che ero fottuta. Sarei finita in una prigione indiana. A meno che non accettassi di lavorare per una sua amica. Madame Zou. Già. Dimmi, l'hai mai vista? Le hai mai parlato di persona? No. Praticamente nessuno le parla o riesce a vederla, a parte Ryan e suo fratello. Carla però la incontrava di persona. Carla la odia. Carla la odia più di. Non ho mai visto una cosa così in vita mia. È quasi pazza d'odio, capisci? Non fa che pensare a Madame Zou, e prima o poi la farà fuori. È per la storia del suo amico Ahmed e Cristina, mormorai. Carla pensa che Madame Zou li abbia fatti uccidere, e si sente in colpa. Non riesce a dimenticare. Esatto. Esclamò aggrottando la fronte per lo stupore. Te l'ha raccontato? Sì. È. È stupefacente. Carla non ne parla mai con nessuno. Proprio con nessuno. Ma in fondo non è poi così strano. Le piace un sacco. Ti ricordi l'epidemia di colera allo slum? Ne ha parlato per settimane. La descriveva come una specie di esperienza mistica, quasi trascendentale. E parlava molto di te. Credo di non averla mai vista così. Ispirata. Quando Carla mi ha coinvolto nel tuo salvataggio dal palace, domandai senza guardarla, era per il tuo bene, o solo per fare un torto a Madame Zou? Mi stai chiedendo se credo che io e te siamo stati solo pedine nel gioco di Carla? È questo che vuoi sapere? Più o meno. Penso di sì, devo ammetterlo. Si sfilò la lunga sciarpa dal collo e la fece passare sul palmo di una mano fissandola attentamente. Oh, a Carla piaccio, ne sono certa. Mi ha detto cose che nessuno sa. Neanche tu. E a me piace lei. Sai, ha vissuto negli Stati Uniti. È cresciuta lì, e forse per questo mi aveva preso in simpatia. Penso di essere stata l'unica ragazza americana che abbia mai lavorato al palace. Ma per Carla quello che conta è la sua guerra con Madame Zou. Sì, penso che si sia servita di noi due. Ma non importa, sai? Mi ha tirato fuori di lì. Cioè, tu mi hai tirato fuori di lì, e ne sono maledettamente felice. Qualunque fossero i suoi motivi, non ce l'ho con lei, e penso che neanche tu dovresti fargliene una colpa. No, non ce l'ho con lei, sospirai. Ma? Ma. Niente. Fra me e Carla non ha funzionato, ma io. L'ami ancora? Mi voltai a guardarla, ma quando mi fissò con i suoi occhi azzurri mi affrettai a cambiare argomento. Hai mai più sentito Madame Zou? Mai. Non ti ha più chiesto niente? No, grazie a Dio. È strano. Ma io non odio Madame Zou. Non provo niente di speciale per lei, a parte il fatto che voglio starle alla larga il più possibile. In compenso odio Ryan, il suo servo. Quando lavori al palace è con lui che hai a che fare, ed è a lui che devi rispondere di ciò che fai. Suo fratello si occupa della cucina, e Ryan delle ragazze. È spaventoso, quel figlio di puttana. Va in giro come un fantasma, ed è come se avesse occhi anche sulla schiena. È la creatura più orribile del mondo, credimi. Madame Zou non l'ho mai vista. Ti parla attraverso una griglia di metallo. C'è una griglia in ogni stanza, così può vedere tutto quello che succede, e parlare alle ragazze o ai clienti. È un posto dannatamente sinistro, Ling. Preferirei morire piuttosto che tornarci. Rimanemmo di nuovo in silenzio. Le onde mormoravano fra i ciottoli e le rocce alla base del muro. I gabbiani si bravano nel vento, pronti a lanciarsi sulle creature che strisciavano e zampettavano sugli scogli. Quanti soldi ti ha lasciato? Non so, rispose, non li ho mai contati. Molti. 70, 80 mila dollari. A Maurizio è bastato molto meno per torturare Modena e farsi ammazzare. Pazzesco, vero? Dovresti prenderli, e tagliare la corda. Strano. Mi pareva che avessimo appena firmato un contratto di due anni con Meta e la sua casa di produzione. Sai com'è, la vita continua. Vaffanculo il contratto. Andiamo, Ling. Vaffanculo il contratto. Devi andartene. Non sappiamo che cazzo sta succedendo. Non sappiamo perché Abdullah è morto. Non sappiamo cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Se non era Sapna, le cose si mettono male. Se era davvero Sapna, è anche peggio. Dovresti prendere il denaro e andartene. Andarmene dove? Dovunque. Tu te ne vai? No. Ho dei conti in sospeso, qui. E io sono. Sono un uomo finito, in un certo senso. Tu invece faresti bene ad andartene. Lin, proprio non capisci, vero? Non è una questione di soldi. Se me ne vado adesso, mi frego da sola. Devo avere qualcosa di più che i soldi. Sto cercando di costruire qualcosa, a cui posso farcela. Qui sono qualcuno. La gente mi guarda quando cammino per strada, perché sono diversa. Ti guarderebbero in qualsiasi parte del mondo, dissi sorridendo. Non prendermi in giro, Lin. Non ti sto prendendo in giro. Sei una ragazza bellissima, e hai cuore. Per questo la gente ti guarda. So che può funzionare, insistette Lisa. Me lo sento. Non ho studiato, Lin, e non sono intelligente come te. Non so fare nulla. Ma questo lavoro. Può essere la strada giusta. Un giorno forse potrei cominciare a produrre film. Potrei. Fare qualcosa di buono. Sei in gamba, e puoi fare qualcosa di buono dovunque tu vada. No. Questa è la mia occasione. Non torno indietro. Non andrò da nessuna parte finché non ce l'avrò fatta. Se non ci provo. Maurizio. E tutto quello che è successo dopo. Sarà tutto accaduto in vano. Se me ne vado, voglio farlo a testa alta, e con le tasche piene dei soldi che ho guadagnato da sola. Guardai l'orizzonte. La brezza dalla baia andava e veniva, e sentivo il calore e la frescura sulle braccia e sul viso. Una piccola flotta di barche da pesca passò davanti a noi, diretta alla spiaggia dei pescatori vicino allo slum. All'improvviso ricordai quel giorno di pioggia, il giorno che ero arrivato in barca al Tayotel attraversando le strade allagate. Ricordai la canzone d'amore di Vinod sotto la volta resonante del gatevaio of India, e il suono della pioggia la notte che Carla si era abbandonata fra le mie braccia. E fissando le onde incessanti, eterne, ricordai tutto quello che era successo da quella notte di tempesta, la prigione, le torture, la scomparsa di Carla, e di Ulla, e di Caderbaia del suo consiglio, e di Anand. E Maurizio morto, Modena probabilmente morto, Rafik morto, Abdullah morto, e Prabhakar. Sembrava impossibile, ma anche Prabhakar era morto. E io ero uno di loro, camminavo, parlavo, guardavo le onde che si gonfiavano agitate dal vento, ma nel cuore ero morto come tutti gli altri. E tu? domandò Lisa. Sentii i suoi occhi posati su di me e percepii le emozioni nella sua voce, simpatia, tenerezza, forse persino amore. Io non me ne vado, ci puoi scommettere, ma tu cosa farai? La fissai a lungo, osservando le piccole rune nei suoi occhi azzurri come il cielo. Poi mi alzai, la presi fra le braccia e la baciai. Fu un bacio molto lungo. C'era tutta una vita in quel bacio, la nostra vita insieme, il nostro amore, la vecchiaia, la morte. Poi le labbra si separarono, e la vita che avremmo potuto vivere si rimpicciolì fino a diventare una scintilla di luce, una minuscola scintilla che avremmo sempre riconosciuto nei nostri occhi. Avrei potuto amarla. Forse un poco l'amavo già. Ma a volte la cosa peggiore che puoi fare a una donna è amarla. E io amavo ancora Carla. Amavo Carla. Io. Le appoggiai le mani sulle spalle, e distesi le braccia, tenendola lontana. Sorrisi. Io vado a farmi di brutto. Salii sulla moto, e mi allontanai senza mai voltarmi indietro. Pagai tre mesi di affitto del mio appartamento, e diedi una lauta mancia al custode del parcheggio e al portinaio. Presi un buon passaporto falso, infilai gli altri e un rotolo di banconote in una cartella che nascosi nella infield. Lasciai la moto in custodia di die. Poi presi un taxi e mi feci portare alla fumeria di Guptali vicino a Shockley Street, la strada delle diecimila puttane. Salii fino al terzo piano sui gradini di legno consunti ed entrai nella gabbia che i tossici si costruiscono con le proprie mani, usando una guzza e scintillante sbarra d'acciaio dopo l'altra. Guptali metteva a disposizione dei suoi clienti uno stanzone con venti materassi e poggiatesta di legno. Per quelli che avevano esigenze particolari aveva altre stanze dietro alla sala principale. Attraversai una porta piccolissima ed entrai nell'angusto corridoio che portava alle stanze sul retro. Il passaggio era così basso che dovetti chinarmi completamente, quasi strisciare al suolo. Scelsi una stanza con una branda, un materasso di capoc, un tappeto liso, un minuscolo mobiletto con ante di vimini, una lampada con paralume di seta, un grande matca d'argilla pieno d'acqua. Su tre lati i muri erano costituiti da stuoie di canna appese a impalcature di legno. Il quarto lato, dalla parte del cuscino, dava su una strada affollata di arabi e mercanti musulmani del quartiere. La finestra era sprangata, e solo pochi raggi di sole abbaglianti filtravano dalle fessure. Non c'era soffitto. Sopra il letto si intersecavano le travi massicce e i puntoni che sostenevano il tetto di tegole d'argilla. Guptali intascò il denaro, ascoltò in silenzio le mie istruzioni e mi lasciò da solo. La stanza, proprio sotto il tetto, era caldissima. Mi tolsi la camicia e spensi la lampada. Lo stanzino buio era come una cella, la cella di una prigione di notte. Rimasi seduto sul letto, e quasi all'improvviso scoppiai a piangere. Mi era già successo da quando ero a Bombay. Avevo pianto dopo aver incontrato il lebrosi di Ranit, quando uno sconosciuto aveva lavato il mio corpo martoriato nella prigione di Arthur Road, e insieme al padre di Prabhak era all'ospedale. Tuttavia avevo sempre soffocato la pena e la sofferenza, in un modo o nell'altro ero riuscito ad arginare il fiume di dolore sul punto di straripare. Invece in quella piccola cella per fumatore doppio, solo con il mio dolore per gli amici morti, per Prabhakere e Abdullah, non feci nulla per trattenermi. Per alcuni le lacrime sono peggio delle botte. Certi uomini soffrono più per i singhiozzi che per i calci e le bastonate. Le lacrime nascono nel cuore, ma alcuni di noi negano la sua esistenza così spesso e così a lungo che quando il cuore riesce a parlarci è come se fosse trafitto non da una, ma da cento pene strazianti. Sappiamo che piangere è una cosa buona e naturale. Sappiamo che non è un segno di debolezza, ma di forza. Eppure il pianto strappa una dopo l'altra le nostre radici aggrovigliate nelle profondità del sottosuolo, e alla fine ci schiantiamo come un albero di velto dal terreno. Guptali mi lasciò tutto il tempo. Quando alla fine udì il suono attutito delle sue ciabatte nel corridoio mi asciugai la faccia e accesi la lampada. Aveva portato quello che gli avevo chiesto, un cucchiaio d'acciaio, acqua distillata, siringhe monouso, eroina, una stecca di sigarette, e appoggiò tutto sul mobiletto. Con lui c'era una ragazza. Guptali disse che si chiamava Scilpa, e che sarebbe stata la mia serva. Era giovane, non aveva ancora vent'anni, ma il volto era già deturpato da una espressione avvilita da professionista navigata. La speranza, pronta a scattare ringhiando o a strisciare come un cane bastonato, rimaneva acquattata in fonda ai suoi occhi tristi. Mandai via lei e Guptali e mi scaldai una dose di eroina. La dose rimase nella siringa per quasi un'ora. Appoggiai per cinque volte l'ago su una vena turgida, forte e sana del mio braccio, ma ogni volta rimettevo a posto la siringa intatta. Per un'ora intera, madido di sudore, fissai il liquido nella siringa. Era lei, la droga della dannazione. La droga che mi aveva spinto a commettere crimini stupidi e violenti, che mi aveva fatto finire in prigione, che mi aveva fatto perdere la famiglia e le persone care. La droga tutto e nulla, ti prende tutto, e non ti lascia nulla. Ma il nulla che ti offre, il vuoto privo di sentimenti che ti elargisce, a volte è tutto ciò che desideri. Spinsi l'ago nella vena e tirai leggermente lo stantuffo della siringa, uno sbuffo di sangue confermò che l'ago era in vena, e spinsi lo stantuffo fino in fondo. Prima che sfilassi l'ago dal braccio, la droga trasformò la mia mente in un sara. Calde, asciutte, lucenti e prive di forma, le dune della droga coprirono ogni pensiero, seppellirono le antiche rovine della mia mente. Il calore si diffuse in tutto il corpo, facendo scomparire i piccoli dolori, le fitte e i disagi che ogni giorno sopportiamo senza accorgercene. Non c'era dolore. Non c'era nulla. Poi, con il deserto ancora nella mente, sentì il mio corpo sommerso che emergeva sulla superficie di un lago soffocante. Era passata una settimana dalla prima dose. Un mese? Mi arrampicai strisciando sulla zattra e andai alla deriva nel lago letale del cucchiaio, con il Sahara nelle vene. E le travi sopra di me, c'era un messaggio che mi sfuggiva, un messaggio su come e perché le nostre vite, la mia vita, e quella di Kader, di Carla e di Abdullah, si intersecavano in un modo unico e profondo. La chiave del codice era lì, in quelle travi. Invece chiusi gli occhi. Ricordai Prabhakar. Ricordai che aveva lavorato fino a tarda notte, la notte della sua morte, perché il taxi era suo, non doveva più dare una percentuale al padrone. E io gli avevo comprato il taxi. Sarebbe stato ancora vivo se non gli avessi comprato quel taxi. Era come il topolino che avevo addestrato e nutrito con le briciole quando ero in prigione, il topolino che era stato crocifisso. E da volte la brezza di un'ora di lucidità materializzava l'immagine di Abdullah un attimo prima di morire, solo in mezzo al cerchio dei suoi carnefici. Solo. Avrei dovuto essere al suo fianco. Ero con lui ogni giorno, e avrei dovuto esserci anche in quel momento. Non si lascia morire un amico così, solo con la morte e il destino. E dov'era finito il suo corpo? Possibile che fosse lui Sapna? Possibile che il mio amico, l'amico che amavo, potesse essere quell'assassino feroce, che mutilava le proprie vittime? Cosa aveva detto Abdul Ghani? I pezzi del corpo macellato di Maid erano sparsi in tutta la casa. Possibile che potessi amare l'uomo che aveva compiuto uno scempio del genere. Perché una piccola parte dentro di me temeva che Abdullah fesse davvero Sapna, eppure continuava ad amarlo come prima. Mi sparai ancora la pallottola d'argento in una vena, e mi accasciai di nuovo sulla zattera alla deriva. E vidi la risposta nelle travi sopra di me. Ed ero certo che sarei riuscito a capire, bastava un altro po' di droga, e poi un altro po', e poi ancora un po'. Mi svegliai e vidi una faccia che mi guardava in cagnesco, e parlava una lingua che non capivo. Era una brutta faccia, un grugno solcato da linee profonde che contornavano gli occhi, il naso e la bocca. Poi spuntarono delle mani, mani forti, che mi sollevarono dalla zattera del letto e mi sostennero in piedi. Tu vieni. Ruggina zirini inglese. Tu vieni, adesso. Vaffan. Dissi lentamente, facendo una pausa per ottenere il massimo effetto. Culo. Tu vieni. Ripetè. Era così sconvolto dalla rabbia che tremava, e inconsapevolmente socchiuse le labbra mettendo in mostra i denti serrati. No, dissi dirigendomi verso il letto. Tu. Vai. Si mise fra me e il letto. Nelle sue braccia vibrava una poderosa energia. Mi strense in una morsa d'acciaio. Adesso. Tu vieni. Ero rimasto tre mesi nella cella di Guptai. Tre mesi di eroina quotidiana, e cibo un giorno sì e un giorno no. L'unico esercizio fisico era andare alla toilette e tornare a stendermi sulla branda. Al momento non potevo saperlo, ma avevo perso dodici chili, quasi tutti i muscoli. Ero magro e debole e ancora instupidito dalla droga. Ok, dissi cercando di sorridere. Ok, lasciami andare, devo prendere la mia roba. Nazzi rallentò la presa e io feci un cenno verso il tavolino dove avevo appoggiato portafoglio, orologio e passaporto. Guptai e Scilpa aspettavano nel corridoio. Presi i miei averi e li infilai nelle tasche, fingendo di collaborare con Nazir. Quando mi sembrò il momento migliore, cercai di colpirlo con un destro. L'avrei colpito. L'avrei colpito quando ero sano e sobrio. Invece lo mancai completamente e persi l'equilibrio. Nazir mi sferrò un pugno nel plesso solare, appena sotto il cuore. Mi piegai in due e cercai di rannicchiarmi, ma avevo le ginocchia anchilosate e non riuscì a piegare le gambe. Nazir mi sollevò la testa a ferrandomi per i capelli con la mano sinistra, portò il pugno destro all'altezza della spalla, esitò un attimo per calibrare la mira e abbatté il pugno sulla mia mascella. Nel colpo concentrò tutta la forza del collo, delle spalle e della schiena. Vidì Guptai che sporgeva le labbra e strizzava gli occhi, poi il suo volto preoccupato esplose in una pioggia di scintille che si spensero lasciandomi in un universo buio come una caverna piena di pipistrelli addormentati. Era la prima volta nella vita che venivo steso con un colpo solo. Mi sembrò una caduta senza fine da un'altezza smisurata. Dopo qualche tempo fui vagamente consapevole del movimento, ebbi la sensazione di fluttuare nello spazio e pensai, va tutto bene, è solo un sogno, è l'effetto della droga, fra un po' mi sveglio e ne prendo dell'altra. Poi mi schiantai ancora una volta sulla zattera. Ma l'imbarcazione su cui ero andato alla deriva per tre mesi era diversa. Più morbida, più liscia. E c'era un profumo nuovo e meraviglioso, una fragranza irresistibile. Cocco. Lo conoscevo bene. Era il profumo preferito di Carla. Nazir mi aveva caricato sulle spalle, mi aveva trasportato giù dalle scale, e infine mi aveva disteso sul sedile posteriore di un taxi. E di fianco a me c'era Carla. Avevo la testa sul suo grembo. Apri gli occhi e vidi il suo volto bellissimo. Gli occhi verdi mi fissavano preoccupati e compassionevoli, e con un sentimento che al momento non riuscì a identificare. Chiusi gli occhi, e nell'oscurità in movimento capì di che cosa si trattava. Era disgusto. Era disgustata dalla mia debolezza, dalla mia suefazione all'eroina, dal fettore del mio corpo trascurato, dalla mia autoindulgenza. Poi sentì le mani di Carla sul mio volto, e fu come scoppiare a piangere, e le sue dita erano come lacrime che scorrevano delicatamente sulle mie guance. Quando alla fine il taxi si fermò, Nazir mi caricò sulle spalle e mi trasportò per due rampe di scale con la stessa facilità con cui avrebbe potuto spostare un sacco di farina. Ripresi conoscenza mentre ero sulle sue spalle, e vidi Carla che saliva i gradini dietro di noi. Cercai di sorriderle. Da una porta di servizio entrammo in una grande casa. Attraversammo una cucina moderna e raggiungemmo un enorme salotto con una parete di vetro da cui si vedeva una spiaggia dorata e il mare color zaffiro. Nazir mi scaricò dalle spalle e mi adagiò con più delicatezza di quanto mi aspettassi su una pila di cuscini vicino alla grande vetrata. L'ultima dose che mi ero iniettato da guptali prima che mi trascinassero via era molto forte. Troppo potente. Ero cotto, non riuscivo a reggermi. Il bisogno di chiudere gli occhi, di abbandonarmi allo sballo arrivava a ondate irresistibili, travolgenti. Non cercare di alzarti, disse Carla inginocchiandosi di fianco a me. Cominciò a lavarmi il viso con una salvietta innumidita. Feci un sorriso, perché alzarmi era l'ultimo dei miei pensieri. Sorridendo sentì il dolore del pugno, attutito dallo sballo, sulla punta del mento e alla giuntura della mascella. Che succede, Carla? La mia voce sembrava un gracidio sconnesso. Tre mesi di silenzio assoluto e di annebdiamento mentale avevano messo a dura prova le mie capacità d'espressione. Che ci fai qui? E io che ci faccio? Pensavi che ti avrei lasciato in quel posto? Come facevi a sapere dov'ero? Come mi hai trovato? Ti ha trovato il tuo amico Caderbai. È stato lui a chiedermi di portarti qui. Te l'ha chiesto? Sì, disse fissandomi negli occhi. Il suo sguardo era così intenso che squarciò i fumi dello sballo come un raggio di sole che dissolve la bruma mattutina. Lui dov'è? Carla sorrise, ma era un sorriso triste, perché le avevo fatto la domanda sbagliata. Ora lo so, perché non sono più fatto di eroina. Era la mia possibilità di conoscere tutta la verità, o se non altro tutto quello che conosceva Carla. Se le avessi fatto la domanda giusta, mi avrebbe detto la verità. Era quella l'energia che sprigionava il suo sguardo intenso. Era pronta a dirmi tutto. Avrebbe persino potuto amarmi, o cominciare ad amarmi. Ma non era la domanda giusta. Non le avevo chiesto di lei. Avevo chiesto di Caderbai. Non lo so, rispose alzandosi in piedi. Avrebbe dovuto essere qui. Credo che non tarderà molto. Ma io non posso aspettare. Devo andare. Cosa? Dissi tirandomi su e cercando difendere le nebbie dello sballo per vederla, per parlarle, per tenerla vicino a me. Devo andare, ripetè avviandosi in fretta verso la porta. Nazir l'aspettava sulla soglia, le braccia spesse che sporgevano come due rami massicci dal tronco gonfio del corpo. Non posso farci niente. Ho un sacco di faccende da sbrigare prima di andarmene. Andartene? Che significa? Devo lasciare Bombai. Ho del lavoro. È importante, e. Insomma, devo farlo. Tornerò fra un paio di mesi, forse meno. Forse ci vedremo allora. Ma è pazzesco. Non capisco. Avresti dovuto lasciarmi dovvero, se avevi intenzione di andartene. Ascolta, disse con un sorriso paziente, sono tornata ieri, e non mi posso fermare. Non passerò neanche da Leopold. Ho visto Didier stamattina, a proposito, mi ha detto di salutarti, e questo è quanto. Non resto in città. Ho accettato di aiutarti a rompere il patto suicida che hai stipulato con te stesso. Adesso sei qui, sei al sicuro, e io devo andarmene. Carla cominciò a parlare con Nazir. Parlavano urdu, e riusciva a capire malapena un terzo o un quarto di quello che dicevano. Nazir scoppiò a ridere, e si voltò a guardarmi con insolito disgusto. Cosa han detto? Chiesi quando smisero di parlare. È meglio che tu non lo sappia. Invece sì. Non crede che ce la farai. Gli ho detto che starai qui a scrollarti la scimmia, e che rimarrai ad aspettarmi fino al mio ritorno, fra un paio di mesi. Lui non ci crede. Dice che scapperai a bucarti appena sentirai i morsi della scimmia. Ho scommesso che ce la farai. Quanto hai scommesso? Mille dollari. Mille dollari. Esclamai stupito. Era una bella cifra. Sì, è tutto il suo gruzzolo. Punta tutto contro di te. Dice che sei un debole, ed è per questo che ti droghi. E tu cosa gli hai detto? Scoppiò a ridere. Era così raro sentirla ridere che il suono squillante, luminoso fu come un nutrimento, una bevanda, una dose di droga. Nonostante il mio stordimento sapevo perfettamente che il più grande tesoro che avrei potuto possedere, il più grande piacere che avrei mai potuto assaporare era quella risata, la gioia di far ridere quella donna, di sentire quel suono cristallino uscire dalle sue labbra e accarezzarmi il volto, la pelle. Gli ho detto che un uomo in gamba si dimostra forte quando la donna giusta ne ha bisogno. Se ne andò senza aggiungere altro. Chiusi gli occhi. Un'ora o un giorno più tardi li riaprì e trovai caderbai seduto accanto a me. Utnai, ringhiò Nazzir. Si è svegliato. Non fu un bel risveglio. Ero lucido, scosso da brividi di freddo. Avevo la bocca impastata e il corpo mi faceva male dappertutto. Avevo bisogno di eroina. MMM, mormorò caderbai. Senti già i dolori. Mi tirai su appoggiandomi ai cuscini e mi guardai intorno. Era tardo pomeriggio, la lunga ombra della sera si insinuava lungo la spiaggia oltre la vetrata. Nazzir era seduto su un piccolo tappeto vicino alla porta della cucina. Cader indossava ampi pantaloni, una camicia e una tunica da patan. Erano tutti indumenti verdi, il colore preferito del profeta. Sembrava invecchiato, anche se erano passati solo pochi mesi dall'ultima volta che l'avevo incontrato. In compenso non l'avevo mai visto così in forma, sereno e determinato. Hai bisogno di cibo? Chiese quando lo fissai senza aprire bocca. Vuoi lavarti? Qui c'è tutto. Puoi fare tutti i bagni che vuoi. Puoi mangiare, c'è cibo in abbondanza. Puoi cambiarti i vestiti, te li ho portati. Cos'è successo ad Abdullah? Devi riprenderti. Che cazzo è successo ad Abdullah? Urlai, ma la voce mi si strozzò in gola. Nazzir mi guardò. In apparenza sembrava calmo, ma sapevo che era pronto a scattare. Cosa vuoi sapere? Chiese gentilmente Cader. Per evitare il mio sguardo chinò leggermente il capo e fissò il tappeto sotto le gambe incrociate. Era lui Sapna? No, rispose alzando gli occhi per affrontare il mio sguardo tagliente. So che c'è gente che lo crede, ma ti do la mia parola che Sapna non era lui. Mi lasciai sfuggire un lungo sospiro di sollievo. Sentì le lacrime che mi bruciavano gli occhi, e morsicai l'interno di una guancia per fermarle. Perché hanno detto che era lui Sapna? I nemici di Abdullah sono riusciti a convincere la polizia. Quali nemici? Chi sono? Iraniani. Suoi compatrioti. Ricordai il nostro misterioso combattimento, quando io e Abdullah avevamo affrontato un gruppo di iraniani per strada. Cercai di ricordare altri particolari di quella giornata, ma avevo la mente troppo turbata dal senso di colpa per non avere mai chiesto ad Abdullah chi fossero quegli uomini e perché li avessimo affrontati. Dov'è il vero Sapna? È morto. L'ho trovato. Ho scoperto il vero Sapna. Adesso è morto. Almeno questo è stato fatto, per Abdullah. Mi abbandonai sui cuscini, e chiusi gli occhi per un momento. Cominciava a colarmi il naso, e mi faceva male la gola. Nei tre mesi passati da Guptali mi facevo tre grammi di eroina purissima al giorno. Cominciavo a sentire i sintomi dell'astinenza, e sapevo che mi aspettavano due settimane d'inferno. Perché? Chiesi dopo una lunga pausa. Cosa? Perché mi sei venuto a cercare. Perché mi hai fatto portare qui da Nazir. Lavori per me, rispose Kaderbae sorridendo. E ho una missione da affidarti. Beh, al momento credo di non esserne in grado. Sentivo i primi crampi allo stomaco. Mugolai e distolsi lo sguardo. Ah, certo, convenne Kaderbae. Prima devi rimetterti. Ma fra tre o quattro mesi sarai l'uomo giusto per questo lavoro. Che? Che genere di lavoro? È una missione. Una specie di missione santa, si può dire. Sai cavalcare? Cavalcare? Non so niente di cavalli. Se c'è da usare la moto quando mi riprendo, ammesso che ce la faccia, sono l'uomo che fa per te. Nazir ti insegnerà a cavalcare. E, o almeno era, il miglior cavaliere di un villaggio dove vivono i migliori cavalieri della provincia di Nangarar. C'è una scuderia, qui vicino, e potrai imparare a cavalcare sulla spiaggia. Imparare a cavalcare. Borbottai, mentre mi chiedevo come avrei fatto a sopravvivere all'ora successiva, e a quella dopo. E il peggio doveva ancora venire. Oh, sì, Lin Baba, disse con un sorriso, appoggiandomi una mano sulla spalla. Sobbalzai e rabbrividii al tocco sulla pelle, ma poi fu come se il calore della mano mi entrasse dentro, e mi calmai. Al momento cantar si può raggiungere solo a cavallo, perché le strade sono tutte minate o bombardate. Quando andrai a combattere in Afghanistan con i miei uomini ti accorgerai che è molto utile saper andare a cavallo. Afghanistan? Sì. Cosa? Cosa diavolo ti fa pensare che me ne andrò in Afghanistan? Non so se accetterai o no, rispose con un'espressione triste. Parteciperò anch'io alla missione. In Afghanistan. La mia patria, che non vedo da più di 50 anni. Ti sto invitando a venire con me. Te lo sto chiedendo. Naturalmente sta a te scegliere. È un lavoro pericoloso, su questo non c'è dubbio. Se decidi di non venire, continuerò a stimarti come prima. Perché proprio io. Mi serve un gora, uno straniero che non abbia paura di infrangere un buon numero di leggi internazionali e che riesca a farsi passare da americano. Dove andremo ci sono molti clan rivali, che si combattono da centinaia d'anni. È la loro tradizione, si attaccano e se ne vanno carichi di bottino. In questo momento ci sono solo due cose che li uniscono, l'amore per Allah, e l'odio per gli invasori russi. Combattono grazie al denaro e alle armi degli americani. Con un americano nel gruppo ci lasceranno in pace, ci faranno passare senza farci del male e rubandoci solo una quantità ragionevole di bottino. Perché non porti un americano vero? Ci ho provato, ma non sono riuscito a trovarne un abbastanza pazzo da correre un rischio del genere. Che cosa contrabbandiamo in Afghanistan? Le solite cose che si contrabbandano in guerra, armi, esplosivi, passaporti, denaro, oro, pezzi di ricambio e medicine. Sarà un viaggio interessante. Se riusciamo a passare fra i clan armati fino ai denti che cercheranno di portarci via tutto quello che abbiamo, consegneremo il nostro carico a un plotone di Muiaedin che sta assediando la città di Kandahar. È da due anni che combattono i russi, e hanno bisogno di rifornimenti. Avrei avuto centinaia di domande da fare, ma la crisi di astinenza mi paralizzava. Avevo la pelle fradicia di sudore gelido a un tuoso. Quando alla fine riuscì a parlare, le parole uscirono rapide e smuzzicate. Perché ti butti in una missione del genere? Perché proprio Kandahar? I Muiaedin, gli uomini che assediano Kandahar, sono del mio villaggio, è la mia gente. E c'è anche gente del villaggio di Nazir. Stanno facendo la Iad, la guerra santa, per cacciare gli invasori russi dalla patria. Li abbiamo già aiutati in tutti i modi. Ormai è ora che io li aiuti con le armi, e con il sangue, se è necessario. Osservò il mio volto tremante di dolore e i miei occhi ridotti a due fessure. Sorrise ancora, e mi strinse la spalla finché percepì unicamente il dolore della sua stretta. Prima devi riprenderti, disse allentando la pressione delle dita. Poi mi sfiorò la fronte con il palmo della mano. Che alla sia con te, figlio mio. Alla Iafazak. Quando Kaderbae se ne andò, corsi in bagno. I crampi erano come artigli d'aquila che si ficcavano nello stomaco e rovistavano fra le budella provocando spasmi atroci. Andai a lavarmi, scosso da tremiti violenti. Mi battevano i denti. Mi guardai allo specchio. Le pupille erano così dilatate che l'iride era completamente nera. Quando la luce torna, quando l'eroino si ferma, comincia l'astinenza e la luce torna, penetra dalle caverne nere degli occhi. Mi avvolsi un asciugamano attorno alla vita e tornai nel grande salotto. Ero smunto. Arrancai piegato in due, tremavo e gemevo involontariamente. Nazzir mi squadrò dall'alto in basso, il grosso labbro superiore arricciato in un ghino sardonico. Mi allungò un fagotto di vestiti puliti. Erano tutti verdi, identici al costume afgano di Kaderbai. Mi vestii, tremavo ed ero scosso da brividi, e persi l'equilibrio un paio di volte. Nazzir mi guardava, i pugni nodosi piantati sulle anche. Il ghino sembrava la fessura fra le due valve di una grossa conchiglia. Ogni suo gesto era così esagerato da sembrare una pantomima, ma gli occhi scuri scintillavano minacciosi. All'improvviso capii chi mi ricordava Toshiro Mifune, l'attore giapponese. Era una grottesca caricatura di Toshiro Mifune. Conosci Toshiro Mifune? Gli domandai facendo un sorriso disperato, deformato dal dolore. Dì, lo conosci Mifune? Eh? Per tutta risposta andò alla porta di casa e la spalancò. Prese da una tasca alcune banconote da cinquanta rupie e le buttò per terra. Ja, bainciod. Ringhiò indicando la porta spalancata. Vattene, figlio di puttana. Barcollai fino al mucchio di cuscini vicino alla vetrata e mi accasciai. Mi coprì con un panno, e mi acquattai straziato dalle fitte lancinanti. Nazzirri chiuse la porta di casa e tornò a sedersi sul tappetino con le gambe incrociate e la schiena dritta, senza smettere di fissarmi. In misura maggiore o minore dobbiamo tutti affrontare ansia e stress, aiutati dal cocktail di sostanze chimiche prodotte dal corpo e rilasciate dal cervello. Il gruppo più importante di queste sostanze è quello delle endorfine. Le endorfine sono neurotrasmettitori peptidici che hanno la proprietà di alleviare il dolore. Ansia, stress e il dolore azionano un meccanismo di difesa naturale che produce endorfine. Quando assumiamo oppiacei, in particolare morfina, oppio ed eroina, l'organismo smette di produrre endorfine. Quando smettiamo di assumere oppiacei bisogna affrontare un intervallo che va dai 5 ai 14 giorni prima che inizi un nuovo ciclo di produzione delle endorfine. Nel frattempo, in quell'interminabile periodo di agonia, impariamo cosa siano realmente ansia, stress e dolore. Una volta Carla mi chiese com'era la crisi di astinenza da eroina. Cercai di spiegarglielo. Pensa a tutte le volte nella tua vita che hai avuto paura, ma paura sul serio. Qualcuno che striscia alle tue spalle quando credi di essere da solo, e urla per spaventarti. Una banda di teppisti che ti circonda. Quando in un sogno cadi da una grande altezza, o sei in bilico su un precipizio. Qualcuno che ti tiene sotto l'acqua, e senti che il respiro ti manca, e ti agiti, cerchi di divincolarti, di tornare verso la superficie. Perdi il controllo dell'auto e vedi che stai finendo contro un muro e urli ma non esce alcun suono. Bene, somma tutti questi terrori, e percepisci li tutti in una volta, nello stesso istante, un'ora dopo l'altra, giorno dopo giorno. E pensa ai dolori che hai provato. La scottatura con l'olio bollente, il taglio con un vetro affilato, un osso che si rompe, il pietrisco che ti scortica quando scivoli e cadi su una strada d'inverno, il mal di testa, il mal d'orecchie e il mal di denti. Sommale insieme, mescola tutte le sensazioni che ti strezzano le budella e ti fanno rabbrividire, e provale tutte in una volta, un'ora dopo l'altra, giorno dopo giorno. Poi pensa a tutte le angosce che hai sperimentato. Ricorda la morte di una persona cara. Il rifiuto di una persona che amavi. Ricorda i sentimenti di fallimento, vergogna il rimorso più amaro. Sommale insieme, mescola tutte le pene che ti hanno trafitto il cuore e provale tutte in una volta, un'ora dopo l'altra, giorno dopo giorno. Questa è l'astinenza, il tacchino freddo, ciò che provi quando smetti di farti di eroina senza l'aiuto di altre sostanze. È come essere squoiati vivi. L'angoscia aggredisce la mente priva di difese e fa impazzire uomini e donne. Ogni tossico dipendente in astinenza è fuori di testa. La pazzia è così violenta e feroce che qualcuno non riesce a sopravvivere. E nella follia temporanea di quel mondo straziato, quando si è squoiati vivi dal dolore, si commette ogni crimine. Chi riesce a sopravvivere e si disintossica, quando a distanza di anni ricorda i crimini commessi in quei momenti, prova un sentimento di incredulità, di umiliazione e di disgusto, come un soldato che sotto tortura sia stato costretto a tradire i suoi camerati e la patria. Dopo due giorni e due notti di quella tortura, fui certo che non ce l'avrei fatta. Ormai vomito e diarrea erano cessati quasi del tutto, ma il dolore e l'ansia continuavano a peggiorare di minuto in minuto. Fra le urla di agonia che sentivo scorrere nel sangue, c'era una voce calma e insistente, puoi farlo smettere. Puoi fermarlo. Prendi i soldi. Fatti un buco. Puoi fermare il dolore. Nazzir aveva una branda di bambù e fibra di cocco in un angolo della sala. Strisciai in quella direzione. Il corpulento afgano, sempre seduto sul tappetino vicino alla porta, mi osservò con attenzione. Scosso dai tremiti, mugolando di dolore, trascinai il lettino vicino alla vetrata affacciata sul mare. Presi un lenzuolo e cominciai a strapparlo con i denti. Riuscii a ricavare delle strisce di tessuto. Con movimenti frenetici, sull'orlo di una crisi isterica, buttai due trapunte sulla branda da usare come materasso, e mi sdraiai. Usando due strisci di tessuto legai le caviglie alla branda. Con una terza striscia bloccai il polso sinistro, poi mi coricai e voltai la testa verso Nazzir. Alzai il braccio con la quarta striscia, e lo implorai con gli occhi di legarmi il braccio al letto. Era la prima volta che ci fissavamo senza malevolenza. Nazzir si alzò dal tappetino, venne verso di me senza smettere di guardarmi. Prese la striscia di tessuto e mi legò il polso alla branda. Dalla bocca spalancata mi sfuggì in urlo di panico, da animale in trappola, seguito subito da un altro lungo gemito. Mi morsi la lingua, ficcando i denti nella carne e sui bordi finché sentii il sangue che scorreva sulle labbra. Nazzir annui lentamente. Strappò una larga striscia di tessuto dal lenzuolo, e la rotolò stretta. Me la fece passare fra i denti e me la legò dietro alla nuca. La morsicai selvaggiamente. Urlai. Girai la testa e vidi la mia immagine riflessa nel buio della notte. Per qualche tempo fui come Moden. Come lui aspettavo, osservavo e urlavo con gli occhi. Restai legato alla branda due giorni e due notti. Nazzir mi accudì con dolcezza e assiduità. Era sempre al mio capezzale. Ogni volta che aprivo gli occhi sentivo la sua mano ruvida sulla fronte che mi asciugava il sudore e le lacrime che mi inzuppavano i capelli. Ogni volta che un crampo mi torceva convulsamente una gamba o un braccio o lo stomaco, Nazzir era pronto a sciogliermi il nodo di dolore con un massaggio. Ogni volta che mugolavo o urlavo con la bocca stretta dal bavaglio mi guardava negli occhi, trasmettendomi la forza di resistere. Mi toglieva il bavaglio quando avevo un conato di vomito, o quando il naso chiuso mi impediva di respirare, ma era un uomo forte, e sapeva che io non volevo che mi sentisse urlare. A un mio cenno del capo rimetteva a posto il bavaglio e lo legava stretto. Poi, quando mi resi conto che ero abbastanza forte da restare, o troppo debole per fuggire, feci un cenno a Nazzir, strizzai gli occhi e lui mi sfilò il bavaglio per l'ultima volta. Poi sciolse i nodi ai polsi e alle caviglie. Mi portò una tazza di brodo di pollo, orzo e pomodoro, salato ma senza spezie. Mi sembrò il piatto più ricco e delizioso che avessi mai gustato in vita mia. Nazzir mi imboccò a cucchiaiate. Dopo un'ora, quando finì la piccola tazza di zuppa, mi sorrise per la prima volta, e il suo sorriso fu come un raggio di sole sugli scogli dopo una burrasca estiva. Il tacchino freddo dura un paio di settimane, ma i primi cinque giorni sono i peggiori. Se riesci a superare i primi cinque giorni, se riesci a strisciare e a trascinarti fino a quella sesta mattina senza droga, sai di essere pulito, capisci che ce la puoi fare. Negli otto o dieci giorni successivi ti senti un po' meglio e un po' più forte a ogni ora che passa. I crampi diminuiscono, la nausea cessa, la febbre e il freddo se ne vanno. Dopo qualche tempo il fastidio peggiore è l'insonnia. Rimani steso sul letto tutta notte, ti agiti e ti rigiri fra le lenzuola, ma il sonno non arriva. Negli ultimi giorni e nelle interminabili notti del mio tacchino freddo diventai uno standing baba, non mi sedevo e non mi sdraiavo mai, giorno e notte, finché le gambe mi cedevano e crollavo addormentato per lo sfinimento. E alla fine passa, il tacchino se ne va, e tu esci dalla morsa benefica della suefazione come il superstite di qualsiasi disastro, confuso, ferito per sempre, e felice di essere ancora in vita. Naziri interpretò le mie prime battute sarcastiche, dodici giorni dopo l'inizio del tacchino, come il segnale che era giunta l'ora di dare il via al mio addestramento. Dal sesto giorno avevo cominciato a fare breve passeggiate con lui per riabituare i muscoli e prendere un po' d'aria. La prima passeggiata era stata lenta e piena di soste, ed ero tornato in casa dopo appena un quarto d'ora. Il dodicesimo giorno riuscivo a percorrere tutta la spiaggia, con la speranza di stancarmi abbastanza da riuscire ad addormentarmi. Alla fine Nazir mi accompagnò alla scuderia dove Cader Bay teneva i cavalli. Era un ricovero per barche riadattato, su una strada di fianco alla spiaggia. I cavalli erano addestrati per i principianti, e in alta stagione trasportavano i turisti su e giù lungo la spiaggia. Il castrone bianco e la giumenta grigia erano animali grandi e docili. Li prendemmo in consegna dallo stagliere di Cadere li portammo sulla distesa di sabbia piatta e battuta. Non esiste animale al mondo che abbia più senso della parodia di un cavallo. Un gatto può farti sentire goffo e un cane può farti sembrare stupido, ma solo un cavallo riesce a farti provare le due imbarazzanti sensazioni allo stesso tempo. Dopodiché, sferzandoti lievemente con la coda o pestandoti con non curanza il piede con uno zoccolo, ti fa capire che l'ha fatto di proposito. Alcuni capiscono che cavalcheranno bene fin dal primo contatto con l'animale, e creano subito un legame profondo con il cavallo. Non è il mio caso. Una mia amica ha uno strano effetto antimagnetico sulle macchine, se si infila un orologio al polso l'orologio si ferma, e ogni volta che lei si avvicina alle radio si mettono a crepitare, e la fotocopiatrice comincia a fare cilecca. Il mio rapporto con i cavalli non è molto diverso. Il corpulento afgano intrecciò le mani e si chinò per farmi salire sul castrone, mi invitò ad arrampicarmi con un cenno della testa, e mi strizzò l'occhio per incoraggiarmi. Appoggiai un piete sulle sue mani intrecciate e balzai sul cavallo bianco. Nel preciso istante in cui mi appoggiai sul dorso, l'animale fino a un attimo prima mite ben addestrato mi scrollò via in arcandosi con un prodigioso rinculo. Schizzai sopra una spalla di Nazir e mi schiantai sulla sabbia con un tonfo sordo. Il castrone trottò via sulla spiaggia senza di me. Nazir lo fissò a bocca aperta. L'animale si calmò e tornò ad avvicinarsi a me solo quando Nazir si procurò una sacca e la osò per bendargli gli occhi. Da quel momento Nazir cominciò piano piano e con estrema riluttanza ad accettare il fatto che nella migliore delle ipotesi ero destinato a diventare il peggior cavaliere che avesse mai conosciuto. Il disappunto avrebbe potuto farmi sprofondare ancora di più negli abissi del suo disprezzo, invece provocò una reazione opposta. Nelle settimane che seguirono si dimostrò premuroso, addirittura pietoso nei miei confronti. Evidentemente per Nazir la mia goffa inettitudine con i cavalli era una disgrazia tremenda, che suscitava pietà come la più orribile delle malattie. Quando nei miei momenti migliori riuscivo a restare in sella per un minuto filato e facevo girare l'animale in tondo agitando scompostamente le gambe e strattonando le briglie con entrambe le mani, la mia disarmonia lo commuoveva fino alle lacrime. Non di meno continuai a prendere lezioni di equitazione, e oltre a quello facevo esercizi fisici ogni giorno, venti serie di trenta flessioni, con un minuto di riposo fra una serie e l'altra. Poi cinquecento piegamenti, una corsa di cinque chilometri e quaranta minuti di nuoto in mare. Dopo tre mesi di quella routine tornai di nuovo forte e in forma. Nazir voleva che imparassi a cavalcare su un terreno accidentato, perciò presi accordi con Chandra Meta che ci diede il permesso di visitare la vasta prateria attorno al ranch degli studi cinematografici Film City. In molti film c'erano scene di equitazione. I cavalli erano accuditi da squadre di uomini che vivevano in quella vasta area di terreno scosceso, e venivano usati come controfigure nelle scene d'azione. Gli animali erano addestrati alla perfezione, ma due minuti dopo che io e Nazir salimmo sulle due giumente brune che ci avevano assegnato, la mia cavalcatura mi disarcionò scraventandomi in mezzo a un mucchio di vasi di terracotta. Nazir prese le redini del mio cavallo e rimase seduto sulla sua sella, scuotendo la testa sconsolato. Ehi, ci rubi il mestiere, Yahr! urlò uno degli stuntmen. Cinque di loro stavano cavalcando insieme a noi, e scoppiarono tutti a ridere. Due saltarono a terra per aiutarmi. Dopo altre due cadute rovinose, mentre messavo sfinito in sella, udì una voce familiare. Mi guardai intorno e vidi un gruppo di cavalieri. In testa c'era un cowboy che sembrava Emiliano Zapata, con un cappello nero che pendeva sulla schiena allacciato a un cordino di cuoio. Cazzo, lo sapevo che eri tu! urlò Vikram. Affiancò il cavallo al mio e mi strinse la mano calorosamente. I suoi compagni raggiunsero nazire gli stuntmen e trotterellarno via, lasciandoci soli. Che ci fai qui? Questo dannato posto è mio, amico. Disse allargando le braccia. Cioè, non proprio. Lettie ha comprato una quota, in società con Lisa. La mia Lisa? Vikram sollevò un sopracciglio facendo un'espressione indagatrice. La tua Lisa? Sai cosa voglio dire? Certo, disse facendo un gran sorriso. Sai, lei e Lettie gestiscono insieme l'agenzia di casting, quella che avete fondato insieme. E le cose vanno piuttosto bene, amico. Ho deciso di entrarci anch'io. Il tuo amico Shandra Menta mi ha detto che c'era la possibilità di rilevare una quota della scuderia. Diavolo, per me è la cosa più naturale del mondo, non credi? Oh, su questo non c'è dubbio, Vikram. Perciò ho comprato la mia fottuta parte, e adesso vengo qui ogni settimana. Domani faccio la comparsa in un film. Vieni a vedermi, fratello. È una proposta allettante, ma domani lascio la città per qualche tempo. Te ne vai? E quanto stai via? Non lo so di preciso. Un mese, o forse più. Poi torni? Certo. Tieni un video delle riprese. Quando torno, ci sbagliamo insieme e io guarderò al rallentatore come ti hanno steso. Ah. Affare fatto. Vieni, cavalchiamo insieme, amico. No, no. Urlai. Non riuscirò mai a convincere questo cavallo a cavalcare di fianco al tuo, Vikram. Sono il peggior cavaliere che tu abbia mai visto. Sono già caduto tre volte. Mi accontenterei di farlo andare dritto per pochi metri. Coraggio, fratello Lin. Facciamo così. Ti presto il mio cappello. Non può fallire, amico. È un cappello fortunato. Hai dei problemi perché non usi il cappello. Io. Ecco, non credo che basti, amico. Questo cazzo di cappello è magico, amico, credimi. Non mi hai visto cavalcare. E tu non ti sei mai messo il cappello. Il cappello risolve tutto. In più sei un gora. Senza offesa per la tua pelle bianchiccia, amico, ma questi sono cavalli indiani. Devi trattarli con un minimo di stile indiano, tutto qua. Parlagli in indie, fai quattro mosse di danza. Vedrai. Non credo. Ma certo, amico. Coraggio, salta giù e danza con me. Non ballerò per i cavalli, Vikram. Dichiarai con tutta la dignità e la sincerità che riuscì a infondere in quella frase bizzarra. Ma certo che lo farai. Salta giù, e balla un po' di magia indiana. I cavalli devono capire che dentro quell'involucro bianco e impacciato c'è un figlio di puttane indiano, amico. Te lo juro, i cavalli ti ameranno, e cavalcherai come quel cazzone di Clint Eastwood. Non voglio cavalcare come quel cazzone di Clint Eastwood. Ma certo. Tutti vorrebbero cavalcare come lui. No, io no. Coraggio. Non se ne parla. Vikram scese a terra e cominciò a tirarmi per gli speroni. Esasperato scesi da cavallo e rimasi di fianco a lui davanti ai due animali. Così. Disse Vikram. Cominciò a dimenare le anche, accennando qualche mossa del balletto di un film. Cominciò a cantare, battendo le mani a tempo. Coraggio, Yar.Tira. Fuori tutta l'India che c'è in te. Non fare il cazzone europeo con me, amico. Ci sono tre cose a cui un indiano non sa resistere, un bel viso, una bella canzone e un invito a ballare. Anche se in un modo tutto mio, nel mio folle modo d'agora, ero abbastanza indiano da mettermi a ballare con Vikram, non fosse altro che per non vederlo ballare tutto solo. Scrollai la testa, e ridendo mio malgrado imitai i suoi passi. Mi guidò, aggiungendo nuove mosse finché riuscimmo a fare tutti i gesti, le piroette e i passetti in perfetta sincronia. I cavalli ci guardarono con il tipico sguardo equino che unisce ritrossia e sbuffante condiscendenza. Continuammo a danzare e a cantare per loro in quella distesa desolata di praterie e alture, sotto un cielo azzurro e asciutto come il fumo di un bivacco nel deserto. Quando la danza finì, Vikram parlò al mio cavallo in indi e gli fece fiutare il cappello nero. Poi me lo diede e disse di indossarlo. Me lo calcai in testa e montammo in sella. Funzionò alla grande. I cavalli cominciarono a trotterellare, poi si lanciarono al galoppo. Per la prima e ultima volta in vita mia sembrai quasi un vero cavaliere. Per un glorioso quarto d'ora e conobile brezza di una impavida sinergia con il nobile quadrupede. Seguendo Vikram da vicino volai su e giù dalle ripide alture, tuffandomi fra i cespugli e i vortici di vento. Poi ci lanciammo ventre a terra su una prateria pianeggiante, e Nazir e gli altri ci raggiunsero al galoppo. Per un breve momento fummo liberi e selvaggi come solo i cavalli ci possono insegnare ad essere. Stavo ancora ridendo e parlando della cavalcata con Nazir quando due ore più tardi salimmo le scale ed entrammo nella casa sulla spiaggia. Girai il mio viso sorridente e vidi Carla in piedi davanti alla lunga vetrata che fissava il mare. Nazir la salutò con un'espressione burbera ma piena di affetto. L'afgano non riuscì a nascondere il piccolo sorriso che suo malgrado faceva Capolino dietro il cipiglio austero. Prese dalla cucina una bottiglia d'acqua, una scatola di fiemmiferi e qualche foglio di giornale, e uscì di casa. Ci lascia soli, disse Carla. Sì. Va ad accendere un fallò sulla spiaggia. Fa così, ogni tanto. Mi avvicinai e la baciai. Fu un bacio breve, quasi timido, ma c'era tutto il mio amore. Quando le nostre labbra si separarono restammo vicini a guardare il mare. Dopo un po' vedemmo Nazir che raccoglieva legna secca sulla spiaggia. Ficcò i giornali appallottolati fra i ramuscelli e i pezzi di legno, accese il falò e si sedette accanto al fuoco, il viso rivolto verso il mare. Nazir non aveva freddo. Era una serata calda, espirava un venticello tiepido. Aveva acceso il fuoco per mostrarci, mentre la notte inghiottiva ad agio le onde infiammate dal tramonto, che lui era lì, sulla spiaggia, e che io e Carla eravamo soli. Mi piace Nazir, disse Carla con la testa appoggiata al mio petto. È molto gentile e generoso. Era vero. Lo sapevo. Alla fine l'avevo scoperto nel modo più doloroso. Ma come faceva a saperlo Carla, che lo conosceva appena? Uno dei miei peggiori fallimenti, durante quegli anni di esilio, era la mia incapacità di vedere il bene nelle persone. Non riuscivo a capire quanto un uomo o una donna fossero buoni finché non dovevo loro molto più di quanto fossi in grado di ripagare. Alle persone come Carla bastava una rapida occhiata, mentre io osservavo, fissavo, e troppo spesso non riuscivo a vedere oltre un cipiglio corrucciato uno sguardo severo. Guardammo la spiaggia che si scuriva nel crepuscolo. Nazir era seduto con la schiena dritta vicino al suo falò. Una delle mie piccole vittorie su di lui, quando ero ancora debole e dipendevo dalla sua forza, la ottenni grazie al linguaggio. Imparavo frasi nella sua lingua molto più in fretta di quanto facesse lui con la mia, perciò era costretto a parlarmi quasi sempre in urdu. Quando cercava di parlare in inglese, le parole uscivano in strani distici smuzzicati, oscuri e traballanti. Spesso esageravo scherzosamente la mia perplessità e gli chiedevo di spiegarsi meglio, e lui caracollava da una frase criptica all'altra finché mi mandava a quel paese in urdu e in pasto e non apriva più bocca. In realtà il suo inglese ruvido ed ermetico era sempre assai eloquente, e non di rado poetico. Era così sintetico perché toglieva tutto il superfluo, e ciò che rimaneva era un linguaggio tutto suo, puro e preciso, qualcosa a metà strada fra lo slogan e il proverbio. Mio malgrado, e di nascosto, cominciai a ripetere alcune delle sue frasi. Una volta, mentre strigliava la sua giumenta grigia, disse, ogni cavallo buono, ogni uomo non buono. Quella notte mentre guardavamo il fuoco danzare sulla sabbia, stringendo il cuore di Carla al mio ricordai un'altra delle frasi di Nazir. Niente amore, non è vita, ripeteva spesso. Niente amore, non è vita. Strinsi Carla come se il suo corpo potesse curare le mie ferite, e prima di fare l'amore aspettammo che la notte accendesse l'ultima stella in cielo. Le sue mani erano come baci sulla pelle. Le mie labbra dischiudevano i petali serrati del suo cuore. Mormorava e mi guidava, e il mio respiro era come un eco che riverberava i desideri. Il calore ci unì, e ci chiudemmo in un mondo di carezze, sapori, suoni profumati. Riflessi sulla vetrata eravamo sagome eteree, immagini trasparenti, la mia avvolta nel fuoco della spiaggia, quella di Carla tra punta di stelle. E alla fine i riflessi di Afani si mescolarono, si unirono, si confusero. Era stato bello, molto bello, ma lei non disse una sola volta che mi amava. Ti amo, sussurrai, facendo scivolare le parole dalle mie labbra alle sue. Lo so, rispose con gratitudine e con miserazione. Lo so bene. Non dovrei fare questo viaggio. Allora perché parti? Non ne sono certo. Per un senso di lealtà nei confronti di Caderbai. In un certo modo sono ancora in debito con lui. Ma non è solo questo. E. Hai mai avuto la sensazione che la tua vita sia una specie di preludio? Come se tutto quello che hai fatto ti spingesse in una certa direzione, verso un punto che in qualche modo sai che prima o poi ti raggiungerai? Non riesco a spiegarmi bene, ma. So cosa vuoi dire, mi interruppe sbrigativamente. Sì, ho provato quella sensazione. Una volta ho fatto. Una cosa, e mi è sembrato che tutta la mia vita, anche gli anni che non avevo ancora vissuto, fosse racchiusa in un solo istante. Cos'era? Non stavamo parlando di te? Tagliò corto evitando il mio sguardo. Di te che non dovresti andare in Afghanistan? Sì, dissi sorridendo. Come ti dicevo, farei meglio a non partire. Allora non farlo, disse in tono piatto, voltandosi a guardare la notte il mare. Vuoi che rimanga? Voglio che tu sia al sicuro. E. Voglio che tu sia libero. Non è questo che intendevo. Lo so, sospirò. Sentì un fremito di irrequietezza nel suo corpo premuto al mio. Voleva muoversi. Io rimasi immobile. Rimarrò, disse quietamente, lottando con me stesso perché sapevo bene che era un errore, se dici che mi ami. Carla chiuse la bocca e strense le labbra così forte che si ridussero a una sottile cicatrice bianca. Lentamente, quasi una cellula dopo l'altra, il suo corpo riassorbì dentro di sé tutto ciò che mi aveva donato pochi istanti prima. Perché fai così? Chiese. Non lo sapevo. Forse era il tacchino freddo, ciò che avevo passato negli ultimi mesi, la nuova vita che ero riuscito a costruire. O forse era la morte, la morte di Prabhakar, quella di Abdullah, e quella che temevo segretamente mi aspettasse in Afghanistan. Qualunque fosse il motivo, il mio modo di fare era stupido, insensato e persino crudele, ma non riusciva a comportarmi diversamente. Se dici che mi ami, ripetei. No, sussurrò alla fine. Cercai di fermarla posandole le dita sulle labbra, ma voltò il capo e mi guardò, e la sua voce era più chiara e decisa. No. Non posso. Non lo farò. Quando Nazir tornò dalla spiaggia, tossendo e schiarendosi la gola platealmente per annunciare il suo arrivo, avevamo già fatto la doccia e ci eravamo rivestiti. Nazir sorrise, era una rarità, quel sorriso, mi guardò, guardò Carla, e tornò a posare gli occhi su di me. Il freddo dolore nei nostri occhi trasformò i profondi solchi della sua faccia in una ghirlanda funebre di disappunto, e distolse lo sguardo. La guardammo andarsene in taxi in quella notte lunga e solitaria, alla vigilia della nostra partenza per la guerra di Kader. Quando finalmente Nazir tornò a guardarmi negli occhi annui con un'aria grave e solenne. Sostenni il suo sguardo per alcuni istanti, ma poi fui io a distogliere gli occhi. Non volevo vedere la strana miscela di dolore ed euforia che brillava negli occhi di Nazir, perché sapevo cosa voleva dirmi. Certo, Carla se n'era andata, ma quella notte avremmo comunque perso l'intero mondo dell'amore di della bellezza. Come soldati per la causa di Kader Bai dovevamo lasciarci tutto alle spalle. Il resto del mondo, il mondo di infinite possibilità che ci rimanevano da vivere, si riduceva di ora in ora a un piccolo punto, un punto fermo color rosso sangue, come il buco di una pallottola. Capitolo 31. Nazir mi svegliò prima dell'alba, e quando lasciammo la casa i primi sonnacchiosi raggi di luce cominciavano a fendere la notte morrente. Quando il taxi ci lasciò all'aeroporto vedemmo Kader Bai e Khaled Ansari davanti all'ingresso del terminal per i voli interni, ma l'ignorammo. Kader aveva elaborato un complesso itinerario che, cambiando quattro volte e mezzo di trasporto, ci avrebbe portati da Bombay a Quetta, una città pakistana vicino al confine con l'Afghanistan. Secondo il piano di Kader Bai dovevamo viaggiare separati, facendo finta di non conoscerci. Ci preparavamo a commettere una serie di crimine attraverso tre frontiere internazionali, e ci saremmo immischiati nella guerra fra Emuia ed Ine e il possente Golia sovietico. Il piano di Kader Bai prevedeva il successo della missione, ma contemplava anche la possibilità di fallimento. Se qualcuno di noi fosse stato ucciso o arrestato in qualsiasi fase della missione sarebbe stato impossibile risalire agli altri. Era un lungo viaggio, e cominciò nel silenzio più assoluto. Nazir, scrupoloso come sempre nel seguire gli ordini di Kader Bai, non aprì bocca nel primo tratto da Bombay a Karachi. Tuttavia, un'ora dopo il nostro arrivo al Shandney Hotel, dove alloggiavamo in camere separate, udì bussare in modo quasi impercettibile alla porta. Prima che l'uscio fesse aperto del tutto, Nazir scivolò dentro la mia camera e si affrettò a richiudere la porta. Aveva gli occhi spalancati per l'eccitazione nervosa, e un atteggiamento agitato, quasi frenetico. Stupito e anche levemente disgustato dalla vistosa paura dimostrata da Nazir, mi avvicinai a lui e gli appoggiai una mano su una spalla. Rilassati, Nazir. Mi mandi in paranoia con quei modi da cospiratore. Anche se non capì tutto quello che gli avevo detto, Nazir si accorse del mio sorriso condiscendente. Serrò la mascella e mi guardò con un cipiglio feroce. Eravamo diventati amici. Mi aveva aperto il suo cuore completamente. Tuttavia Nazir misurava l'amicizia in base a ciò che un uomo era disposto a fare e sopportare per un amico, e non in termini di simpatia e divertimento reciproco. Era stupito e forse addirittura scocciato dal fatto che io reagissi sempre alla sua austera serietà in modo allegro e superficiale. paradossalmente eravamo simili, due uomini duri e ombrosi, ma la sua cupezza era così assoluta che per reazione riusciva a distogliermi dal mio umore tetro e mi suscitava l'impulso di prenderlo in giro in modo infantile e scherzoso. Russi. Dappertutto, disse a bassa voce, ma in un tono intenso e trafelato. Russi. Sanno tutto. Conoscono ogni uomo. Pagano soldi per conoscere tutto. Spie russe? Domandai. A Karachi. Dappertutto in Pakistan, annui girando la testa per sputare sul pavimento. Non capì bene se fosse un gesto scaramantico o di disgusto. Troppo pericolo. Non parlare nessuno. Tu vai. Faluda House. Bori Bazar. Oggi. Saad e Sharbage. Alle quattro e mezza, ripetei. Vuoi che incontri qualcuno alla Faluda House, nel Bori Bazar, alle quattro e mezza? È così? Chi vuoi che incontri? Nazzir fece un sorrisetto arcigno e aprì la porta. Sbirciò il corridoio e guizzò fuori rapido e silenzioso come era entrato. Guardai l'orologio. Era luna in punto. Dovevo aspettare almeno tre ore. Per le mie missioni Abdul Ghani mi aveva dato un marsupio che aveva progettato personalmente. Era piatto, di vinile robusto e impermeabile, molto più grande delle normali cinture per contenere soldi e documenti. Sistemato sullo stomaco poteva contenere dieci passaporti e una notevole quantità di denaro. Per il viaggio avevo portato quattro dei miei libri. Il primo era il passaporto inglese che avevo usato per comprare i biglietti dell'aereo e del treno e per registrarmi all'albergo. Il secondo era il passaporto americano nuovo di zecca che Cader Bay mi aveva detto di portare in Afghanistan. Poi avevo due libri di riserva, uno canadese e uno svizzero, da usare in caso di emergenza. Nascosti nel marsupio avevo anche 10.000 dollari, il fondo spese che mi era stato dato come anticipo sul compenso per avere accettato la pericolosa missione. Mi avvolsi la spessa fascia con soldi e documenti attorno al petto, sotto la camicia. Infilai il coltello a serramanico nella guaina che nascosi dietro ai pantaloni e lasciai l'albergo per esplorare la città. Era novembre, un mese mite, ma faceva più caldo del solito. Una pioggerellina fuori stagioni aveva steso una greve coltre di aria umida e affosa sulle strade. A quell'epoca Carachi era una città pericolosa e piena di tensioni. Da diversi anni la giunta militare che aveva preso il potere dopo avere giustiziato Zulfi Karali Butto, il premier democraticamente eletto, governava la nazione alimentando profonde divisioni interne. Il governo approfittava delle ancestrali rivalità fra gruppi etnici e religiosi per provocare violenti conflitti. I gruppi etnici locali, in particolare Sindhi, Pashtun e Paniabbi, venivano aizzati contro gli immigrati, i cosiddetti Muayir, che si erano rifugiati in Pakistan dopo la partizione. L'esercito sosteneva segretamente gli estremisti delle fazioni rivali fornendo armi, soldi e una quantità ben dosata di favori. Quando le rivolte fomentate e foraggiate dall'esercito finalmente scoppiavano, i generali ordinavano alla polizia di aprire il fuoco. L'indignazione verso la polizia veniva tenuta a bada schierando i militari in assetto di guerra. In questo modo l'esercito, che in realtà aveva istigato i disordini con le sue operazioni clandestine, appariva l'unica forza in grado di mantenere l'ordine e fare osservare la legge. Massacri e vendette si susseguivano con crescente brutalità, e rapimenti e torture erano all'ordine del giorno. I fanatici di un gruppo sequestravano i rivali e infierivano sadicamente su di loro. Molte vittime dei rapimenti morivano durante la prigionia. Alcuni scomparivano, e i corpi non venivano mai più ritrovati. Quando un gruppo diventava troppo potente, e rischiava di alterare l'equilibrio di quel gioco mortale, i generali scatenavano conflitti all'interno del gruppo stesso per indebolirlo. A quel punto i fanatici iniziavano scontri fratricidi, uccidendo e torturando i membri delle loro stesse comunità etniche. Ogni nuovo ciclo di violenza e di vendetta consolidava la forza dell'esercito, che in Pakistan aveva il potere reale, indipendentemente dai governi che si formavano o si scioglievano. Nonostante la drammatica tensione, e a causa di essa Karachi era un buon posto per fare affari. I generali erano come un clan mafioso, senza il coraggio, lo stile e il senso dell'onore dei criminali della vecchia scuola. Avevano conquistato il paese con la forza, lo tenevano in ostaggio con le armi e lo spolpavano a loro piacimento. Dopo aver preso il potere, i militari si erano affrettati a comunicare alle grandi potenze e a tutte le nazioni produttrici di armi che le forze armate pakistane avrebbero accolto i loro traffici a braccia aperte. Le nazioni civili risposero con entusiasmo, e per anni Karachi ospitò festosi gruppi di trafficanti d'armi provenienti da America, Inghilterra, Cina, Svezia, Italia e altri paesi. Non meno industriosi nei commerci con la cosca di generali erano gli avventurieri illegali di ogni specie, trafficanti, contrabandieri, speculatori e mercenari. Stranieri provenienti da cinquanta nazioni diverse affollavano caffè e alberghi, con il crimine nella mente e l'avventura nel cuore. In un certo senso io ero uno di loro, un profittatore che sfruttava la guerra in Afghanistan come tutti gli altri, tuttavia mi sentivo a disagio in loro compagnia. Per tre ore bazzicai i ristoranti, alberghi e case da tè, sedendomi vicino o mischiandomi a gruppi di stranieri in cerca di denaro facile. Le conversazioni erano squallidamente ciniche. La guerra in Afghanistan, valutavano allegramente, poteva durare ancora qualche anno. Certo, i generali erano sotto pressione. Correva voce che Benazir, la figlia del primo ministro assassinato, progettasse di tornare in Pakistan dal suo esilio a Londra per guidare un'alleanza democratica contro la giunta militare. Ma i profittatori contavano sul fatto che, con un po' di fortuna e di abili connivenze, l'esercito avrebbe continuato a controllare il paese, e i canali di corruzione da tempo consolidati, ancora per qualche anno. Si parlava molto del raccolto per la vendita. Era un eufemismo per indicare le merci di contrabbando più richieste lungo la frontiera tra Pakistan e Afghanistan. Le sigarette, in particolare le marche americane, al Kiberpass venivano vendute a un prezzo 16 volte superiore a quello già alto di Karachi. Medicinali di ogni genere rendevano profitti che aumentavano di mese in mese. C'era un'enorme richiesta di indumenti invernali, adatti al rigido clima afgano. Un intraprendente avventuriero tedesco aveva guidato un camion Mercedes carico di uniformi alpini dell'esercito tedesco, complete di maglieria termica, da Monaco di Baviera a Peshawar. Aveva venduto tutto, compreso il camion, ricavando un profitto cinque volte superiore al prezzo pagato. Il compratore era un signore della guerra afgano aiutato dai servizi segreti occidentali, e in particolare dalla CIA. I pesanti indumenti invernali, dopo un viaggio di migliaia di chilometri attraverso Germania, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Turchia, Iran e Pakistan, non raggiunsero mai i muiaedini impegnati a combattere fra i picchi nevosi dell'Afghanistan. Uniformi e maglieria finirono in uno dei magazzini del signore della guerra a Peshawar, in attesa della fine della guerra. Il rinnegato e il suo piccolo esercito aspettavano al sicuro nei loro rifugi in Pakistan. Se i muiaedini avessero sconfitto i sovietici, il signore della guerra era pronto a prendere il potere con il suo piccolo esercito bene equipaggiato. La notizia dell'apertura di quel nuovo mercato, un signore della guerra finanziato dalla CIA e affamato di rifornimenti pronto a pagare cifre astronomiche, aveva scatenato l'eccitazione della comunità di profittatori di Caracchi. Quel pomeriggio udì la storia dell'avventuroso tedesco e del suo camion stipato di uniformi alpine in almeno tre versioni, sempre leggermente diverse. Gli stranieri, contagiati da una specie di febbre dell'oro, si raccontavano la storia mentre contrattavano la spedizione di cibi in scatola, balle di lana, container pieni di pezzi di ricambio per motori, partite di fornelli a gas di seconda mano e carichi di armi d'ogni tipo, dalle baionette ai lanciagranate. In ogni locale, in ogni conversazione, sentivo ripetere la stessa cupa e cinica giaculatoria, se la guerra continua per almeno un anno, siamo a posto. In preda a un vortice di emozioni deprimenti entrai nella Faluda House Albori Bazar e ordinai una delle bevande dolci e variopinte che davano il nome al locale. Il Faluda è un intruglio spudoratamente dolce a base di sottili spaghettini immersi in un beverone di latte, essenza di rose e altri sciroppi melliflui. La Firney House nel quartiere di Dongri a Bombay, poco lontano dalla casa di Kaderbai, era giustamente famosa per i suoi deliziosi Faluda. Eppure al confronto dei fantasmagorici preparati del Bori Bazar quelli di Dongri sembravano scipiti. Quando mi servirono il biccherone di latte zuccherino rosso, bianco e rosa, alzai la testa per ringraziare il cameriere e vidi che era calè danzari a porgermelo, reggendo nell'altra mano un beverone identico al mio. Hai l'aria di uno che ha bisogno di qualcosa di più forte, amico, disse con il suo sorriso piccolo e triste mentre si sedeva accanto a me. Che ti piglia? Non è niente, sospirai restituendogli il sorriso. Coraggio, vuota il sacco, insistette. Guardai il suo viso segnato dalle cicatrici, onesto e aperto, e pensai che Khaled mi conosceva meglio di quanto io conoscessi lui. Mi sarei accorto se fosse stato lui a entrare alla Faluda House preoccupato come ero io? Probabilmente no. Khaled era quasi sempre buio in volto, e non ci avrei neanche pensato. Ma. Credo sia solo una specie di crisi di coscienza. Sono andato un po' in giro fra le sale da tè e i ristoranti di cui mi avevi parlato, i posti che frequentano trafficanti e mercenari. È stato piuttosto deprimente. C'è un sacco di gente che vorrebbe che la guerra durasse in eterno, e non gliene frega un cazzo né delle vittime né dei carnefici. Sono qui per far soldi, commentò Khaled stringendosi nelle spalle. Non è la loro guerra. Non sono fatti loro, e se ne fregano. È normale. Lo so, lo so. È normale che la gente cerchi di far soldi, dissi aggrottando la fronte, mentre cercavo le parole per esprimere le emozioni che mi turbavano. È che mi riesce difficile immaginare qualcuno con la mente più malata di chi si augura che una guerra, qualsiasi guerra, duri più a lungo di quanto dovrebbe. E tu ti senti in qualche modo. Contaminato. Un po' come loro? Chiese a bassa voce Khaled, fissando il suo bicchiere. Forse sì. Non so. Magari non ci avrei neanche pensato, se avessi sentito quei discorsi da un'altra parte, capisci? Non mi sentirei così se non fossi qui, a fare esattamente quello che fanno loro. Non è proprio la stessa cosa. Invece sì. In pratica sì. Caderbai mi paga, perciò guadagno da questa guerra proprio come gli altri. Porto altre armi di merda in una guerra di merda, esattamente come gli altri trafficanti. E forse stai cominciando a chiederti che cazzo ci stai a fare qua? Sì, c'è anche quello. Mi credi se ti dico che non ne ho la minima idea? Davvero, non so proprio per che cazzo sono qui. Caderbai mi ha chiesto di essere il suo americano, e io lo faccio, ma non so perché. Restammo per un poco in silenzio. Mentre sorseggiavamo le bevande fumo avvolti dai rumori e dal brusio di voci del locale affollatissimo. Una grande radio portatile trasmetteva romantiche gazzali in urdu. I clienti di fianco a noi parlavano in tre o quattro lingue diverse. Non riuscivo a capire cosa dicessero, e non riuscivo neanche a capire che lingue parlassero, beluchi, utzbek, tayik, farsi. Questo faluda è grandioso. Disse Khaled usando un lungo cucchiaio per pescare gli spaghettini dal bicchiere. Troppo dolce per i miei gusti, risposi bevendolo comunque di gusto. Certe cose devono essere dolci, rispose Khaled strizzandomi l'occhio mentre aspirava dalla cannuccia. Se i faluda non fossero così dolci, non li berremmo. Finemmo le bevande e uscimmo nella luce del tardo pomeriggio, sostando sulla porta del locale per accenderci una sigaretta. Adesso ci separiamo, mormorò Khaled mentre mi porgeva il fiemmifero schermandolo fra le mani ripiegate. Continuo a camminare in quella direzione, verso sud, per qualche minuto. Ti raggiungo io. Non salutarmi. Voltò i tacchi e se ne andò scomparendo nell'intenso flusso di pedoni fra il marciapiede e le macchine lungo la strada. Mi girai e camminai nella direzione opposta. Qualche minuto dopo, al limite del bazar, un taxi si fermò di fianco a me. La portiera posteriore si aprì, sgattaiolai dentro e andai a sedermi di fianco a Khaled. C'era un altro uomo sul sedile di fianco al guidatore. Era sui trent'anni, i capelli scuri e corti cominciavano a stempiarsi attorno alla fronte ampia e pallida. Gli occhi profondamente infossati erano di un marrone così scuro da apparire neri, finché la luce del sole non sfiorava l'iride accendendo un minuscolo caleidoscopio di sfumature brune e ramate. Lo sguardo calmo e intelligente scintillava sotto le sopracciglia nere, che formavano una linea continua alla base della fronte. Il naso dritto sovrastava un labbro superiore piccolo, la bocca volitiva e il mento arrotondato. Era evidente che l'uomo si era fatto la barba il giorno stesso, e forse solo poche ore prima, ma un'ombra nero-bluastra, dai contorni netti, scuriva già la parte inferiore del viso. Era un volto forte, squadrato, simmetrico, e il suo fascino derivava più dalla forza e dalle proporzioni regolari dell'insieme che non dalla bellezza di un tratto in particolare. Questo è Ahmed Zadeh, annunciò Khaled quando il taxi si avviò. Ahmed, questo è Lynn. Ci stringemmo la mano, soppesandoci reciprocamente con uguale candore e affabilità. Il suo volto forte poteva sembrare austero, se non fosse stato per un'espressione peculiare degli occhi, che strizzava delicatamente, creando un contorno di piccole rughe sugli zigomi. Ogni volta che si concentrava, e ogni volta che non era del tutto a suo agio, Ahmed Zadeh faceva quella strana espressione, come se stesse cercando un amico in mezzo a una folla di estranei. Era un'espressione disarmante, e mi ispirò un'immediata simpatia. Ho sentito molto parlare di te, disse dopo avermi lasciato la mano, mentre tornava ad appoggiarsi allo schienale. Parlava un inglese esitante ma chiaro, con le melodiose cadenze arabe e francesi di un accento nordafricano. Spero che non fossero tutte cose buone, dissi ridacchiando. Preferisci che dicano cose brutte su di te? Ma. Il mio amico Didier dice che parlare bene alle spalle di qualcuno è mostruosamente sleale, perché è impossibile riuscire a difendersi dalle cose buone che dicono di te. D'accordo. Esclamò ridendo Ahmed. Ha ragione. Oh merda! Intervenne Khaled frugandosi nelle tasche finché trovò una busta chiusa. Stavo per scordarmenne. Ho incontrato Didier la notte prima della partenza. Ti stava cercando. Non gli ho saputo dire dov'eri, così mi ha chiesto di darti questa lettera. Presi la busta e la feci scivolare nella tasca della camicia, perché volevo leggerla senza altre persone intorno. Grazie, borbottai. Allora, cosa bolle in pentola? Dove siamo diretti? A una moschea, rispose Khaled con il suo sorriso piccolo e triste. Dobbiamo passare a prendere un amico, poi ci troveremo con Cadere e alcuni degli altri che passeranno la frontiera insieme a noi. Quanti saremo? Una trentina, credo, quando ci riuniremo tutti. Molti sono già a Quetta o a Shaman, vicino al confine. Partiamo domani, io, tu, Kaderbai, Nazir, Ahmed, e un altro uomo, Mahmud. È un mio amico, non penso che tu lo conosca. Lo incontreremo fra poco. Siamo come le Nazioni Unite in miniatura, non? Commentò Ahmed. Abdel Kader Khan dall'Afghanistan, Khaled dalla Palestina, Mahmud dall'Iran, tu dalla Nuova Zelanda, oh, scusami, adesso sei americano, e io dall'Algeria. E non è tutto, aggiunse Khaled. Con noi ci saranno anche un marocchino, un arabo del Golfo, un tunisino, due pakistani e un iracheno. Gli altri sono tutti afghani, ma di regioni ed etnie diverse. Iad, disse Ahmed con un sorriso torvo e un po' inquietante. La guerra santa. È un nostro dovere religioso resistere agli invasori sovietici e liberare un territorio islamico? Attento, Lin, mi avverti Khaled facendomi l'occhiolino. Ahmed è comunista. Se gli dai corda ti stordirà a forza di parlarti di Mao e Lenin. Non ti senti un po' in colpa, chiesi sfidando la sorte, andando a combattere contro un esercito socialista? Quali socialisti? Ribatte strizzando furiosamente gli occhi. Quali comunisti? Ti prego, non fraintendermi, in Afghanistan i russi hanno fatto qualcosa di buono, ma. Su questo ha ragione, intervenne Khaled. Hanno costruito un sacco di ponti, e le strade principali, e molte scuole e università. E anche dighe, acquedotti e centrali elettriche. Tutte cose buone, riprese Ahmed. Finché si limitavano ad aiutare un paese amico, mi andava bene. Poi però hanno invaso l'Afghanistan e hanno cercato di snaturare i costumi della gente con la forza. I russi hanno tradito tutti i principi in cui dovrebbero credere. Non sono veri marxisti, e neanche leninisti. Sono imperialisti, e io li combatto in nome di Marx, Lenin, Mao. E Allah, aggiunse Khaled sorridendo. Sì, certo. E anche in nome di Allah, confermò Ahmed. Ci mostrò i denti candidi e per sottolineare la sua determinazione diede una manata sul sedile. Perché hanno invaso l'Afghanistan? Chiesi ad Ahmed. Questo telo può spiegare meglio Khaled, rispose Ahmed lasciando la parola al palestinese veterano di tante battaglie. L'Afghanistan è un trofeo, attaccò Khaled. Non ci sono grandi riserve di petrolio, oro, o altre ricchezze allettanti, eppure è un grande trofeo. I russi lo vogliono perché è proprio sul confine del loro impero. Hanno cercato di controllarlo con mezzi pacifici, con programmi d'aiuti e cose del genere. Poi hanno messo i loro uomini al potere, imponendo un governo fantoccio. Gli americani non l'hanno digerito per via della guerra fredda, la politica del rischio calcolato e stronzate simili. Così hanno deciso di destabilizzare il paese sostenendo gli unici che erano veramente infastiditi dai governanti al soldo dei russi, i mullah integralisti. Quei barbuti erano fuori di testa per come i russi stavano cambiando il paese, sai, permettevano che le donne lavorassero, frequentassero le università e andassero in giro senza il burka. Quando gli americani hanno offerto armi e soldi per attaccare i russi, i mullah non ci hanno pensato due volte. Dopo un po' i russi hanno deciso di finirla con la messa in scena e hanno invaso il paese. E adesso c'è la guerra. Poi ci sono i pakistani, aggiunse Ahmed. Vogliono mettere le mani sull'Afghanistan perché stanno crescendo in fretta, troppo in fretta, e hanno bisogno di terra. Vogliono creare una grande nazione mettendo insieme i due paesi. E il Pakistan, grazie alla giunta militare, appartiene all'America. Adesso stanno addestrando combattenti in tutto il Pakistan nelle madrasa, le scuole religiose. I combattenti si fanno chiamare Taleb, studenti, e quando vinceremo la guerra saranno loro a governare l'Afghanistan. E questa guerra la vinceremo, Ling. Ma la prossima? Non so. Quando guardai fuori dal finestrino, come ha un segnale convenuto i miei due compagni si misero a parlare in arabo.